La storia dei tre fratelli Harry si voltò a guardare Ron e Ermione. Nemmeno loro, a giudicare dall'espressione, avevano capito. I doni della morte! Precisamente, confermò Xenofilius. Mai sentiti? Non mi sorprende. Pochi, pochissimi maghi ci credono. Ne è prova quella testa di Lapa al matrimonio di suo fratello, e fece un cenno a Ron, che mi ha aggredito perché secondo lui esibivo il simbolo di un noto mago oscuro. Quanta ignoranza! Non c'è nulla di oscuro nei doni, almeno non in senso letterale. Si usa il simbolo semplicemente per rivelarsi agli altri credenti, nella speranza di aiutarsi nella ricerca. Mescolò parecchie zollette di zucchero nel suo infuso di ladigorda e ne beve un po'. Mi spiace, mormorò Harry. Continua a non capire. Per educazione beve anche lui un sorso e quasi soffocò. Quella roba era disgustosa, come se qualcuno avesse liquefatto delle gelatine tutti gusti più uno alle caccole. Beh, vede, i credenti ricercano i doni della morte, spiegò Xenofilius schioccando le labbra, deliziato dalla bevanda. Ma che cosa sono i doni della morte? Chiese Ermione. Xenofilius posò la tazza vuota. Suppongo che conosciate tutti la storia dei tre fratelli. Harry rispose di no, ma Ron e Ermione dissero di sì. Bene, bene, signor Potter. Tutto comincia con la storia dei tre fratelli. Devo averne una copia da qualche parte. Fece vagare lo sguardo nella stanza, tra le pile di libri e pergamene. Ma Ermione intervenne. Ho io una copia, signor Lovegood. Eccola. E tirò fuori le fiabe di Beda e il bardo dalla borsetta di perline. L'originale? Domandò brusco il signor Lovegood. E quando lei annui, continuò. Beh, allora, perché non la legge ad alta voce? È il modo migliore per assicurarsi che capiamo tutti. Eh, d'accordo, rispose Ermione nervosa. Aprì il libro e Harry vide in cima alla pagina il simbolo su cui stavano indagando. Lei tossicchiò e cominciò. C'erano una volta tre fratelli che viaggiavano lungo una strada tortuosa e solitaria al calar del sole. Mezzanotte, diceva sempre la mamma, osservò Ron, che si era messo comodo le braccia dietro la testa per ascoltare. Ermione gli rivolse uno sguardo irritato. Scusa, è solo che se dici mezzanotte fa più paura, aggiunse lui. Già, perché abbiamo proprio bisogno di un po' più di terrore nella nostra vita, commentò Harry senza riuscire a trattenersi. Xenofilius non ci badò, fissava il cielo oltre la finestra. Vai avanti, Ermione. Dopo qualche tempo i fratelli giunsero a un fiume troppo profondo per guadarlo e troppo pericoloso per attraversarlo a nuoto. Tuttavia erano versati nelle arti magiche e così bastò loro agitare le bacchette per far comparire un ponte sopra le acque infide. Ne avevano percorso metà quando si trovarono il passo sbarrato da una figura incappucciata. E la morte parlò. Scusa, la interruppe Harry, hai detto la morte parlò. È una fiaba, Harry. Sì, scusa, vai avanti. E la morte parlò a loro. Era arrabbiata perché tre nuove vittime l'avevano appena imbrogliata. Di solito i viaggiatori annegavano nel fiume, ma la morte era astuta. Finse di congratularsi con i tre fratelli per la loro magia e disse che ciascuno di loro meritava un premio per essere stato tanto abile da sfuggirle. Così il fratello maggiore, che era un uomo bellicoso, chiese una bacchetta più potente di qualunque altra al mondo. Una bacchetta che facesse vincere al suo possessore ogni duello. Una bacchetta degna di un mago che aveva battuto la morte. Così la morte si avvicinò a un albero di sambuco sulla riva del fiume, prese un ramo e ne fece una bacchetta che diede al fratello maggiore. Il secondo fratello, che era un uomo arrogante, decise che voleva umiliare ancora di più la morte e chiese il potere di richiamare altri dalla morte. Così la morte raccolse un sasso dalla riva del fiume e lo diede al secondo fratello, dicendogli che quel sasso aveva il potere di riportare in vita i morti. Infine la morte chiese al terzo fratello, il minore, che cosa desiderava. Il fratello più giovane era il più umile e anche il più saggio dei tre e non si fidava della morte. Perciò chiese qualcosa che gli permettesse di andarsene senza essere seguito da lei e la morte, con estrema riluttanza, gli consegnò il proprio mantello dell'invisibilità. La morte possiede un mantello dell'invisibilità, intervenne di nuovo Harry. Così può sorprendere la gente, spiegò Ron. A volte si stufa di correrle dietro, agitando le braccia e strillando. Scusa, Hermione. Poi la morte si scansò e consentì ai tre fratelli di continuare il loro cammino. E così essi fecero, discutendo con meraviglia dell'avventura che avevano vissuto e ammirando i premi che la morte aveva loro elargito. A tempo debito i fratelli si separarono e ognuno andò per la sua strada. Il primo fratello viaggiò per un'altra settimana o più e, quando ebbe raggiunto un lontano villaggio, andò a cercare un altro mago con cui aveva da tempo una disputa. Armato della bacchetta di Sambuco, non poté mancare di vincere il duello che seguì. Lasciò il nemico a terra, morto, ed entrò in una locanda, dove si vantò a gran voce della potente bacchetta che aveva sottratto alla morte in persona e di come essa l'aveva reso invincibile. Quella stessa notte un altro mago si avvicinò furtivo al giaciglio dove dormiva il primo fratello ubriaco fradicio. Il ladro rubò la bacchetta e per buona misura tagliò la gola al fratello più anziano. E fu così che la morte chiamò a sé il primo fratello. Nel frattempo il secondo fratello era tornato a casa propria, dove viveva solo. Estrasse la pietra che aveva il potere di richiamare in vita i defunti e la girò tre volte nella mano. Con sua gioia e stupore, la figura della fanciulla che aveva sperato di sposare prima della di lei prematura morte, gli apparve subito davanti. Ma era triste e fredda, separata da lui come da un velo. Anche se era tornata nel mondo dei mortali, non ne faceva veramente parte e soffriva. Alla fine il secondo fratello, reso folle dal suo disperato desiderio, si tolse la vita per potersi davvero riunire a lei. E fu così che la morte chiamò a sé il secondo fratello. Ma sebbene la morte avesse cercato il terzo fratello per molti anni, non riuscì mai a trovarlo. Fu solo quando ebbe raggiunto una veneranda età che il fratello più giovane si tolse infine il mantello dell'invisibilità e lo regalò a suo figlio. Dopodiché salutò la morte come una vecchia amica e andò lieto con lei, da pari a pari, congedandosi da questa vita. Hermione chiuse il libro. Passò qualche istante prima che Xenofilius si rendesse conto che aveva smesso di leggere. Distorse lo sguardo dalla finestra e commentò. Beh, ecco qua. Come scusi? chiese Hermione disorientata. Questi sono i doni della morte, rispose Xenofilius. Prese una penna d'oca da un tavolo ingombro lì accanto e sfilò un pezzo di pergamena strappata che sbucava da una catasta di libri. La bacchetta di Sambuco, disse, e disegnò una linea verticale. La pietra della resurrezione, e aggiunse un cerchio sopra la linea. Il mantello dell'invisibilità. Era chiuse linea e cerchio in un triangolo, a formare il simbolo che aveva tanto affascinato Hermione. Insieme, concluse, i doni della morte. Ma nella storia non compaiono mai le parole doni della morte, obiettò Hermione. Beh, certo che no, spiegò Xenofilius, fastidiosamente compiaciuto. È una fiaba per bambini che si racconta per divertire più che per istruire. Chi comprende questi argomenti, tuttavia, riconosce che l'antica fiaba si riferisce ai tre oggetti, o doni, che riuniti faranno del possessore il padrone della morte. Calò un breve silenzio. Xenofilius guardò di nuovo fuori dalla finestra. Il sole era già basso. Luna ormai dovrebbe aver preso abbastanza plimpi, disse tranquillamente. Quando dice padrone della morte, cominciò Ron. Padrone, ripetè Xenofilius, sventolando la mano con fare sprezzante. Conquistatore, vincitore, come preferisce. Ma allora, secondo lei, Hermione cercava le parole, e Henry capì che stava tentando di non far trasparire il minimo scetticismo. Questi oggetti, questi doni, esistono davvero? Xenofilius inarcò di nuovo le sopracciglia. Beh, ma certo. Ma, riprese Hermione, e Henry avvertì che il suo autocontrollo cominciava a incrinarsi. Signor Lovegood, com'è possibile che lei creda... Luna mi ha raccontato tutto di lei, signorina, la interruppe Xenofilius. Da quel che ho capito, lei non è priva di intelligenza, ma tristemente limitata, chiusa, di vedute ristrette. Forse dovresti provarti quel cappello, Hermione, suggerì Ron, accennando al ridicolo copricapo, la voce rotta nel tentativo di trattenere le risate. Signor Lovegood, ricominciò Hermione, sappiamo tutti che esistono cose come i mantelli dell'invisibilità. Sono rari, ma esistono. Però... Ah, però il terzo dono è un vero mantello dell'invisibilità, signorina Granger. Voglio dire, non è un mantello da viaggio intriso di un incantesimo di disillusione, o rivestito da un maleficio abbacinante, o tessuto con lana di demi-guise, che all'inizio riuscirà a celare chi lo indossa, ma con gli anni sbiadirà fino a diventare opaco. Stiamo parlando di un mantello che rende chi lo indossa completamente, veramente invisibile e dura in eterno, fornendo una dissimulazione costante e impenetrabile, quali che siano gli incantesimi che gli vengono scagliati contro. Quanti mantelli del genere ha mai visto, signorina Granger? Hermione aprì la bocca per rispondere, poi la richiuse, più confusa che mai. Lei, Harry e Ron si scambiarono un'occhiata. Harry capì che stavano tutti pensando la stessa cosa. Si dava il caso che un mantello esattamente uguale alla descrizione di Xenophilius si trovasse in quella stanza, in quel preciso istante. Già, continuò Xenophilius, come se li avesse sconfitti con un ragionamento stringente. Nessuno di voi ha mai visto una cosa del genere. Il possessore sarebbe incommensurabilmente ricco, no? Guardò di nuovo fuori dalla finestra. Il cielo era venato di una debolissima traccia di rosa. D'accordo, concesse Hermione turbata. Diciamo che il mantello è esistito. E la pietra, signor Lovegood, quella che lei chiama la pietra della resurrezione? Cosa? Beh, come può essere vera? Mi dimostri che non esiste, rispose Xenophilius. Hermione parve offesa. Ma è, mi scusi, ma è assolutamente ridicolo. Com'è possibile dimostrare che qualcosa non esiste? Vuole che mi procuri tutti, tutti i sassi del mondo e li metta alla prova? Voglio dire, si può sostenere che qualunque cosa è vera, se l'unica prova è che nessuno ha dimostrato che non esiste. Ecco, ecco, bongolò Xenophilius. Sono lieto di vedere che sta aprendo un po' la mente. E la bacchetta di Sambuco, sintromise Harry prima che Hermione potesse ribattere, lei crede che esista anche quella? Oh, beh, in questo caso ci sono innumerevoli prove, rispose Xenophilius. La bacchetta di Sambuco è il dono più facile da ritracciare per come passa di mano in mano. Ovvero, chiese Harry, ovvero il possessore della bacchetta deve vincerla al proprietario precedente, se vuole esserne il vero padrone, spiegò Xenophilius. Avrete certamente saputo di come la bacchetta passò a Egbert l'egregio dopo che uccise Emerich il maligno, e di come Godelot morì nelle proprie segrete dopo che il figlio Ervord gli ebbe tolto la bacchetta, o del terribile Loxias che prese la bacchetta a Barnabas Deveril dopo averlo assassinato. La scia di sangue della bacchetta di Sambuco attraversa le pagine della storia magica. Harry guardò Hermione, lei stava fissando rabbuiata a Xenophilius, ma non lo contraddisse. Allora dove crede che si trovi la bacchetta di Sambuco adesso? chiese Ron. Ahimè, chi può dirlo? sospirò Xenophilius, sempre rivolto alla finestra. Chissà dove si cela la bacchetta di Sambuco, le tracce si perdono con Arcus e Livius. Chissà dire quale dei due sconfisse davvero Loxias e quale prese la bacchetta, e chi può averli sconfitti? La storia, ahimè, non ce lo racconta. Una pausa. Infine Hermione, ostinata, domandò. Signor Lovegood, la famiglia Peverell ha per caso a che fare con i doni della morte? Xenophilius sembrò colto di sorpresa, mentre qualcosa prese ad agitarsi nella memoria di Harry, qualcosa che non riusciva a focalizzare. Peverell aveva già sentito quel nome. Ma allora lei mi ha tratto in inganno, signorina, esclamò Xenophilius, raddrizzando la schiena e strabuzzando gli occhi. Io credevo che lei fosse all'oscuro della ricerca dei doni. Molti di noi ricercatori sono convinti che i Peverell abbiano tutto, tutto a che fare con i doni. Chi sono i Peverell? Chiese Ron. Era il nome sulla tomba con il simbolo a Godric Solo, spiegò Hermione, senza staccare gli occhi da Xenophilius. Ignotus Peverell. Esatto, Xenophilius alzò l'indice con pedanteria. Il simbolo dei doni della morte sulla tomba di Ignotus è una prova lampante. Di cosa? domandò Ron. Beh, del fatto che i tre fratelli della storia erano davvero i tre fratelli Peverell, Antioc, Cadmus e Ignotus, che furono i primi possessori dei doni. Con un'altra occhiata alla finestra si alzò, prese il vassoio e andò verso la scala a chiocciola. Vi fermate a cena? gridò e sparì di sotto. Tutti ci chiedono sempre la nostra ricetta della zuppa di plimpi d'acqua dolce. Probabilmente per mostrarla al reparto avvelenamento del San Mungo, bisbigliò Ron. Harry aspettò di sentire Xenophilius muoversi in cucina prima di parlare. Cosa ne pensi? chiese a Hermione. Oh, Harry, rispose lei stancamente, è solo un gran mucchio di sciocchezze. Non può essere il vero significato del simbolo. È solo la sua stravagante opinione. Che perdita di tempo. In effetti questo è l'uomo che ha rivelato al mondo l'esistenza dei ricciocorni schiattosi, commentò Ron. Neanche tu ci credi? gli domandò Harry. Ma va, è una di quelle fiabe che si raccontano ai bambini per fargli la predica, no? Non cacciarti nei guai, non attaccar briga, non impicciarti di cose che è meglio lasciar stare. Giù la testa. Fatti i fatti tuoi, andrà tutto bene. Adesso che ci penso, aggiunse Ron. Forse è la ragione per cui si dice che le bacchette di Sambuco portano sfortuna. Come sarebbe? Una di quelle superstizioni, sai? Le streghe di maggio sposano babbani. Sortilegio al tramonto a mezzanotte infranto. Bacchetta di Sambuco non cavi un ragno dal buco. Le avrete sentite queste cose. Mia mamma ne sa un milione. Io e Harry siamo stati cresciuti da babbani, gli ricordò Hermione. Ci hanno insegnato proverbi diversi. Sospirò mentre un odore pungente saliva dalla cucina. La sola cosa buona della sua irritazione verso Xenofilius era che le aveva fatto dimenticare di essere arrabbiata con Ron. Hai ragione, gli disse. È solo una favola morale. È chiaro qual era il dono migliore, quello che bisognava scegliere. I tre finirono la frase nello stesso momento. Hermione disse il mantello, Ron la bacchetta e Harry la pietra. Si guardarono, a metà tra il sorpreso e il divertito. La fiaba vuole farti dire il mantello, spiegò Ron a Hermione. Ma non c'è bisogno di essere invisibili se si possiede la bacchetta. Una bacchetta invincibile, Hermione, dai! Ce l'abbiamo già un mantello dell'invisibilità, commentò Harry. E ci ha aiutato parecchio, nel caso non avessi notato, puntualizzò Hermione, mentre la bacchetta non farebbe che attirare guai. Solo se vai in giro a parlarne, obiettò Ron. Solo se sei così idiota da ballare sventolandola sopra la testa e cantando io ho una bacchetta invincibile, venite a provare se avete il coraggio. Ma se tieni la bocca chiusa? Sì, ma tu sapresti tenere la bocca chiusa? Gli chiese Hermione scettica. Sai, la sola cosa vera che ci ha detto è che le storie di bacchette superpotenti circolano da centinaia di anni. Davvero? Chiese Harry. Hermione era esasperata. La sua espressione era così irresistibilmente familiare che Harry e Ron si scambiarono un sorriso. La stecca della morte, la bacchetta del destino, saltano fuori con nomi diversi da secoli. Di solito sono proprietà di un mago oscuro che se ne vanta. Il professor Bins ne ha citate un po', ma insomma sono tutte stupidaggini. Le bacchette sono potenti quanto i maghi che le usano e basta. Ad alcuni maghi piace vantarsi che la loro è più grande e migliore di quelle degli altri. Ma come fai a dire, insiste Harry, che quelle bacchette, la stecca della morte e la bacchetta del destino, non sono la stessa bacchetta che rispunta da un secolo all'altro con un nome diverso? E alla fine sarebbero tutte la bacchetta di Sambuco fatta dalla morte? Chiese Ron. Harry rise. La strana idea che gli era venuta in mente era assurda. La sua bacchetta, ricordò a se stesso, era di Agrifoglio, non di Sambuco, ed era stata fabbricata da Ollivander. Qualunque cosa avesse compiuto la notte che Voldemort l'aveva inseguito. E se fosse stata invincibile, come avrebbe potuto spezzarsi? «Allora perché tu sceglieresti la pietra?» gli domandò Ron. «Beh, se si potessero riportare indietro le persone, potremmo riavere Sirius, Malocchio, Silente, i miei genitori». Né Ron né Hermione sorrisse. «Ma secondo Beda il bardo non vorrebbero tornare, no?» continuò Harry ripensando al racconto che avevano appena ascoltato. «Non credo che esistano molte altre storie che parlano di una pietra che risveglia i morti, vero?» chiese a Hermione. «No», rispose lei triste. «Credo che nessun altro, a parte il signor Lovegood, possa illudersi che sia possibile. Beda probabilmente ha preso l'ispirazione dalla pietra filosofale. Cioè, invece di una pietra che ti rende immortale, una pietra che revoca la morte. L'odore proveniente dalla cucina si fece più intenso. Faceva pensare a mutande bruciate. Harry si chiese se sarebbe riuscito a mangiare abbastanza del piatto che Xenophilius stava preparando per non offenderlo. «E il mantello, allora?» riprese Ron. «Ha ragione, no? Io mi sono così abituato al mantello di Harry e al suo potere che non ci ho mai pensato. Non ho mai sentito parlare di un mantello come quello di Harry. È infallibile. Non ci hanno mai beccati quando ce l'avevamo addosso. Ovvio, siamo invisibili quando lo indossiamo, Ron. Ma le cose che ha detto sugli altri mantelli, e non è che li vendono a dieci per uno zellino, beh, sono vere. Non mi era mai venuto in mente, ma ho sentito parlare degli incantesimi che evaporano dai mantelli quando invecchiano, o di certe maledizioni che li strappano e ci fanno dei buchi. Quello di Harry era di suo padre, quindi non è proprio nuovissimo, ma è perfetto. «Si va bene, Ron, ma la pietra?» Mentre i due discutevano sottovoce, Harry vagava per la stanza, ascoltando solo distrattamente. Andò alla scala a chiocciolo, al solo sguardo e sussultò. La sua faccia lo guardava dal soffitto della stanza di sopra. Dopo un attimo di smarrimento capì che non era uno specchio, ma un dipinto. incuriosito salì per le scale. «Harry, cosa fai? Non credo che dovresti guardare in giro se lui non è qui!» Ma Harry era già al piano superiore. Luna aveva affrescato il soffitto della sua stanza con cinque ritratti, dipinti con cura e talento. Harry, Ron, Ermione, Ginny e Neville. Non si muovevano come quelli di Hogwarts, ma possedevano comunque una certa magia. Pareva che respirassero. Attorno ai volti si intrecciavano quelle che a prima vista sembravano sottili catene d'oro, ma guardando meglio, Harry si rese conto che si trattava di una sola parola, ripetuta un migliaio di volte in vernice dorata. «Amici, amici, amici». Harry provò un gran moto di affetto per Luna. Osservò la stanza. Accanto al letto c'era una grande foto che ritraeva Luna da piccola con una donna che le somigliava molto. Erano abbracciate. Harry non aveva mai visto Luna così curata. La foto era coperta di polvere. La cosa gli parve strana. Si guardò intorno. Qualcosa non andava. Anche la mochetta azzurro chiaro era impolverata. L'armadio aveva le ante socchiuse e al suo interno non c'erano vestiti. Il letto aveva un'aria fredda, come se non fosse stato usato da settimane. Una sola ragnatela era tesa sulla finestra più vicina, sullo sfondo di un cielo rosso sangue. «Cosa c'è che non va?», gli chiese Ermione quando lui scese le scale, ma prima che potesse rispondere, Xenofilius risalì dalla cucina, reggendo un vassoio, questa volta carico di ciotole. «Signor Lovegood», gli domandò Harry, «dov'è Luna?». «Prego?». «Dov'è Luna?». Xenofilius si bloccò sull'ultimo gradino. «Ve l'ho già detto. È giù al Ponte Basso a pescare plimpi». «Allora come mai ha preparato solo per quattro?». Xenofilius tentò di parlare, ma non ci riuscì. Gli unici rumori erano il clangore continuo della pressa e il tintinnio del vassoio tra le sue mani tremanti. «Secondo me Luna manca da settimane», dichiarò Harry. «I suoi vestiti non ci sono. Il letto è intatto. Dov'è? E perché continuò a guardare fuori dalla finestra?». Xenofilius lasciò cadere il vassoio. Le ciotole si infransero. Harry, Ron e Hermione sfoderarono le bacchette. Xenofilius si immobilizzò, la mano pronta a infilarsi in tasca. In quel momento la pressa sparò un botto fragoroso e varie copie del cavillo scivolarono sul pavimento da sotto la tovaglia. La macchina finalmente tacque. Hermione si chinò a prendere una rivista, la bacchetta ancora puntata contro il signor Lovegood. «Harry, guarda qui!». Harry si fece largo tra il disordine più veloce che poté. In prima pagina c'era la sua foto, sormontata dalle parole «Indesiderabile numero uno», e la didascalia riportava l'esatto ammontare della taglia. «Il cavillo ha cambiato linea editoriale, allora», chiese Harry gelido. La sua mente lavorava veloce. «È questo che ha fatto quando è sceso in giardino, signor Lovegood? Ha spedito un gufo al ministero?». Xenofilius si passò la lingua sulle labbra. «Hanno preso la mia luna», sussurrò. «Per quello che ho pubblicato. Hanno preso la mia luna e io non so dov'è, che cosa le hanno fatto, ma forse me la restituiranno se io, se io...». «Consegna Harry», concluse per lui Hermione. «Non se ne parla», tagliò corto Ron. «Si tolga di mezzo, ce ne andiamo». Xenofilius aveva un aspetto spaventoso. Era invecchiato di un secolo, la bocca contratta in un sorrisetto orrendo. «Saranno qui da un momento all'altro. Devo salvare l'una. Non posso perdere l'una. Non dovete andar via». Allargò le braccia davanti alla scala. Harry ebbe la visione improvvisa di sua madre, che faceva lo stesso gesto davanti a un lettino. «Non ci costringa a farle del male», disse. «Si sposti, signor Lovegood!». «Harry!» urrò Hermione. Al di là delle finestre, sfrecciavano sagome in sella a manici di scopa. Mentre i tre amici non lo guardavano, Xenofilius estrasse la bacchetta. Harry si accorse del loro errore, appena in tempo. Si lanciò di lato, spingendo Ron e Hermione al sicuro, mentre lo schiantesimo di Xenofilius attraversava la stanza e colpiva il corno di Erumpent. Ci fu un'esplosione colossale. Il fragore squassò la stanza. Frammenti di legno e carta e detriti schizzarono ovunque, in una nube impenetrabile di densa polvere bianca. Harry volò per aria, poi cadde a terra, accecato dalla pioggia di calcinacci, le braccia sopra la testa. Sentì lo strillo di Hermione, l'urlo di Ron e una serie di orribili rumori metallici che gli dissero che Xenofilius era stato scagliato giù per la scala a chiocciola. Semisepolto dai detriti, cercò di alzarsi. Riusciva stento a respirare e a vedere per via della polvere. Il soffitto era crollato in gran parte e dal buco penzolava la pediera del letto di Luna. Il busto di Corinna Corvo Nero, senza metà del volto, giaceva accanto a lui. Foglietti di pergamena strappata svolazzavano nell'aria e la macchina tipografica era rovesciata su un fianco, bloccando l'apertura delle scale che scendevano in cucina. Poi un'altra figura bianca si mosse lì vicino e Hermione, ricoperta di polvere come una seconda statua, si premette un dito sulle labbra. La porta di sotto si aprì con uno schianto. Non te l'avevo detto che non c'era fretta, Travers, disse una voce aspra, che questo svitato farneticava come al solito. Un colpo e un urlo di dolore. Era di Xenofilius. No, no, di sopra, Potter! Te l'ho detto la settimana scorsa, Lovegood, che dovevi chiamarci solo se avevi informazioni fondate. Ti ricordi la settimana scorsa? Quando volevi scambiare tua figlia con quello stupido copricapo? Era settimana prima? Un altro colpo, un altro gemito. Quando pensavi che te l'avremmo restituita se ci avessi dimostrato che i ricciocorni, bang, schiattosi, bang, esistono? No, no, mi supplico, piagnucolò Xenofilius. È davvero, Potter, davvero! E adesso salta fuori che ci hai chiamato solo per farci saltare in aria, ruggì il mangiamorte. Seguì una raffica di colpi intercalati dagli urli di dolore di Xenofilius. Questo posto sta per crollare, Selwyn! Osservò una seconda voce glaciale che rimbombò su per la scala semidistrutta. La scala è bloccata! Provo a sgombrarla? Potrebbe tirar giù tutto! Tu, pezzo di bugiardo! Urlò Selwyn. Non hai mai visto Potter in vita tua, vero? Pensavi di attirarci qui per ucciderci, eh? E credi di riavere tua figlia così? Giuro, giuro! Potter è di sopra! Omenum revelio! Disse la voce ai piedi delle scale. Harry udì Hermione trattenere il fiato, ed ebbe la strana sensazione che qualcosa gli volasse addosso, avvolgendo il suo corpo nella propria ombra. C'è davvero qualcuno lassù, Selwyn? Osservò il secondo uomo in tono brusco. È Potter, vi dico che è Potter! Singhiozzò Xenofilius. Vi prego, vi prego, ridatemi l'una! Lasciatemi l'una! Potrai riavere la tua ragazzina, Lovegood, ribattesse Selwyn. Se sali e mi riporti giù, Harry Potter. Ma se è una trappola, se è un trucco, se hai un complice che ci aspetta di sopra, vedremo se riusciremo a risparmiare un pezzetto di tua figlia perché tu possa seppellirla. Xenofilius lanciò un ululato di paura e disperazione. Si udirono dei passi e un raschiare frenetico. Xenofilius cercava di arrampicarsi su per la scala fra i detriti. Andiamo! Bisbigliò Harry. Dobbiamo uscire di qui! Cominciò a togliersi di dosso i calcinacci approfittando del rumore che faceva Xenofilius. Ron era più incastrato e cercava di sollevare un pesante cassettone che gli bloccava le gambe. Harry e Hermione si mossero più piano che poterono sulle rovine per avvicinarsi a lui. Mentre i colpi e i raschi di Xenofilius si avvicinavano sempre più, Hermione riuscì a liberare Ron con un incantesimo di librazione. Bene! Sussurrò. La pressa rotta che bloccava la cima delle scale cominciò a vibrare. Xenofilius era a pochi metri da loro. Hermione era ancora tutta bianca di polvere. Ti fidi di me, Harry? Harry annuì. Allora d'accordo, mormorò lei. Dammi il mantello dell'invisibilità. Ron, mettitelo. Io? Ma Harry, ti prego, Ron! Harry, stringi forte la mia mano. Ron, attaccati alla mia spalla. Harry tese la mano sinistra. Ron svanì sotto il mantello. La pressa che ostruiva le scale traballava. Xenofilius cercava di spostarla con un incantesimo di librazione. Harry non capiva che cosa stesse aspettando Hermione. «Tenetevi forte!» sussurrò lei. «Tenetevi forte! Ci siamo quasi!» Il volto pallidissimo di Xenofilius apparve sopra la credenza. «Oblivion!» gridò Hermione, puntando la bacchetta prima verso di lui, poi sul pavimento. «Deprimo!» Nel pavimento del salotto si aprì un buco. Caddero come massi, Harry sempre aggrappato alla mano di Hermione. Un urlo dal basso e lui intravide due uomini che tentavano di fuggire da una frana di detriti e mobili rotti. Hermione si avvitò a mezz'aria e il rombo della casa che crollava e cheggiò nelle orecchie di Harry, mentre lei lo trascinava di nuovo nel buio. I doni della morte. Harry cadde ansimando sull'erba e si rialzò subito. Erano atterrati nell'angolo di un campo al crepuscolo. Hermione già correva in cerchio attorno a loro, agitando la bacchetta. «Protego totalum! Salvio Exia!» «Quella vecchia canaglia! Quel traditore!» borbottò Ron col fiato corto, sbucò da sotto il mantello dell'invisibilità e lo gettò a Harry. «Hermione, sei un genio, un genio assoluto! Non posso credere che ne siamo usciti!» «Cave Micum! Non avevo detto che era un corno di Erumpent! Gliel'avevo detto e adesso gli è saltata in aria la casa!» «Ben gli sta!» senteziò Ron, guardandosi i jeans laceri e i tagli alle gambe. «Secondo te cosa gli faranno?» «Oh, spero che non lo uccidano!» gemette Hermione. «E' per quello che ho voluto che i Mangiamorte vedessero Harry prima di venir via, così almeno sapevano che Xenofilius non aveva mentito!» «E perché hai nascosto me, però?» chiese Ron. «Tu dovresti essere a letto con la spruzzolosi, Ron. Hanno rapito Luna perché suo padre sosteneva Harry. Che cosa farebbero alla tua famiglia se sapessero che sei con lui? E i tuoi, allora?» «Sono in Australia», rispose Hermione. «Dovrebbero essere al sicuro, non sanno nulla.» «Sei un genio», ripete Ron in soggezione. «Sì, davvero, Hermione», concordò Harry convinto. «Non so come faremmo senza di te.» Lei fece un gran sorriso, ma tornò subito seria. «E Luna? Beh, se hanno detto la verità ed è ancora viva», cominciò Ron. «Non dirlo nemmeno», squitti Hermione. «Deve essere viva, deve!» «Allora sarà ad Azkaban, suppongo», continuò Ron. «Se sopravviverà a quel posto, però, in tanti non ce la fanno.» «Lei sì», tagliò corto Harry. «Non sopportava nemmeno l'idea del contrario. È forte, Luna, molto più forte di quanto sembri. Probabilmente sta insegnando ai compagni di cella tutto quello che sa su Gorgosprizzi e Nargilli.» «Speriamo», sospirò Hermione. Si passò una mano sugli occhi. «Mi dispiacerebbe tanto per Xenofilius se...» «Se non avesse appena tentato rivenderci ai Mangiamorte, certo!» concluse Ron. Montarono la tenda e vi entrarono. Ron preparò il tè. Dopo la miracolosa fuga, quel vecchio riparo ammuffito e pieno di spifferi sapeva di casa. Era sicuro, familiare e confortevole. «Oh, perché ci siamo andati?» piagnucolò Hermione dopo qualche istante di silenzio. «Harry, avevi ragione. È stata un'altra Godric Solo, una totale perdita di tempo. I doni della morte, tutte sciocchezze. Anche se...» Un pensiero improvviso la colpì. «Potrebbe essersi inventato tutto, no? Probabilmente non crede nemmeno ai doni della morte. Voleva solo trattenerci fino all'arrivo dei Mangiamorte.» «Non penso, obiettò Ron, inventarsi le cose sotto stress è molto più difficile di quanto si immagini. Me ne sono accorto quando mi hanno beccato quei germidori. È stato molto più facile fingere di essere Stan, perché sapevo qualcosa di lui che inventarmi un'identità dal nulla. Il vecchio Lovegood era molto teso. Secondo me ci ha detto la verità, o quella che crede la verità, per trattenerci.» «Beh, non è importante», sospirò Hermione. «Anche se era sincero, non ho mai sentito tante stupidaggini in vita mia.» «Aspetta però», ribatté Ron. «Anche la camera dei segreti doveva essere una leggenda, no? Ma i doni della morte non possono esistere, Ron.» «Continui a ripeterlo, ma uno esiste», insiste Ron. «Il mantello dell'invisibilità di Harry.» «La storia dei tre fratelli è una fiaba», sentenziò Hermione. «Una fiaba sulla paura della morte. Se per sopravvivere bastasse nascondersi sotto il mantello dell'invisibilità, avremmo già tutto quello che ci occorre.» «Non so, una bacchetta invincibile potrebbe farci comodo», mormorò Harry, rigirandosi tra le dita quella di Prugnolo, che gli piaceva così poco. «Ma non esiste, Harry! Hai detto che ci sono state un mucchio di bacchette, la stecca della morte e tutte le altre.» «Va bene, anche se vuoi convincerti che la bacchetta di Sambuco esiste, come la mettiamo con la pietra della resurrezione. Le dita di Hermione disegnarono virgolette attorno al nome e il suo tono trasudava sarcasmo. Non c'è magia che possa destare i morti, e questo è quanto. Quando la mia bacchetta si è connessa con quella di tu sai chi, ha fatto apparire mia mamma e mio papà e Cedric. Ma non sono veramente tornati», obiettò Hermione. «Quelle specie di pallide imitazioni non sono come riportare veramente in vita qualcuno. Ma nemmeno lei, la ragazza del racconto, è tornata davvero. La storia dice che quando una persona è morta appartiene ai morti. Il secondo fratello, però, è riuscito lo stesso a vederla e a parlare con lei. È perfino vissuto con lei per un po'. Sul volto di Hermione vide preoccupazione unita a qualcosa di più indefinibile. Poi, quando lei guardò Ron, Harry capì che era paura. Quei discorsi sul vivere assieme ai morti l'avevano spaventata. «E quel Peverel che è sepolto a Godric's Hollow?» aggiunse in fretta, cercando di assumere il tono più razionale possibile. «Non sai niente di lui, vero?» «No», rispose lei, sollevata di cambiare argomento. «Ho cercato informazioni dopo aver visto il simbolo sulla tomba. Se fosse stato famoso o avesse compiuto qualcosa di importante, sono sicura che uno dei nostri libri ne parlerebbe. Sono riuscita a trovare il nome Peverel solo in «Nobiltà di natura genealogia magica». L'ho preso in prestito da Critcher», spiegò quando Ron inarcò le sopracciglia. «Elenca le famiglie puro sangue che si sono estinte nella linea maschile. A quanto pare i Peverel furono una delle prime famiglie a sparire». «Estinte nella linea maschile?» ripetè Ron. «Vol dire che il nome è scomparso», spiegò Hermione. «Secoli fa, nel caso dei Peverel, potrebbero ancora avere dei discendenti, solo che avrebbero un altro cognome». E di colpo Harry vide chiarissimo, scintillante, il ricordo che si era ridestato, ascoltando il nome di Peverel, un sudicio vecchio che brandiva un brutto anello in faccia a un funzionario del ministero, e gridò «Marvolo Gant!» «Come?» domandarono in coro Ron e Hermione. «Marvolo Gant! Il nonno di voi sapete chi? Nel pensatoio, consilente. Marvolo Gant sosteneva di discendere dai Peverel». Ron e Hermione lo guardarono sconvolti. «Quell'anello, l'anello che diventò l'Orcrux. Marvolo Gant aveva detto che portava lo stemma dei Peverel. L'ho visto che lo agitava davanti alla faccia del tipo del ministero. Per poco non glielo ficcava su per il naso». «Lo stemma dei Peverel?» chiese Hermione bruscamente. «Hai visto com'era?» «Non proprio», rispose Harry tentando di ricordare. «Non c'era niente di elaborato sopra. Forse qualche graffio. L'ho visto da vicino solo dopo che era stato spaccato e aperto». Harry vide gli occhi di Hermione dilatarsi. Aveva capito. Ron spostava lo sguardo dall'uno all'altra e sterrefatto. «Cavoli! Pensi che fosse di nuovo quel simbolo? Il simbolo dei doni? Perché no?» balbettò Harry eccitato. «Marvolo Gant era un vecchio imbecille ignorante che viveva come un maiale. L'unica cosa a cui teneva erano i suoi antenati. Se quell'anello era stato tramandato attraverso i secoli, forse non sapeva cos'era veramente. Non c'erano libri in quella casa e, credetemi, non era tipo da leggere le fiabe ai suoi bambini. Gli piaceva pensare che i graffi sulla pietra fossero un blasone, perché secondo lui essere puro sangue ti rendeva praticamente un nobile». «Sì, è tutto molto interessante», commentò Hermione Guardinga. «Ma Harry, se stai pensando quello che credo che tu stia pensando...» «Beh, perché no? Perché no?» ribatté Harry, abbandonando ogni ritegno. «Era una pietra, no?» guardò Ron in cerca di sostegno. «E se fosse stata la pietra della risurrezione?» Ron rimase a bocca aperta. «Cavoli, ma funzionerà ancora?» Dopo che Silente ha spaccato «Funzionare! Funzionare! Ron non ha mai funzionato! Non esiste nessuna pietra della risurrezione!» Hermione balzò in piedi, esasperata e furente. «Harry, stai cercando di far quadrare tutto con la storia dei doni!» «Far quadrare tutto!» ripeté lui. «Ermione, ma tutto quadra da solo! Su quella pietra c'era il simbolo dei doni della morte, lo so!» «Gant ha detto che discendeva dai Peverell!» «Un minuto fa ci hai detto di non aver mai visto bene il simbolo! Secondo te dov'è adesso quell'anello?» chiese Ron a Harry. «Cosa ne ha fatto Silente dopo averlo rotto?» Ma l'immaginazione di Harry era scattata avanti, molto più avanti di quella di Ron e Hermione. «Tre oggetti o doni che riuniti faranno del possessore il padrone della morte! Il padrone, il conquistatore, il vincitore! L'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte!» E vide se stesso, padrone dei doni, affrontare Voldemort, i cui Horcrux non avevano speranza al confronto. «Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive!» Era quella la risposta? «Doni contro Horcrux! Esisteva un modo, dopo tutto, per garantire che fosse lui a trionfare! Se avesse avuto i doni della morte, sarebbe stato al sicuro?» «Harry?» Quasi non sentì Hermione. Aveva tirato fuori il mantello dell'invisibilità e lo faceva scorrere tra le dita, il tessuto liscio come l'acqua, lieve come l'aria. Nei quasi sette anni trascorsi nel mondo magico non aveva mai visto nulla di simile. Il mantello era esattamente quello che Xenofilius aveva descritto, un mantello che rende chi lo indossa completamente, veramente invisibile e dura in eterno, fornendo una dissimulazione costante e impenetrabile, quali che siano gli incantesimi che gli vengono scagliati contro. E poi con un sussulto ricordò «Silente! Aveva il mio mantello la notte che morirono i miei genitori!» Gli tremava la voce e si sentì arrossire, ma non ci badò. «Mia madre ha scritto a Sirius che Silente aveva preso in prestito il mantello. Ecco perché! Voleva esaminarlo! Pensava che fosse il terzo dono! Ignatus Peverell è sepolto a Godric Solo!» Harry marciava alla cieca nella tenda, con la sensazione che nuovi immensi scorci di verità gli si spalancassero davanti. «È il mio antenato! Io discendo dal terzo fratello! Torna tutto!» Si sentiva armato dalla certezza, dalla sua fede nei doni, come se la sola idea di poterli possedere lo stesse proteggendo, e tornò a guardare gli amici, pieno di gioia. «Harry!» tentò di nuovo Ermione, ma lui era impegnato a slegare con dita tremanti la saccoccia che portava attorno al collo. «Leggi!» le disse, mettendole in mano la lettera di sua madre. «Leggi!» Silente aveva il mantello, Ermione. Perché l'avrebbe voluto, se no? Non ne aveva bisogno, era in grado di produrre un incantesimo di disillusione così potente da rendersi perfettamente invisibile senza. Qualcosa cadde a terra e rotolò scintillando sotto una sedia. Prendendo la lettera, aveva fatto cadere il boccino. Si chinò a raccoglierlo e poi, la fonte di favolose scoperte appena dischiusa, gli offrì un nuovo regalo. E spavento e meraviglia scoppiarono dentro di lui, tanto che urlò. «E' qui dentro! Mi ha lasciato l'anello! È nel boccino!» «Tu? Tu credi?» Non riusciva a capire perché Ron fosse così stupito. Per lui era così ovvio, così evidente. Tutto tornava, tutto. Il suo mantello era il terzo dono e quando avesse scoperto come aprire il boccino avrebbe avuto il secondo e poi non gli restava che trovare il primo, la bacchetta di Sambuco. E poi... ma fu come se un sipario calasse su un palcoscenico illuminato. Tutta l'eccitazione, tutta la speranza e la gioia si spensero di botto e lui rimase solo nell'oscurità. Il glorioso incantesimo si infranse. «Ecco cosa sta cercando!» Il cambiamento nel suo tono accrebbe lo spavento di Ron e Ermione. «Voi sapete chi? Sta cercando la bacchetta di Sambuco!» Voltò le spalle ai loro volti tesi e increduli. Ne era certo. Tutto tornava. Voldemort non cercava una bacchetta nuova. Cercava una bacchetta vecchia. Una bacchetta davvero molto vecchia. Harry andò all'ingresso della tenda, dimentico di Ron e Ermione, e scrutò nella notte, pensieroso. Voldemort era stato allevato in un orfanotrofio babbano. Di sicuro nessuno gli aveva raccontato le fiabe di Beda il bardo da bambino. Come non aveva potuto ascoltarle Harry. Pochissimi maghi credevano nei doni della morte. Era possibile che Voldemort sapesse della loro esistenza? Harry affondò lo sguardo nel buio. Se Voldemort avesse saputo dei doni della morte, di sicuro li avrebbe cercati. Avrebbe fatto qualunque cosa per possederli. Tre oggetti che rendono padroni della morte. Se avesse saputo dei doni, forse non gli sarebbero nemmeno serviti gli Horcrux. Il semplice fatto che avesse preso un dono e l'avesse trasformato in un Horcrux non dimostrava che era all'oscuro di quest'ultimo grande segreto magico? Quindi Voldemort era in cerca della bacchetta di Sambuco senza conoscerne il vero potere, senza aver capito che era una serie di tre elementi, perché era il dono che non si poteva nascondere, la cui esistenza era più nota. La scia di sangue della bacchetta di Sambuco attraversa le pagine della storia magica. Harry guardò il cielo. Nubi grigio fumo e argento scivolavano davanti alla luna bianca. Era stordito dalla meraviglia per le sue nuove scoperte. Tornò nella tenda. Si sorprese nel trovare Ron e Ermione fermi dove li aveva lasciati. Ermione aveva ancora in mano la lettera di Lily e Ron, al suo fianco, sembrava preoccupato. Non capivano quanta strada avevano percorso nell'ultima manciata di minuti. È così, disse, cercando di trascinarli nell'alone della sua stupefatta certezza. Tutto si spiega. I doni della morte sono veri e io ne possiedo uno, forse due. Alzò il boccino. E voi sapete chi sta cercando il terzo, ma non sa, crede che sia solo una bacchetta molto potente. Harry, mormorò Ermione, avvicinandosi per restituirgli la lettera di Lily. Mi dispiace, ma io credo che tu ti sia fatto un'idea completamente sbagliata. Ma non vedi? Tutto coincide. No che non coincide, ribatté lei. Non coincide, Harry. Ti stai solo facendo trasportare. Per favore, aggiunse impedendogli di replicare. Per favore, dimmi solo questo. Se i doni della morte esistessero veramente, e Silente avesse saputo della loro esistenza. Se avesse saputo che la persona che li possiede tutti e tre diventa padrona della morte. Harry, perché non te l'ha detto? Perché? Lui aveva la risposta pronta. L'hai detto tu, Ermione. Bisogna scoprirlo da soli. È una ricerca. Ma io l'ho detto solo per convincerti a venire da Lovegood. Non lo pensavo sul serio. Harry non la sentì nemmeno. Silente mi ha sempre fatto scoprire le cose da solo. Voleva che sperimentassi le mie forze, che corressi rischi. Questo è un suo comportamento tipico. Harry, questo non è un gioco, non è un addestramento. Questa è la realtà. E Silente ti ha lasciato istruzioni molto chiare. Trovare e distruggere gli Horcrux. Quel simbolo non significa nulla. Lascia stare i doni della morte. Non possiamo permetterci distrazioni. Ma Harry non stava ascoltando. Si rigirava il boccino tra le mani. Quasi si aspettasse di vederlo aprirsi e rivelare la pietra della risurrezione, per dimostrare a Ermione che lui era nel giusto, che i doni della morte esistevano davvero. Ermione chiamò Ron in aiuto. Tu non ci credi, vero? Harry alzò lo sguardo. Ron esitò. Non saprei. Cioè, ci sono dei pezzi che combaciano, tentennò a disagio. Ma se guardi la cosa nel suo insieme, sospirò. Secondo me dobbiamo far fuori gli Horcrux, Harry. È quello che Silente ci ha detto di fare. Forse dovremmo dimenticare questa storia dei doni. Grazie, Ron, disse Ermione. Faccio io il primo turno? Oltrepassò Harry e si sedette all'ingresso della tenda, come se questo gesto mettesse un punto fermo a tutta la questione. Ma Harry quella notte non riuscì a dormire. L'idea dei doni della morte si era impossessata di lui e non poteva riposare quando pensieri inquietanti gli vorticavano nella mente. La bacchetta, la pietra e il mantello. Se solo li avesse avuti tutti e tre. Mi apro alla chiusura. Ma quale chiusura? Perché non poteva avere subito la pietra? Se solo l'avesse avuta, avrebbe potuto rivolgere a Silente in persona tutte quelle domande. Mormorò parole al boccino, nel buio, tentando di tutto, anche il serpentese. Ma la pallina d'oro non voleva saperne di aprirsi. E la bacchetta? La bacchetta di Sambuco? Dov'era nascosta? Dove la stava cercando Voldemort? Harry desiderò che la cicatrice ardesse e gli mostrasse i pensieri di Voldemort, perché per la prima volta in vita sua condivideva con il nemico lo stesso desiderio. A Hermione quell'idea non sarebbe piaciuta, ovvio, ma lei non credeva. Xenofilius aveva ragione, in un certo senso. Limitata, chiusa, di vedute ristrette. La verità era che l'idea dei doni della morte la spaventava, soprattutto la pietra della resurrezione. Harry premette di nuovo le labbra sul boccino, lo baciò, quasi lo inghiottì, ma il freddo metallo non si mosse. Era quasi l'alba quando si ricordò di Luna, sola in una cella di Azkaban, circondata dai dissennatori, e all'improvviso si vergognò. Si era completamente dimenticato di lei nella sua febbrile riflessione sui doni, se solo avessero potuto salvarla. Ma un tale numero di dissennatori era inattaccabile. Adesso che ci pensava non aveva ancora provato a evocare un patronus con la bacchetta di prugnolo, doveva farlo il mattino dopo. Se solo ci fosse stato un modo per avere una bacchetta migliore, e il desiderio della bacchetta di Sambuco, della stecca della morte, imbattibile, invincibile, lo inghiottì di nuovo. La mattina dopo disfecero la tenda e partirono sotto un terribile acquazzone. La pioggia li seguì fino alla costa, dove si accamparono quella notte, e non cessò per tutta la settimana, attraverso paesaggi fradici, che Harry trovava squallidi e deprimenti. Riusciva a pensare solo ai doni della morte. Era come se dentro di lui si fosse accesa una fiamma che nulla, né l'aperto scetticismo di Ermione, né i dubbi insistenti di Ron, poteva estinguere. Eppure, più il desiderio dei doni ardeva dentro di lui, meno gioia gli dava. Lui ne attribuiva la colpa a Ron e Ermione. La loro risoluta indifferenza smorzava il suo morale quanto la pioggia incessante, ma nessuna delle due poteva erodere la sua sicurezza, che restava assoluta. La fiducia nei doni e il desiderio di trovarli lo consumavano al punto da farlo sentire isolato dagli altri due e dalla loro ossessione per gli Horcrux. «Ossessione?» si bilò ferocemente Ermione la sera che Harry fu tanto incauto da usare quella parola, dopo che lei l'aveva rimproverato per la sua mancanza di interesse nella ricerca degli altri Horcrux. «Non siamo noi che abbiamo un'ossessione, Harry! Noi cerchiamo di fare quello che voleva Silente!» Ma la velata critica non scalfì la certezza di Harry. Silente aveva lasciato a Ermione il simbolo dei doni da decifrare e anche, Harry ne era convinto, la pietra della resurrezione nascosta nel boccino d'oro. «Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Padrone della morte! Perché non capivano? L'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte!» citò Harry tranquillamente. «Credevo che noi combattessimo contro tu sai chi!» ribatte Ermione e Harry decise di lasciar perdere. Perfino il mistero della cerva d'argento, che gli altri due continuavano a discutere, gli sembrava meno importante ora, un'attrazione secondaria di relativo interesse. La sola altra cosa che gli premeva era che la cicatrice aveva ripreso a pizzicare, anche se si sforzava di tenerlo nascosto ai suoi amici. Quando succedeva, cercava scuse per stare da solo, ma era deluso da ciò che vedeva. Le visioni che condivideva con Voldemort avevano cambiato di qualità. Adesso erano sfocate, sfuggenti. Un momento erano nitide e quello dopo non lo erano più. Harry riusciva a stento a riconoscere i tratti indistinti di un oggetto che poteva somigliare a un teschio e qualcosa come una montagna, più ombra che sostanza. Abituato a immagini precise quanto la realtà, era sconcertato dal mutamento. Era preoccupato che la connessione tra lui e Voldemort fosse stata danneggiata. Quella connessione che insieme paventava e teneva in gran conto, qualunque cosa avesse detto a Ermione. Collegava quelle immagini vaghe e deludenti alla distruzione della propria bacchetta, come se fosse colpa di quella nuova, se non vedeva più bene come prima nella mente di Voldemort. Con il lento trascorrere delle settimane, Harry non poteva fare a meno di notare, per quanto fosse così concentrato su se stesso, che Ron aveva preso la situazione in pugno. Forse perché voleva farsi perdonare di averli abbandonati. Forse perché la crescente indifferenza di Harry sollecitava le sue sopite qualità di leader. Adesso era Ron a incoraggiare ed esortare gli altri due all'azione. Restano tre Horcrux, continuava a ripetere. Ci serve un piano, avanti. Dov'è che non abbiamo guardato? Ricominciamo. L'Orfanotrofio, Diagon Alley, Hogwarts, Casa Riddle, Borgin & Burke, l'Albania, tutti i luoghi in cui sapevano che Tom Riddle era vissuto, aveva lavorato o aveva ucciso. Ron e Ermione li ripassarono al setaccio. Harry si univa a loro solo affinché Ermione smettesse di tormentarlo. Sarebbe stato felice di restare da solo, in silenzio, cercando di leggere i pensieri di Voldemort, di saperne di più sulla bacchetta di Sambuco. Ma Ron insisteva per farli spostare in luoghi sempre più improbabili, soltanto, Harry lo capiva, per tenerli in movimento. Non si sa mai, era il suo ritornello. Upper Fragley è un villaggio magico, magari ci ha abitato. Andiamo a dare un'occhiata. Durante queste frequenti scorrerie in territorio magico, ogni tanto avvistavano dei ghermidori. «Alcuni sono cattivi quanto i mangio a morte», li mise in guardia Ron. Quelli che avevano preso me erano un po' sfigati, ma secondo Bill ce ne sono di molto pericolosi. A Radio Potter hanno detto «Dove?», chiese Harry. «A Radio Potter. Non ti ho detto che si chiama così? Quel programma che cerco sempre, l'unico che racconta la verità. Quasi tutti i programmi sostengono tu sai chi, tranne Radio Potter. Vorrei proprio fartelo ascoltare, ma è complicato sintonizzarsi». Ron passava tutte le sere con la bacchetta in mano, tamburellando ritmi diversi sopra la radiolina, mentre le manopole giravano. Ogni tanto intercettava consigli su come curare il vaiolo di Drago e una volta un brano di «Un calderone pieno di forte amorbollente». Ron picchiettava e intanto cercava di indovinare la parola d'ordine giusta, borbottandone sfilse a caso. «Di solito c'entrano con l'ordine», spiegò. «Bill era un asso a beccarle. Prima o poi la trovo». Ma dovettero aspettare fino a marzo perché Ron avesse fortuna. Harry era seduto all'ingresso della tenda di guardia. Stava contemplando annoiato un cespo di giacinti che erano riusciti a sbucare dal suolo gelato quando Ron urlò da dentro «L'ho trovata! L'ho trovata! La parola d'ordine è Albus! Vieni, Harry!» Distolto per la prima volta dopo giorni dalle sue riflessioni sui doni della morte, Harry corse dentro e vide Ron e Hermione inginocchiati accanto alla radiolina. Hermione, che tanto per fare qualcosa stava lucidando la spada di Grifondoro, fissava a bocca aperta il minuscolo altoparlante da cui usciva una voce molto familiare. «Ci scusiamo per la temporanea assenza dalle frequenze radio, dovuta a qualche visitina di quei simpaticoni di Mangiamorte nella nostra zona!» «Ma è lì, Jordan!» esclamò Hermione. «Lo so!» Ron fece un gran sorriso. «Ganzo, eh? Adesso ci siamo trovati un altro posto sicuro!» stava dicendo Lee. «E ho il piacere di annunciarvi che due dei nostri collaboratori fissi sono qui con noi stasera! Buonasera, ragazzi!» «Salve!» «Sera, River!» «River è lì!» spiegò Ron. «Hanno tutti i nomi in codice, ma di solito si riesce a...» «Ssst!» fece Hermione. Ma prima di ascoltare Royal e Romulus, riprese Lee, dedichiamo un istante all'elenco dei caduti che Radio Strega Network e la Gazzetta del Profeta non ritengono importante divulgare. È con enorme dolore che informiamo i nostri ascoltatori dell'assassinio di Ted Tonks e Dirk Cresswell. Harry sentì un vuoto nello stomaco. Lui, Ron e Hermione si guardarono terrorizzati. È stato ucciso anche un goblin di nome Gornuk. Si pensa che il nato babbano Dean Thomas e un secondo goblin, entrambi presumibilmente in viaggio con Tonks, Cresswell e Gornuk, siano sfuggiti alla morte. Se Dean è in ascolto o se qualcuno sa dove si trova, i genitori e le sorelle cercano disperatamente sue notizie. Nel frattempo a Godley una famiglia babbana di cinque persone è stata trovata morta in casa. Le autorità babbane attribuiscono i decessi a una fuga di gas, ma alcuni membri dell'Ordine della Fenice mi informano che è stata una maledizione mortale. Una prova ulteriore, se ce ne fosse bisogno, del fatto che le stragi di babbani stanno diventando qualcosa di più che un'attività ricreativa sotto il nuovo regime. Infine, siamo dolenti di informare i nostri ascoltatori che i resti di Batilda Bagshot sono stati scoperti a Godric Solo. A quanto pare la morte risale a diversi mesi fa. L'Ordine della Fenice ci informa che il suo corpo mostrava inconfondibili tracce di ferite da magia oscura. Cari ascoltatori, vi invito ora a unirvi a noi nell'osservare un minuto di silenzio in memoria di Ted Tonks, Dirk Cresswell, Batilda Bagshot, Gornuk e degli sconosciuti, ma non meno rimpianti, babbani assassinati dai mangiamorte. Calò il silenzio. Harry, Ron e Hermione tacquero. Una metà di Harry era avida di saperne di più. Una metà temeva le possibili novità. Era la prima volta, da molto tempo, che si sentiva in contatto con il mondo esterno. «Grazie», riprese la voce di Lee, «e ora rivolgiamoci al nostro collaboratore, Royal, per un aggiornamento sugli effetti del nuovo ordine magico sul mondo babbano». «Grazie, River», rispose una voce inconfondibile, profonda, misurata, rassicurante. «Kingsley», sbottò Ron. «Lo sappiamo», lo zitti Hermione. «I babbani continuano a ignorare la causa delle loro sofferenze, ma stanno subendo ripetute pesanti perdite», cominciò Kingsley. «Tuttavia continuiamo a sentire storie profondamente significative di maghi e streghe che rischiano la propria incolumità per proteggere amici e vicini babbani, spesso a insaputa dei babbani stessi. Vorrei fare un appello a tutti gli ascoltatori perché seguano il loro esempio, magari imponendo un incantesimo di protezione sulle abitazioni babbane della loro strada. Molte vite potrebbero essere salvate adottando queste semplici misure». «E che cosa diresti, Royal, a quegli ascoltatori che obiettano che in tempi così pericolosi dovrebbe valere il motto «prima i maghi», gli chiese Lee. «Direi che da prima i maghi, a prima i puro sangue e infine a prima i mangiamorte, il passo è breve», rispose Kingsley. «Siamo tutti esseri umani, no? Ogni vita umana ha lo stesso valore e merita di essere salvata». «Bendetto, Royal, ti garantisco il mio voto per il Ministero della Magia, non appena saremo usciti da questo disastro», continuò lì. «E ora passiamo la parola a Romulus per la nostra popolare rubrica, Amici di Potter. Grazie, River», replicò un'altra voce molto familiare. Ron fece per parlare, ma Hermione lo anticipò con un sussurro. «Lo sappiamo, è Lupin». «Romulus, tu continui a sostenere, come hai fatto tutte le volte che hai partecipato al nostro programma, che Harry Potter è ancora vivo». «Certamente», rispose Lupin con decisione. «Non ho alcun dubbio che la notizia della sua morte sarebbe stata diffusa con la massima sollicitudine dai mangiamorte, perché sarebbe un colpo fatale per il morale di coloro che si oppongono al nuovo regime. Il ragazzo che è sopravvissuto resta il simbolo di tutto ciò per cui stiamo lottando. Il trionfo del bene, il potere dell'innocenza, il bisogno di continuare a resistere». Un misto di gratitudine e vergogna per vase Harry. Lupin allora l'aveva perdonato per le cose terribili che gli aveva detto. «E cosa diresti a Harry se fosse in ascolto, Romulus?» «Gli direi che siamo tutti con lui». Lupin esitò e riprese. «Egli direi di seguire il suo istinto, che è affidabile e quasi sempre nel giusto». Harry guardò Hermione, aveva gli occhi pieni di lacrime. «Quasi sempre nel giusto», ripetè lei. «Ah, non ve l'avevo detto?» intervenne Ron sorpreso. «Bill mi ha raccontato che Lupin è tornato a vivere con Tonks e a quanto pare lei sta diventando bella grossa. E il consueto aggiornamento sugli amici di Harry Potter che stanno soffrendo per la loro lealtà?» stava chiedendo lì. «Beh, come i nostri ascoltatori sapranno, molti dei più aperti sostenitori di Harry Potter sono stati imprigionati, tra cui Xenophilius Lovegood, già direttore del cavillo», disse Lupin. «Almeno è ancora vivo», borbottò Ron. «Abbiamo anche saputo, nelle ultime ore, che Rubeus Hagrid» e tutti e tre trattennero rumorosamente il respiro, rischiando di perdersi il resto della frase. «Noto guardacaccia alla scuola di Hogwarts, è sfuggito per un soffio all'arresto nel territorio della scuola, dove corre voce che abbia ospitato una festa pro-Harry Potter. Tuttavia Hagrid non è stato fatto prigioniero e pensiamo che si sia dato alla macchia». «Immagino che avere un fratellastro altro cinque metri sia d'aiuto se vuoi sfuggire ai Mangiamorte», commentò lì. «Diciamo che ti dà un certo vantaggio», convenne Lupin serio. «Vorrei solo aggiungere che anche se noi qui a Radio Potter applaudiamo Hagrid per il suo coraggio, consigliamo anche i più fedeli sostenitori di Harry di non seguirne l'esempio. Le feste pro-Harry Potter sono poco prudenti nel clima attuale». «Senza dubbio, Romulus», convenne lì. «Perciò vi suggeriamo di continuare a dimostrare la vostra dedizione all'uomo con la cicatrice a Saetta ascoltando Radio Potter. E ora passiamo al mago che si sta dimostrando elusivo quanto Harry Potter. Ci piace riferirci a lui come al Mangiamorte Capo. Qui con noi, per commentare alcune delle voci più deliranti che circolano sul suo conto, ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo collaboratore, Sorcino». «Sorcino?», ripetè un'altra voce familiare, e Harry, Ron e Ermione gridarono in coro. «Fred!» «No, è George!» «È Fred, credo», confermò Ron, avvicinandosi alla radiolina, mentre il gemello, quale che fosse, diceva «Niente, Sorcino, non se ne parla! Ti avevo detto che volevo chiamarmi stucco!» «Oh, d'accordo allora. Stucco, puoi dirci il tuo punto di vista sulle varie storie che circolano sul Mangiamorte Capo?» «Sì, certo, River», rispose Fred. «Come i nostri ascoltatori sapranno, a meno che non si siano rifugiati in fondo allo stagno di un giardino o in un posto del genere, la strategia di voi sapete chi di restare nell'ombra sta diffondendo un piacevole clima di panico. Badate, se tutti i presunti avvistamenti fossero autentici, dovrebbero esserci in giro almeno diciannove voi sapete chi». «Il che gli sta benissimo, naturalmente», intervenne Kingsley. «Il mistero crea più terrore che se si facesse veramente vedere». «Esatto», continuò Fred. «Quindi, gente, cerchiamo di darci una calmata. Va già abbastanza male senza che ci inventiamo le cose. Per esempio, questa nuova idea che voi sapete chi sia in grado di uccidere solo con lo sguardo. Quello è il basilisco, gentile pubblico. Una semplice prova. Se è la cosa che vi sta allumando alle gambe, potete guardarla tranquillamente negli occhi. Naturalmente, se è davvero voi sapete chi, è comunque molto probabile che sia l'ultima cosa che farete». Per la prima volta in settimane e settimane, Harry rideva. Sentì il peso della tensione scivolargli di dosso. «E le voci di avvistamenti all'estero?», chiese Lee. «Beh, chi non vorrebbe farsi una bella vacanza dopo mesi di duro lavoro?», rispose Fred. «Il punto è, gente, non cullatevi in un falso senso di sicurezza solo perché pensate che sia fuori dal nostro paese. Forse lo è, forse no, ma resta il fatto che, se vuole, è in grado di spostarsi più in fretta di Severus Piton davanti a un flacone di shampoo. Quindi non contate sul fatto che sia molto lontano se avete in mente di correre dei rischi. Non avrei mai immaginato di dire una cosa del genere, ma la prudenza viene prima di tutto». «Grazie infinite per queste sagge parole, stocco», concluse Lee. «Gentili ascoltatori, con questo siamo giunti alla fine di un'altra puntata di Radio Potter. Non sappiamo quando potremo essere di nuovo in onda, ma state certi che torneremo. Continuate a girare quelle manopole. La prossima parola d'ordine sarà «Malocchio! Proteggetevi a vicenda! Abbiate fede! Buonanotte!». La manopola della radio ruotò e le luci dietro il pannello si spensero. Harry, Ron e Hermione sorridevano ancora. Sentire quelle voci familiari e amiche era stato un tonico straordinario. Harry si era così abituato all'isolamento da aver quasi dimenticato che anche altri resistevano a Voldemort. Era come svegliarsi da un lungo sonno. «Bello, eh?» domandò Ron allegramente. «Geniale!» commentò Harry. «Sono così coraggiosi!» sospirò Hermione ammirata. «Se li trovano...» «Beh, non stanno mai fermi!» ribatte Ron. «Come noi!» «Ma avete sentito cosa ha detto Fred?» chiese Harry eccitato. Ora che la trasmissione era finita, i suoi pensieri ritornarono sull'ossessione che lo consumava. «È all'estero! Sta ancora cercando la bacchetta! Lo sapevo!» «Harry! Andiamo, Hermione! Perché non vuoi ammetterlo?» «Vol...» «Harry no!» «Demort! Sta cercando la bacchetta di Sambuco!» «Il suo nome è tabù!» mughiò Ron e balzò in piedi perché un sonoro crack era risuonato fuori dalla tenda. «Te l'avevo detto, Harry! Te l'avevo detto! Non possiamo più pronunciarlo! Dobbiamo imporre di nuovo la protezione! Presto! È così che trovano...» Ma Ron tacque e Harry capì perché. Lo spioscopio sul tavolo si era acceso e aveva cominciato a girare. Udirono voci sempre più vicine, voci aspre, eccitate. Ron si sfilò di tasca il deluminatore e lo fece scattare. Le luci si spensero. «Venite fuori con le mani in alto!» urlò una voce stridula nel buio. «Sappiamo che siete lì dentro! Avete sei bacchette puntate addosso e non ci importa chi colpiamo!» Villa Malfoi Harry si voltò a guardare i due amici, di cui vedeva solo i contorni nell'oscurità. Vide Hermione puntare la bacchetta, non verso l'esterno, ma contro di lui. Un'esplosione, un lampo di luce bianca e si accasciò dolorante e accecato. Sentì il volto gonfiarsi rapidamente sotto le dita, mentre passi pesanti li circondavano. «Alzati, feccia!» Mani ignote lo tirarono brutalmente in piedi. Prima che potesse impedirlo, qualcuno gli aveva frugato nelle tasche e sottratto la bacchetta di prugnolo. Harry si tastò la faccia che gli faceva un male terribile ed era irriconoscibile al tatto, tesa, gonfia e dilatata come per una violenta reazione allergica. Gli occhi erano ridotti a fessure attraverso cui vedeva astento. Perse gli occhiali quando lo spinsero fuori dalla tenda. Riuscì a distinguere solo le forme sfocate di quattro o cinque persone che trascinavano fuori anche Ron e Ermione. «Giù le mani da lei!» urlò Ron. Si udì il suono inconfondibile di nocche contro la carne. Ron gemette di dolore e Ermione gridò «No! Lascialo stare! Lascialo stare!» «Il tuo fidanzato subirà anche di peggio se si trova sulla mia lista!» ghignò una voce stridula, orrendamente familiare. «Ragazza deliziosa! Che bocconcino! Adoro la pelle morbida!» A Henry si rivoltò lo stomaco. L'aveva riconosciuto Fenrir Greybeck, il lupo mannaro che aveva il permesso di indossare vesti di mangiamorte in cambio della sua mercenaria ferocia. «Perquisite la tenda!» ordinò un'altra voce. Henry fu buttato a terra a faccia in giù. Un tonfo gli disse che Ron era stato gettato accanto a lui. Udirono passi a un gran fragore. Gli uomini rovesciavano le sedie setacciando la tenda. «Adesso vediamo un po' chi abbiamo preso!» gongolò dall'alto la voce di Greybeck e Henry fu rivoltato sulla schiena. Un raggio di luce di bacchetta lo colpì in volto e Greybeck rise. «Mi ci vorrà un bel po' di burro birra per mandare giù questo! Cosa ti è successo, mostro?» Henry non rispose subito. «Ti ho chiesto!» ripeté Greybeck accompagnando la domanda con un colpo al diaframma che fece piegare in due Henry. «Cosa ti è successo?» «Punto!» mugolò Henry. «Qualcosa mi appunto!» «Così pare!» osservò una seconda voce. «Come ti chiami?» ringhiò Greybeck. «Dudley!» rispose Henry. «E di nome?» «Io... Vernon! Vernon Dudley!» «Controlla la lista, Scabior!» comandò Greybeck e Henry sentì che si spostava per osservare Ron. «E tu, rosso?» «Stentila corto!» rispose Ron. «Col cavolo!» replicò Scabior. «Lo conosciamo bene, Stentila corto! Ci ha fornito molto materiale!» «Un altro colpo!» «Sono Baldi!» disse Ron. Henry capì che aveva la bocca piena di sangue. «Maldi Weasley!» «Un Weasley?» domandò Greybeck con la sua voce aspra. «Quindi sei imparentato con traditori del proprio sangue, anche se non sei un sanguemarcio! E infine la tua graziosa amichetta!» Il piacere con cui lo disse fece acapponare la pelle a Henry. «Calma, Greybeck!» intervenne Scabior sopra le disatine degli altri. «Oh! Non morderò subito! Vediamo se è più svelta di Barney a ricordare il suo nome!» «Chi sei, ragazzina?» «Penelope Clearwater!» rispose Hermione, terrorizzata ma convincente. «Qual è il tuo stato di sangue?» «Mezzo sangue!» rispose Hermione. «Ci vuole un attimo a controllare!» disse Scabior. «Ma sembrano tutti in età da Hogwarts!» «Abbiamo mollato!» spiegò Ron. «Avete mollato, rosso?» chiese Scabior. «E avete deciso di andare un po' in campeggio? E tanto per farvi due risate, avete pensato di usare il nome del Signore Oscuro?» «Dò per ridere!» precisò Ron. «Incidente!» «Un incidente!» altre risate di scherno. «Lo sai a chi piaceva pronunciare il nome del Signore Oscuro, Weasley?» ringhiò Greybeck. «A quelli dell'Ordine della Fenice! Ti dice niente?» «Dò!» «Beh, siccome non portano il dovuto rispetto al Signore Oscuro, il suo nome è diventato tabù! Ne sono stati trovati un po' in questo modo. Vedremo! Legateli con gli altri due prigionieri!» Qualcuno tirò su Harry per i capelli, lo trascinò, lo mise a sedere e cominciò a legarlo ad altri, schiena contro schiena. Era ancora semiceco, con gli occhi così gonfi non riusciva a vedere quasi nulla. Quando l'uomo che li aveva legati si fu allontanato, sussurrò agli altri prigionieri. «Qualcuno ha una bacchetta?» «No!» risposero Ron e Ermione ai suoi lati. «Tutta colpa mia! Ho detto il nome, mi spiace!» «Harry!» Era una voce nuova, ma nota, e veniva dalle spalle di Harry, dalla persona legata alla sinistra di Ermione. «Dean! Sei proprio tu!» Se scoprono cos'hanno per le mani, sono ghermidori, cercano solo dei vagabondi da vendere per denaro. «Un bottino niente male per una sola notte!» commentò Greybeck, mentre un paio di stivali chiodati marciava accanto a Harry. Udirono altri rumori da dentro la tenda. «Una mezzo sangue, un goblin fuggiasco e tre ragazzi che marinano la scuola. Hai controllato la lista, Scabior?» ruggì. «Sì, qui non c'è nessun Vernon Dudley, Greybeck.» «Interessante!» fece Greybeck. «Proprio interessante!» si accovacciò vicino a Harry, che dalla sottile fessura tra le palpebre gonfie vide una faccia coperta di peli grigi impastati, con denti marroni affilati e piaghe ai lati della bocca. Greybeck puzzava come in cima alla torre dove era morto Silente, di polvere, sudore e sangue. «Quindi non sei ricercato, Vernon, o sei su quella lista sotto un altro nome? A che casa appartenevi a Hogwarts?» «Serpeverde», rispose Harry senza pensare. «Buffo, sono tutti convinti che è quello che vogliamo sentire, eh?» soghignò Scabior nell'ombra. «Ma nessuno che sappia dirci dov'è la sala comune.» «Nei sotterranei», rispose Harry. «Si entra attraverso il muro. È piena di teschi e cose del genere, ed è sotto il lago, perciò la luce è verde.» Ci fu una breve pausa. «Bene, bene, pare che abbiamo preso davvero un piccolo serpeverde», osservò Scabior. «Buon per te, Vernon, perché non ci sono tanti serpeverde impuri. Chi è tuo padre?» «Lavora al ministero», mentì Harry. Sapeva che tutta la sua storia sarebbe crollata alla minima indagine, ma d'altra parte aveva tempo solo finché il suo volto non fosse tornato normale e il gioco sarebbe finito comunque. Dipartimento delle catastrofi e degli incidenti magici.» «Sai, Greybeck», commentò Scabior, «mi pare che c'è un Dudley là.» A Harry mancò il respiro. «Possibile che la fortuna, un puro colpo di fortuna, li tirasse fuori da quel guaio.» «Bene, bene», fece Greybeck. Harry avvertì una lievissima nota di trepidazione in quella voce spietata. Capì che il lupo Mannaro si stava chiedendo se aveva davvero aggredito e legato il figlio di un funzionario del ministero. Il cuore gli batteva contro le corde che gli serravano le costole. Non si sarebbe stupito se Greybeck l'avesse notato. «Se dici la verità, mostro, non hai niente da temere da un giretto al ministero. Immagino che tuo padre ci ricompenserà solo perché ti abbiamo trovato.» «Ma...» tentò Harry, la bocca arida. «Se voi ci lasciate...» «Ehi!» Un urlo si levò dalla tenda. «Guarda qui, Greybeck!» Una sagoma scura corse verso di loro e Harry vide un bagliore argentato alla luce delle bacchette. Avevano trovato la spada di Grifondoro. «Molto carina!» commentò Greybeck in tono ammirato, prendendola dal compagno. «Oh, davvero molto carina! Sembra opera dei Goblin, quella! Dove avete trovato una cosa del genere?» «È di mio padre!» mentì Harry, sperando con tutta l'anima che fosse troppo buio perché Greybeck notasse il nome inciso sotto l'elsa. «L'abbiamo presa in prestito per tagliare la legna!» «Un momento, Greybeck! Guarda qua! Sul profeta!» Mentre Scabior parlava, la cicatrice di Harry, che era tirata sulla fronte gonfia, arse dolorosamente. Più nitida di qualunque altra cosa attorno a lui, vide una torre. Una cupa fortezza, minacciosa e nera come la pece. I pensieri di Voldemort erano improvvisamente tornati chiarissimi. Avanzava scivolando verso la gigantesca costruzione con serena e gioiosa determinazione. Così vicino, così vicino. Con un enorme sforzo di volontà, Harry chiuse la mente ai pensieri di Voldemort e tornò dov'era, legato a Ron, Hermione, Dean e Gripok, nel buio, ad ascoltare Greybeck e Scabior. «Ermione, Granger!» lesse Scabior. «La sangue marcio nota per essere in viaggio con Harry Potter!» La cicatrice bruciò nel silenzio e Harry fece una grande fatica per restare lucido, per non scivolare dentro la testa di Voldemort. Udì lo scricchiolio degli stivali di Greybeck, che si stava accucciando accanto a Hermione. «La sai una cosa, ragazzina? Questa qui nella foto ti assomiglia da morire!» «No, non sono io!» Il suo squittio terrorizzato equivaleva a una confessione. «Nota per essere in viaggio con Harry Potter!» ripeté piano Greybeck. Sulla scena calò il silenzio. La cicatrice bruciava, il dolore era intensissimo, ma Harry si oppose con tutte le sue forze all'attrazione dei pensieri di Voldemort. Restare presente a se stesso non era mai stato tanto importante. «Beh, questo cambia le cose, vero?» mormorò il lupo Mannaro. Nessuno parlò. Harry avvertì la banda di ghermidori attoniti e paralizzati, e il braccio di Hermione tremare contro il suo. Greybeck si alzò e fece qualche passo verso di lui. Poi si accovacciò di nuovo per osservare da vicino i suoi tratti deformi. «Che cos'è quella cosa che hai sulla fronte, Vernon?» chiese con voce sua dente e premette un dito sudicio sulla cicatrice tesa. Il suo alito fetilo investì le narici di Harry. «Non toccarla!» gridò Harry. Non riuscì a trattenersi. Stava per vomitare dal dolore. «Pensavo che portassi gli occhiali, Potter!» sussurrò Greybeck. «Ho trovato gli occhiali!» uggiolò uno dei ghermidori sullo sfondo. «C'erano degli occhiali dentro la tenda, Greybeck! Aspetta!» E un attimo dopo, Harry si ritrovò gli occhiali spiaccicati sulla faccia. I ghermidori si avvicinarono, sogguardandolo. «È lui!» ululò Greybeck. «Abbiamo preso Potter!» Indietreggiarono tutti, storditi dalla loro impresa. Harry, che ancora lottava per restare dentro la propria mente divisa in due, non riuscì a dire nulla. Visioni frammentarie gli attraversavano il cervello. Scivolava attorno alle alte mura della fortezza nera. No, era Harry, legato e disarmato, in grave pericolo. Guardò in su, verso la finestra più alta, la torre più alta. Era Harry e stavano discutendo della sua sorte. «Ora di volare!» «Al ministero!» «Al diavolo il ministero!» ringhiò Greybeck. «Si prenderanno tutto il merito e non ci degneranno di uno sguardo. Io dico di portarlo dritto da voi sapete chi». «Lo vuoi chiamare? Qui?» domandò Scabior, sgomento. «No!» abbaiò Greybeck. «Io no no! Dicono che usa Villa Malfoy come base. Porteremo là il ragazzo!» Harry immaginò di sapere perché Greybeck non chiamava Voldemort. Il lupo mannaro poteva anche avere il permesso di indossare un abito da mangiamorte quando volevano servirsi di lui, ma solo la cerchia più intima di Voldemort portava il marchio nero. Questo sommo onore a Greybeck non era stato concesso. La cicatrice arse di nuovo e si sollevò nella notte e volò fino alla finestra in cima alla torre. «Sicuro che è lui? Perché se ti sbagli, Greybeck, siamo morti!» «Chi comanda qui?» ruggì Greybeck, celando il proprio momento di inadeguatezza. «Io dico che è Potter e lui più la sua bacchetta fanno duecentomila galeoni tondi tondi, ma se non avete il fegato di seguirmi mi terrò tutto io e con un po' di fortuna mi daranno anche la ragazza!» La finestra era una strettissima fessura nella pietra nera, non grande abbastanza da far passare un uomo. Dentro si vedeva una sagoma scheletrica, rannicchiata sotto una coperta, morta o addormentata. «D'accordo!» sbottò Scabior. «D'accordo, ci stiamo! E gli altri, Greybeck, cosa ne facciamo?» «Tanto vale portarli tutti. Abbiamo due sangue marcio e fanno dieci galeoni in più. Dammi anche la spada. Se sono rubini è un'altra piccola fortuna!» I prigionieri furono tirati in piedi. Harry udì il respiro di Ermione, affannato e terrorizzato. «Teneteli ben stretti! Io penso a Potter!» comandò Greybeck, afferrando i capelli di Harry, che avvertì le lunghe unghie gialle graffiargli la cute. «Al mio tre! Uno, due, tre!» si smaterializzarono, trascinando con sé i prigionieri. Harry cercò di liberarsi dalla presa di Greybeck, ma fu inutile. Aveva Ron e Ermione appiccicati ai suoi fianchi, non poteva separarsi dal gruppo, e mentre il fiato gli veniva schiacciato fuori dai polmoni, la cicatrice arse ancora più dolorosa. Si insinuava come un serpente nella fessura della finestra e calava, lieve come vapore, nella stanza simile a una cella. I prigionieri barcollarono e si saltarono, atterrando su un viottolo di campagna. Agli occhi di Harry, ancora gonfi, occorse qualche istante per adattarsi. Poi vide un grande cancello di ferro all'ingresso di un lungo viale. Provò un infinitesimo moto di sollievo. Il peggio non era ancora accaduto. Voldemort non era lì. Harry, che stava lottando per resistere alla visione, sapeva che lui si trovava in un luogo strano, simile a una fortezza, sulla vetta di una torre. Quanto avrebbe impiegato a tornare, una volta scoperto che Harry era lì, era un'altra faccenda. Uno dei gherbidori andò al cancello e lo scosse. Come facciamo a entrare? È chiuso, Greybeck, non so. Che cavolo? Ritrasse le mani, terrorizzato. Il ferro si contorceva, i ricci e le curve si scomposero per mutarsi in un volto spaventoso, che parlò con voce metallica e roboante. Dichiarate il vostro intento. Abbiamo Potter, latrò Greybeck trionfante. Abbiamo catturato Harry Potter. Il cancello si spalancò. Andiamo, ordinò Greybeck ai suoi uomini, e i prigionieri furono spinti oltre i battenti, lungo il viale, tra alte siepi che attutivano i loro passi. Harry vide una spettrale sagoma bianca sopra di lui e riconobbe un pavone albino. Inciampò e fu strattonato in piedi da Greybeck. Barcollò sghembo, legato schiena contro schiena agli altri quattro prigionieri. Chiuse gli occhi gonfi e decise di cedere al dolore per un istante. Voleva capire che cosa stava facendo Voldemort, se sapeva già che Harry era stato catturato. La figura emaciata si mosse sotto la coperta sottile e rotolò verso di lui. Gli occhi si aprirono in un volto scheletrico. L'uomo gracile si alzò a sedere, i grandi occhi infossati fissi su di lui. Voldemort, e poi sorrise. Aveva perso quasi tutti i denti. «E così sei venuto. Sapevo che saresti arrivato un giorno, ma il tuo viaggio è stato inutile. Io non l'ho mai avuta». «Tu menti!» L'ira di Voldemort pulsava dentro di lui. Harry sentì la cicatrice quasi esplodere dal dolore e riportò la mente al proprio corpo, là dove i prigionieri venivano spintonati sulla ghiaia. Una luce li investì. «Che c'è?» domandò una fredda voce femminile. «Siamo qui per vedere colui che non deve essere nominato», rispose Greybeck. «Chi sei? Tu mi conosci!» C'era risentimento nella voce del lupo Mannaro. «Sono Fenrir Greybeck. Abbiamo preso Harry Potter!» Greybeck afferrò Harry e lo rigirò verso la luce, costringendo anche gli altri prigionieri a girare. «Lo so che è gonfio, signora, ma è lui!» si intromise Scabior. «Se lo guarda da vicino si vede la cicatrice. E questa qua, vede la ragazza? È la sangue marcio che va in giro con lui, signora! È lui! Abbiamo preso anche la sua bacchetta! Ecco, signora!» Narcisa Malfoy osservò il volto gonfio di Harry. Scabior le consegnò la bacchetta di prugnolo e lei inarcò le sopracciglia. «Porta lì dentro», disse. Harry e gli altri salirono i larghi gradini di pietra a suon di spinte e calci ed entrarono nell'ingresso tappezzato di ritratti. «Seguitemi», continuò Narcisa facendo loro strada. «Mio figlio Draco è a casa per le vacanze di Pasqua. Se quello è Harry Potter, lo riconoscerà». Il salotto era accecante dopo tutto quel buio. Anche con gli occhi semi chiusi, Harry si rese conto della vastità della stanza. Un lampadario di cristallo pendeva dal soffitto. Altri ritratti erano allineati sulle pareti viola scuro. Due figure si alzarono dalle poltrone davanti a un camino di marmo, quando i ghermidori spinsero dentro i prigionieri. «Cosa succede?», era la voce strascicata, spaventosamente familiare, di Lucius Malfoy. Harry fu preso dal panico, non vedeva una via d'uscita e adesso era più semplice, con il montare della paura, ignorare i pensieri di Voldemort. Ma la cicatrice continuava a bruciare. «Dicono che hanno preso Potter», riferì la voce fredda di Narcisa. «Draco, vieni qui». Harry non osò guardare negli occhi Draco, ma lo vide di sghembo. Un po' più alto di lui, la macchia pallida e affilata del volto sotto i capelli di un biondo quasi bianco. Greybeck costrinse i prigionieri a girarsi di nuovo, in modo che Harry si trovasse proprio sotto il lampadario. «Allora, ragazzo?», abbaiò il lupo Mannaro. Harry era davanti allo specchio sopra il camino, uno specchio grande, con una cornice dorata a volute. Attraverso le palpebre semi-chiuse vide il proprio riflesso per la prima volta da quando aveva lasciato Grimmall Place. Il suo volto era grosso, lucido e roseo, ogni lineamento deformato dalla fattura di Ermione. I capelli neri gli arrivavano alle spalle e aveva un'ombra scura attorno alla macella. Se non avesse saputo che era proprio lui, si sarebbe chiesto chi si era messo i suoi occhiali. Decise di tacere, perché di certo la voce l'avrebbe tradito, e continuò a evitare il contatto visivo con Draco, che si avvicinava. «Allora, Draco!», lo incitò Lucius Malfoy. Sembrava molto ansioso. «È lui? È Harry Potter?». «Io non sono sicuro», rispose Draco. Si teneva a distanza da Greybeck e pareva aver paura di guardare Harry quanta Harry ne aveva di guardare lui. «Ma osservalo bene, dai, avvicinati!» Harry non aveva mai sentito Lucius Malfoy così eccitato. «Draco, se saremo noi a consegnare Potter al Signore Oscuro, tutto sarà per...» «Non ci vorremmo dimenticare chi è stato a catturarlo, spero, signor Malfoy!» lo interruppe Greybeck minaccioso. «Certo che no! Certo che no!» ribatte Lucius con impazienza. Si avvicinò a lui stesso, tanto che Harry riuscì a vedere il suo volto languido e pallido nei minimi dettagli, nonostante le palpebre gonfie. Con la faccia ridotta a una maschera, Harry aveva l'impressione di spiare tra le sbarre di una gabbia. «Che cosa gli avete fatto?» chiese Lucius a Greybeck. «Come si è ridotto così? Non siamo stati noi.» «A me pare più che altro una fattura pungente!» commentò Lucius. I suoi occhi grigi percorsero la fronte di Harry. «C'è qualcosa lì!» sussurrò. «Potrebbe essere la cicatrice, molto tirata!» «Draco, vieni qui! Guarda bene! Che cosa ne dici?» Harry vide il volto di Draco avvicinarsi ad esso, accanto a quello del padre. Erano straordinariamente simili, ma Lucius era fuori di sé dall'esaltazione, mentre l'espressione di Draco era piena di riluttanza, perfino di spavento. «Non so!» dichiarò infine il ragazzo, e se ne andò verso il camino dove sua madre, in piedi, osservava la scena. «È meglio esserne sicuri, Lucius!» disse Narcisa al marito, con la sua voce fredda e chiara. «Completamente sicuri che sia Potter! Prima di convocare il Signore Oscuro, dicono che questa è sua!» continuò studiando la bacchetta di prugnolo, ma non corrisponde alla descrizione di Ollivander. «Se ci sbagliamo, se chiamiamo il Signore Oscuro per niente, ti ricordi cosa ha fatto a Roul e Dolohov?» «E la sangue marcio, allora?» ringhiò Greybeck. Harry sentì i piedi sollevarsi da terra, quando i ghermidori costrinsero i prigionieri a girarsi di nuovo, in modo che questa volta la luce investisse Ermione. «Un momento!» fece Narcisa brusca. «Sì, sì, era da Madame Malkin con Potter! Ho visto la sua foto sul profeta! Guarda, Draco, non è quella Granger?» «Io forse sì!» «Ma allora quello è il ragazzo Weasley!» gridò Lucius, girando attorno ai prigionieri per mettersi davanti a Ron. «Sono loro! Gli amici di Potter! Draco, guardalo! Non è il figlio di Arthur Weasley! Com'è che si chiama?» «Sì!» ripeté Draco, dando le spalle ai prigionieri. «Può darsi!» La porta del salotto si aprì dietro Harry. Una donna parlò, e il suono della sua voce portò il livello della paura di Harry ancora più in alto. «Cosa c'è? Che cosa è successo, Sissi?» Bellatrix Lestrange passeggiò lentamente attorno ai prigionieri e si fermò alla destra di Harry per osservare Ermione attraverso le palpebre pesanti. «Ma questa!» mormorò. «È la ragazza a sangue marcio! La Granger!» «Sì, sì, è la Granger!» gridò Lucius. «E quello vicino, pensiamo, è Potter! Potter e i suoi amici prigionieri, finalmente!» «Potter?» strillò Bellatrix e arretrò per guardarlo meglio. «Sei sicuro?» «Il Signore oscuro deve essere immediatamente informato!» Si tirò su la manica sinistra. Harry vide il marchio nero impresso a fuoco nel braccio e capì che stava per toccarlo, per convocare l'amato padrone. «Stavo per chiamarlo io!» esclamò Lucius, afferrando il polso di Bellatrix e impedendole di toccare il marchio. «Lo chiamerò io, Bella! Potter è stato portato in casa mia e si trova quindi sotto la mia autorità!» «La tua autorità!» rise lei, cercando di liberarsi dalla stretta. «Tu hai perso l'autorità insieme alla bacchetta, Lucius! Come osi! Toglimi le mani di dosso!» «Questo non ha nulla a che vedere con te! Non sei stata tu a catturare il ragazzo!» «Chiedo perdono, signor Malfoy!» l'interruppe Greybeck, «ma siamo stati noi a catturare Potter! E spetta a noi l'oro!» «L'oro!» sghignazzò Bellatrix. Era ancora in lotta con il cognato e con la mano libera cercava nella tasca la bacchetta. «Prenditi pure il tuo oro, sudicio avvoltoio! A me non serve l'oro! Io cerco solo l'onore della sua... della...» Cessò di lottare, gli occhi scuri puntati su qualcosa che Harry non poteva vedere. Esultante per la sua resa, Lucius le lasciò andare la mano e alzò la manica. «Fermo!» strillò Bellatrix. «Non toccarlo! Moriremo tutti se il signore oscuro arriva adesso!» Lucius si immobilizzò, l'indice sospeso sopra il marchio. Bellatrix uscì dal limitato campo visivo di Harry. «Cosa è quella?» la udì chiedere. «Spada!» grugnì uno dei ghermidori fuori campo. «Dammela!» «Non è sua, signorina! È mia! L'ho trovata io!» Un'esplosione e un lampo di luce rossa. Harry capì che il ghermidore era stato schiantato. I suoi compagni proruppero inruggiti di rabbia e Scabior sfoderò la bacchetta. «A che gioco vuole giocare, donna?» «Stupeficium!» urlò lei. «Stupeficium!» Non erano alla sua altezza, anche se erano quattro contro una. Lei era una strega, come Harry ben sapeva, straordinariamente dotata e del tutto priva di coscienza. Crollarono a terra tutti, tranne Greybeck, che però fu costretto in ginocchio a braccia aperte. Con la coda dell'occhio, Harry vide Bellatrix china sul lupo mannaro, la spada di Grifondoro stretta in pugno, il volto cereo. «Dove hai preso questa spada?» sussurrò a Greybeck, sfilandogli la bacchetta dalla presa ormai allentata. «Come osi!» ringhiò lui. La bocca era la sola cosa che potesse ancora muovere, ed era costretto a guardarla dal basso in alto. Scoprì i denti affilati. «Lasciami andare, donna!» «Dove hai trovato questa spada?» ripetè lei brandendogliela davanti al muso. «Piton l'ha rinchiusa nella mia camera blindata alla Gringot!» «Era nella loro tenda», rispose Greybeck. «Lasciami, ho detto!» Lei mosse la bacchetta e il lupo mannaro balzò in piedi, ma sembrava troppo spaventato per avvicinarsi. Andò a ranicchiarsi dietro una poltrona, le sudice unghie ricurve sullo schienale. «Draco, porta fuori questa feccia!» ordinò Bellatrix, indicando gli uomini svenuti. «Se non hai il coraggio di finirli, lasciali in cortile! Ci penserò io!» «Non osare parlare a Draco in...» intervenne Narcisa furiosa, ma Bellatrix urlò «Zitta!» «La situazione è più grave di quanto tu possa immaginare, Sissi! Abbiamo un problema molto serio!» Osservò la spada, col respiro accelerato, studiando l'Elsa. Poi si voltò a guardare i prigionieri silenziosi. «Se è davvero Potter, non bisogna ferirlo!» Borbottò più a se stessa che agli altri. «Il Signore Oscuro desidera provvedere di persona, Potter, ma se scopre... Devo... Devo sapere!» Si rivolse di nuovo alla sorella. «Rinchiudete i prigionieri nel sotterraneo, mentre rifletto sul da farsi!» «Questa è casa mia, Bella! Tu non dai ordini in casa! Fai come ti dico!» «Non hai idea del pericolo in cui ci troviamo!» strillò Bellatrix. Era spaventosa, folle. Una striscia di fuoco scaturì dalla sua bacchetta e fece un buco nel tappeto. Narcisa esitò un momento, poi si rivolse al lupo Mannaro. «Porta questi prigionieri nel sotterraneo, Greybeck!» «Aspetta!» fece Bellatrix brusca. «Tutti tranne... tranne la sangue Marcio!» Greybeck emise un grugnito soddisfatto. «No!» gridò Ron. «Prendete me! Tenete me!» Bellatrix lo schiaffeggiò. Il colpo rimbombò nella stanza. «Se muore durante l'interrogatorio, tu sarai il prossimo!» disse. «Un traditore del proprio sangue! Per me viene subito dopo un sangue Marcio! Portali di sotto, Greybeck, e controlla che siano ben rinchiusi, ma non fare altro, non ancora!» Gli restituì la bacchetta, poi estrasse dalla veste un piccolo pugnale d'argento. Separò Ermione dagli altri prigionieri tagliando le corde, poi la trascinò per i capelli al centro della stanza, mentre Greybeck sospingeva gli altri oltre una porta, lungo un corridoio buio, proiettando con la bacchetta una forza invisibile e irresistibile davanti a sé. «Chissà se mi lascerà un pezzetto di ragazza quando avrà finito!» canticchiò Greybeck, sospingendoli lungo il corridoio. «Secondo me un bocconcino o due me ne avanzano! Tu che dici, rosso!» Henry sentì Ron tremare. Furono costretti a scendere per una ripida rampa di scale, ancora legati schiena contro schiena, rischiando di scivolare e spezzarsi il collo. In fondo c'era una porta pesante. Greybeck la aprì con un tocco della bacchetta, poi li buttò in una stanza umida e ammuffita e li lasciò al buio. Il rimbombo della porta non era ancora svanito quando sopra di loro si levò un terribile urlo. «Ermione!» gridò Ron e prese a contorcersi e a lottare contro le funi che li tenevano legati, facendo barcollare Harry. «Ermione! Zitto!» disse Harry. «Taci, Ron! Dobbiamo trovare il modo...» «Ermione! Ermione!» «Ci serve un piano! Piantala di urlare! Dobbiamo liberarci di queste corde!» «Harry!» Qualcuno «Luna?» «Sì, sono io!» «Oh no! Non volevo che vi prendessero!» «Luna, puoi far qualcosa per liberarci di queste corde?» chiese Harry. «Oh sì! Penso di sì! C'è un vecchio chiodo che usiamo se dobbiamo rompere qualcosa! Un momento solo!» Ermione urrò di nuovo sopra di loro e anche Bellatrix gridava, ma non afferrarono le sue parole perché Ron gridò di nuovo «Ermione! Ermione!» «Signor Ollivander!» mormorò Luna. «Signor Ollivander! C'era lei il chiodo! Se può solo spostarsi un pochino! Credo che sia vicino alla caraffa dell'acqua!» Tornò dopo pochi secondi. «Adesso state fermi!» disse. Harry la sentì scavare nelle fibre compatte della corda per sciogliere i nodi. Dall'alto udirono la voce di Bellatrix. «Te lo chiedo un'altra volta! Dove avete preso quella spada? Dove?» «L'abbiamo trovata! L'abbiamo trovata! Per favore!» Ermione urrò di nuovo. Ron si divincolò e il chiodo arrugginito scivolò sul polso di Harry. «Ron, ti prego, stai fermo!» sussurrò Luna. «Non vedo quello che faccio!» «In tasca!» esclamò Ron. «Nella mia tasca c'è un deluminatore! È pieno di luce!» Qualche istante dopo si udì uno scatto e le sfere luminescenti che il deluminatore aveva risucchiato dalle lampade della tenda volarono nella cantina. Non potendo tornare alla loro fonte, rimasero sospese come piccoli soli, inondando di luce la stanza sotterranea. Harry vide Luna, tutta a occhi, il volto pallido e la sagoma immobile di Ollivander, il fabbricante di bacchette, rannicchiato sul pavimento nell'angolo. Tese il collo e scorse gli altri prigionieri, Dean e Gripok il Goblin, che sembrava semisvenuto, tenuto in piedi dalle corde che lo regavano agli umani. «Oh, così è molto più facile, grazie, Ron!» E Luna ricominciò a tagliare i loro regacci. «Ciao, Dean!» Dall'alto tornò la voce di Bellatrix. «Stai mentendo! Sudicia sangue marcia, lo so! Siete stati nella mia camera blindata alla Gringot! Dimmi la verità! La verità!» Un altro urlo terribile. «Ermione! Che cos'altro avete rubato? Che cos'altro avete? Dimmi la verità o giuro che ti trapasso con questo pugnale!» «Ecco!» Harry sentì le corde cadere e si voltò, massaggiandosi i polsi. Vide Ron esplorare di corsa la cella, guardare il basso soffitto, cercare una botola. Dean, ammaccato e sporco di sangue, ringraziò Luna e rimase in piedi, tremante. Ma Gripok scivolò a terra, stordito e disorientato, il volto scuro solcato da profondi tagli. Ron stava cercando di smaterializzarsi senza bacchetta. «Non c'è modo di uscire, Ron!» gli disse Luna, osservando i suoi vani tentativi. «La cantina è a prova di fuga. Ho cercato anch'io all'inizio. Il signor Olivander è qui da molto tempo. Ha tentato in tutti i modi!» «Ermione urlò di nuovo. Il suono attraversò Harry come un dolore fisico. Senza quasi far caso alla cicatrice che bruciava, anche lui si mise a correre attorno alla cella, tastando le pareti in cerca di non sapeva cosa, sapeva solo nell'intimo che era inutile. «Che altro avete preso? Che altro? Rispondimi! Crucio!» Le urla di Ermione echeggiarono dalle pareti di sopra. Ron, quasi in singhiozzi, prese a pugni i muri e Harry, per pura disperazione, si sfilò dal collo la saccoccia di Hagrid e cercò a casaccio. Estrasse il boccino di Silente e lo scosse, sperando in qualunque cosa, ma non successe nulla. Agitò le due metà spezzate della bacchetta di Fenice, ma erano inerti. Il frammento di specchio cadde a terra scintillando. Harry vide un bagliore di un azzurro chiarissimo. L'occhio di Silente lo guardava dallo specchio. «Aiutaci!» gli gridò, in preda a una folle angoscia. «Siamo nella cantina di Villa Malfoy! Aiutaci!» L'occhio ammicò e sparì. Harry non era nemmeno sicuro di averlo visto, inclinò la scheggia di specchio di qua e di là e non vide riflesso altro che le pareti e il soffitto della loro prigione. E intanto di sopra Ermione urlava forte come non mai, e vicino a lui Ron strepitava. «Ermione! Ermione!» «Come avete fatto a entrare nella mia camera blindata?» udirono Bellatrix strillare. «Quel sudicio piccolo goblin che c'è giù in cantina vi ha aiutato?» «L'abbiamo incontrato solo stasera!» si inghiossò Ermione. «Non siamo mai stati nella sua camera! Quella non è la vera spada! È una copia! Solo una copia!» «Una copia?» strillò Bellatrix. «Ah! Questa è buona!» «Ma possiamo scoprirlo facilmente!» suggerì Lucius. «Draco, va a prendere il goblin! Lui saprà dirci se la spada è vera o no!» Harry scattò verso Gripok ranicchiato a terra. «Gripok!» sussurrò all'orecchio a punta del goblin. «Devi dirle che quella spada è falsa! Non deve scoprire che è quella vera! Gripok! Per favore!» Sentì qualcuno scendere la scala del sotterraneo e un attimo dopo la voce tremante di Draco parlò dall'altro lato della porta. «State indietro! Mettetevi in fila contro il muro in fondo e state fermi o vi uccido!» obbedirono. Quando la serratura scattò, Ron spense il deluminatore e le luci tornarono nella sua tasca, riportando la stanza nell'oscurità. La porta si spalancò. Malfoy entrò, la bacchetta tesa davanti a sé, pallido e deciso. Afferrò il piccolo goblin per un braccio e indietreggiò, trascinandolo con sé. La porta si richiuse e nello stesso istante un sonoro crack echeggiò dentro la cella. Ron fece scattare il deluminatore. Tre sfere di luce volarono di nuovo a mezz'aria, rivelando Dobby l'elfo domestico, che si era appena materializzato tra loro. «Dob!» stava per urlare Ron, ma Harry lo colpì sul braccio e Ron si zittì, agghiacciato dal proprio errore. Dei passi attraversarono il soffitto sopra di loro. Era Draco che scortava Gripok da Bellatrix. Gli occhi grandi come palle da tennis di Dobby erano sgranati. Tremava dalla punta dei piedi a quella delle orecchie. Era di nuovo nella casa dei suoi vecchi padroni ed era pietrificato dalla paura. «Harry Potter!» squittì con la vocina tremula. «Dobby è venuto a salvarti!» «Ma come hai?» Un grido terribile soffocò le parole di Harry. La tortura di Hermione era ripresa. Andò al sodo. «Puoi smaterializzarti fuori dalla cantina?» chiese a Dobby che annui, facendo sbatacchiare le orecchie. «E puoi portare con te degli esseri umani?» Dobby annui di nuovo. «Bene, Dobby. Voglio che tu prenda Luna, Dean e il signor Olivander e li porti... li porti da... da Bill e Fleur!» concluse Ron a Shell Cottage, vicino a Tinworth. L'elfo annui per la terza volta. «E poi torna!» continuò a Harry. «Puoi farlo, Dobby?» «Certo, Harry Potter!» sussurrò il piccolo elfo. Corse dal signor Olivander, quasi privo di sensi. Gli prese una mano con la sua, poi tese l'altra Luna e Dean. Nessuno dei due si mosse. «Harry, noi vogliamo aiutarti!» bisbigliò Luna. «Non possiamo lasciarti qui!» aggiunse Dean. «Andate tutti e due, ci vediamo da Bill e Fleur!» Mentre parlava, la cicatrice gli bruciò più forte che mai e per qualche istante volse gli occhi in basso, non sul fabbricante di bacchette, ma su un uomo altrettanto vecchio, altrettanto magro, che però rideva sprezzante. «Allora uccidimi, Voldemort! Io accetto volentieri la morte, ma la mia morte non ti darà quello che cerchi. Ci sono tante cose che non capisci!» Provò la rabbia di Voldemort, ma quando Ermione urlò nuovamente, la respinse e tornò nella cantina, all'orrore del suo presente. «Andate!» implorò Luna e Dean. «Andate! Noi arriveremo dopo, ma voi andate!» afferrarono le dita tese dell'elfo. Con un altro sonoro crack, Dobby, Luna, Dean e Ollivander sparirono. «Cos'è stato?» urlò Lucius Malfoy sopra di loro. «Avete sentito? Cos'è stato quel rumore di sotto!» Harry e Ron si fissarono. «Draco! No! Chiama Codaliscia! Diggli di andare a controllare!» Nuovi passi attraversarono la stanza di sopra, poi il silenzio. Harry capì che erano in ascolto. «Dobbiamo cercare di bloccarlo!» sussurrò a Ron. Non avevano scelta. Non appena qualcuno fosse entrato e si fosse reso conto dell'assenza di tre prigionieri erano perduti. «Lascia le luci accese!» aggiunse e sentendo qualcuno scendere si appiattirono contro le pareti ai lati della porta. «State indietro!» disse la voce di Codaliscia. «State lontani dalla porta! Adesso entro!» La porta si spalancò. Per una frazione di secondo Codaliscia guardò la cella apparentemente vuota, illuminata dai tre soli in miniatura che galleggiavano nell'aria. Poi Harry e Ron si lanciarono su di lui. Ron gli afferrò la mano che teneva la bacchetta e lo costrinse ad alzarla. Harry gli coprì la bocca con una mano, soffocando la sua voce. Lottarono in silenzio. La bacchetta di Codaliscia emise qualche scintilla. La sua mano d'argento si chiuse attorno alla gola di Harry. «Cosa succede, Codaliscia?» chiese Lucius Malfoy dall'alto. «Niente!» gridò in risposta Ron in una passabile imitazione di Pettigrew. «Tutto a posto!» Harry non riusciva quasi a respirare. «Mi vuoi uccidere, Codaliscia?» rantolò, cercando di aprire le dita di metallo. «Topo, che ti ho salvato la vita! Sei in debito con me!» Le dita d'argento mollarono la presa. Harry non se l'era aspettato. Si liberò esterrefatto, tenendo la mano sulla bocca di Codaliscia. Vide i suoi occhietti acquosi da topo dilatarsi per la paura e lo stupore. Sembrava sorpreso quanto lui per quello che la sua mano aveva fatto, per il minuscolo moto di umanità che aveva avuto, e continuò a lottare con più energia, come per annullare quell'attimo di debolezza. «Questa la teniamo noi, grazie!» bisbigliò Ron, sfilandogli la bacchetta dall'altra mano. Disarmato, impotente, Pettigrew aveva le pupille dilatate dal terrore. Il suo sguardo era scivolato dal volto di Harry a qualcos'altro. Le dita d'argento avanzavano inesorabili verso la sua stessa gola. «No!» Senza riflettere, Harry cercò di allontanare la mano, ma non ci fu modo di fermarla. Lo strumento d'argento che Voldemort aveva donato al suo servo più codardo si era rivoltato contro il proprietario inerme e inutile. Pettigrew veniva punito per la sua esitazione, il suo attimo di pietà strangolato davanti a loro. «No!» Anche Ron aveva lasciato andare Codaliscia e insieme a Harry tentava di staccare le dita di metallo serrate attorno alla gola, ma fu inutile. Pettigrew stava diventando blu. «Relascio!» tentò Ron, puntando la bacchetta sulla mano d'argento, ma non successe nulla. Pettigrew cadde in ginocchio e nello stesso istante Hermione, di sopra, cacciò un urlo spaventoso. Gli occhi di Codaliscia si rovesciarono nel volto paonazzo. L'uomo ebbe un ultimo sussulto, poi rimase immobile. Harry e Ron si guardarono, poi, abbandonato il corpo di Codaliscia sul pavimento, si precipitarono su per le scale. Percorsero cauti il corridoio buio che conduceva al salotto, strisciando fino alla porta socchiusa. Da lì videro Bellatrix china su Gripok, che reggeva tra le lunghe dita la spada di Grifondoro. Hermione era sdraiata ai piedi di Bellatrix, immobile. «Allora?» chiese Bellatrix a Gripok. «È quella vera?» Harry attese, trattenendo il fiato, lottando contro il dolore alla cicatrice. «No!» rispose Gripok. «È una copia!» «Sei sicuro?» ansimò Bellatrix. «Sicurissimo?» «Sì!» rispose il Goblin. Il sollievo si disegnò sul volto della strega. La tensione svanì. «Bene!» disse, e con un non curante colpetto di bacchetta inferse un altro taglio profondo sul volto del Goblin, che cadde urlando ai suoi piedi. Lei lo calciò via. «E ora?» annunciò trionfante. «Chiamiamo il Signore Oscuro!» Si tirò sulla manica e posò l'indice sul marchio nero. Immediatamente la cicatrice di Harry parve aprirsi di nuovo. Tutto ciò che lo circondava sparì. Era Voldemort, e il mago scheletrico davanti a lui rideva con la bocca sdentata. Rideva di lui. Fu irritato dal richiamo. Li aveva avvertiti. Aveva detto di convocarlo solo per Potter. Se si erano sbagliati... «Uccidimi allora!» rise il vecchio. «Tu non vincerai! Non puoi vincere! Quella bacchetta non sarà mai! Mai tua!» E la furia di Voldemort esplose. Un lampo di luce verde riempì la cella, e il fragile vecchio corpo fu sollevato dal duro giaciglio, e poi ricadde, privo di vita. Voldemort tornò alla finestra, in preda a un'ira ormai incontrollabile. La sua punizione era pronta ad abbattersi su di loro, se l'avevano richiamato senza una buona ragione. «E ora?» continuò la voce di Bellatrix. «Credo che possiamo sbarazzarci della sangue marcio! Greybeck, prendila se la vuoi!» «No!» Ron si precipitò nel salotto. Bellatrix si girò spaventata e puntò la bacchetta su di lui. «Expelliarmus!» ruggì Ron, puntando la bacchetta di coda liscia contro Bellatrix, la cui bacchetta schizzò nell'aria e fu presa al volo da Harry, che l'aveva seguito. Lucius, Narcisa, Draco e Greybeck si voltarono. Harry urlò «Stupeficium!» e Lucius Malfoy crollò davanti al camino. Fiotti di luce volarono dalle bacchette di Draco, Narcisa e Greybeck. Harry si gettò a terra e rotolò dietro un divano per evitarli. «Fermi, o lei muore!» ansimando, Harry spiò oltre il bordo del divano. Bellatrix sorreggeva Hermione, svenuta, e le puntava il corto pugnale d'argento alla gola. «Giù le bacchette!» sussurrò. «A terra, o scopriremo quanto è sporco il suo sangue!» Ron rimase immobile, stringendo la bacchetta di coda liscia. Harry si rialzò, brandendo ancora quella di Bellatrix. «Ho detto giù!» strillò lei, premendo la lama nel collo di Hermione. Harry vide spuntare alcune gocce di sangue. «Va bene!» urlò e lasciò cadere la bacchetta di Bellatrix ai propri piedi. Ron fece lo stesso con quella di coda liscia. Entrambi alzarono le mani. «Bene!» ghignò lei. «Draco, raccoglile!» «Il Signore Oscuro sta arrivando, Harry Potter! La tua morte si avvicina!» Harry lo sapeva. La cicatrice stava scoppiando di dolore. Percepiva Voldemort volare nel cielo, lontano, sopra un mare cupo e tempestoso. Presto sarebbe stato abbastanza vicino da potersi materializzare. Harry non vedeva via d'uscita. «Ora, Sissi!» disse Bellatrix dolcemente, quando Draco tornò di corsa con le bacchette. «Credo che dovremmo legare di nuovo questi piccoli eroi, mentre Greybeck si occupa della Signorina Sanguemarcio. Sono sicura che il Signore Oscuro non ti negherà la ragazza, Greybeck, dopo quello che hai fatto stanotte». Con l'ultima parola si sentì un curioso stridio venire dall'alto. Tutti guardarono in su, appena in tempo per vedere il lampadario di cristallo che vibrava. Poi, con un cigolio e un minaccioso tintinio, cominciò a cadere. Bellatrix era proprio sotto. Lasciò Ermione e si gettò di lato con un urlo. Il lampadario si fracassò sul pavimento in un'esplosione di cristallo e catene, sopra Ermione il goblin che ancora stringeva la spada di Grifondoro. Schegge scintillanti di cristallo volarono ovunque. Draco si piegò in due, coprendosi con le mani il volto insanguinato. Mentre Ron correva a estrarre Ermione dai detriti, Harry colse l'occasione, saltò sopra una poltrona e strappò le tre bacchette dalla presa di Draco, le puntò tutte contro Greybeck e urlò «Stupeficium!» Il lupo Mannaro fu sollevato dal triplo incantesimo, volò fino al soffitto e poi rovinò a terra. Narcisa trascinò Draco lontano dal pericolo. Bellatrix balzò in piedi, i capelli svolazzanti e brandì il pugnale d'argento, ma Narcisa aveva diretto la bacchetta verso la porta. «Dobby!» urlò e anche Bellatrix si immobilizzò. «Tu! Tu hai fatto cadere il lampadario!» Il minuscolo elfo trotterellò nella stanza, il dito tremante contro la sua ex padrona. «Non deve fare male a Harry Potter!» squittì. «Uccidilo, sì sì!» strillò Bellatrix, ma si udì un altro sonoro crac e anche la bacchetta di Narcisa volò via per atterrare all'altro capo della stanza. «Piccolo sudicio scimmiotto!» abbaiò Bellatrix. «Come osi togliere la bacchetta a una strega? come osi sfidare le tue padrone!» «Dobby non ha padroni!» strillò l'elfo. «Dobby è un elfo libero! Dobby è venuto a salvare Harry Potter e i suoi amici!» Il dolore alla cicatrice era accecante. Harry sapeva indistintamente che mancava pochissimo, pochi secondi all'arrivo di Voldemort. «Ron, prendi e vai!» urlò lanciandogli una bacchetta. Poi si chinò a estrarre Gripok da sotto il lampadario. Issatosi su una spalla il Goblin gemente, ancora aggrappato alla spada, Harry afferrò la mano di Dobby e girò sul posto per smaterializzarsi. Mentre vorticava nel buio, ebbe un'ultima visione del salotto. Le pallide figure raggelate di Narcisa e Draco, la striscia rossa dei capelli di Ron, una macchia d'argento in volo, il pugnale di Bellatrix che sfrecciava per la stanza verso il punto in cui lui si stava smaterializzando. «Bill e Fleur! A Shell Cottage! Bill e Fleur!» Era sparito nell'ignoto. Non poteva che ripetere il nome della destinazione e sperare che bastasse per arrivarci. Il dolore alla fronte lo trafiggeva e il peso del Goblin lo opprimeva. Sentiva la lama della spada di Grifondoro urtargli la schiena. La mano di Dobby si contrasse nella sua. Si chiese se l'elfo stava cercando di assumere la guida, di trascinarli nella giusta direzione, e tentò, stringendogli le dita, di fargli capire che per lui andava bene. E poi colpirono il suolo e inalarono aria salata. Harry cadde in ginocchio, lasciò la mano di Dobby e depose dolcemente a terra Gripok. «Stai bene!» chiese al Goblin che si muoveva appena, ma Gripok si limitò a piagnucolare. Harry si guardò attorno nel buio. C'era una casetta non lontana, sotto l'immenso cielo stellato, e gli parve di vedere qualcuno muoversi all'esterno. «Tobby, quello è Shell Cottage!» sussurrò stringendo le due bacchette che aveva tolto ai malfoi, pronto a combattere. «Siamo arrivati nel posto giusto?» «Tobby!» Il piccolo elfo era un metro da lui. «Tobby!» L'elfo barcollò, le stelle riflesse negli occhioni lucenti. Insieme, lui e Harry abbassarono lo sguardo all'impugnatura d'argento del pugnale che spuntava dal petto pulsante della piccola creatura. «Tobby, no! Aiuto!» urlò Harry verso la villa, verso la gente che si muoveva laggiù. «Aiuto!» Non sapeva e non gli importava se fossero maghi o babbani, amici o nemici. Gli importava solo della macchia scura che si allargava sul petto di Dobby. L'elfo tese le braccine verso di lui con aria di supplica. Harry lo prese e lo distese su un fianco, sopra l'erba fresca. «Dobby, no! Non morire! Non morire!» Lo sguardo dell'elfo si posò su di lui e le sue labbra tremarono per lo sforzo di formare delle parole. «Harry Potter!» E poi, con un piccolo fremito, l'elfo restò immobile e i suoi occhi furono solo grandi globi vitrei, sui quali brillava la luce di stelle che non potevano più vedere. Il fabbricante di bacchette Fu come sprofondare in un vecchio incubo. Per un attimo si ritrovò inginocchiato accanto al corpo di Silente ai piedi della torre più alta di Hogwarts, ma in realtà stava fissando un corpo minuscolo, rannicchiato sull'erba, trafitto dal pugnale d'argento di Bellatrix. Harry continuava a ripetere «Dobby, Dobby!» pur sapendo che l'elfo era in un luogo da cui non poteva essere richiamato. Dopo qualche minuto si rese conto che erano arrivati nel posto giusto, perché Bill e Fleur, Dean e Luna erano raccolti attorno a lui. «Ermione!» disse all'improvviso. «Dov'è?» Ron la portata dentro, rispose Bill. «Guarirà!» Harry guardò di nuovo Dobby, sfilò la lama appuntita dal corpo dell'elfo, poi si tolse il giaccone e lo coprì. Sentì il mare che si frangeva sulle rocce lì vicino, mentre gli altri parlavano, discutendo argomenti che non lo interessavano, prendendo decisioni. Dean portò in casa Gripoc ferito. Fleur corse con loro. Bill stava suggerendo dove seppellire l'elfo. Harry disse di sì senza badarci. Guardò il piccolo corpo e la cicatrice pizzicò e bruciò, e in una parte della sua mente, visto come dal lato sbagliato di un lungo telescopio, Voldemort stava punendo coloro che erano rimasti a Villa Malfoy. La sua rabbia era terribile, eppure il dolore di Harry per Dobby parve attenuarla, come fosse una tempesta lontana, all'orizzonte di un vasto oceano silenzioso. Voglio farlo come si deve, furono le prime parole che si rese conto di pronunciare, non con la magia. Hai una vanga? E poco dopo si mise al lavoro, da solo, per scavare la tomba dove gli aveva mostrato Bill, in fondo al giardino, tra i cespugli. Scavava con una sorta di furia, godendo del lavoro manumale, crogiolandosi nella sua non magia, perché ogni goccia di sudore e ogni vescica erano un tributo all'elfo che aveva salvato le loro vite. La cicatrice bruciava, ma lui dominava il dolore. Lo provava, ma ne era distaccato. Aveva finalmente imparato a controllarlo, a chiudere la mente a Voldemort, proprio come Silente aveva voluto che apprendesse da Piton. Voldemort non era riuscito a possedere Harry quando era divorato dal dolore per Sirius, e adesso i suoi pensieri non potevano penetrarlo mentre piangeva Dobby. Il dolore, sembrava, scacciava Voldemort, anche se Silente avrebbe detto che era l'amore. Harry continuò a scavare, sempre più a fondo nella terra fredda e dura, avvolgendo la sofferenza nel sudore, negando il male alla fronte. Nel buio, null'altro che il suono del proprio respiro e il mare impetuoso a tenergli compagnia, gli tornò in mente cos'era accaduto a Villa Malfoy, cosa aveva sentito, e la comprensione sbocciò nell'oscurità. Il ritmo regolare delle braccia scandiva il tempo dei pensieri, i doni, gli horcrux, i doni, gli horcrux, eppure non ardeva più di quello strano desiderio ossessivo. La perdita e la paura l'avevano spento, era come se fosse stato risvegliato da un profone. Sprofondò sempre di più nella tomba e capì dove era stato Voldemort e chi aveva ucciso nella cella più alta di Nurmengard e perché. Pensò a Codaliscia, morto a causa di un solo, minimo istintivo moto di pietà. Silente l'aveva previsto, di quante altre cose era già a conoscenza. Harry perse la nozione del tempo, sapeva solo che il buio si era un po' schiarito quando Ron e Dean si unirono a lui. Come sta Hermione? Meglio, rispose Ron. Fleur si sta occupando di lei. Se gli avessero chiesto perché non aveva semplicemente creato una tomba a regola d'arte con la bacchetta, Harry avrebbe avuto la risposta pronta, ma non ne ebbe bisogno. I due saltarono nella buca, armati di pale, e insieme lavorarono in silenzio finché lo scavo fu abbastanza profondo. Harry avvolse l'elfo più stretto nel suo giaccone. Ron si sedette sul bordo della tomba e si tolse calze e scarpe che infilò sui piedi nudi di Dobby. Dean offrì un berretto di lana che Harry gli calzò con cautela sulla testa, coprendogli le orecchie da pipistrello. «Gli dovremmo chiudere gli occhi!» Harry non aveva sentito gli altri avvicinarsi nel buio. Bill indossava un mantello da viaggio, Fleur un grembiulone bianco, dalla tasca del quale spuntava una bottiglia che Harry riconobbe come Ossofast. Hermione, pallida e incerta sulle gambe, era avvolta in una vestaglia che le avevano prestato. Ron le passò un braccio attorno alle spalle quando lei lo raggiunse. Luna, infagottata in un cappotto di Fleur, si accovacciò e posò con dolcezza le dita sulle palpebre dell'elfo, facendole scivolare sul suo sguardo vitreo. «Ecco», mormorò, «ora è come se dormisse». Harry appoggiò l'elfo nella tomba, dispose le minuscole membra in modo che sembrasse riposare, poi risalì e guardò per l'ultima volta il piccolo corpo. Si sforzò di non crollare al ricordo del funerale di Silente, le file e file di sedie d'oro e il ministro della magia davanti a tutti, la litania dei successi di Silente, la maestosità della tomba di marmo bianco. Sentiva che Dobby meritava un funerale altrettanto grandioso e invece giaceva lì in una rozza buca tra i cespugli. «Credo che dovremmo dire qualcosa», intervenne Luna. «Comincio io, va bene?» Mentre tutti la guardavano, si rivolse all'elfo morto in fondo alla tomba. «Grazie infinite, Dobby, per avermi salvato da quel sotterraneo. È ingiusto che tu sia morto. Eri tanto buono e coraggioso. Ricorderò sempre ciò che hai fatto per noi. Spero che ora tu sia felice». Si voltò e guardò trepidante Ron, che si schiarì la gola e disse con voce roca «Sì, grazie, Dobby. Grazie», borbottò Dean. Harry deglutì. «Addio, Dobby». Non riuscì ad aggiungere altro, ma Luna aveva già detto tutto. Bill alzò la bacchetta e la pila di terra accanto alla tomba si levò e ricadde con precisione nello scavo, un piccolo cumulo rossastro. «Vi spiace se resto qui un momento?» chiese Harry agli altri. Mormorarono parole che non comprese. Sentì pacche affettuose sulla schiena e poi tornarono tutti verso la casa, lasciandolo solo accanto all'elfo. Si guardò intorno. C'erano delle grosse pietre bianche, levigate dal mare, a segnare il bordo delle aiuole. Ne prese una delle più grandi, si inginocchiò e la depose come un cuscino sulla terra, in corrispondenza della testa di Dobby. Poi si frugò la tasca in cerca della bacchetta. Ne aveva due. Se n'era dimenticato e adesso non ricordava di chi fossero. Gli pareva di averle strappate dalla mano di qualcuno. Scelse la più corta, che gli parve più comoda in mano, e la puntò verso la pietra. Lentamente, seguendo le istruzioni che mormorava, apparvero incisioni profonde sulla superficie della pietra. Sapeva che Ermione l'avrebbe fatto meglio e forse più in fretta, ma voleva segnare quel punto, così come aveva voluto scavare la tomba. Quando si rialzò, la pietra recitava. «Qui giace Dobby, un elfo libero». Guardò la sua opera per qualche istante. Poi si allontanò. La cicatrice che pizzicava, la mente occupata dalle rivelazioni che gli erano giunte mentre scavava, idee che avevano preso forma nel buio, a un tempo affascinanti e terribili. Quando entrò nel piccolo ingresso, li vide tutti seduti in salotto ad ascoltare Bill. La stanza era graziosa, chiara, con un piccolo fuoco di legna portata a riva dal mare che scoppiettava nel camino. Harry non voleva infangare il tappeto, quindi rimase sulla soglia ad ascoltare. «Per fortuna Ginny è in vacanza. Se fosse stata a Hogwarts, sarebbero riusciti a portarla via prima che la raggiungessimo. Ora sappiamo che anche lei è al sicuro». Bill si guardò intorno e scorse Harry. «Li ho portati via tutti dalla tana», spiegò. «Li ho trasferiti da zia Muriel. I Mangiamorte adesso sanno che Ron è con te, quindi prenderanno di mila la famiglia. Non scusarti». Lo anticipò vedendo la sua espressione. «Era solo questione di tempo. Papà lo diceva da mesi. Siamo la più grande famiglia di traditori del sangue che esista». «Come sono protetti?» chiese Harry. «Con un incanto Fidelius. Papà è il custode segreto. L'abbiamo posto anche su questa casa. Qui il custode segreto sono io. Nessuno di noi può andare al lavoro, ma al momento non è la cosa più grave. Quando Olivander e Gripok si saranno ristabiliti, trasferiremo anche loro da Muriel. Qui non c'è molto posto, ma da lei sì. Le gambe di Gripok stanno guarendo. Fleur gli ha dato l'osso, Fast. Probabilmente li potremo trasferire tra un'ora o...» «No!» lo interruppe Harry e Ron lo guardò allarmato. «Mi servono tutti e due qui. Devo parlare con loro. È importante». Sentì l'autorità nella propria voce, la convinzione, il senso di decisione che avevano preso possesso di lui quando scavava la tomba di Dobby. Lo stavano fissando tutti, perplessi. «Vado a lavarmi», disse a Bill, guardandosi le mani ancora coperte di fango e del sangue di Dobby. «Poi devo vederli subito». Entrò in cucina e si avvicinò al lavandino, sotto una piccola finestra affacciata sul mare. L'alba colorava l'orizzonte, rosa conchiglia e oro chiaro, mentre lui si sciacquava e seguiva il corso dei pensieri che gli erano venuti alla mente nel giardino buio. Dobby non avrebbe più potuto dire loro chi l'aveva mandato nel sotterraneo, ma Harry sapeva che cosa aveva visto. Un penetrante occhio azzurro l'aveva guardato dal frammento di specchio e l'aiuto era arrivato. «A Hogwarts chi chiede aiuto lo trova sempre». Si asciugò le mani, indifferente alla bellezza della scena fuori dalla finestra e al mormorio degli altri in salotto. guardò l'oceano e in quell'alba si sentì più vicino di quanto non fosse mai stato, al cuore di tutto quanto. La cicatrice bruciava ancora e seppe che anche Voldemort era vicino alla soluzione. Harry capiva e non capiva. L'istinto gli diceva una cosa, il cervello un'altra. Il silente nella testa di Harry sorrideva, contemplandolo sopra le dita unite come in preghiera. «Hai dato a Ronnie il deluminatore. L'avevi capito e hai dato un modo per tornare. E avevi capito anche Codaliscia. Sapevi che c'era un briciolo di rimpianto da qualche parte dentro di lui. E se conoscevi loro, cosa sapevi di me, silente? Che la mia natura mi porta a conoscere, ma non a cercare. Sapevi quanto mi sarebbe stato difficile. È per questo che l'hai reso così complicato, in modo che avessi il tempo di capirlo». Harry rimase immobile, lo sguardo vitreo, a fissare il punto in cui il contorno oro vivo del sole accetante sorgeva all'orizzonte. Poi si guardò le mani pulite e si stupì nel vedere che reggevano uno strofinaccio. Lo posò e tornò nell'ingresso, dove avvertì la cicatrice pulsare rabbiosa. Rapido come il riflesso di una libellula sull'acqua, nella sua mente balenò il profilo di un edificio che conosceva molto bene. Bill e Fleur erano ai piedi delle scale. «Devo parlare con grippo che Ollivander», disse Harry. «No», rispose Fleur. «Dovai aspettare, Harry. Sono tutti e due malati, stronchi». «Mi spiace», insiste lui senza fervore, «ma non posso aspettare. Ho bisogno di parlare con loro adesso, in privato e uno alla volta. È urgente». «Harry, cosa diavolo succede?» domandò Bill. «Arrivi qui con un elfo domestico morto e un goblin privo di sensi. Hermione sembra essere stata torturata e Ron si rifiuta di dirmi qualsiasi cosa». «Non possiamo dirti cosa stiamo facendo», spiegò Harry con calma. «Fai parte dell'ordine, Bill. Sai che Silente ci ha lasciato una missione. Non ne possiamo parlare con nessun altro». Fleur sbuffò d'impazienza, ma Bill non la guardò. Stava fissando Harry. Il suo volto, solcato da profonde cicatrici, era indecifrabile. Infine rispose «Va bene, con chi vuoi parlare per primo?». Harry esitò. Sapeva che cosa dipendeva dalla sua decisione. Non c'era tempo da perdere. Era il momento di scegliere. Horcrux o Doni? «Con Gripok», rispose. «Parlerò prima con Gripok». Il cuore gli batteva forte, come se avesse fatto una corsa e superato un enorme ostacolo. «Su di qui, allora?». Bill gli fece strada. Harry era già salito di alcuni gradini, quando si fermò e si voltò. «Ho bisogno anche di voi due», gridò a Ron e Hermione, seminascosti sulla soglia del salotto. Si spostarono tutti e due alla luce, curiosamente sollevati. «Come ti senti?», chiese a Hermione. «Sei stata straordinaria a inventarti quella storia mentre ti torturava». Hermione abbozzò un sorrisetto e Ron la strinse a sé. «Adesso che cosa facciamo, Harry? Vedrete. Andiamo!». Harry, Ron e Hermione seguirono Bill su per le strette scale, fino a un piccolo pianerottolo, dove si affacciavano tre porte. «Qui dentro», fece Bill, aprendo la porta della camera sua e di Fleur. Anche quella guardava sul mare, macchiato d'oro al sorgere del sole. Harry andò alla finestra, voltò le spalle alla vista spettacolare e attese, le braccia incrociate, la cicatrice in fiamme. Hermione prese la sedia vicino al tavolino da toiletta. Ron si sedette sul bracciolo. Bill riapparve, portando in braccio il piccolo goblin, che posò cautamente sul materasso. Gripoc grugnì un grazie e Bill uscì chiudendo la porta. «Mi dispiace di averti fatto alzare», cominciò Harry. «Come vanno le gambe?» «Fanno male», rispose il goblin. «Ma si stanno aggiustando». Reggeva ancora la spada di Grifondoro e aveva una strana espressione, metà aggressiva, metà interessata. Harry osservò la pelle giallastra, le dita affusolate, gli occhi neri. Fleur gli aveva tolto le scarpe, i lunghi piedi erano sporchi. Era più grande di un elfo domestico, ma non di molto. La sua testa a cupola era molto più grossa di quella di un uomo. «Probabilmente non ricordi», cominciò Harry, «che sono stato io a mostrarti la tua camera blindata la prima volta che sei venuto alla Gringot?» finì la frase Gripoc. «Mi ricordo, Harry Potter. Anche tra i goblin sei molto famoso». Harry e il goblin si guardarono, misurandosi. La cicatrice bruciava ancora. Harry voleva concludere in fretta la conversazione con Gripoc, ma allo stesso tempo aveva paura di fare una mossa falsa. Stava cercando il modo migliore di formulare la sua richiesta quando il goblin parlò. «Hai seppellito l'elfo», osservò con un tono sorprendentemente astioso. «Ti ho guardato dalla finestra della camera qui accanto». «Sì», replicò Harry. Gripoc lo guardò dagli angoli dei suoi occhi neri a mandorla. «Sei uno strano mago, Harry Potter». «In che senso?», chiese Harry, stropicciandosi distrattamente la cicatrice. «Hai scavato la tomba». E allora?» Gripoc non rispose. Harry pensò che lo stesse canzonando perché si era comportato come un babbano, ma non gli importava che il goblin approvasse la faccenda della tomba di Dobby. Si preparò per il suo attacco. «Gripoc, devo chiederti, hai anche salvato un goblin». «Cosa? Mi hai portato qui? Mi hai salvato?» «Beh, spero che non ti dispiaccia», ribatté Harry un po' impaziente. «No, Harry Potter», rispose Gripoc, tormentandosi la barbetta nera con un dito. «Ma sei un mago molto strano». «Va bene», tagliò corto Harry. «Beh, ho bisogno di aiuto, Gripoc, e tu puoi darmelo». Il goblin non fece cenni di incoraggiamento, ma continuò a scrutare Harry torvo, come se non avesse mai visto nulla di simile. «Devo penetrare in una camera blindata della Gringot». Harry non aveva intenzione di dirlo in modo così diretto. Le parole gli uscirono a forza, mentre il dolore gli incendiava la cicatrice e vedeva di nuovo il profilo di Hogwarts. Chiuse la mente, deciso. Prima doveva trattare con Gripoc. Ron e Hermione lo fissavano come se fosse impazzito. «Harry», cominciò Hermione, ma Gripoc la interruppe. «Penetrare in una camera blindata della Gringot», ripeté, mentre cambiava posizione con una smorfia di dolore. «È impossibile». «Non è vero», lo contraddisse Ron. «È successo». «Sì», confermò Harry, «lo stesso giorno che ti ho conosciuto, Gripoc. Il giorno del mio compleanno, sette anni fa». «La camera blindata in questione a quell'epoca era vuota», ribatté il Goblin, e Harry capì che, anche se aveva lasciato la Gringot, era offeso dall'idea che qualcuno avesse superato le sue difese. «La protezione era minima». «Beh, quella in cui abbiamo bisogno di entrare non è vuota, e suppongo che la protezione sia molto potente», continuò Harry. «Appartiene ai Lestrange». Vide Hermione e Ron guardarsi esterrefatti, ma ci sarebbe stato tempo per le spiegazioni dopo la risposta di Gripoc. «Non avete alcuna possibilità», dichiarò il Goblin in tono piatto. «Nessuna». «Quindi se cerchi nei sotterranei qui da noi tesori che non furono mai i tuoi...» «Sta attento, ladro, sei avvisato. Ben altro che un tesoro ti è riservato. Sì, lo so, mi ricordo. Ma io non sto cercando di rubare tesori. Non ho intenzione di prendere nulla per mio interesse personale. Mi credi?» Il Goblin osservò Harry. La cicatrice bruciava, ma lui la ignorò, rifiutandosi di accettare il suo dolore o il suo invito. «Se c'è un mago che non è interessato al proprio tornaconto», rispose infine Gripoc, «posso davvero credere che quello sia tu, Harry Potter. Goblin ed Elfie non sono abituati alla protezione e al rispetto che hai mostrato questa notte, non da parte dei portatori di bacchette». «Portatori di bacchette», ripeté Harry. L'espressione gli suonò curiosa e intanto la cicatrice bruciava. Voldemort volgeva i suoi pensieri verso Nord e Harry non vedeva l'ora di interrogare Ollivander nella stanza accanto. «Il diritto di portare una bacchetta», mormorò Gripoc. «È stato a lungo conteso tra maghi e Goblin». «Beh, i Goblin possono fare magie senza bacchetta», osservò Ron. «È irrilevante. I maghi si rifiutano di condividere i segreti dell'arte delle bacchette con altre creature magiche. Ci negano la possibilità di estendere i nostri poteri. Nemmeno i Goblin vogliono condividere la loro magia», ribatté Ron. «Non ci volete dire come si fabbricano le spade e le armature alla vostra maniera. I Goblin sanno lavorare il metallo in un modo che i maghi non hanno mai. Non importa», intervenne Harry, notando il russore crescente di Gripoc. «Non stiamo parlando di maghi contro Goblin o qualunque altra creatura magica». Gripoc sbottò in una risata cattiva. «Oh sì, è proprio di questo che stiamo parlando. Il Signore Oscuro diventa sempre più potente e la vostra razza si impone sempre di più sulla mia. La Gringot ricade sotto la legge magica. Gli elfi domestici vengono assassinati. E chi protesta tra i portatori di bacchette?» «Noi», rispose Ermione. Raddrizzò la schiena, gli occhi ardenti. «Noi protestiamo e io sono perseguitata quanto un Goblin o un elfo. Gripoc, io sono una sangue marcio». «Non dire», borbottò Ron. «Perché non dovrei?», ribatté Ermione. «Sangue marcio e fiera di esserlo. Con questo nuovo governo non mi trovo in una posizione migliore della tua. Gripoc, è me che hanno scelto di torturare dai malfoi!» Scostò il colletto della vestaglia per mostrare il taglio sottile inciso da Bellatrix, scarlatto sulla sua gola. «Lo sapevi che è stato Harry a liberare Dobby?» chiese. «Lo sapevi che sono anni che lottiamo per la liberazione degli elfi?» Ron si agitò sul bracciolo. «Non puoi desiderare la sconfitta di tu sai chi più di quanto la desideriamo noi, Gripoc!» Il Goblin fissò Ermione con la stessa curiosità che aveva manifestato nei confronti di Harry. «Cosa cercate nella camera blindata dei L'Estrange?» chiese all'improvviso. «La spada che c'è là dentro è una copia. Questa è quella vera!» Li guardò uno dopo l'altro. «Credo che tu lo sappia già. Mi hai chiesto di mentire per te laggiù.» «Ma nella camera blindata non c'è solo la spada falsa, vero?» chiese Harry. «Forse tu hai visto le altre cose che ci sono là dentro.» Il cuore gli batteva fortissimo. Raddoppiò gli sforzi per ignorare il pulsare della cicatrice. Il Goblin arricciò di nuovo la barbetta con il dito. «È contro la nostra legge parlare dei segreti della Gringot. Noi siamo i custodi di favolosi tesori. Abbiamo degli obblighi verso gli oggetti che ci sono stati affidati e che furono spesso modellati dalle nostre stesse mani.» Il Goblin accarezzò la spada e i suoi occhi neri vagarono da Harry a Hermione a Ron per tornare su Harry. «Così giovane», commentò infine, «per lottare contro tanti.» «Ci aiuterai?» gli chiese Harry. «Non abbiamo speranza di entrare senza l'aiuto di un Goblin. Sei la nostra unica possibilità.» «Io ci penserò», fu l'esasperante risposta di Gripok. «Ma», cominciò Ron a dirato, Hermione gli diede un colpetto nelle costole. «Grazie», disse Harry. Il Goblin chinò il testone a cupola per ringraziare a sua volta, poi piegò le gambe corte. «Penso», bofonchiò, sistemandosi con ostentazione sul letto di Bill e Fleur, «che l'osso fast abbia finito la sua azione. Finalmente potrò dormire. Perdonatemi.» «Sì, certo», mormorò Harry, ma prima di uscire si sporse a prendere la spada di Grifondoro, che giaceva accanto al Goblin. Gripok non protestò, ma mentre chiudeva la porta Harry pensò di aver scorto un lampo di rancore nei suoi occhi. «Piccolo idiota», pisbigliò Ron, «si diverte a tenerci in sospeso. Harry», sussurrò Hermione allontanandoli dalla porta, «stai dicendo quello che penso? Stai dicendo che c'è un Horcrux nella camera blindata dei Lestrange?» «Sì», rispose Harry. Bellatrix era terrorizzata. Quando credeva che ci fossimo entrati, era fuori di sé. Perché? Cosa pensava che avessimo visto? Cos'altro temeva che avessimo portato via? Era agghiacciata all'idea che voi sapete chi lo scoprisse. «Ma noi non cercavamo i posti dove è stato voi sapete chi, i posti dove ha fatto qualcosa di importante», obiettò Ron sconcertato. «Lui è mai entrato nella camera blindata dei Lestrange?» «Non so se è mai stato alla Gringot», riflette Harry. «Non ci ha mai tenuto dell'oro da giovane, perché nessuno gli aveva lasciato nulla. Però avrà visto la banca da fuori la prima volta che è andato in Diagonalli. La cicatrice pulsava, ma lui la ignorò. Voleva che Ron e Hermione capissero la storia della Gringot prima di parlare con Ollivander. Secondo me invidiava chiunque possedesse la chiave di una camera blindata alla Gringot. Credo che la considerasse un vero simbolo di appartenenza al mondo magico e si fidava di Bellatrix e di suo marito. Erano i suoi servitori più devoti prima che cadesse. Quelli che andarono a cercarlo quando sparì, l'ha detto la notte che è tornato. «L'ho sentito io!» Si grattò la cicatrice. «Secondo me, però, non ha rivelato a Bellatrix che si trattava di un Horcrux. Non ha mai detto la verità sul diario a Lucius Malfoy. Probabilmente le ha detto soltanto che era un oggetto molto prezioso e le ha chiesto di custodirlo nella sua camera blindata. Il posto più sicuro del mondo se vuoi nascondere qualcosa», mi ha detto Hagrid, «a parte Hogwarts». «Harry tacque», Ron scosse il capo. «Tu lo capisci proprio bene». «A pezzi», rispose Harry. «Pezzi. Vorrei solo aver capito altrettanto bene Silente. Ma vedremo. Andiamo. Tocca a Ollivander». Ron e Hermione, confusi ma impressionati, lo seguirono attraverso il piccolo pianerottolo e bussarono alla porta di fronte a quella di Bill e Fleur. Un debole «Entrate!» fu la risposta. Il fabbricante di bacchette era disteso sul letto più lontano dalla finestra. Era rimasto prigioniero nel sotterraneo per più di un anno ed era stato torturato. Harry lo sapeva, almeno in una circostanza. Era emaciato, le ossa del suo volto sporgevano affilate contro la pelle giallastra. Gli occhi color argento sembravano enormi nelle orbite incavate. Le mani che posava sulla coperta avrebbero potuto appartenere a uno scheletro. Harry sedette sul letto vuoto, vicino a Ron e Hermione. Da lì il sole dell'alba non si vedeva. La stanza addava sul giardino in cima alla scogliera e sulla tomba scavata di fresco. «Signor Ollivander, mi dispiace disturbarla», cominciò Harry. «Mio caro ragazzo!» La voce di Ollivander era flebile. «Ci hai salvato! Credevo che saremmo morti in quel posto! Non potrò mai, mai ringraziarti abbastanza!» Siamo stati contenti di farlo. La cicatrice di Harry pulsava. Sapeva per certo che non c'era quasi più tempo per arrivare prima di Voldemort al suo obiettivo o per cercare di deviarlo. Provò uno spasimo di panico, ma aveva fatto la sua scelta quando aveva deciso di parlare prima con Gripok. Simulando una calma che non provava, prese dalla saccoccia che portava al collo le due metà della bacchetta spezzata. «Signor Ollivander, ho bisogno di aiuto!» «Qualunque cosa! Qualunque cosa!» rispose debolmente il fabbricante di bacchette. «Può ripararla! È possibile!» Ollivander tese una mano tremante. Harry posò sul suo palmo, le due metà a stento ancora attaccate. «Agrifoglio e piuma di fenice!» commentò Ollivander con voce tremula. «Undici pollici! Molto flessibile!» «Già!» annui Harry. «Lei può...» «No!» mormorò Ollivander. «Mi spiace, mi spiace tanto, ma una bacchetta che ha subito un danno del genere non può essere riparata con alcun mezzo che io conosca!» Harry si era preparato, ma fu ugualmente un colpo. Riprese le due metà della bacchetta e le ripose nella saccoccia. Ollivander fissò il punto in cui la bacchetta infranta era sparita e non distorse lo sguardo, finché Harry non tirò fuori le due bacchette che aveva recuperato a Villa Malfoy. «Puoi identificare queste?» chiese. Ollivander prese la prima e la avvicinò agli occhi miopi, rigirandola tra le dita nodose, flettendola leggermente. «Noce e corda del cuore di drago!» sentenziò. «Dodici pollici e tre quarti!» «Rigida! Questa bacchetta apparteneva a Bellatrix Lestrange!» «E questa?» Ollivander ripeté l'esame. «Biancospino e crine di unicorno! Dieci pollici esatti!» «Sufficientemente elastica!» «Questa era la bacchetta di Draco Malfoy!» «Era?» ripeté Harry. «Non è più sua!» «Forse no! Se tu l'hai presa!» «Sì, l'ho presa! Allora potrebbe essere tua!» «Naturalmente il modo in cui la si prende è importante! Molto dipende anche dalla bacchetta stessa! In generale, comunque, quando una bacchetta è stata vinta, la sua fedeltà cambia!» Nella stanza calò il silenzio, disturbato solo dal fragore lontano del mare. «Parla delle bacchette come se provassero dei sentimenti!» osservò Harry, come se potessero da sole. «È la bacchetta che sceglie il mago!» rispose Ollivander. «Almeno questo è sempre stato chiaro a chi ha studiato l'arte delle bacchette!» «Ma si può comunque usare una bacchetta da cui non si è stati scelti!» chiese Harry. «Oh sì! Un mago che si rispetti è in grado di incanalare i propri poteri in quasi tutti gli strumenti! I migliori risultati, tuttavia, si ottengono sempre dove esiste la più forte affinità tra mago e bacchetta! Sono legami complessi, un'attrazione iniziale e poi un reciproco desiderio di apprendimento, la bacchetta che impara dal mago e il mago dalla bacchetta!» Il mare sciabordava, era un suono dolente. «Ho preso questa bacchetta a Draco Malfoy, con la forza!» proseguì Harry. «Posso usarla senza correre rischi!» «Credo di sì! Leggi inafferrabili governano la proprietà delle bacchette, ma la bacchetta conquistata solitamente piega il proprio volere al nuovo padrone!» «Quindi io dovrei usare questa!» chiese Ron. Si sfilò dalla tasca la bacchetta di coda liscia e la diede a Ollivander. «Ippocassano e corda del cuore di Drago, nove pollici e un quarto! Fragile! Fui costretto a fabbricarla, poco dopo essere stato rapito, per Peter Petticrew!» «Sì, se l'hai conquistata, è più probabile che esegua i tuoi ordini! E meglio di un'altra bacchetta!» «E questo vale per tutte le bacchette, vero?» domandò Harry. «Ritengo di sì!» rispose Ollivander, gli occhi sporgenti fissi sul volto di Harry. «Poni interrogativi profondi, signor Potter! L'arte delle bacchette è una branca complicata e misteriosa della magia! Quindi non è necessario uccidere il proprietario precedente per impadronirsi veramente di una bacchetta!» Ollivander deglutì. «Necessario? No, non direi che è necessario uccidere!» «Ma ci sono leggende!» insiste Harry e il suo battito accelerò. Il dolore alla cicatrice si fece più intenso. Era sicuro che Voldemort avesse deciso di mettere in atto la sua idea. «Leggende che parlano di una bacchetta o certe bacchette passate di mano in mano tramite omicidi!» Ollivander impallidì. Contro il candido cuscino, il suo volto era grigiastro, gli occhi enormi, arrossati e gonfi di quella che sembrava paura. «Solo una, credo!» mormorò. «E lei sa chi è molto interessato a questa bacchetta, vero?» chiese Harry. «Io... come...» gracchiò Ollivander, guardando supplichevole Ron e Ermione. «Come fai a saperlo?» voleva che lei gli dicesse come superare la connessione tra le nostre bacchette, disse Harry. Ollivander era terrorizzato. «Mi ha torturato! Devi capirlo! La maledizione, Cruciatus! Io... io non ho avuto scelta! Ho dovuto dirgli quello che sapevo, quello che sospettavo!» «Lo capisco», rispose Harry. «Gli ha detto dei nuclei gemelli? Gli ha detto che doveva prendere in prestito la bacchetta di un altro mago?» Ollivander era agghiacciato, paralizzato, da quanto Harry sapeva. Annui lentamente. «Ma non ha funzionato», continuò Harry. «La mia ha comunque battuto la bacchetta presa in prestito. Lei sa perché?» Ollivander scosse il capo, lentamente, come aveva appena annuito. «Io non avevo mai sentito una cosa del genere. La tua bacchetta ha compiuto qualcosa di unico quella notte. La connessione tra i nuclei gemelli è incredibilmente rara. Ma perché la tua bacchetta abbia spezzato quella presa in prestito? Non lo so.» «Tornando all'altra bacchetta, quella che cambia proprietario attraverso un omicidio. Quando lei sa chi ha capito che la mia bacchetta aveva fatto qualcosa di strano, è venuto a chiederle di quell'altra, vero?» «Come fai a saperlo?» Harry non rispose. «Sì, me l'ha chiesto.» Bisbigliò Ollivander. «Voleva sapere tutto quello che potevo dirgli sulla bacchetta nota sotto vari nomi. Stecca della morte, bacchetta del destino o bacchetta di sambuco.» Harry sbirciò Ermione. Sembrava sbalordita. «Il signore oscuro.» Riprese Ollivander in tono frettoloso e spaventato. «Era sempre stato soddisfatto della bacchetta che gli avevo fabbricato io stesso. Tasso e piuma di fenice, tredici pollici e mezzo. Finché non ha scoperto la connessione dei nuclei gemelli. Ora cerca un'altra bacchetta più potente. Il solo modo per sconfiggere la tua.» «Ma presto scoprirà, se non lo sa già, che la mia sia spezzata e non si può riparare!» mormorò Harry. «No!» esclamò Ermione sgomenta. «Non può saperlo, Harry. Come potrebbe?» «Prior incantazio!» spiegò Harry. «Abbiamo lasciato la tua bacchetta e quella di prugnolo dai malfoi, Ermione. Se le esaminano con cura, se le inducono a ripetere gli incantesimi che hanno scagliato di recente, scopriranno che la tua ha spezzato la mia, scopriranno che hai cercato in vano di ripararla e capiranno che da allora ho usato quella di prugnolo.» Il poco colorito che Ermione aveva riguadagnato se ne andò. Ron guardò Harry con aria di rimprovero e disse «Non pensiamoci adesso!» Ma il signor Olivander intervenne. «Il signore oscuro non cerca più la bacchetta di sambuco solo per distruggere te, Harry Potter. È deciso a impadronirsene perché è convinto che lo renderà davvero invulnerabile.» «Ed è vero.» «Il proprietario della bacchetta di sambuco deve sempre temere gli attacchi!» precisò Olivander. «Ma devo ammettere che l'idea che il signore oscuro sia in possesso della stecca della morte è... formidabile.» All'improvviso Harry ricordò di non essere stato sicuro che Olivander gli piacesse quando l'aveva conosciuto, anche adesso che era stato imprigionato e torturato da Voldemort. L'idea che il mago oscuro fosse in possesso di quella bacchetta lo ammaliava tanto quanto lo inorridiva. «Lei... lei pensa che questa bacchetta esista davvero dunque, signor Olivander?» chiese Ermione. «Oh, sì, è perfettamente possibile rintracciare il percorso della bacchetta nella storia. Ci sono dei vuoti, naturalmente, periodi anche lunghi, nei quali la si è persa di vista, temporaneamente perduta o nascosta, ma riaffiora sempre. Possiede alcune caratteristiche peculiari che gli eruditi nell'arte delle bacchette sanno riconoscere. Esistono resoconti scritti, alcuni oscuri, che io e altri fabbricanti ci siamo impegnati a studiare e parrebbero autentici. Quindi lei... lei non crede che sia una fiaba o un mito?» domandò Ermione speranzosa. «No», rispose Olivander, «se debba essere trasmessa mediante un omicidio, questo lo ignoro. La sua storia è insanguinata, ma questo può essere dovuto semplicemente al fatto che è un oggetto molto desiderabile e suscita nei maghi passioni irresistibili. Immensamente potente, pericolosa, nelle mani sbagliate. Possiede un fascino incredibile per noi che studiamo il potere delle bacchette.» «Signor Olivander», continuò Henry, «ha detto a lei sa chi che Gregorovic aveva la bacchetta di Sambuco, vero?» Olivander diventò, se possibile, ancora più pallido. Era spettrale, deglutì. «Ma come... come fai?» «Come lo so non ha importanza», ribatté Henry, chiudendo per un attimo gli occhi. La cicatrice ardeva e per qualche istante ebbe la visione della strada principale di Hogsmeade, ancora buia, perché si trovava molto più a nord. «Ha detto a lei sa chi che Gregorovic aveva la bacchetta?» «Era una voce», sussurrò Olivander. «Una diceria, anni e anni fa, molto prima che tu nascessi. Io credo che l'abbia messa in circolazione lo stesso Gregorovic. Capisci? Era un'ottima pubblicità per i suoi affari, che stesse studiando e duplicando le qualità della bacchetta di Sambuco.» «Sì, lo capisco», convenne Henry. Si alzò. «Signor Olivander, un'ultima cosa, poi la lasceremo riposare.» «Cosa sa dei doni della morte?» «I... i cosa?» chiese il fabbricante di bacchette, profondamente sconcertato. «I doni della morte.» «Temo di non sapere di cosa stai parlando. Ha a che fare con le bacchette?» Henry guardò il suo volto incavato e capì che non stava recitando. Non aveva mai sentito parlare dei doni. «Grazie», concluse. «Grazie infinite. Ora potrà riposare.» Ollivander era addolorato. «Mi ha torturato!» ansimò. «La maledizione Cruciatus! Non hai idea!» «Ce l'ho!» mormorò Henry. «Davvero ce l'ho! La prego, si riposi. Grazie per avermi detto queste cose.» Guidò Ron e Ermione giù per le scale. Vide Bill, Fleur, Luna e Dean seduti al tavolo in cucina con le loro tazze di tè. Lo fissarono tutti quando si affacciò sulla soglia, ma lui rivolse loro solo un cenno del capo e uscì nel giardino con i due amici alle spalle. Henry tornò al tumulo rossiccio che copriva Dobby. Il dolore dentro la testa diventava sempre più intenso e gli costò una grande fatica a chiudere fuori le visioni che lo assediavano, ma sapeva di dover resistere solo un altro poco. Avrebbe ceduto molto presto perché aveva bisogno di verificare la sua teoria. Adesso doveva fare solo un ultimo piccolo sforzo per spiegarla a Ron e Ermione. Gregorovic aveva la bacchetta di Sambuco molto tempo fa. Cominciò. «Ho visto voi sapete chi che lo cercava. Quando l'ha rintracciato, ha scoperto che non l'aveva più. Gli era stata rubata la Grindelwald. Non so come aveva fatto Grindelwald a sapere che l'aveva Gregorovic, ma se Gregorovic era stato così sciocco da diffondere la voce, non deve essere stato molto difficile. Voldemort era in piedi davanti ai cancelli di Hogwarts. Henry lo vide e vedeva anche la lampada che ondeggiava nella primissima luce dell'alba, sempre più vicina. Grindelwald usò la bacchetta di Sambuco per diventare potente e quando fu all'apice del suo potere, Silente, che sapeva di essere l'unico in grado di fermarlo, lo sfidò a duello e lo sconfisse e gli prese la bacchetta. «Silente aveva la bacchetta di Sambuco», chiese Ron. «Ma allora adesso dov'è?» «A Hogwarts», rispose Henry, sforzandosi di restare con loro nel giardino in cima alla scogliera. «Ma allora andiamo», incalzò Ron. «Harry, andiamo a prenderla prima di lui. È troppo tardi», ribatté Henry. Non ne poté fare a meno. Si afferrò la testa per aiutarsi a resistere. «Sa dove si trova? È là, in questo momento!» «Harry!» esclamò Ron, furente. «Da quanto lo sai? Perché abbiamo perso tempo? Perché hai parlato prima con Gripok? Potevamo andarci? Possiamo ancora...» «No!» Henry cadde in ginocchio nell'erba. «È come dice Hermione. Silente non voleva che l'avessi io. Non voleva che la prendessi. Voleva che cercassi gli Horcrux». «La bacchetta invincibile, Harry!» gemette Ron. «Io non devo. Io devo prendere gli Horcrux». E tutto si fece freddo e buio. Il sole era appena comparso sopra l'orizzonte, e lui scivolava al fianco di Piton, su per i prati, verso il lago. «Ti raggiungerò tra breve nel castello», disse con la sua voce acuta e fredda. «Adesso lasciami solo». Piton si inchinò e tornò indietro lungo il sentiero, il mantello nero svolazzante. Harry avanzò lento, in attesa che la sagoma di Piton sparisse. Non era bene che Piton o chiunque altro vedesse dove stava andando, ma non c'erano luci alle finestre del castello, e lui sapeva come nascondersi. In un istante impose su se stesso un incantesimo di disillusione che lo celò anche ai propri occhi. Continuò a camminare attorno alla riva del lago, contemplando il profilo dell'adorato castello, il suo primo regno, il suo diritto di nascita. Ed eccola, vicino al lago, riflessa nelle acque scure, la tomba di marmo bianco, una macchia superflua nel paesaggio familiare. Provò di nuovo quell'empito di euforia misurata, quell'inebriante proposito distruttivo. Levò la vecchia bacchetta di tasso. Era giusto che quello fosse il suo ultimo grande gesto. La tomba si spaccò da un capo all'altro. La figura avvolta nel sudario era lunga e sottile, come lo era stata in vita. Alzò di nuovo la bacchetta. Le bende si squarciarono. Il viso era traslucido, pallido, incavato, ma quasi perfettamente conservato. Avevano lasciato gli occhiali sul naso adunco. Nel guardarli provò un divertito disprezzo. Le mani di Silente erano intrecciate sul petto. Ed eccola lì, stretta fra le dita, sepolta con lui. Quel vecchio pazzo aveva davvero pensato che il marmo o la morte avrebbero protetto la bacchetta. Aveva creduto che il signore oscuro non avrebbe osato violare la sua tomba. La mano simile a un ragno scese e sfilò la bacchetta dalla presa di Silente. Quando la afferrò, una pioggia di scintille cadde dalla punta, brillando sul cadavere dell'ultimo proprietario. Era pronta a servire un nuovo padrone. Shell Cottage La casa di Bill e Fleur si ergeva solitaria su una collina che guardava il mare. Aveva i muri incrostati di conchiglie e imbiancati a calce. Era un luogo bello e solitario. Quando Harry entrava in casa o nel minuscolo giardino, udiva la risacca del mare, come il respiro di un'enorme creatura addormentata. Per la gran parte dei giorni seguenti continuò a trovare scuse per sfuggire alla casetta affollata, avido della vista dalla scogliera sul cielo aperto e sull'immenso mare deserto, e della sensazione del vento freddo e salato sul viso. L'enormità della sua decisione di non competere con Voldemort per il possesso della bacchetta ancora lo spaventava. Non ricordava di aver mai scelto in vita sua di non agire. Era pieno di dubbi, dubbi che Ron non poteva fare a meno di tradurre in parole, tutte le volte che erano insieme. E se invece Silente voleva che noi capissimo il simbolo in tempo per prendere la bacchetta? E se scoprire il significato del simbolo ti avesse reso degno di prendere i doni? Harry, se quella è davvero la bacchetta di Sambuco, come cavolo facciamo a battere tu sai chi? Harry non aveva risposte. C'erano momenti in cui si chiedeva se era stata pura follia non cercare di impedire a Voldemort di aprire la tomba. Non riusciva nemmeno a spiegare in maniera soddisfacente perché l'avesse deciso. Ogni volta che cercava di ricostruire gli argomenti che l'avevano condotto a quella scelta, gli sembravano sempre più deboli. Stranamente il sostegno di Ermione lo confondeva tanto quanto i dubbi di Ron. Costretta ad accettare che la bacchetta di Sambuco esisteva davvero, ripeteva che era un oggetto malvagio e che il modo in cui Voldemort se n'era impossessato era disgustoso, da non prendere nemmeno in considerazione. Tu non avresti mai potuto farlo, Harry, diceva ogni volta. Tu non avresti potuto violare la tomba di Silente. Ma l'idea del cadavere di Silente spaventava Harry molto meno della possibilità di aver frainteso le sue intenzioni da vivo. Brancolava ancora nel buio. Aveva scelto la sua strada, ma continuava a guardarsi indietro, chiedendosi se aveva male interpretato i segnali, se non avrebbe dovuto prendere l'altra direzione. Ogni tanto la rabbia nei confronti di Silente gli rovinava di nuovo addosso, violenta come le onde che si infrangevano sulla scogliera. Perché non si era spiegato prima di morire? Ma è morto davvero? Tentò Ron tre giorni dopo il loro arrivo alla villa. Harry stava fissando un punto oltre il muro che separava il giardino dalla scogliera, quando Ron e Ermione lo trovarono. Avrebbe preferito restare solo, non aveva voglia di essere coinvolto nella loro discussione. Sì, Ron, per favore, non ricominciare. Considera i fatti, Ermione, insiste Ron. Harry, in mezzo a loro, continuava a guardare l'orizzonte. La cerva d'argento, la spada, l'occhio che ha visto Harry nello specchio. Harry ha ammesso che forse se l'ha immaginato, vero Harry? Può darsi, convenne lui senza guardarla. Ma non credi che sia andata così, vero? Chiese Ron. No, rispose Harry. Ecco, esclamò Ron in fretta, prima che Ermione potesse ribattere. Se non era Silente, spiegami come mai Dobby sapeva che eravamo in quel sotterraneo. Non lo so, ma tu puoi spiegare come ha fatto Silente a mandarlo da noi se giace in una tomba a Hogwarts? Non so, forse era il suo fantasma. Silente non tornerebbe mai sotto forma di fantasma, intervenne Harry. C'erano poche cose di cui era sicuro a proposito del preside, ma questo lo sapeva. Lui voleva andare avanti. Cosa vuol dire andare avanti? Domandò Ron, ma prima che Harry potesse spiegarsi, una voce alle loro spalle chiamò. Harry? Fleur era uscita dalla villa. I suoi lunghi capelli argentei svolazzavano nella brezza. Harry, Gripok vorrebbe parlarvi. È nella stanza più piccola. Dice che non vuole che gli altri sontano. Il suo fastidio per essere stata usata dal Goblin come messaggera era evidente. Tornò dentro corrucciata. Gripok li aspettava, come aveva detto Flor, nella più piccola delle tre camere da letto dove dormivano Ermione e Luna. Aveva tirato le tende rosse di cotone contro il cielo nuvoloso e splendente e la stanza riduceva di un colore infuocato che contrastava con la luce chiara che dominava il resto della casa. «Ho preso la mia decisione, Harry Potter», annunciò il Goblin. Era seduto a gambe incrociate su una sedia bassa e si tamburellava sulle braccia con le dita affusolate. «Anche se i Goblin della Gringot lo riterranno un vile tradimento, ho scelto di aiutarvi». «Fantastico!» esclamò Harry con un gran senso di sollievo. «Gripok, grazie. Siamo davvero...» «Dietro!» lo interruppe il Goblin con fermezza. «Paga mento!» Sorpreso, Harry esitò. «Quanto vuoi? Ho dell'oro!» «Niente oro!» rispose Gripok. «L'oro ce l'ho già!» I suoi occhi neri brillavano. I suoi occhi erano privi di bianco. «Voglio la spada! La spada di Godric Grifondoro!» L'umore di Harry precipitò. «Non puoi averla!» disse. «Mi dispiace!» «Allora», mormorò il Goblin, «abbiamo un problema!» «Possiamo darti qualcos'altro!» propose Ron impaziente. «Scommetto che i Lestrange hanno un mucchio di roba! Puoi scegliere quello che vuoi quando saremo entrati nella camera blindata!» Aveva detto la cosa sbagliata. Gripok avvampò di rabbia. «Non sono un ladro, ragazzo! Non sto cercando di procurarmi tesori ai quali non ho diritto!» «La spada è nostra! Non è vero!» ribatté il Goblin. «Noi siamo Grifondoro ed era di Godric Grifondoro! E prima di essere di Godric Grifondoro! A chi apparteneva?» chiese il Goblin, raddrizzando la schiena. «A nessuno!» rispose Ron. «È stata fatta per lui, no?» «No!» gridò il Goblin furioso, puntandogli addosso un lungo dito. «La solita arroganza dei maghi! Quella spada era di Ragnuc il primo e gli fu portata via da Godric Grifondoro! È un tesoro perduto, un capolavoro di arte Goblin! Appartiene ai Goblin! La spada è il prezzo dei miei servigi! Prendere o lasciare?» Gripok li fissò torvo. Harry guardò gli amici, poi disse «Dobbiamo discuterne tra noi, Gripok, se sei d'accordo. Puoi concederci qualche minuto?» Il Goblin annui inacidito. Di sotto, nel soggiorno vuoto, Harry si avvicinò al camino, la fronte aggrottata, cercando di riflettere. Alle sue spalle Ron cominciò «Sta scherzando! Non possiamo lasciargli quella spada!» «È vero?» chiese Harry a Ermione. «La spada è stata rubata da Grifondoro?» «Non lo so», rispose lei desolata. «La storia magica spesso glissa su quello che i maghi hanno fatto alle altre razze. Ma io non conosco nessun resoconto che dica che Grifondoro rubò la spada. Sarà una di quelle storie di Goblin, commentò Ron, sui maghi che cercano sempre di fregarli. Dobbiamo ritenerci fortunati perché non ci ha chiesto le nostre bacchette. I Goblin hanno buone ragioni per non stimare i maghi, Ron», osservò Ermione. «Sono stati trattati in maniera molto brutale nella storia. Anche i Goblin non sono proprio degli agnellini, però», ribatté Ron. «Ne hanno ammazzati tanti dei nostri. Anche loro hanno giocato sporco. Ma discutere con Grifok, su quale delle due razze sia più disonesta e violenta, non lo renderà più incline ad aiutarci, no?» Ci fu una pausa e tutti cercarono di pensare a come aggirare il problema. Harry guardò la tomba di Dobby al di là della finestra. Luna stava sistemando accanto alla lapide un mazzetto di lavanda in un vasetto di marmellata. «D'accordo», cominciò Ron, e Harry si voltò a guardarlo. «Sentite un po'. Diciamo a Grifok che ci serve la spada finché non entriamo nella camera blindata, e poi potrà averla. C'è una copia là dentro, no? La scambiamo e diamo a lui quella falsa». «Ron, lui noterà la differenza meglio di noi», obiettò Ermione. «È il solo ad aver capito che c'è stato uno scambio». «Sì, ma noi possiamo darcela a gambe prima che lui se ne accorga». Si fece piccolo sotto lo sguardo di Ermione. «Questo», commentò lei, «è spreggevole. Chiedere aiuto e poi fare il doppio gioco. E poi ti meravigli se ai Goblin non piacciono i maghi». Le orecchie di Ron erano diventate rosse. «D'accordo, d'accordo. È l'unica cosa che mi è venuta in mente. Sentiamo un po' la tua proposta allora. Dobbiamo offrirgli qualcos'altro, qualcosa di altrettanto prezioso. Geniale! Vado a prendere un'altra delle nostre antiche spade fatte dai Goblin, così gliela puoi incartare». Il silenzio ridiscese tra loro. Harry era sicuro che il Goblin avrebbe accettato solo la spada, anche se avessero avuto qualcosa di altrettanto prezioso da offrirgli. Ma la spada era la loro unica e indispensabile arma contro gli Horcrux. Chiuse gli occhi per qualche istante e ascoltò il rumore del mare. L'idea che Grifondoro potesse aver rubato la spada era sgradevole. Si era sempre sentito fiero di essere un Grifondoro. Grifondoro era stato il difensore dei mezzosangue, il mago che aveva combattuto i serpeverde amanti dei purosangue. «Forse mente», disse riaprendo gli occhi, «Gripok, forse Grifondoro non ha rubato quella spada. Come facciamo a sapere che la versione del Goblin è quella giusta?» «Che differenza fa?» chiese Hermione. «Cambia quello che provo io», rispose Harry. Prese un profondo respiro. «Gli diremo che può avere la spada dopo che ci avrà aiutato a entrare nella camera blindata, ma faremo attenzione a evitare di dirgli di preciso quando potrà averla». Un gran sorriso si allargò sul volto di Ron. Hermione invece sembrava allarmata. «Harry, non possiamo! Gliela daremo!» continuò Harry, «dopo che l'avremo usata su tutti gli Horcrux. Mi assicurerò che alla fine torni da lui. Manterrò la parola. Ma potrebbero volerci anni!» esclamò Hermione. Harry incrociò il suo sguardo con un misto di sfida e vergogna. Ricordò le parole incise all'ingresso di Nurmengard. «Per il bene superiore!» respinse quel pensiero. «Che alternative avevano! Non mi piace!» disse Hermione. «Non piace molto nemmeno a me!» ammise Harry. «Beh, io penso che sia un'idea geniale!» controbatté Ron rialzandosi. «Andiamo a dirglielo!» Di ritorno nella camera, Harry fece la sua offerta, attento a formularla in modo da non specificare un tempo preciso per la consegna della spada. Mentre lui parlava, Hermione fissava cupa il pavimento, con grande irritazione di Harry, che temeva che potesse tradirli. Ma Gripok aveva occhi solo per lui. «Ho la tua parola, Harry Potter, che mi darai la spada di Grifondoro se vi aiuto?» «Sì», rispose Harry. «Allora è fatta!» concluse il Goblin e gli tese la mano. Harry la prese e la strinse. Si chiese se quegli occhi neri riuscissero a riconoscere l'ansia nei suoi. Poi Gripok lo lasciò andare. Batté le mani e disse «Allora cominciamo!». Fu di nuovo come progettare di entrare al ministero. Si misero al lavoro nella stanza da letto, che per far contento Gripok veniva tenuta nella penombra. «Sono stato nella camera blindata dei Lestrange solo una volta», raccontò loro il Goblin, «quando mi fu detto di rinchiudervi la spada falsa. È una delle più antiche. Le famiglie magiche più vecchie depositano i loro tesori nel livello più profondo, dove le camere sono più grandi e meglio protette». Rimasero chiusi per ore di fila nella stanza poco più grande di un armadio. Lentamente i giorni divennero settimane. C'era un problema dietro l'altro da superare, non ultimo il fatto che la loro scorta di pozione polisucco si era notevolmente ridotta. «Ce n'è solo per uno di noi», avvertì Ermione, inclinando la pozione densa come melma contro la luce della lampada. «Basterà», rispose Harry, che stava studiando la mappa dei corridoi sotterranei più profondi, disegnata da Gripok. Gli altri abitanti di Shell Cottage non poterono fare a meno di notare che se Harry, Ron e Ermione si facevano vivi solo alle ore dei pasti, ci doveva essere sotto qualcosa. Nessuno faceva domande, ma Harry a tavola sentiva spesso lo sguardo di Bill su di loro, pensieroso, preoccupato. Più tempo passavano insieme, più Harry si rendeva conto che il Goblin non gli piaceva granché. Gripok si era rivelato inaspettatamente avido di sangue, rideva all'idea di provocare dolore in creature inferiori e l'eventualità di dover aggredire altri maghi per arrivare alla camera blindata dei Lestrange sembrava rallegrarlo. Harry capì che il suo disgusto era condiviso dagli amici, ma non ne parlarono, avevano bisogno di Gripok. Il Goblin mangiava malvolentieri con tutti loro, anche dopo che le sue gambe furono guarite, continuò a pretendere che gli portassero vassoi di cibo in camera, come all'ancora convalescente Ollivander, finché Bill, in seguito a una scenata di Fleur, non andò di sopra a dirgli che così non si poteva continuare. Dopodiché Gripok si sedette alla tavola sovraffollata, ma si rifiutò di mangiare lo stesso cibo, insistendo per avere pezzi di carne cruda, radici e funghi. Harry si sentiva responsabile. Dopotutto era stato lui a chiedere che il Goblin restasse a Shell Cottage per poterlo interrogare, ed era colpa sua se l'intera famiglia Weasley era entrata in clandestinità, se Bill, Fred, George e il signor Weasley non potevano più lavorare. «Mi dispiace», disse a Fleur una tempestosa sera di aprile, aiutandola a preparare la cena. «Non era mia intenzione che ti toccasse tutto questo. Lei aveva appena messo al lavoro alcuni coltelli che stavano affettando bistecche per Gripok e Bill, che dopo l'aggressione di Greybeck aveva sviluppato una predilezione per la carne cruda. La sua espressione tesa si addolcì. «Harry, hai salvato la vita della mia sorella. Io non dimontico!» Non era del tutto vero, ma Harry preferì non ricordarle che Gabrielle non era mai stata davvero in pericolo. «E comunque», riprese Fleur puntando la bacchetta verso una pentola di salsa sul fornello che cominciò subito a sobollire, «il signor Olivonder parte stasera. Vada sia Muriel. Tutto sarà più semplice. Il Goblin, e si incubì un po' nel nominarlo, può traslocar di sotto, e tu, Ron e Dean, potete prendere quella stonza. Non ci dà fastidio dormire in salotto», ribatté Harry, sapendo che Gripok non avrebbe gradito di dover dormire sul divano. «Tenerlo di buon umore era fondamentale per i loro piani. Non preoccuparti per noi», e quando lei tentò di protestare, aggiunse, «e poi io, Ron e Hermione, ce ne andremo presto. Non abbiamo bisogno di restare qui ancora a lungo». «Ma che dici?», chiese lei guardandolo arcigliata, la bacchetta puntata sul piatto di spezzatino sospeso in aria. «Ma certo che dovete restare, qui siete al sicuro», ricordava un po' la signora Weasley. Harry fu sollevato che qualcuno aprisse la porta del giardino. Erano Luna e Dean, i capelli umidi di pioggia e le braccia cariche di legna. «Orecchie piccolissime», stava spiegando Luna, «tipo un ippopotamo», dice papà, «solo che sono viola e pelose, e se vuoi chiamarli devi cantare a bocca chiusa. Amano i waltzer, niente di troppo veloce». A disagio, Dean si strinse nelle spalle e andò dietro a Luna, in sala da pranzo, dove Ron e Ermione stavano apparecchiando per la cena. Cogliendo al volo l'occasione di sfuggire alle domande di Fleur, Harry afferrò due caraffe di succo di zucca e li seguì. «E se vieni a casa nostra ti faccio vedere il corno. Papà mi ha scritto, ma non l'ho ancora visto, perché i Mangiamorte mi hanno portato via dal Hogwarts Express e non sono tornata a casa a Natale», continuò Luna accendendo il fuoco insieme a Dean. «Luna, te l'abbiamo già detto», esclamò Ermione. «Quel corno è esploso, era di erumpent, non di ricciocorno schiattoso». «No, era per certo di ricciocorno», ribatté Luna serena. «Me l'ha detto papà, ormai si sarà già riformato, si autoriparano, sai». Ermione scosse il capo e continuò a disporre le forchette. Apparve Bill, che accompagnava il signor Olivander giù per le scale. Il fabbricante di bacchette sembrava ancora molto debole e si aggrappava al braccio di Bill, che con l'altra mano trasportava una grossa valigia. «Mi mancherà, signor Olivander», disse Luna avvicinandosi al vecchio. «E tu a me, mia cara», rispose Olivander, dandole un buffetto sulla spalla. «Mi sei stata di ineffabile conforto in quel terribile luogo». «Allora, au revoir, signor Olivander», lo salutò Flor, baciandolo su tutte e due le guance. «Potrebbe essere così gentile da portare un pacchetto a zia Muriel da parte mia. Non le ho mai restituito la tiara». «Sarà un onore», replicò Olivander con un piccolo inchino. «È il minimo che possa fare in cambio della vostra generosa ospitalità». Flor prese una scatola di velluto consunto e la aprì per mostrarla a Olivander. La tiara scintillava alla luce della lampada bassa. «Pietre di luna e diamanti», osservò Gripok, che era entrato nella stanza senza che Harry se ne accorgesse. «Fatta dai Goblin, direi, e pagata dai maghi», ribatte Bill con calma. Il Goblin gli scoccò uno sguardo insieme furtivo e minaccioso. Un forte vento batteva contro le finestre della villetta quando Bill e Olivander partirono nel buio. Gli altri si strinsero attorno alla tavola, gomito a gomito, quasi senza lo spazio sufficiente a muoversi. Cominciarono a mangiare. Il fuoco scoppiettava nel caminetto accanto a loro. Fleur, osservò Harry, giocherellava col cibo e continuava a guardare la finestra. Bill fu di ritorno alla fine della prima portata, i lunghi capelli scompigliati dal vento. «Tutto a posto», annunciò. «Olivander è sistemato. Mamma e papà vi salutano. Ginny vi manda tutto il suo affetto. Fred e George stanno facendo impazzire zia Muriel. Gestiscono un servizio ordini via Gufo da una delle sue stanze sul retro. È stata contenta di riavere la sua tiara, però. Ha detto che credeva che l'avessimo rubata. «Ah, è ciò, ma un tuo asia», commentò Fleur seccata, agitando la bacchetta per radunare i piatti sporchi in una pila a mezz'aria. Li prese e uscì a grandi passi. «Anche papà ha fatto una tiara», intervenne Luna. «Beh, è più una corona, veramente». Ron intercettò lo sguardo di Harry e sorrise. Harry sapeva che gli era venuto in mente il ridicolo copricapo che avevano visto a casa di Xenophilius. «Sì, sta cercando di ricreare il diadema perduto di Corvo Nero. Pensa di aver ormai individuato gli elementi principali. Aggiungere le ali di Billy Whig è stato fondamentale». Un colpo alla porta. Tutti si voltarono. Fleur arrivò di corsa dalla cucina spaventata. Bill balzò in piedi, la bacchetta puntata contro la porta. Harry, Ron e Hermione lo imitarono. In silenzio, Gripoc si nascose sotto il tavolo. «Chi è?», gridò Bill. «Sono io, Remus Lupin!», rispose una voce sopra l'ullulato del vento. Harry sentì un brivido di paura. Che cos'era successo? «Sono un lupo mannaro, marito di Ninfadora Tonks! E tu, il custode segreto di Shell Cottage! Mi hai rivelato l'indirizzo e mi hai detto di venire in caso di emergenza!» Lupin, borbottò Bill, corse alla porta e la spalancò. Lupin inciampò sulla soglia. Era pallido, avvolto in un mantello da viaggio, i capelli grigi spettinati. Raddrizzò le spalle, si guardò intorno per accertarsi di chi era presente, poi gridò. «E' un maschio! L'abbiamo chiamato Ted, come il padre di Dora!», Hermione strillò. «Tonks! Tonks ha avuto il bambino?» «Sì, sì, è nato!», urlò Lupin. Tutto attorno alla tavola si levarono grida di gioia e sospiri di sollievo. Hermione e Fleur cinguettarono. «Congratulazioni!», e Ron esclamò. «Cavoli, un maschietto!», come se non avesse mai sentito niente di simile. «Sì, sì, un maschietto!», ripete Lupin, che pareva stordito dalla felicità. Fece il giro del tavolo e abbracciò Harry. La scenata nel seminterrato di Grimmall Place sembrava non essere mai accaduta. «Voi essere il suo padrino?», chiese, liberando Harry dalla stretta. «I-i-io?», balbettò lui. «Tu, sì, certo! Dora è d'accordo. Nessuno può essere meglio!» «Io... sì, accidenti!». Harry era sopraffatto, attonito, felice. Bill stava correndo a prendere il vino e Fleur cercava di convincere Lupin a restare per un brindisi. «Non posso fermarmi a lungo! Devo tornare!». Lupin fece un gran sorriso a tutti. Sembrava l'ingiovanito di anni. «Grazie, grazie, Bill!». Bill riempì i calici, si alzarono in piedi e li levarono in un brindisi. «A Teddy Remus Lupin!», esclamò Lupin, «che sarà un grande mago!». «I a chi somiglia il piccolino?», chiese Fleur. «Secondo me a Ninfadora, ma lei dice che assomiglia a me. Ha pochi capelli. Appena nato sembravano neri, ma giuro che sono diventati rossi un'ora dopo. Probabilmente al mio ritorno saranno già biondi. Andromeda dice che i capelli di Tonks hanno cominciato a cambiare colore il giorno che è nata», vuotò il calice. «Oh, d'accordo, solo un altro», aggiunse l'agente quando Bill fece per riempirglielo. Il vento scuoteva la casa e il fuoco scoppiettava. Ben presto Bill stappò un'altra bottiglia. La notizia portata da Lupin aveva fatto dimenticare a tutti lo stato d'assedio nel quale si trovavano. L'annuncio di una nuova vita li aveva resi euforici. Solo il Goblin sembrava insensibile all'improvvisa atmosfera festosa e dopo un po' sgattaiolò su nella camera da letto, che ormai occupava da solo. Harry era convinto di essere stato l'unico a notarlo, finché non vide che anche lo sguardo di Bill seguiva il Goblin su per le scale. «No, no, devo proprio andare», si risolse infine Lupin, rifiutando un altro calice divino. Si alzò e si avvolse nel mantello da viaggio. «Arivederci, arrivederci, cercherò di portarvi delle foto tra qualche giorno. Saranno tutti felici di sapere che vi ho visti». Si allacciò il mantello e salutò tutti, abbracciando le donne e stringendo la mano agli uomini. Poi, senza smettere di sorridere, sparì nella notte tempestosa. «Padrino, Harry!» esclamò Bill entrando con lui in cucina, entrambi carichi di stoviglie sporche. «Un vero onore! Congratulazioni!» Mentre Harry posava i calici vuoti, Bill chiuse la porta, escludendo le voci ancora eccitate degli altri, che continuavano a festeggiare anche senza Lupin. «Volevo scambiare due parole in privato con te, Harry. Non è stato facile trovare l'occasione con la casa così affollata». Bill esitò. «Harry, tu stai tramando qualcosa con Gripok». Era un'affermazione, non una domanda. Harry non si diede la pena di negare. Si limitò a guardare Bill in attesa. «Conosco i Goblin», proseguì questi. «Lavoro alla Gringot da quando ho lasciato Hogwarts. Per quanto sia possibile per maghi e Goblin fare amicizia, ho amici Goblin, o almeno Goblin che conosco bene e che stimo». Di nuovo esitò. «Harry, cosa vuoi da Gripok e cosa gli hai promesso in cambio?» «Non posso dirtelo», rispose Harry. «Mi spiace, Bill». La porta della cucina si aprì e apparve Fleur, carica di altri calici vuoti. «Aspetta», le chiese Bill, «solo un momento». Lei indietreggiò e richiuse la porta. «Allora ti dirò solo una cosa», riprese Bill. «Se hai stretto un accordo con Gripok e soprattutto se l'accordo riguarda un tesoro, devi essere straordinariamente cauto. I concetti di proprietà, pagamento e ricompensa dei Goblin non sono come quelli umani». Harry sentì una morsa di disagio, come se una piccola serpe si fosse ridestata dentro di lui. «Cosa vuoi dire?» chiese. «Stiamo parlando di una razza diversa», spiegò Bill. «I rapporti tra maghi e Goblin sono tesi da secoli, ma tutte queste cose le sai, le hai studiate in storia della magia. C'è stata colpa da entrambi i lati. Non oserei mai affermare che i maghi sono innocenti. Tuttavia alcuni Goblin nutrono la convinzione, e quelli della Gringot sono forse i più inclini a crederci, che non ci si possa fidare dei maghi in materia di oro e tesori, che noi non abbiamo rispetto per le proprietà dei Goblin». «Io rispetto», cominciò Harry, ma Bill scosse il capo. «Tu non capisci, Harry. Nessuno potrebbe capire se non ha vissuto tra loro. Per un Goblin, il padrone vero e legittimo di un qualunque oggetto è l'artefice, non l'acquirente. Secondo loro, tutti gli oggetti fatti dai Goblin sono di loro proprietà, a pieno diritto. Ma se una cosa è stata comprata, la considerano noleggiata da chi ha sborsato il denaro. È l'idea che oggetti di fattura Goblin si tramandino di mago in mago, che non riescono ad accettare. «Hai visto la faccia di Gripok quando la tiara gli è passata sotto il naso? Disapprova! Credo che sia convinto, come i più animosi della sua specie, che andasse restituita ai Goblin alla morte dell'acquirente originario. La nostra abitudine è di tenerci gli oggetti fabbricati dai Goblin, di trasmetterceli senza ulteriori pagamenti, per loro è poco meno di un furto». Harry avvertì un che di minaccioso. Si chiese se Bill sospettava più di quanto lasciava credere. «Ti sto solo dicendo», continuò Bill, posando la mano sulla maniglia, «di stare molto attento alle promesse che fai a un Goblin, Harry. Sarebbe meno pericoloso rubare alla Gringot che venir meno a una promessa fatta a un Goblin». «Bene», rispose Harry quando Bill aprì la porta. «D'accordo, grazie, lo terrò presente». Mentre seguiva Bill nel salotto, lo attraversò un pensiero assurdo, senza dubbio generato dal vino che aveva bevuto. Sembrava destinato a diventare per Teddy Lupin un padrino sconsiderato, quanto Sirius Black lo era stato per lui. La Gringot. Il piano era pronto, i preparativi terminati. Nella stanza da letto più piccola c'era un lungo, spesso capello nero, preso dal golfino che Hermione indossava a Villa Malfoy, arrotolato in una piccola fiala di vetro appoggiata sul camino. «Oltretutto userai la sua bacchetta», disse Harry accennando alla bacchetta di noce, «quindi sarai piuttosto convincente». Hermione la raccolse spaventata, come se potesse pungerla o morderla. «La odio», mormorò. «La detesto, la sento sbagliata, non va bene per me, è come un pezzo di lei». Harry non poteva fare a meno di ricordare che quando la bacchetta di prugnolo non funzionava bene, lei aveva liquidato la sua avversione sostenendo che erano solo fantasie ed esortandolo a esercitarsi. Decise di non ripagarla con il suo stesso consiglio, però. La vigilia del giorno in cui avrebbero cercato di violare la Gringot non era il momento buono per litigare. «Ti aiuterà a entrare nel personaggio», osservò Ron. «Pensa a cosa ha fatto quella bacchetta». «Appunto», protestò Hermione. «Questa è la bacchetta che ha torturato i genitori di Neville e chissà quanta altra gente. Questa è la bacchetta che ha ucciso Sirius». Harry non ci aveva pensato. Fu preso dal violento desiderio di spezzarla, di tagliarla a metà con la spada di Grifondoro, che era appoggiata alla parete accanto a lui. «Mi manca la mia bacchetta», sospirò Hermione depressa. «Vorrei che il signor Orivander ne avesse fatta una nuova anche a me. Orivander aveva mandato una bacchetta nuova a Luna proprio quella mattina e lei era in giardino a provarla nel sole del tardo pomeriggio. Dean, che aveva perso la sua, sottratta dai ghermidori, osservava la scena corrucciato. Harry fissò la bacchetta di Biancospino che era appartenuta a Draco Malfoy. Aveva scoperto con sorpresa e piacere che per lui funzionava bene almeno quanto quella di Hermione. Ricordando che cosa aveva detto Orivander sulle leggi segrete delle bacchette, credeva di sapere qual era il problema di Hermione. Lei non aveva ottenuto l'obbedienza della bacchetta di noce perché non l'aveva sottratta a Bellatrix personalmente. La porta si aprì ed entrò Gripok. Istintivamente Harry afferrò la spada e l'avvicinò a sé, ma se ne pentì subito. Il Goblin aveva notato il gesto. Cercando di superare il momento di imbarazzo, disse, stavamo controllando gli ultimi particolari, Gripok. Abbiamo avvertito Bill e Fleur che ce ne andremo domattina e ci siamo raccomandati che non si alzino per salutarci. Erano stati irremovibili su questo punto perché Hermione doveva trasformarsi in Bellatrix prima della partenza e meno Bill e Fleur sapevano o sospettavano del loro progetto, meglio era. Avevano anche spiegato che non sarebbero tornati. Siccome avevano perso la tenda di Perkins quando erano stati catturati dai ghermidori, Bill gliene aveva prestata un'altra. Era piegata dentro la borsetta di perline che Hermione, Harry scoprì con stupore, aveva salvato dai ghermidori grazie al semplice espediente di infilarla in una calza. Anche se avrebbe sentito la mancanza di Bill, Fleur, Luna e Dean, per non parlare delle comodità domestiche che si era goduto nelle ultime settimane, Harry era contento di sfuggire alla prigionia di Shell Cottage. Era stanco di dover sempre controllare che nessuno origliasse, stanco di restare rinchiuso nella minuscola stanza da letto buia. Soprattutto non vedeva l'ora di liberarsi di Gripok, ma come e quando si sarebbero separati da lui senza consegnargli la spada di Grifondoro, era una domanda che restava ancora senza risposta. Non ne avevano potuto discutere perché il Goblin di rado si allontanava da loro per più di cinque minuti di fila. In confronto mia madre è una novellina, ringhiava Ron, quando vedeva le lunghe dita sbucare sulle cornici delle porte. Memore degli ammonimenti di Bill, Harry non poteva fare a meno di sospettare che Gripok stesse allerta contro possibili imbrogli. Hermione disapprovava così radicalmente il loro doppio gioco che Harry aveva rinunciato a consultarla per trovare il modo migliore di metterlo in atto. Ron, nelle rare occasioni in cui erano riusciti a rimanere soli, non aveva saputo dire altro che «mi sa che dovremmo improvvisare, caro mio». Harry dormì male quella notte, sveglio già alle prime ore del mattino, ripensò a quello che aveva provato la notte prima di infiltrarsi nel Ministero della Magia e ricordò un senso di determinazione, quasi di eccitazione. Ora provava fitte di ansia, dubbi tormentosi, non riusciva a scrollarsi di dosso il timore che andasse tutto storto. Continuava a ripetersi che il loro era un buon piano, che Gripok sapeva che cosa dovevano affrontare, che erano preparati a tutte le difficoltà che avrebbero potuto incontrare, ma ancora non si sentiva sicuro. Un paio di volte udì Ron agitarsi e capì che anche lui era sveglio, ma non disse nulla, perché Dean dormiva in salotto con loro. Fu un sollievo quando arrivarono le sei e poterono uscire dai sacchi a pelo, vestirsi nella semi-oscurità e sgattaiolare in giardino per incontrare Ermione e Gripok. L'alba era gelida, ma c'era poco vento, adesso che era maggio. Harry guardò le stelle che ancora brillavano pallide nel cielo scuro e ascoltò il mare sciaguattare contro la scogliera. Gli sarebbe mancato quel rumore. Piccoli germogli verdi spuntavano ormai nella terra rossa della tomba di Dobby. Entro un anno il tumulo sarebbe stato coperto di fiori. La pietra bianca col nome dell'elfo era già segnata dalle intemperie. Harry si rese conto che non avrebbero potuto trovare un luogo più bello per far riposare Dobby, ma il pensiero di lasciarlo lì gli faceva male al cuore. Guardando la sua tomba, si chiese di nuovo come aveva fatto a sapere dove andare a salvarli. Portò inconsapevolmente le dita alla saccoccia che teneva ancora al collo e tastò il frammento di specchio, dove era certo di aver visto l'occhio di silente. Poi il rumore di una porta lo fece voltare. Bellatrix Lestrange, accompagnata da Gripoc, avanzava sul prato e stava infilando la borsetta di perline nella tasca interna di un vecchio abito preso in Grimmaule Place. Harry sapeva benissimo che era Hermione, ma non poter reprimere un brivido di orrore. Era più alta di lui, i lunghi capelli neri ricadevano sulla schiena, gli occhi dalle palpebre pesanti si posarono alteri su di lui, ma poi parlò. Harry sentì Hermione nella voce grave di Bellatrix. Era disgustosa, peggio della radigorda. Dairon, vieni qui che ti sistemo. Va bene, ma non farmi la barba troppo lunga. Oh, per l'amor del cielo, non devi essere carino. Non è quello, è che mi dà fastidio. Però mi piaceva il naso un po' più corto. Prova a rifarlo come l'ultima volta. Hermione sospirò e si mise al lavoro, mormorando per trasformare diversi connotati dell'aspetto di Ron. Lui avrebbe avuto un'identità del tutto fittizia. Confidavano che l'aura malevola di Bellatrix l'avrebbe protetto. Harry e Gripok si sarebbero nascosti sotto il mantello dell'invisibilità. Ecco, concluse Hermione, che te ne pare, Harry? Harry riusciva ancora a scorgere Ron sotto il travestimento, ma solo, si disse, perché lo conosceva molto bene. Aveva i capelli lunghi e mossi, una folta barba e baffi castani, niente lentigini, il naso corto e largo e le sopracciglia pesanti. Beh, non è il mio tipo, ma può andare, commentò. Allora, si parte? Tutti e tre salutarono con lo sguardo Shell Cottage, buio e silenzioso, sotto le stelle pallide. Poi si voltarono per raggiungere la zona appena oltre il muretto di cinta, dove l'incanto Fidelius cessava e avrebbero potuto smaterializzarsi. Varcato il cancello, Gripok parlò. Dovrei salire adesso, Harry Potter, credo. Harry si chinò e il goblin gli si arrampicò sulla schiena, intrecciando le mani davanti alla sua gola. Non era pesante, ma a Harry non piaceva sentirselo addosso, né la forza sorprendente della sua presa. Hermione sfilò il mantello dell'invisibilità dalla borsetta e li coprì. «Perfetto!» sussurrò e si chinò per controllare i piedi di Harry. «Non si vede niente! Andiamo!» Harry girò sul posto con Gripok in spalla, concentrandosi sul paiolo magico, la locanda all'ingresso di Diagon Alley. Nell'oscurità opprimente, il goblin si tenne ancora più stretto e qualche attimo dopo Harry sentì il marciapiede sotto le scarpe e aprì gli occhi. Erano in Charing Cross Road. I babbani camminavano veloci, con l'espressione depressa del mattino presto, ignari dell'esistenza del piccolo pub. Il bar del paiolo magico era quasi deserto. Tom, il barista curvo e sdentato, lustrava bicchieri dietro al banco. Nell'angolo più lontano, due maghi che stavano chiacchierando sottovoce gettarono un'occhiata a Hermione e si ritrassero nell'ombra. «Signora Lestrange!» mormorò Tom al passaggio di Hermione e chinò il capo ossequioso. «Buongiorno!» gli rispose Hermione. Harry, che restava dietro con Grippok in spalla sotto il mantello, notò la sorpresa di Tom. «Troppo gentile!» le sussurrò all'orecchio quando uscirono nel minuscolo cortile sul retro. «Devi trattarli come fossero feccia!» «Va bene, va bene!» Hermione prese la bacchetta di Bellatrix e picchiettò contro un mattone dell'anonimo muro davanti a loro. All'istante i mattoni ruotarono, al centro apparve un'apertura che si fece sempre più ampia e infine formò un'arcata sulla stradina lastricata chiamata Diagon Alley. Era tranquilla, molti negozi erano ancora chiusi e non c'erano clienti in giro. La stradina storta e acciottolata adesso era molto diversa dal luogo bruricante che Harry aveva conosciuto prima di andare a Hogwarts, tanti anni addietro. Moltissimi negozi erano sprangati, ma dalla sua ultima visita ne erano stati aperti di nuovi dedicati alle arti oscure. Il suo stesso volto lo scrutava dai manifesti incollati su molte vetrine, sempre corredati dalla didascalia, indesiderabile numero uno. Nei vani delle porte erano rannicchiate persone coperte di stracci. Le sentì piagnucolare all'indirizzo dei pochi passanti e le mosinando denaro, insistendo che erano veri maghi. Un uomo aveva una benda insanguinata sopra un occhio. Appena si mossero lungo la strada, i mendicanti avvistarono Ermione e parvero liquefarsi davanti a lei. Alcuni si coprirono il volto col cappuccio, altri fuggirono più veloci che poterono. Lei li osservò incuriosita, finché l'uomo con la benda insanguinata non le tagliò la strada barcollando. «I miei figli!» urlò con voce rotta, acuta, puntandole il dito addosso. Era sconvolto. «Dove sono i miei figli? Cosa gli hai fatto? Tu lo sai, tu lo sai!» «Io, io veramente?» balbettò Ermione. L'uomo le si scagliò addosso, cercando di afferrarla alla gola. Poi, con un'esplosione e uno schizzo di luce rossa, cadde a terra, privo di sensi. Ron aveva ancora la bacchetta tesa e l'aria spaventata dietro la barba. Da un lato e dall'altro della strada spuntarono volti alle finestre, mentre un gruppetto di passanti dall'aria florida raccoglieva le vesti e trotterellava via in fretta e furia. Il loro ingresso in diagonale non avrebbe potuto dare più nell'occhio. Per un attimo Harry si chiese se non fosse meglio andarsene subito e cambiare piano, ma prima che potessero muoversi o consultarsi, sentirono un grido alle loro spalle. «Che sorpresa, signora Lestrange?» Harry si voltò di scatto e Gripok serrò la presa sul suo collo. Un mago alto e magro, con una criniera di capelli grigi cespugliosi e un lungo naso affilato, avanzava verso di loro. «È Travers!» sibilò il goblin all'orecchio di Harry, che però al momento non riusciva a ricordare chi fosse Travers. Ermione si erse in tutta la sua altezza e domandò con il massimo disprezzo che riuscì a mettere insieme. «Che cosa vuole?» Travers si bloccò, chiaramente offeso. «È un altro mangiomorte!» sussurrò Gripok. Harry si accostò a Ermione per ripetervelo all'orecchio. «Soltanto salutarla!» rispose Travers in tono freddo. «Ma se la mia presenza non è gradita!» Harry riconobbe la voce. Era uno dei mangiomorte che erano stati chiamati a casa di Xenofilius. «No, no, niente affatto, Travers!» ribatte in fretta Ermione, cercando di riparare l'errore. «Come sta?» «Beh, confesso che sono sorpreso di vederla in giro, Bella Trix!» «Davvero? Perché?» chiese Ermione. «Beh...» Travers tossicchiò. Avevo sentito dire che gli abitanti di Villa Malfoy erano stati confinati in casa dopo la... fuga. Harry si augurò che Ermione non perdesse la testa. Se era vero e Bella Trix non doveva mostrarsi in pubblico... «Il Signore Oscuro perdona coloro che l'hanno servito con la massima fedeltà!» replicò lei in una splendida imitazione dei modi più sprezzanti di Bella Trix. «Forse il suo credito presso di lui non è pari al mio, Travers!» Il mangiomorte era evidentemente offeso, ma meno sospettoso. Guardò dall'alto l'uomo che Ron aveva appena schiantato. «In che modo l'ha oltraggiata?» «Non ha importanza, non lo rifarà», tagliò corto Ermione. «Alcuni di questi senza bacchetta possono essere fastidiosi», osservò Travers. «Finché chiedono le lemosine a pazienza, ma una di loro, la settimana scorsa, è arrivata a supplicarmi di perorare la sua causa al Ministero. Sono una strega, signore! Sono una strega! Mi consenta di dimostrarglielo!» squittì in una querula imitazione. «Come se volessi prestarle la mia bacchetta!» «A proposito, quale usa al momento Bellatrix?» chiese incuriosito. «Ho sentito che la sua è stata la mia!» «Eccola!» rispose gelida Ermione, mostrando la bacchetta di Bellatrix. «Non so a quali voci lei abbia prestato orecchio, Travers, ma mi sembra assai male informato.» Travers parve disorientato e si rivolse a Ron. «Chi è il suo amico? Non credo di conoscerlo!» «Dragomir Despard», rispose Ermione. Avevano deciso che uno straniero inesistente sarebbe stato la copertura più sicura per Ron. «Parla pochissimo l'inglese, ma è in sintonia con gli scopi del Signore Oscuro. È venuto dalla Transilvania per vedere il nostro nuovo regime.» «Davvero? Molto lieto!» «Tolieto», replicò Ron tendendogli la mano. Travers protese due dita e strinse la mano a Ron, come se avesse paura di sporcarsi. «Allora che cosa porta lei e il suo... solidale amico in diagonale e così di buon'ora?» chiese Travers. «Devo andare alla Gringot», rispose Ermione. «Anch'io, ahimè!» sospirò Travers. «Oro, sudicio oro! Non possiamo farne a meno, eppure deploro la necessità di frequentare i nostri amici dalle lunghe dita.» Harry sentì le mani di Gripock contrarsi per un attimo attorno al suo collo. «Andiamo!» suggerì Travers, facendo cenno a Ermione di precederlo. Lei non poteva far altro che avviarsi con lui lungo il tortuoso selciato, verso il punto in cui la Gringot, bianca come la neve, torreggiava sui piccoli negozi. Ron si affiancò a loro e Harry e Gripock li seguirono. Un mangiamorte allerta era l'ultima cosa di cui avevano bisogno, e il peggio era che, con Travers accanto a quella che credeva Bellatrix, Harry non poteva comunicare con Ermione o Ron. Si ritrovarono fin troppo presto ai piedi della scalinata di marmo che saliva alle grandi porte di bronzo. Come aveva detto Gripock, i Goblin in Livrea, che di solito stavano ai lati dell'ingresso, erano stati sostituiti da due maghi, entrambi forniti di lunghi e sottili bastoni dorati. «Ah, le sonde sensitive!» sospirò Travers in modo teatrale. «Molto rozze, ma efficaci!» e salì i gradini, con un cenno di saluto ai due maghi, che alzarono i bastoni d'oro e glieli fecero scorrere su e giù lungo il corpo. Le sonde, come Harry sapeva, individuavano gli incantesimi dissimulanti e gli oggetti magici nascosti. Conscio di avere solo pochi istanti di tempo, puntò la bacchetta di Draco contro una guardia dopo l'altra e mormorò due volte «Confundo!». I due maghi sussultarono lievemente quando l'incantesimo li colpì, ma Travers, che stava guardando l'atrio oltre il portone, non se ne accorse. Ermione salì i gradini con i lunghi capelli neri ondeggianti al vento. «Un momento, signora!» le intimò la guardia, alzando la sonda. «Ma l'ha già fatto!» si indignò Ermione con la voce imperiosa e arrogante di Bellatrix. Travers si voltò, le sopracciglia inarcate. La guardia era perplessa. Guardò la sottile sonda dorata e poi il compagno che disse, con voce un po' impastata, «Sì, li hai appena controllati, Marius!». Ermione proseguì con Ron al fianco. Harry e Gripok trotterellarono invisibili dietro di loro. Mentre varcavano la soglia, Harry si voltò indietro. Le guardie si stavano grattando la testa. C'erano due goblin in piedi davanti alle porte interne, che erano d'argento e recavano incisa la poesia che minacciava terribili ritorsioni contro gli eventuali ladri. Harry la contemplò e all'improvviso fu attraversato da un ricordo limpido. Se stesso, in quel medesimo punto, il giorno del suo undicesimo compleanno, il compleanno più meraviglioso della sua vita, e Hagrid accanto a lui che tuonava, «Come ho detto, bisogna davvero essere matti a cercare di rapinare questa banca!». La Gringot quel giorno gli era parsa un luogo di prodigi, il deposito incantato di un tesoro che non aveva mai saputo di possedere, e nemmeno per un istante avrebbe potuto sognare che ci sarebbe tornato per rubare, ma nel giro di pochi secondi erano nella vasta sala di marmo. Il lungo bancone era presidiato da goblin seduto su alte scranne che servivano i primi clienti della giornata. Hermione, Ron e Travers si avvicinarono a un vecchio goblin che stava osservando una spessa moneta d'oro attraverso un monocolo. Hermione lasciò che Travers la precedesse con la scusa di illustrare a Ron le caratteristiche dell'atrio. Il goblin gettò via la moneta, borbottò «Lepricani!» e poi salutò Travers che gli passò una minuscola chiave dorata. Il goblin la esaminò e la restituì. Hermione fece un passo avanti. «Signora Lestrange!» trasalì il goblin. «Santo cielo! Cosa posso fare per lei oggi?» «Vorrei avere accesso alla mia camera blindata», rispose Hermione. Il vecchio goblin si tirò indietro. Harry si guardò intorno. Non solo Travers era a poca distanza e li osservava, ma altri goblin avevano interrotto le loro occupazioni per fissare Hermione. «A modo di... di provare la sua identità?» chiese il goblin. «Provare la mia identità? Non mi è mai stato chiesto niente di simile!» protestò Hermione. «Lo sanno!» sussurrò Gripok all'orecchio di Harry. «Qualcuno le ha avvertiti che potrebbe esserci un impostore!» «La sua bacchetta sarà sufficiente, signora!» replicò il goblin. Tese una mano tremante e in un terribile lampo di comprensione, Harry capì che i goblin della Gringot sapevano che la bacchetta di Bellatrix era stata rubata. «Presto, presto!» mormorò ancora Gripok. «La maledizione Imperius!» Harry sollevò la bacchetta di biancospino sotto il mantello, la puntò contro il vecchio goblin e sussurrò per la prima volta in vita sua. «Imperio!» Una curiosa sensazione percorse il suo braccio, un caldo formicolio che sembrava scorrere dalla sua mente lungo i nervi e le vene, legandolo alla bacchetta e alla maledizione che aveva appena scagliato. Il goblin prese la bacchetta di Bellatrix, la esaminò attentamente e poi disse «Ah, una bacchetta nuova, signora Lestrange!» «Cosa?» fece Ermione. «No, no, è la mia!» «Una bacchetta nuova?» Travers si riavvicinò al bancone. I goblin intorno erano ancora allerta. «Ma com'è possibile? A che fabbricante si è rivolta?» Harry agì senza riflettere, puntò la bacchetta contro Travers e borbottò di nuovo «Imperio!» «Oh sì, certo!» commentò Travers guardando la bacchetta di Bellatrix. «Sì, molto bella. Funziona bene? Io sono convinto che le bacchette abbiano bisogno di un minimo di rodaggio. Lei non trova?» Ermione pareva decisamente sconcertata, ma con enorme sollievo di Harry accettò il bizzarro corso degli eventi, senza dire una parola. Il vecchio goblin dietro il banco batte le mani e uno più giovane si avvicinò. «Mi servono i sonacci!» gli disse il vecchio, e quello sfrecciò via per tornare un secondo dopo, con una borsa di cuoio che sembrava piena di metallo sferragliante. La consegnò al suo superiore. «Bene, bene! Allora, se vuole seguirmi, signora Lestrange?» proseguì il vecchio goblin, saltò giù dalla scranna e scomparve alla vista. «La accompagno alla sua camera!» Riapparve in fondo al bancone e sgambettò lieto verso di loro, facendo tintinnare più che mai la borsa. Travers adesso era immobile, la bocca spalancata, e Ron stava attirando l'attenzione sul suo strano comportamento, fissandolo con aria interrogativa. «Un momento, Bogrod!» Un altro goblin era sbucato da dietro il bancone. «Abbiamo delle istruzioni!» esordì con un inchino a Ermione. «Mi perdoni, signora, ma ci sono ordini speciali che riguardano la camera Lestrange!» sussurrò frettoloso all'orecchio di Bogrod, ma il goblin, soggiogato dalla maledizione Imperius, lo liquidò. «Conosco gli ordini! La signora Lestrange desidera visitare la sua camera! Una famiglia molto antica! Vecchi clienti! Da questa parte, prego!» Sempre accompagnato dal tintinnio della borsa, corse verso una delle molte porte che conducevano fuori dalla sala. Harry si girò verso Traverse, ancora inchiodato al suo posto, con uno sguardo innaturalmente vacuo, e decise, con un lieve movimento della bacchetta, lo costrinse a seguirli, mansueto, mentre varcavano la porta ed entravano in un corridoio di pietra grezza, illuminato da torce. «Siamo nei guai! Hanno dei sospetti!» disse Harry quando la porta si chiuse alle loro spalle e si sfilò il mantello dell'invisibilità. Gripok balzò a terra. Ne Traverse né Bogrod mostrarono la minima sorpresa all'improvvisa comparsa di Harry Potter. «La maledizione Imperius!» spiegò lui in risposta alle confuse domande di Hermione e Ron perché Traverse e Bogrod stavano fermi, imbambolati. «Credò di non averla fatta abbastanza forte, non so!» e un altro ricordo gli attraversò la mente. La vera Bellatrix Lestrange che gli strilava addosso la prima volta che aveva tentato di usare una maledizione senza perdono. «Devi volerlo, Potter!» «Che cosa facciamo?» chiese Ron. «Usciamo finché possiamo?» «Se possiamo!» precisò Hermione guardando la porta chiusa sull'atrio, al di là della quale chissà cosa stava succedendo. «Siamo arrivati fin qui! Io dico di andare avanti!» propose Harry. «Bene!» approvò Gripok. «Allora abbiamo bisogno di Bogrod per guidare il vagone. Io non ho più l'autorità, ma non c'è posto per il mago!» Harry puntò la bacchetta contro Travers. «Imperio!» Il mago si voltò e si avviò a passo spedito lungo i binari bui. «Dove l'hai mandato?» «A nascondersi!» rispose Harry puntando la bacchetta contro Bogrod. Il goblin fischiò e un carrello sbucò dondolando dal buio. Harry fu certo di aver sentito degli urli venire dall'atrio mentre si arrampicavano nel vagoncino, Bogrod davanti e gli altri quattro stipati dietro. Partirono con uno strattone e presero subito velocità. Sfrecciarono davanti a Travers, appiattito in una fessura della parete. Poi il carrello cominciò a curvare per i labirintici passaggi, sempre in discesa. Lo sferragliare delle ruote era assordante. Sbandavano tra le stalattiti, sprofondando sempre più sottoterra. Harry, con i capelli che gli volavano all'indietro, continuava a guardarsi alle spalle. Era come se avessero lasciato enormi impronte. Più ci pensava, più gli sembrava sciocco aver travestito Ermione da Bellatrix, aver portato la sua bacchetta quando i Mangiamorte sapevano benissimo chi l'aveva rubata. Harry non era mai disceso così in profondità nella Gringot. Presero un tornante a tutta velocità e videro davanti a loro, a pochi secondi di distanza, una cascata d'acqua che si rovesciava sui binari. Harry udì Gripok gridare «No!» ma nessuno frenò. La attraversarono di slancio. L'acqua gli riempì occhi e bocca, non vedeva e non respirava. Poi, con un terribile sussulto, il carrello si rovesciò e tutti ne furono sbalzati fuori. Harry udì lo schianto del vagone contro il muro del corridoio e Ermione che strillava qualcosa. Poi si sentì scivolare a terra come privo di peso e atterrare senza dolore sul suolo di roccia. «Incantesimo imbottito!» farfugliò Ermione mentre Ron l'aiutava ad alzarsi. Ma Harry vide con orrore che non era più Bellatrix. Era avvolta in abiti troppo grandi, bagnata fradicia e inequivocabilmente se stessa. Ron era di nuovo rosso di capelli e senza barba. Se ne resero conto guardandosi e tastandosi i volti. «La cascata del ladro!» esclamò Gripoc, rimettendosi in piedi e voltandosi a guardare la cascata, che ormai Harry l'aveva capito. Non era solo acqua. «Lava via tutti gli incantesimi e i travestimenti magici! Sanno che ci sono degli impostori nella Gringot! Hanno attivato delle difese contro di noi!» Harry vide Ermione che controllava di avere ancora la borsetta e si infilò rapido la mano sotto il giaccone per assicurarsi di non aver perduto il mantello dell'invisibilità. Poi si voltò e vide Bogrod scuotere il capo incredulo. La cascata del ladro doveva aver cancellato la maledizione Imperius. «Ci serve!» disse Gripoc. «Non possiamo entrare nella camera blindata senza un goblin della Gringot e abbiamo bisogno dei sonacci!» «Imperio!» urrò di nuovo Harry e quando la sua voce echeggiò lungo il cunicolo di pietra provò ancora quel senso inebriante di controllo scorrere dal cervello alla bacchetta. Bogrod si piegò di nuovo alla sua volontà. La sua espressione instupidita si mutò ineducata indifferenza mentre Ron correva a raccogliere la borsa di cuoio piena di strumenti metallici. «Harry, sento venire gente!» urlò Ermione, puntò la bacchetta di Bellatrix verso la cascata e gridò «Protego!» L'incantesimo scudo bloccò il flusso dell'acqua magica che risalì lungo il cunicolo. «Bella idea!» commentò Harry. «Facci strada, Gripok!» «Come faremo a uscire?» chiese Ron mentre seguivano di corsa il goblin nel buio. Bogrod ansimava dietro di loro come un vecchio cane. «Ce ne preoccuperemo quando sarà il momento!» rispose Harry. Tese l'orecchio. Gli pareva di sentire qualcosa sferragliare e muoversi nelle vicinanze. «Gripok! Quanto dobbiamo scendere ancora?» «Non molto, Harry Potter, non molto!» Voltarono un angolo e videro quello a cui Harry era stato preparato, ma che li costrinse tutti a fermarsi. Un drago gigantesco era incatenato al pavimento in modo da sbarrare l'accesso a quattro o cinque delle camere blindate più profonde. Le squame della bestia erano sbiadite e screpolate per la lunga prigionia nel sottosuolo. I suoi occhi erano di un rosa lattiginoso. Entrambe le zampe posteriori erano strette in pesanti ceppi le cui catene erano assicurate alla roccia da enormi picchetti. Teneva le immense ali spinate lungo il corpo, ma se le avesse aperte avrebbero riempito tutta la caverna. Girò verso di loro il brutto testone, ruggì con un fragore che fece tremare la roccia e sputò un getto di fuoco che li costrinse ad arretrare di corsa nel cunicolo. «È semiceco!» ansimò Gripok. «Ma questo lo rende ancora più feroce! Però abbiamo il sistema per controllarlo. Ha un riflesso condizionato al rumore dei sonacci. Dammeli!» Ron gli passò la borsa. Gripok ne estrasse una serie di piccoli strumenti di metallo che, quando venivano agitati, producevano un rumore forte e squillante, come minuscoli martelli su incudini. Gripok li distribuì. Bogrod prese docilmente il proprio. «Sapete cosa fare!» proseguì Gripok. «Quando sentirà i sonacci si aspetterà dolore. Arretrerà. E Bogrod dovrà posare il palmo della mano sulla porta. Si affacciarono di nuovo oltre l'angolo, scuotendo i sonacci. Il fragore, amplificato dalle pareti di roccia, era così forte che Harry si sentì il cranio vibrare. Il drago lanciò un altro ruggito rauco e indietraggiò. Harry vide che tremava. Quando si avvicinarono, notò le cicatrici di tagli feroci sul muso e capì che aveva imparato ad associare spade roventi al rumore dei sonacci. «Fagli mettere la mano sulla porta!» gridò Gripok a Harry, che puntò la bacchetta su Bogrod. Il vecchio goblin obbedì, premette il palmo sul legno e la porta della camera blindata si dissolse, rivelando un antro stipato da cima a fondo di monete d'oro, calici, armature d'argento, pelli di strane creature, alcune con lunghi aculei, altre con ali di flosce, pozioni in fiaschette incrostate di pietre preziose e un teschio che ancora indossava una corona. «Cercate presto!» ordinò Harry entrando di corsa. Aveva descritto la coppa di tassofrasso a Ron e Ermione, ma nella camera blindata poteva esserci l'altro, sconosciuto Horcrux, di cui ignoravano l'aspetto. Ebbe appena il tempo di guardarsi attorno, tuttavia, prima di sentire un tonfo soffocato alle sue spalle. La porta era ricomparsa, chiudendoli dentro, e si ritrovarono immersi nel buio più totale. Ron urlò per la sorpresa. «Non importa, Bogrod saprà liberarci!» li rassicurò Gripok. «Accendete le bacchette, no? E fate presto, abbiamo pochissimo tempo! Lumos!» Harry illuminò tutto attorno a sé con la bacchetta. Il raggio cadde su cumuli di gioielli scintillanti. Vide la falsa spada di Grifondoro appoggiata su un'alta mensola tra un mucchio di catene. Anche Ron e Hermione avevano acceso le bacchette e stavano esaminando le pile di oggetti che li circondavano. «Harry, potrebbe essere questo...» Hermione strillò di dolore e Harry puntò la bacchetta in tempo per vedere un calice incastonato di pietre scivolarle di mano. Nella caduta si spaccò e divenne una pioggia di calici e in un attimo, con un gran baccano, il pavimento fu ricoperto da coppe identiche che rotolavano da tutte le parti. Era impossibile riconoscere l'originale. «Mi ha bruciato!» gemette Hermione, succhiandosi le dita coperte di bolle. «Hanno aggiunto le maledizioni, gemino e flagrante!» esclamò Gripoc. «Ogni cosa che toccate scotterà e si moltiplicherà, ma le copie sono prive di valore e se continuate a toccare il tesoro moriremo sepolti dal peso dell'oro!» «D'accordo, non toccate nulla!» ordinò Harry disperato, ma Ron, senza volerlo, urtò col piede uno dei calici caduti e se ne materializzarono altri venti attorno a lui, che prese a saltellare su un piede solo. Parte della scarpa gli si era carbonizzata a contatto col metallo incandescente. «Stai fermo! Non muoverti!» urlò Hermione aggrappandosi a lui. «Guardatevi intorno e basta!» disse Harry. «Ricordate, la coppa è piccola, d'oro, con due manici, ha inciso sopra un tasso, oppure vedete se trovate da qualche parte l'aquila di Corvo Nero!» puntarono le bacchette in tutti gli angoli e le fessure, girando cauti su se stessi. Era impossibile non urtare qualcosa. Harry provocò una cascata di falsi galeoni che si unirono ai calici per terra, e non ci fu più posto dove mettere i piedi, e l'oro splendente avvampava di calore, così che la camera sembrava un forno. La luce della bacchetta di Harry passò su scudi ed elmi di fattura Goblin, disposti su scaffali alti fino a soffitto. Levò il raggio sempre più su, finché all'improvviso incrociò un oggetto che gli fece sussultare il cuore e tremare la mano. «Ella! È lassù!» Anche Ron e Hermione puntarono le bacchette, e la piccola coppa d'oro brillò illuminata come da tre riflettori. Il calice di Tosca tassofrasso, passato poi nelle mani di Epsiba Smith, alla quale Tom Riddle l'aveva rubato. «E come diavolo facciamo ad arrampicarci fin lassù senza toccare nulla?» chiese Ron. «Accio coppa!» gridò Hermione, che nell'affanno si era evidentemente scordata delle istruzioni impartite da Grippok nelle sessioni preparatorie. «Non funziona! Non funziona!» ringhiò il Goblin. «E allora cosa facciamo?» domandò Harry guardandolo accigliato. «Se vuoi la spada, Grippok, dovrai aiutarci più di... un momento! Posso toccare le cose con la spada? Hermione, dammela!» Hermione si frugò nelle vesti, prese la borsetta di perline, virovistò per qualche secondo e ne sfilò la spada scintillante. Harry la afferrò per l'elsa di rubini e toccò con la punta della lama un boccale d'argento, che non si moltiplicò. «Se solo riuscissi a infilare la spada in un manico, ma come faccio ad arrivare lassù?» Lo scaffale sul quale era posata la coppa era fuori dalla portata di tutti loro, compreso Ron, che era il più alto. Il calore del tesoro incantato li investiva a ondate e il sudore scorreva sul viso e lungo la schiena di Harry, che cercava con tutte le forze un modo per raggiungere la coppa. Poi sentì il drago ruggire al di là della porta e un rumore metallico sempre più forte. Erano davvero in trappola, non c'era via d'uscita se non dalla porta e un'orda di Goblin stava probabilmente avanzando dall'altra parte. Harry guardò Ron e Hermione e vide il terrore sui loro volti. «Ermione!» disse sopra il fragore crescente. «Devo arrivare lassù! Dobbiamo prenderla!» Lei alzò la bacchetta, la puntò contro Harry e sussurrò «Levi corpus!» Appeso a mezz'aria per la caviglia, Harry urtò un'armatura da cui sbucarono doppioni come corpi incandescenti a riempire la stanza già stipata. Tra urla di dolore, Ron e Hermione e i due Goblin furono spinti contro altri oggetti che presero a loro volta a moltiplicarsi. Semi sepolti in una marea crescente di tesori bollenti, lottarono e urlarono mentre Harry infilava la spada nel manico della coppa di tassofrasso e la agganciava alla lama. «Impervius!» strillò Hermione nel tentativo di proteggere se stessa, Ron e i due Goblin, dal metallo rovente. Poi, un urlo più orribile degli altri, costrinse Harry a guardare in giù. Ron e Hermione erano sepolti fino alla vita nel tesoro e lottavano per tenere Bogro da galla in quel mare di metallo, ma Gripok era finito sotto e ormai se ne vedeva solo la punta delle lunghe dita. Harry le afferrò e tirò. Il Goblin, coperto di vesciche, emerse poco alla volta, urulando. «Libera corpus!» gridò Harry. Con un gran fracasso, lui e Gripok atterrarono sulla marea montante del tesoro e la spada gli sfuggì di mano. «Prendila!» urlò, cercando di resistere al dolore del metallo infuocato sulla pelle, mentre Gripok gli si arrampicava di nuovo sulle spalle, ben deciso a evitare la massa rigonfia di oggetti incandescenti. «Dov'è la spada? C'era agganciata la coppa!» Il clangore al di là della porta si fece assordante. Era troppo tardi. «Là!» fu Gripok a vederla e attuffarsi, e in quel momento Harry capì che il Goblin non aveva mai pensato che avrebbero mantenuto la parola. Con una mano stretta attorno a una ciocca di capelli di Harry, per non rischiare di affondare nel mare ondeggiante di oro arroventato, Gripok afferrò l'elsa della spada e la sollevò in alto, fuori dalla sua portata. La minuscola coppa d'oro fu scagliata in aria. Con il Goblin ancora sulla schiena, Harry si tuffò e la prese al volo. Sentì che gli ustionava la pelle, ma non la lasciò, nemmeno quando innumerevoli coppe di tassofrasso gli esplosero dal pugno e caddero a pioggia su di lui. In quel momento l'ingresso della camera blindata si riaprì e lui scivolò senza controllo su una valanga di oro ed argento che trasportò lui, Ron e Ermione, fuori dalla camera. Ignorando il dolore delle scottature su tutto il corpo e ancora portato dall'onda del tesoro, Harry si infilò la coppa in tasca e si protese per riprendere la spada, ma Gripok era sparito. Era sceso dalle sue spalle appena aveva potuto ed era corso a nascondersi tra i Goblin che li circondavano, brandendo la spada e strillando «Ladri! Ladri! Aiuto! Ladri!». Sparì nella moltitudine di Goblin che avanzavano armati di pugnali e lo accolsero senza fare domande. Scivolando sul metallo rovente, Harry si rimise in piedi e capì che l'unica via d'uscita era oltre la folla. «Stupeficium!» urlò e Ron e Ermione si unirono a lui. Getti di luce rossa schizzarono nell'orda di Goblin. Alcuni arretrarono, ma altri continuavano a venire avanti e Harry vide dei maghi guardia sbucare da dietro l'angolo. Il drago imprigionato ruggì e un getto di fiamme volò al di sopra dei Goblin. I maghi tornarono indietro di corsa, a testa bassa, e Harry fu colto da un'ispirazione, o forse dalla follia. Puntò la bacchetta contro i ceppi che incatenavano la bestia al suolo e urlò «Relascio!». I ceppi si spezzarono con un colpo secco. «Da questa parte!» urlò Harry e, senza smettere di scagliare schiantesimi contro i Goblin, corse verso il drago cieco. «Harry! Harry! Cosa fai?» urlò Ermione. «Sali, dai! Fa presto!» Il drago non aveva capito di essere libero. Harry trovò col piede l'articolazione della zampa posteriore e gli montò sul dorso. Le squame erano dure come acciaio. La bestia non sembrava nemmeno essersi accorta di lui. Harry tese un braccio. Ermione si issò a cavalcioni. Ron si arrampicò dietro di loro e, un attimo dopo, il drago si rese conto di non essere più incatenato. Si impennò con un ruggito. Harry si puntellò con le ginocchia, reggendosi più forte che poteva alle squame frastagliate. Il drago aprì le ali, abbattendo come birilli i Goblin urlanti. Si alzò in aria e si lanciò nel cunicolo. Harry, Ron e Ermione, appiattiti sul suo dorso, grattavano contro il soffitto, mentre i Goblin tiravano pugnali che rimbalzavano sui fianchi del drago. «Non usciremo mai! È troppo grosso!» urlò Ermione, ma il drago spalancò la bocca ed eruttò altre fiamme, facendo esplodere il tunnel. Soffitto e pavimento si sbriciolarono. A forza di artigli, la bestia cercò di aprirsi un varco. Harry chiuse gli occhi per ripararsi dal calore e dalla polvere. Assordato dal crollo della roccia e dai ruggiti del drago, non poteva far altro che restare aggrappato alla sua schiena, aspettandosi di venire disarcionato da un momento all'altro. Poi udì Ermione gridare «Te fodio!» stava aiutando il drago ad allargare il passaggio, scavando nella parete superiore, intanto che la creatura si arrampicava verso l'aria più fresca, lontano dal rumore e dalle urla dei Goblin. Harry e Ron le diedero manforte, facendo esplodere il soffitto con altri incantesimi. Superarono il lago sotterraneo e l'enorme bestia, che arrancava ringhiando, sembrava avvertire la libertà e lo spazio davanti a sé. Alle loro spalle il tunnel era invaso dalla coda aculeata del drago, da cumuli di rocce, da gigantesche stalattiti spezzate, e il fragore dei Goblin era più soffocato man mano che il drago si apriva la strada col fuoco. Infine, unendo i loro incantesimi alla forza brutta del drago, sbucarono nell'ingresso di marmo. Goblin e Maghi corsero a cercare riparo strillando, e finalmente il drago ebbe spazio per spiegare le ali. Allungò la testa cornuta verso l'aria fresca e libera, che sentiva oltre l'ingresso, e partì. Con Harry, Ron e Ermione, ancora aggrappati sul dorso, diverse le porte di metallo, lasciandole accartocciate appensolare dai cardini, uscì barcollando in diagonalei, e si librò nel cielo. Il nascondiglio finale Non c'era modo di sterzare. Il drago non vedeva dove stava andando, e Harry sapeva che se avesse cambiato bruscamente direzione, o se si fosse rigirato a mezz'aria, non sarebbero riusciti a restare aggrappati al suo vasto dorso. Eppure, mentre salivano sempre più su, e Londra si spiegava sotto di loro come una mappa grigia e verde, il sentimento che riempiva il cuore di Harry era la gratitudine per una fuga che era sembrata impossibile. Schiacciato sul collo della bestia, si leggeva alle squame metalliche, e la brezza fresca era un balsamo sulla sua pelle, scottata e coperta di bolle. Le ali del drago percuotevano l'aria come le pale di un mulino a vento. Dietro di lui, non sapeva se per la gioia o la paura, Ron imprecava a tutta voce, e Ermione si inghiozzava. Dopo cinque minuti, il timore iniziale che il drago se li scrollasse di rosso, in parte svanì, perché sembrava che il suo unico scopo fosse allontanarsi il più possibile dalla prigione sotterranea, ma come quando sarebbero scesi restava un interrogativo abbastanza spaventoso. Harry non aveva idea di quanto potesse volare un drago senza fermarsi, né di come questo drago in particolare, che era semiceco, potesse trovare un buon posto per atterrare. Continuava a guardarsi attorno, immaginando di sentire la cicatrice formicolare. Quanto tempo sarebbe passato prima che Voldemort sapesse che erano penetrati nella camera blindata dei Lestrange? Quanto ci avrebbero messo i goblin della Gringot ad avvertire Bellatrix? Quanto a capire che cos'era stato rubato, e una volta scoperto che era la Coppa d'Oro, Voldemort avrebbe saputo, infine, che stavano cercando gli Horcrux. Il drago sembrava avido di aria più fresca. Continuò a salire finché si ritrovarono a volare tra batuffoli di gelide nuvole, e Harry non riuscì più a distinguere i puntini colorati delle auto che entravano e uscivano dalla capitale. Volarono ancora, verso nord, sulla campagna divise in rettangoli verdi e bruni, sopra strade e fiumi che si srotolavano nel paesaggio come nastri opachi e lucidi. «Secondo te cosa sta cercando?» urlò Ron. «Non ne ho idea!» gridò in risposta Harry. Aveva le mani intirizzite, ma non osava spostarle. Da un po' si chiedeva che cosa avrebbero fatto se avessero visto la costa passare sotto di loro, se il drago si fosse diretto verso il mare aperto. Era gelato e stordito, oltre che disperatamente affamato e assetato. Quando, si chiese, aveva mangiato la bestia per l'ultima volta. Prima o poi avrebbe avuto bisogno di cibo. E se allora si fosse resa conto di avere sulla schiena tre umani del tutto commestibili? Il sole scese nel cielo, ormai color indaco, e ancora il drago volava. Paesi e città scorrevano sotto di loro e la sua ombra enorme scivolava sulla terra come una grande nuvola scura. Ogni parte del corpo di Harry doleva per lo sforzo di leggersi. «È un'impressione!» urlò Ron dopo un lungo silenzio. «O ci stiamo abbassando!» Harry guardò giù e scorse monti di un verde intenso e laghi color rame nel tramonto. Strizzò gli occhi per vedere oltre il fianco del drago e, in effetti, il paesaggio diventava più grande e dettagliato. Si chiese se la bestia avesse intuito la presenza di acqua fresca dai riflessi del sole. Il drago stava calando in grandi cerchi a spirale e pareva puntare verso uno dei laghi più piccoli. «Io dico di saltare quando è abbastanza basso!» gridò Harry agli altri. «Dritto nell'acqua! Prima che si accorga di noi!» Assentirono, Ermione un po' debolmente. Harry vide il ventre ampio e giallo del bestione specchiarsi nella superficie increspata del lago. «Ora!» Si lasciò scivolare sul fianco del drago e si tuffò di piedi. Il salto era più alto di quanto si aspettava. Urtò violentemente l'acqua, affondando come una pietra in un mondo gelido, verde, irto di canne. Scalciò per tornare in superficie e quando affiorò ansimante vide onde allargarsi in cerchio dai punti in cui erano caduti Ron e Ermione. Il drago non si accorse di nulla. Era già 50 metri più avanti e volava basso sul lago per raccogliere acqua nel muso segnato dalle cicatrici. Ron e Ermione riemersero sputacchiando e senza fiato dalle profondità del lago. Il drago continuò a dare gran colpi d'ala e infine atterrò su una riva lontana. Harry, Ron e Ermione nuotarono verso la sponda opposta. Il lago non sembrava profondo. Più che nuotare, ben presto dovettero farsi largo tra le canne e il fango e infine caddero, zuppi, ansimanti e sfiniti, sull'erba scivolosa. Ermione tossiva e tremava. Harry avrebbe volentieri dormito. Invece si alzò barcollando, prese la bacchetta e cominciò a scagliare i soliti incantesimi di protezione tutto attorno. Quando ebbe finito raggiunse gli altri. Li guardò bene per la prima volta dopo la fuga dalla camera blindata. Avevano tutti e due il volto e le braccia coperti di scottature rosse e gli abiti bruciacchiati qua e là. Si stavano tamponando le numerose piaghe con essenza di dittamo, facendo smorfie di dolore. Ermione passò l'essenza a Harry, poi prese tre bottiglie di succo di zucca che aveva portato da Shell Cottage e vesti asciutte per tutti. Si cambiarono e tracannarono il succo. Beh, il lato positivo, osservò infine Ron, seduto a guardare la pelle ricrescergli sulle mani, è che abbiamo l'Orcrux. Quello negativo è che non abbiamo più la spada, concluse Harry a denti stretti, facendosi colare il dittamo su una scottatura attraverso il buco carbonizzato nei jeans. Non abbiamo più la spada, ripete Ron, quel piccolo rognoso doppio giochista. Harry prese l'Orcrux dalla tasca del giacone bagnato che si era appena tolto e lo posò sull'erba davanti a loro. Scintillò al sole attirando i loro sguardi mentre sorseggiavano il succo. Beh, almeno questa volta non possiamo portarlo addosso, sarebbe un po' strano, appeso al collo, commentò Ron asciugandosi le labbra sul dorso della mano. Ermione guardò l'altra riva del lago dove il drago stava ancora bevendo. Cosa pensate che gli succederà? chiese. Se la caverà? Mi sembri Hagrid, rispose Ron. È un drago, Ermione, sa badare a se stesso, è di noi che dobbiamo preoccuparci. In che senso? Beh, non so come dirtelo, continuò Ron, ma secondo me potrebbero essersi accorti che abbiamo rubato alla Gringot. Scoppiarono a ridere tutti e tre e una volta cominciato fu difficile smettere. A Henry facevano male le costore, aveva le vertigini dalla fame, ma si distese sull'erba sotto il cielo infuocato e rise fino ad avere la gola dolorante. Che cosa facciamo allora? domandò Ermione alla fine tornando seria. Lui capirà, vero? Voi sapete chi capirà che sappiamo dei suoi horcrux? Forse avranno troppa paura di dirglielo, tentò Ron speranzoso. Forse faranno finta il cielo, l'odore dell'acqua di lago, il suono della voce di Ron si spensero. Il dolore spaccò la testa di Henry come un colpo di spada. Si trovava in una stanza male illuminata, davanti ad alcuni maghi disposti a semicerchio, e ai suoi piedi era inginocchiata una piccola creatura scossa dai brividi. Che cosa hai detto? La sua voce era acuta e fredda, ma dentro bruciava di rabbia e di paura. L'unica cosa che aveva temuto, ma non poteva essere vero, non capiva come. Il goblin tremava, incapace di incrociare lo sguardo rosso sopra di lui. Ripetilo, mormorò Voldemort. Ripetilo! Mio signore, balbettò il goblin, gli occhi neri dilatati dal terrore. Mio signore, noi abbiamo cercato di fermarli. Impostori, mio signore, si sono insinuati nella camera le strange. Impostori? Che impostori? Credevo che la Gringot sapeste come smascherare gli impostori. Chi erano? Erano il ragazzo, Potter e due complici. E cosa hanno preso? Domandò alzando la voce, mentre un terrore tremendo si impadroniva di lui. Dimmelo, che cosa hanno portato via? Una piccola coppa d'oro, mio signore. L'urlo di rabbia, di rifiuto, uscì da lui come da un estraneo. Era pazzo, fuori di sé. Non poteva essere vero. Era impossibile. Nessuno aveva mai saputo. Com'era possibile che quel ragazzo avesse scoperto il suo segreto? La bacchetta di Sambuco tagliò l'aria e una luce verde schizzò nella stanza. Il goblin inginocchiato cadde, morto, e i maghi si dispersero terrorizzati. Bellatrix e Lucius Malfoy ne travolsero alcuni nella loro fuga verso la porta, e la sua bacchetta calò di nuovo, e coloro che erano rimasti furono trucidati, tutti, per avergli portato quella notizia, per aver saputo della coppa d'oro. Solo tra i cadaveri marciava avanti e indietro, e gli passarono davanti come in una visione. I suoi tesori, le sue difese, le sue ancore all'immortalità. Il diario era stato distrutto, la coppa rubata, e se, se il ragazzo sapeva anche degli altri, poteva sapere, aveva già agito, ne aveva trovati altri. C'era Silente dietro tutto questo. Silente, che aveva sempre sospettato di lui. Silente, morto per l'ordine suo. Silente, di cui ora possedeva la bacchetta, e che si protendeva ancora dall'ignominia della morte attraverso il ragazzo. Il ragazzo. Ma di certo, se il ragazzo avesse distrutto alcuni dei suoi horcrux, lui, Voldemort, l'avrebbe saputo, l'avrebbe sentito. Lui, il mago più grande di tutti, il più potente. Lui, che aveva ucciso Silente, e chissà quanti altri uomini, senza nome né valore. Come poteva, Lord Voldemort, non sapere se la sua stessa anima, importante e preziosa, era stata attaccata, mutilata. Vero, non aveva provato niente quando il diario era stato distrutto, ma era perché non aveva un corpo con cui percepire sensazioni. Allora era meno di un fantasma. No, gli altri erano al sicuro. Gli altri horcrux dovevano essere intatti. Ma doveva sapere. Doveva esserne certo. Misurò la stanza a grandi passi, scalciando via il corpo del goblin, e le immagini si confusero e bruciarono nel suo cervello ribollente. Il lago, la baracca, Hogwarts. Un briciolo di calma raffreddò la sua rabbia. Come poteva sapere il ragazzo che aveva nascosto l'anello nella baracca dei Gantt? Nessuno aveva mai saputo della sua parentela con i Gantt. L'aveva tenuta nascosta. Gli omicidi non erano mai stati attribuiti a lui. L'anello era al sicuro. E come avrebbe potuto il ragazzo o chiunque altro, sapere della caverna o infrangerne le protezioni. La sola idea che il medaglione venisse rubato era assurda. Quanto alla scuola, lui solo sapeva dove aveva nascosto l'horcrux a Hogwarts, perché lui solo aveva scandagliato i suoi più profondi segreti. E c'era ancora Nagini, che doveva restargli vicina, ora non andare più a eseguire i suoi ordini, restare sotto la sua protezione. Ma per esserne certo, del tutto certo, doveva tornare ai nascondigli, raddoppiare le difese attorno a ciascuno dei suoi horcrux. Un compito, come la ricerca della bacchetta di Sambuco, che doveva affrontare da solo. Quale avrebbe dovuto visitare per primo? Qual era in maggiore pericolo? Un'antica inquietudine guizzò dentro di lui. Silente conosceva il suo secondo nome. Silente poteva aver fatto il collegamento con i Gant. La loro casa abbandonata era forse il nascondiglio meno sicuro. Era là che sarebbe andato subito. Il lago? Impossibile, anche se c'era una minima eventualità che Silente avesse scoperto alcuni dei suoi misfatti passati attraverso l'orfanotrofio. E Hogwarts? Ma sapeva che il suo horcrux là era al sicuro. Era impossibile che Potter andasse a Smith senza essere intercettato, men che meno a scuola. Tuttavia era più prudente avvertire Piton che il ragazzo avrebbe potuto cercare di tornare al castello. Spiegargli il perché, ovviamente, sarebbe stato sciocco. Era stato un grave errore fidarsi di Bellatrix e di Malfoy. La loro stupidità e negligenza non avevano dimostrato quanto è incauto sempre fidarsi. Sarebbe andato prima alla baracca dei Gant allora, portando Nagini con sé. Non si sarebbe più separati, dal serpente. Lasciò la stanza, attraversò l'atrio e uscì nel giardino buio dove mormorava la fontana. Chiamò in serpentese il rettile che arrivò scivolando come una lunga ombra. Harry spalancò gli occhi, costringendosi a tornare al presente. Era disteso sulla riva del lago, al tramonto, e Ron e Ermione erano chini su di lui. A giudicare dalla loro aria preoccupata e dal continuo pulsare della cicatrice, la sua improvvisa escursione nella mente di Voldemort non era passata inosservata. Si mise faticosamente a sedere, tremante, un po' sorpreso di essere ancora completamente zuppo, e vide la coppa che giaceva innocente nell'erba davanti a lui e il lago, blu scuro, macchiato d'oro, dal sole calante. «Lo sa!» La sua voce era stranamente bassa dopo le urla acute di Voldemort. «Lo sa! E andrà a controllare gli altri! E l'ultimo! Era già in piedi! È a Hogwarts! Lo sapevo! Lo sapevo!» «Cosa?» Ron lo guardava a bocca aperta. Ermione si inginocchiò, preoccupata. «Ma cosa hai visto? Come fai a saperlo?» «Ho visto che gli dicevano della coppa! Ero... Ero dentro la sua testa! Lui è...» Harry ricordò tutti quei morti. «È davvero arrabbiato e anche spaventato! Non capisce come abbiamo fatto a saperlo! E adesso andrà a controllare che gli altri siano al sicuro, prima di tutti l'anello! Crede che quello nascosto a Hogwarts sia più al sicuro degli altri, perché c'è Piton, perché sarà quasi impossibile non farci prendere se ci torniamo. Credo che quello lo controllerà per ultimo, ma potrebbe comunque arrivare entro poche ore». «Hai visto dov'è a Hogwarts?» chiese Ron alzandosi. «No! Stava pensando ad avvertire Piton. Non si è concentrato sul posto. Un momento! Un momento!» gridò Ermione quando Ron raccolse l'Orklux e Harry tirò di nuovo fuori il mantello dell'invisibilità. «Non possiamo andare e basta! Non abbiamo un piano! Dobbiamo... dobbiamo muoverci!» ribatté Harry deciso. Aveva sperato di dormire, desiderato di entrare nella nuova tenda, ma al momento era impossibile. «Ve lo immaginate cosa farà quando scoprirà che l'anello e il medaglione sono spariti e se sposta l'Orklux da Hogwarts si decide che non è abbastanza al sicuro? Ma come faremo a entrare? Andremo a Hogsmeade», rispose Harry, «e cercheremo di inventarci qualcosa quando avremo scoperto quali protezioni circondano la scuola. Vieni sotto il mantello, Ermione. Questa volta dobbiamo restare uniti». «Ma non ci stiamo! Sarà buio, nessuno noterà i nostri piedi!» Un battito di ali enormi e cheggiò attraverso l'acqua scura. Il drago aveva finito di bere e si era alzato in volo. Si fermarono per guardarlo salire sempre più in alto, nero contro il cielo che si abbuiava rapidamente, finché non sparì oltre una montagna vicina. Poi Ermione fece un passo avanti e si sistemò tra i due amici. Harry cercò di abbassare il più possibile il mantello e insieme girarono sul posto, vorticando nella tenebra opprimente. Lo specchio mancante I piedi di Harry toccarono il suolo, vide High Street di Hogsmeade, dolorosamente familiare, vetrine buie, il profilo delle montagne nere oltre il villaggio, la curva là in fondo che portava Hogwarts e la luce alle finestre dei tre manici di scopa. Con una stretta al cuore fu trafitto dal ricordo di come fosse arrivato proprio lì, quasi un anno prima, sorreggendo un silente senza forze. Tutto questo nell'istante dell'atterraggio, ma quando ancora stava allentando la stretta sulle braccia di Ron e Ermione, accadde. Un urlo simile a quello di Voldemort, quando aveva scoperto il furto della coppa, lacerò l'aria. Scosse tutti i nervi di Harry e lui capì immediatamente che a provocarlo era stato il loro arrivo. Guardò gli amici sotto il mantello e la porta dei tre manici di scopa si spalancò. Una decina di mangiamorte avvolti nei mantelli e incappucciati si riversarono in strada, le bacchette pronte. Harry afferrò Ron per il polso prima che alzasse la sua. Ce n'erano troppi per antarli e provandoci avrebbero rivelato la loro posizione. Un mangiamorte agitò la bacchetta e l'urlo cessò. Continuò però a echeggiare tra le montagne in lontananza. «Caccio mantello!» ruggì un altro mangiamorte. Harry lo tenne stretto, ma il mantello non si mosse. L'incantesimo di appello non aveva funzionato. «Non sei sotto la tua coperta, eh, Potter!» urlò il mangiamorte che aveva tentato l'incantesimo e poi ai suoi compagni. «Sparpagliatevi! È qui!» Sei mangiamorte corsero verso di loro. Harry, Ron e Ermione si infilarono a tutta velocità nella strada laterale più vicina e i mangiamorte li mancarono per pochi centimetri. Attesero nel buio, ascoltando i passi dei mangiamorte che correvano avanti e indietro, proiettando con le bacchette raggi di luce lungo la strada. «Andiamo via!» sussurrò Ermione. «Smaterializziamoci subito! Ottima idea!» disse Ron, ma prima che Harry potesse rispondere, un mangiamorte urlò. «Sappiamo che sei qui, Potter! Non hai scampo! Ti troveremo!» «Ci stavano aspettando!» bisbigliò Harry. «Hanno predisposto quell'incantesimo per intercettarci. Avranno anche escogitato qualcos'altro per trattenerci qui, per intrappolarci!» «Ei dissennatori!» gridò un altro mangiamorte. «Liberiamoli! Lo troveranno subito!» «Il Signore Oscuro vuole che Potter muoia per mano sua! Ma i dissennatori non lo uccideranno! Il Signore Oscuro vuole la vita di Potter, non la sua anima! Sarà più facile ucciderlo se prima è stato baciato!» Voci di assenso. Il terrore si impadronì di Harry. Per respingere i dissennatori avrebbero dovuto evocare dei patroni che li avrebbero traditi all'istante. «Dobbiamo provare a smaterializzarci, Harry!» ripetè Hermione in un sussurro. Lui avvertì il freddo innaturale calare sulla strada. La luce fu risucchiata da tutto fino alle stelle che sparirono. Nell'oscurità totale sentì Hermione prenderlo per mano e girarono sul posto insieme. L'aria attraverso la quale avrebbero dovuto spostarsi sembrava solidificata. Non potevano smaterializzarsi. I Mangiamorte avevano fatto le cose per bene. Il freddo mordeva sempre più a fondo le carni di Harry. Arretrò ancora con Ron e Hermione lungo la stradina laterale, seguendo i muri a tentoni, cercando di non far rumore. Poi i dissennatori girarono l'angolo silenziosi. Erano dieci o più, visibili perché fatti di un buio più denso di ciò che li circondava, con i loro mantelli neri e le mani putrefatte. Potevano sentire la paura. Sì, Harry ne era certo. Adesso erano più rapidi e traevano quei respiri corti e rocchi che detestava, assaporando la disperazione nell'aria, sempre più vicini. Alzò la bacchetta. Non poteva, non voleva subire il bacio dei dissennatori, a qualsiasi costo. Fu a Ron e Hermione che pensò, quando sussurrò, «Expecto patronum!». Il cervo d'argento uscì dalla sua bacchetta e caricò. I dissennatori si dispersero e da un punto nel buio si levò un urlo di trionfo. «E' lui! Laggiù, laggiù! Ho visto il suo patronus! È un cervo!». I dissennatori si ritirarono, ricomparvero le stelle e i passi dei mangiamorte divennero più sonori, ma prima che Harry, in preda al panico, riuscisse a decidere che fare, udì un rumore di catenacci. Una porta si aprì sulla sinistra della stradina e una voce roca chiamò. «Potter, qui dentro, presto!» obbedì senza esitare. I tre si precipitarono oltre la soglia. «Di sopra, tenete addosso il mantello, fate piano!» borbottò una figura alta, che gli oltrepassò per uscire in strada e si chiuse la porta alle spalle con un tonfo. Harry non aveva idea di dove fossero, ma alla luce esitante di una sola candela riconobbe il sudicio pavimento coperto di segatura della testa di porco. Corsero dietro il banco, oltre una seconda porta che conduceva a una traballante scala di legno e salirono più veloci che poterono. Arrivarono in un salotto con un tappeto liso e un piccolo camino, sopra il quale era appeso un grande ritratto a olio di una ragazza bionda che guardava la stanza con una sorta di vacua dolcezza. Dalla strada giungevano delle urra. Ancora avvolti nel mantello dell'invisibilità, i tre strisciarono verso la finestra velata di sporco e guardarono giù. Il loro salvatore, che Harry riconobbe come il barista della testa di porco, era l'unico a capo scoperto. «E allora?» stava urlando contro uno degli incappucciati. «E allora?» «Se portate i dissennatori nella mia via, io gli spedisco contro un patronus. Non li voglio vicini, ve l'ho detto, non lo tollero!» «Quello non era il tuo patronus!» ribatte un mangiamorte. «Quello era un cervo! Era di Potter!» «Un cervo!» ruggì il barista ed estrasse la bacchetta. «Un cervo! Idiota! Expecto patronum!» Qualcosa di grosso e cornuto eruppe dalla bacchetta. A testa bassa si avventò verso High Street e sparì. «Non è quello che ho visto io!» osservò il mangiamorte, ma non era più tanto sicuro. «Il coprifuoco è stato violato! Hai sentito il segnale!» insiste uno dei suoi compagni. «C'era qualcuno per la strada e contro le regole! Se mi va di far uscire il gatto, lo faccio! È al diavolo il vostro coprifuoco!» «Sei stato tu a far scattare l'incanto gnaulante! E allora? Mi mandate ad Azkaban? Volete uccidermi perché ho messo il naso fuori dalla porta di casa mia? Prego, fate pure! Ma spero per il vostro bene che non abbiate schiacciato i vostri piccoli marchi neri, per chiamarlo! Non sarà contento di essere stato convocato per me e il mio vecchio gatto, eh?» «Non preoccuparti per noi!» ribatte un mangiamorte. «Bada a te stesso! Hai violato il coprifuoco! E dov'è che farete i vostri commerci di pozioni e veleni quando il mio pub sarà chiuso? Che ne sarà dei vostri piccoli traffici? Stai minacciando? Io tengo la bocca chiusa e per questo che venite qui, no? Ripeto che ho visto un patronus cervo!» urlò il primo mangiamorte. «Cervo?» tuonò il barista. «È una capra, idiota!» «D'accordo, ci siamo sbagliati!» ammise il secondo mangiamorte. «Viola ancora il coprifuoco e non saremo così indulgenti!» I mangiamorte tornarono verso High Street. Hermione gemette di sollievo, uscì da sotto il mantello e si lasciò cadere su una sedia traballante. Harry chiuse con cura le tende, poi tirò via il mantello da sé e Ron. Sentirono il barista sprangare di nuovo la porta di sotto e salire le scale. L'attenzione di Harry fu catturata da qualcosa sulla mensola del cammino, un piccolo specchio rettangolare appoggiato sotto il ritratto della fanciulla. Il barista entrò. «Maledetti imbecilli!» mugugnò Burbero, guardandoli uno alla volta. «Come vi è saltato in mente di venire qui?» «Grazie!» replicò Harry. «Non potremo mai ringraziarla abbastanza. Ci ha salvato la vita!» Il barista grugnì. Harry si avvicinò e lo osservò, cercando di vedere oltre i lunghi, stopposi capelli, grigio ferro e la barba. Portava gli occhiali. Dietro le lenti sudice, gli occhi erano di un azzurro vivido e penetrante. «È il suo occhio, quello che ho visto nello specchio!» Nella stanza calò il silenzio. Harry e il barista si fissarono. «Lei ci ha mandato Dobby!» Il barista annuì e si guardò intorno, in cerca dell'elfo. «Pensavo che fosse con voi! Dove l'avete lasciato?» «È morto!» rispose Harry. L'ha ucciso Bellatrix Lestrange. Il volto del barista rimase impassibile. Dopo qualche istante l'uomo disse «Mi dispiace! Mi stava simpatico quell'elfo!» Si voltò e accese le lampade a colpi di bacchetta, evitando di guardarli. «Lei è Aberforth!» mormorò Harry, rivolto alla schiena dell'uomo. Questi non confermò e non negò, ma si chinò ad accendere il fuoco. «Come l'ha avuto?» chiese Harry avvicinandosi allo specchio di Sirius, il gemello di quello che aveva rotto quasi due anni prima. «L'ho comprato da Mandangus un annetto fa!» rispose Aberforth. «Albus mi aveva detto cos'era. Cercavo di tenervi d'occhio!» Ron rimase senza fiato. «La cerva d'argento!» esclamò eccitato. «Era sempre lei! Di cosa stai parlando?» chiese Aberforth. «Qualcuno ci ha mandato un Patronus a forma di cerva! Con un cervello del genere potresti essere un mangiamorte, ragazzo! Non hai appena visto che il mio Patronus è una capra?» «Oh!» fece Ron. «Sì! Beh, ho molta fame!» aggiunse a mo' di scusa, mentre il suo stomaco gorgogliava fragoroso. «Ho del cibo!» ribatté Aberforth e uscì dalla stanza. Riapparve qualche minuto dopo con una grossa pagnotta, del formaggio e una caraffa di peltro colma di idromele che posò su un tavolino davanti al fuoco. Affamati, mangiarono e bevero e per un po' gli unici rumori furono lo scoppiettio del fuoco, il tintinio dei bicchieri e il rumore delle mascelle. «Bene!» cominciò Aberforth quando si furono saziati. Harry e Ron si erano abbandonati sonnolenti nelle poltrone. «Dobbiamo pensare al modo migliore per tirarvi fuori di qui. Di notte non si può. Avete sentito cosa succede se si esce di casa con il buio? Parte l'incanto gnaulante e vi saltano addosso come asticelli sulle uova di Doxy. Non credo di poter far passare un cervo per una capra un'altra volta. All'alba, quando cesserà il coprifuoco, potrete rimettervi il mantello e andarvene a piedi. Uscite subito da Hogsmeade, andate sulle montagne. Là potrete smaterializzarvi. Magari incontrate Hagrid. Si nasconde lassù in una grotta con Gropp da quando hanno cercato di arrestarlo. «Noi non ce ne andiamo», rispose Harry. «Dobbiamo entrare a Hogwarts». «Non essere stupido, ragazzo!» replicò Aberforth. «Dobbiamo», insiste Harry. «Quello che dovete fare», osservò Aberforth chinandosi in avanti, «è andare il più lontano possibile da qui». «Lei non capisce. Non c'è molto tempo. Dobbiamo entrare nel castello». Silente, cioè suo fratello, voleva che noi...» Per un attimo la luce del fuoco rese le lenti unte degli occhiali di Aberforth opache, di un bianco luminescente e piatto, che a Harry ricordò gli occhi ciechi del ragno gigante, Aragog. «Mio fratello Albus voleva un sacco di cose», commentò Aberforth. «E di solito la gente aveva il vizio di farsi del male nel corso dei suoi grandiosi piani. Vattele da questa scuola, Potter, e anche dal paese, se puoi. Dimentica mio fratello e i suoi audaci progetti. È andato dove niente di tutto questo può ferirlo, e tu non gli devi nulla». «Lei non capisce», ripetè Harry. «Oh, davvero?» mormorò Aberforth. «Tu credi che io non capissi mio fratello? Credi di aver conosciuto Albus meglio di me?» «Non è questo che volevo dire», replicò Harry, un po' inebetito dalla stanchezza e dall'eccesso di cibo e vino. «E che mi ha lasciato un compito». «Ma davvero?» fece Aberforth. «Un bel lavoretto, spero. Piacevole? Facile? Il genere di cosa che un qualsiasi maghetto possa eseguire senza troppi sforzi?» Ron sbottò in una risata cupa. Ermione era tesa. «Io... non è facile, no», rispose Harry. «Ma devo». «Devi? Perché devi? È morto, no?» insistè Aberforth senza riguardo. «Lascia perdere, ragazzo, se non vuoi fare la sua fine. Salvati! Non posso. Perché no?» Harry era sopraffatto. Non riusciva a spiegarsi, quindi decise di contrattaccare. «Ma anche lei lotta. Fa parte dell'Ordine della Fenice. Una volta, lo corresse Aberforth, l'Ordine della Fenice non c'è più. Tu sai chi ha vinto. È finita. E chiunque finga di credere il contrario si sbaglia. Qui non sarai mai al sicuro, Potter. Lui ti vuole troppo. Vai all'estero. Entra in clandestinità. Salvati. Meglio se porti questi due con te», e indicò Ron e Ermione col pollice. «Saranno sempre in pericolo, adesso che tutti sanno che lavorano con te. Non posso andar via. Ho un compito. Passalo a qualcun altro. Non posso. Devo essere io. Silente mi ha spiegato. Oh, davvero? E ti ha detto tutto? È stato onesto con te?» Harry avrebbe voluto con tutto il cuore rispondere di sì, ma quel semplice monosillabo non gli salì alle labbra. Aberforth parve capire che cosa stava pensando. «Conoscevo mio fratello, Potter. Ha succhiato la segretezza con il latte di mia madre. Segreti e bugie. Ecco come siamo cresciuti. E Albus aveva un talento naturale». Lo sguardo del vecchio si posò sul ritratto della fanciulla sopra il camino. Harry si accorse che era la sola immagine nella stanza. Non c'erano foto di Albus Silente né di altri. «Signor Silente», intervenne timidamente Ermione, «quella è sua sorella, Ariana?» «Sì», rispose subito Aberforth. «Hai letto Rita Skeeter, eh, signorina?» Anche alla luce rosata del fuoco si notava che Ermione era arrossita. «Ce ne ha parlato Elfias Doge», spiegò Harry cercando di difendere Ermione. «Quel vecchio stupido», borbottò Aberforth, tracannando un'altra sorsata di idromele. «Era convinto che il sole brillasse da tutti i pori di mio fratello. Beh, come un sacco di altra gente, voi tre compresi, a quanto pare». Harry rimase in silenzio. Non era il momento di manifestare i dubbi che lo arrovellavano da mesi. Aveva fatto la sua scelta scavando la tomba per Dobby. Aveva deciso di proseguire lungo il tortuoso, rischioso sentiero tracciato per lui da Albus Silente, di accettare che non gli fosse stato detto tutto ciò che avrebbe voluto sapere, ma di fidarsi e basta. Non nutriva alcun desiderio di dubitare ancora. Non voleva sentir dire nulla che lo distogliesse dal suo scopo. Incrociò lo sguardo di Aberforth straordinariamente simile a quello del fratello. Gli occhi azzurri sembravano passare ai raggi X, l'oggetto del loro esame, proprio allo stesso modo. Harry pensò che Aberforth sapesse che cosa stava pensando e lo disprezzasse per questo. «Il professor Silente teneva, Harry, ci teneva molto», mormorò Ermione. «Ma davvero?» ribatté Aberforth. «È buffo! Un sacco di persone a cui mio fratello teneva molto. Sono finite peggio che se le avesse lasciate in pace». «Cosa vuol dire?» chiese Ermione trepidante. «Lascia perdere», rispose Aberforth. «Ma è una cosa grave da dire», obiettò Ermione. «Lei si riferisce a sua sorella». Aberforth la scrutò accigliato. Le sue labbra si morsero come se stessero masticando le parole che tratteneva. Poi sbottò. «Quando mia sorella aveva sei anni, fu aggredita da tre ragazzi babbani. L'avevano vista fare magie, spiando attraverso la siepe del giardino. Era una bambina. Non poteva controllarlo. Nessuno ci riesce a quell'età. Erano spaventati, immagino. Attraversarono a forza la siepe. E quando lei non riuscì a spiegare il trucco, esagerarono un po' nel tentativo di fermare la mostricciattola. Gli occhi di Ermione erano enormi alla luce del fuoco. Ron pareva nauseato. Aberforth si levò in piedi, alto come silente, improvvisamente terribile nella rabbia e nell'intensità del suo dolore. «L'hanno distrutta! Non si è mai più ripresa! Non voleva usare la magia, ma non poteva sbarazzarsene. Si è come rigirata dentro di lei e l'ha fatta impazzire. Esplodeva quando lei non riusciva a dominarla e a volte era strana, pericolosa, ma la maggior parte del tempo era dolce, spaventata e innocua. «Mio padre inseguì quei bastardi», continuò Aberforth, «e li aggredì. Lo rinchiusero ad Azgaban. Non disse mai perché l'aveva fatto, perché se il ministero avesse scoperto cos'era diventata ariana, l'avrebbe fatta rinchiudere per sempre al San Mungo. L'avrebbero considerata una minaccia allo statuto internazionale di segretezza, squilibrata com'era, con la magia che le schizzava fuori quando non riusciva più a controllarla. Dovevamo tenerla al sicuro, nascondere le sue condizioni. Abbiamo traslocato, abbiamo messo in giro la voce che era ammalata e mia madre si è occupata di lei, cercava di farla stare tranquilla e serena. «Ero io il suo preferito», aggiunse, e in quel momento un ragazzino sporco balenò sotto le rughe la barba arruffata di Aberforth. «Non Albus! Lui stava sempre in camera sua quando era a casa, a leggere i suoi libri e contare i suoi premi, a mantenere viva la corrispondenza con i maghi più influenti dell'epoca!» rise. Non aveva tempo da perdere con lei. Lei preferiva me. Io riuscivo a farla mangiare quando non ce la faceva mia madre. Io riuscivo a calmarla durante i suoi accessi e quando era tranquilla mi aiutava a dar da mangiare alle capre. Poi, a quattordici anni, beh, io non c'ero. Se ci fossi stato, sarei riuscito a calmarla. Ebbe uno dei suoi attacchi e mia madre non era più giovane come una volta e... fu un incidente. Ariana non riuscì a controllarsi, ma mia madre rimase uccisa. Harry provò un orribile misto di pietà e ripugnanza. Non voleva sentire altro, ma Aberforth continuò a raccontare e lui si chiese da quanto tempo non ne parlava o se ne avesse mai parlato. E questo mandò a monte il viaggio di Albus attorno al mondo col piccolo Doge. I due tornarono per il funerale di mia madre e poi Doge partì da solo e Albus diventò il capo famiglia. Ah! Aberforth sputò nel fuoco. Avrei badato io a lei. Le lo dissi. A me non importava della scuola. Sarei rimasto a casa volentieri. Mi rispose che dovevo completare la mia istruzione e che avrebbe preso lui il posto di mia madre. Un bel passo indietro per il signor genio. Non ti danno premi per star dietro a una sorella mezza matta, per impedirle di far saltare in aria la casa un giorno sì e uno no. Ma Albus se la cavò per qualche settimana finché non arrivò quell'altro. Ora Aberforth aveva un'espressione decisamente minacciosa. Grindelwald. Finalmente mio fratello aveva trovato un suo pari con cui parlare. Un ragazzo intelligente e dotato quanto lui. E allora Ariana passò in secondo piano perché loro avevano i loro progetti per un nuovo ordine magico da ideare e i doni da cercare o quel che era che li interessava tanto. Progetti grandiosi per il bene di tutta la stirpe magica. E se una ragazzina veniva trascurata che importanza aveva visto che Albus lavorava per il bene superiore. Ma dopo qualche settimana non ne potevo più. Era quasi il momento di tornare a Hogwarts. Così gliel'ho detto a tutti e due. Faccia a faccia. Così come adesso sono qui con voi? Aberforth abbassò lo sguardo su Harry e non ci volle molta immaginazione per figurarselo come un adolescente magro e arrabbiato che affrontava il fratello maggiore. Ho detto è meglio che lasci perdere adesso. Non puoi spostarla. Non sta abbastanza bene. Non te la puoi portare dietro ovunque tu stia pensando di andare a fare i tuoi discorsi, a cercare di farti un seguito. Non gli è piaciuto, continuò Aberforth, gli occhi schermati per un attimo dalla luce del fuoco sulle lenti che brillarono di nuovo vuote e bianche. A Grindelwald non è piaciuto per niente. Si è arrabbiato. Mi ha detto che era un ragazzino stupido, che cercavo di intralciare lui e quel genio di mio fratello. Non capivo che la mia povera sorella non avrebbe più dovuto nascondersi una volta che avessero cambiato il mondo, liberato i maghi dalla clandestinità ed emarginato i babbani. Scoppiò una lite. Io presi la mia bacchetta e lui la sua e il migliore amico di mio fratello mi inflisse la maledizione Cruciatus. Albus cercò di fermarlo e ci ritrovammo tutti e tre a lottare e i lampi e le esplosioni la facevano impazzire. Non riusciva a sopportarlo. Il volto di Aberforth impallidì come se avesse subito una ferita mortale. Io credo che volesse aiutarmi, ma non sapeva quello che faceva. Non so chi di noi sia stato. Potrebbe essere stato chiunque. E morì. La voce gli si spezzò sull'ultima parola e lui si lasciò cadere sulla sedia più vicina. Il viso di Hermione era bagnato di lacrime e Ron era pallido quasi quanto lui. Harry non provava altro che disgusto. Avrebbe preferito non ascoltare. Avrebbe desiderato potersi ripulire la mente da tutto questo. «Mi... mi spiace tanto», sussurrò Hermione. «Perduta», mormorò Aberforth. «Perduta per sempre». Si asciugò il naso sul polsino e si schiarì la gola. Naturalmente Grindelwald tagliò la corda. Aveva già collezionato una bella lista di malefatte nel suo paese e non voleva che anche Ariana fosse messa sul suo conto. E così Albus era libero. Libero dal fardello della sorella. Libero di diventare il mago più grande del... «Non è mai stato libero», lo interruppe Harry. «Come?» chiese Aberforth. «Mai», ripeté Harry. La notte che morì, suo fratello aveva bevuto una pozione che lo fece uscire di senno. Urlava, supplicava qualcuno che non c'era. «Non far del male a loro, ti prego, fai male a me invece». Ron e Hermione lo fissarono. Non aveva mai raccontato nei particolari che cosa era accaduto sull'isola al centro del lago. Gli eventi dopo il ritorno suo e di Silente a Hogwarts avevano eclissato tutto il resto. «Credeva di essere di nuovo con lei e Grindelwald, lo so», continuò Harry, ricordando il piagnucolio e le suppliche di Silente. «Vedeva Grindelwald che faceva del male a lei e ad Ariana. Era una tortura per lui. Se l'avesse visto allora non direbbe che era libero». Aberforth sembrava smarrito nella contemplazione delle proprie mani nodose e coperte di vene. Dopo una lunga pausa domandò «Come fai, Potter, a essere sicuro che mio fratello non fosse più interessato al bene superiore che a te? Come fai a essere sicuro di non essere superfluo come la mia sorellina». Una scheggia di ghiaccio perforò il cuore di Harry. «Non ci credo. Silente voleva bene a Harry», intervenne Ermione. «Perché non gli ha detto di nascondersi allora?» ribatté Aberforth. «Perché non gli ha detto «Pensa a te stesso, è così che si sopravvive». «Perché?» rispose Harry prima che potesse farlo Ermione. «A volte bisogna pensare a qualcosa di più della propria salvezza. A volte bisogna pensare al bene superiore. Questa è una guerra». «Hai dieciassette anni, ragazzo. Sono maggiorenne e continuerò a combattere anche se lei si è arreso». «Chi ha detto che mi sono arreso?» «L'ordine della Fenice non c'è più», ripetè Harry. «Tu sai chi ha vinto. È finita e chiunque finga di credere il contrario si sbaglia». «Non dico che mi piace, ma è la verità». «No, non lo è», disse Harry. «Suo fratello sapeva come annientare lei sa chi e me l'ha spiegato. Continuerò a tentare finché non ci riuscirò o morirò. Non pensi che io non sappia come potrebbe andare a finire. Lo so da anni!» Aspettò che Aberforth ridesse di lui o replicasse. Ma non lo fece. Si limitò ad aggrottare le sopracciglia. «Dobbiamo entrare a Hogwarts», riprese Harry. «Se non può aiutarci, aspetteremo l'alba. La lasceremo in pace e cercheremo di trovare un modo da soli. Se invece può, beh, questo è un ottimo momento per dirlo». Aberforth rimase immobile sulla sedia, scrutando Harry con il suo sguardo così straordinariamente simile a quello del fratello. Infine si schiarì la voce, si alzò, fece il giro del tavolino e si avvicinò al ritratto di Ariana. «Sai cosa fare?» le disse. Lei sorrise, si voltò e se ne andò, non come le altre persone nei ritratti, dal lato della cornice, ma in quello che sembrava un lungo tunnel dipinto dietro di lei. Guardarono la sua figura sottile allontanarsi, inghiottita dall'oscurità. «Ehm, cosa?» fece Ron. «C'è solo un modo per entrare, ormai», spiegò Aberforth. «Dovete sapere che sorvegliano tutti i vecchi passaggi segreti da una parte e dall'altra. Ci sono dissennatori tutto attorno alle mura di cinta e pattuglie regolari dentro la scuola, stando alle mie fonti. Hogwarts non è mai stata così ben sorvegliata. Cosa pensi di poter fare una volta dentro, con Piton al comando e i Carrow come suoi vice? Beh, in fondo è quello che cerchi, no? Hai detto che sei pronto a morire!» «Ma cosa?» mormorò Ermione, guardando accigliata il ritratto di Ariana. Un puntino bianco era ricomparso in fondo al tunnel dipinto. Ariana stava tornando verso di loro, diventando sempre più grande man mano che si avvicinava. Ma c'era qualcun altro, qualcuno più alto di lei, che zoppicava al suo fianco e sembrava emozionato. I suoi capelli erano più lunghi di quanto Henry li avesse mai visti. Aveva diversi tagli sul viso e gli abiti laceri. Le due figure si ingrandirono finché le loro teste e le spalle riempirono il ritratto. Poi il quadro scattò in avanti come una porticina, rivelando l'ingresso di un vero tunnel. E dal tunnel, zazzeruto, ferito, stracciato, sbucò il vero Neville Longbottom, che scoppiò in un ruggito di gioia, balzò giù dalla mensola del camino e gridò «Sapevo che saresti venuto! Lo sapevo, Henry!» Il diadema perduto. «Neville! Cosa? Come?» Ma Neville aveva visto Ron e Ermione e li stava abbracciando tra urla di felicità. Più Henry lo guardava, più gli pareva mal ridotto. Aveva un occhio gonfio, giallo e viola, ferite sul viso e tutto il suo aspetto trasandato faceva pensare che stesse vivendo momenti difficili. Ma il suo volto ammaccato splendeva di gioia quando lasciò andare Ermione e ripetè «Sapevo che saresti venuto! L'ho detto mille volte a Simus, che era solo questione di tempo!» «Neville, cosa ti è successo?» «Cosa? Questo?» Neville liquidò le ferite con una scrollata del capo. «Non è niente! Simus è messo peggio! Vedrai! Andiamo allora!» «Oh!» E si rivolse ad Aberforth. «Ab, ce n'è un altro paio in arrivo!» «Un altro paio?» ripetè Aberforth minaccioso. «Come sarebbe un altro paio, Longbottom! Ci sono il coprifuoco e l'incanto gnaulante su tutto il villaggio!» «Lo so, infatti si materializzeranno direttamente nel pub», rispose Neville. «Mandali su per il tunnel quando arrivano, d'accordo? Grazie mille!» Neville porse la mano a Ermione e la aiutò ad arrampicarsi sulla mensola e poi nella galleria. Ron la seguì, poi toccò a Neville. Harry si rivolse ad Aberforth. «Non so come ringraziarla! Ci ha salvato la vita due volte!» «Allora tenetevela stretta!» ribattè Aberforth burbero. «Non so se ci riuscirò una terza!» Harry salì sulla mensola e varcò l'apertura dietro il ritratto di Ariana. Dall'altra parte c'erano scalini di pietra levigata. Sembrava che quel passaggio fosse lì da anni. Lampade di ottone erano appese al muro e il pavimento di terra battuta era liscio e consunto. Mentre avanzavano, le loro ombre si aprivano a ventaglio sulle pareti. «Da quanto tempo esisterà?» chiese Ron. «Non c'è sulla mappa del malandrino, vero Harry? Credevo che ci fossero solo sette passaggi che entrano ed escono dalla scuola. Li hanno chiusi tutti prima dell'inizio dell'anno», spiegò Neville. «Non c'è modo di usarli adesso, con le maledizioni sugli ingressi e i mangiamorte e i dissenatori di guardia alle uscite». Si mise a camminare all'indietro, sorridendo, beandosi della loro presenza. «Ma non importa. È vero che siete entrati alla Gringot e siete fuggiti su un drago. Lo sanno tutti. Tutti ne parlano. Terry Booth è stato picchiato da Carrow perché lo ha urlato in sala grande a cena». «Sì, è vero», confermò Harry. Neville rise allegro. «Cosa ne avete fatto del drago? L'abbiamo lasciato libero», replicò Ron. Hermione voleva tenerlo come animaletto domestico. «Non esagerare, Ron!» «Ma cosa avete fatto? Dicono che sei solo in fuga, Harry, ma io non ci credo. Secondo me tu hai in mente qualcosa». «Hai ragione», rispose Harry. «Ma raccontaci di Hogwarts, Neville. Non sappiamo niente». «Eh, beh, non è più la vera Hogwarts», rispose Neville e il suo sorriso sparì. «Sai dei Carrow? I due mangiamorte assunti come insegnanti? Oltre a insegnare, sono i responsabili della disciplina e amano le punizioni, i Carrow. Come la Umbridge? No, al confronto lei era un agnellino. Gli altri insegnanti dovrebbero denunciarci ai Carrow se facciamo qualcosa di sbagliato, ma se possono lo evitano. Si capisce che li detestano quanto noi. Amicus, il fratello, insegna quella che era difesa contro le arti oscure, solo che adesso è arti oscure e basta. «Dovremmo esercitarci con la maledizione Cruciatus sugli studenti in castigo». «Cosa?» Le voci di Harry, Ron e Hermione echeggiarono lungo il tunnel. «Già», riprese Neville, «è così che mi sono procurato questo» e indicò un taglio più profondo degli altri nella guancia. «Mi sono rifiutato, ma ad alcuni piace. Accrebbe a Goyle, per esempio. È la prima volta che sono i migliori in qualcosa, probabilmente. Alecto, la sorella di Amicus, insegna babbanologia, che è una materia obbligatoria. Siamo costretti a sentirci spiegare che i babbani sono come animali, stupidi e sporchi, che hanno costretto i maghi alla clandestinità con atti di ferocia e che l'ordine naturale ora è stato restaurato. Mi sono beccato questo», indicò un altro taglio, «per averle chiesto quanto sangue babbano hanno lei e suo fratello». «Cavoli, Neville», osservò Ron. «Non hai scelto un gran momento per fare lo spiritoso». «Tu non c'eri», obiettò Neville. «Non l'avresti sopportata nemmeno tu. Il fatto è che reagire è utile, dà agli altri un po' di speranza. Lo notavo sempre quando eri tu a farlo, Harry». «Ma ti hanno usato come una fila coltelli», ribatte Ron con una lieve smorfia, perché passando sotto una lampada vide ancora meglio le ferite dell'amico. Neville scrollò le spalle. «Non importa, non vogliono versare troppo sangue puro, quindi ci torturano un po' se siamo insolenti, ma non ci vogliono uccidere». Harry non sapeva che cosa fosse peggio, se quello che Neville stava raccontando o il tono non curante con cui ne parlava. «Gli unici che sono davvero in pericolo sono quelli che hanno amici e parenti fuori che creano problemi. Allora li prendono in ostaggio. Il vecchio Xeno Lovegood stava parlando un po' troppo sul cavillo, così hanno rapito Luna dal treno mentre tornava a casa per Natale. Neville, Luna sta bene, l'abbiamo vista». «Sì, lo so», è riuscita a farmelo sapere. Estrasse dalla tasca una moneta d'oro e Harry la riconobbe. Era uno dei galeoni falsi che l'esercito di Silente aveva usato per scambiarsi messaggi. «Sono eccezionali», disse Neville con un gran sorriso a Ermione. «I Carrow non hanno mai scoperto come facevamo a comunicare. Sono diventati pazzi». Uscivamo di soppiatto la notte e scrivevamo sui muri. «Esercito, di Silente. Il reclutamento è ancora aperto. Cose così». Piton le detestava. «Uscivate?», chiese Harry notando l'uso del tempo passato. «Beh, è diventato sempre più difficile», spiegò Neville. «Abbiamo perso Luna a Natale e Ginny non è tornata dopo Pasqua e noi tre eravamo un po' i capi. I Carrow evidentemente sapevano che c'ero io dietro. Allora hanno cominciato a punirmi sul serio. Poi Michael Corner è stato sorpreso mentre liberava uno del primo anno. che avevano incatenato e l'hanno torturato di brutto. Gli studenti si sono spaventati. «Ci credo», borbottò Ron mentre il tunnel cominciava a salire. «Sì, insomma, non potevo chiedere agli altri di subire quello che hanno fatto a Michael. Così abbiamo lasciato perdere quel genere di bravate, ma abbiamo continuato a lottare, in segreto, fino a un paio di settimane fa. Allora hanno deciso che c'era un solo modo per fermarmi, immagino, e hanno assalito la nonna». «Cosa?» domandarono a una voce Harry, Ron e Ermione. «Già, Neville annui, un po' ansante perché il tunnel si era fatto ripido. Beh, si capisce cosa hanno pensato. Aveva funzionato bene rapire i ragazzi per far rigare dritto i parenti. Era solo questione di tempo prima che cominciassero a fare il contrario. Solo...» li guardò e Harry notò con stupore che stava sorridendo. «Che hanno trovato un osso duro? La vecchia strega vive da sola e avranno pensato che non valeva la pena di mandare qualcuno di particolarmente potente. Fatto sta!» Neville rise. «Che Dolish è ancora al San Mungo e la nonna è scappata. Mi ha mandato una lettera» e si batte una mano sulla tasca all'altezza del cuore. «Dice che è fiera di me, che sono il degno figlio dei miei genitori e di resistere!» «Forte!» commentò Ron. «Già!» fece Neville allegramente. «Solo che quando hanno capito che non avevano modo di ricattarmi, hanno deciso che in fondo Hogwarts poteva fare a meno di me. Non so se avevano in mente di uccidermi o di spedirmi ad Azkaban, ma comunque ho capito che era ora di tagliare la corda.» «Ma...» obiettò Ron decisamente confuso. «Non... non stiamo tornando dritti a Hogwarts?» «Certo!» rispose Neville. «Vedrete! Ci siamo!» Svoltarono un angolo e davanti a loro si parò la fine del tunnel. Un'altra breve rampa di gradini saliva fino a una porta uguale a quella nascosta dietro il ritratto di Ariana. Neville la spinse e la attraversò. Nel seguirlo Harry lo sentì chiamare persone invisibili. «Guardate chi c'è! Non ve l'avevo detto!» Quando Harry sbucò nella stanza oltre il passaggio, si levarono urla e strilli. «Harry! È Potter! È Potter! Ron! Hermione!» ebbe una visione confusa di arazzi colorati, lampade e molte facce. Un attimo dopo lui, Ron e Hermione furono abbracciati, strizzati, salutati con pacche sulla schiena, i capelli arruffati, le mani strette da più di una ventina di persone. Era come se avessero appena vinto una finale di Quidditch. «Va bene, va bene! Calmatevi!» gridò Neville e quando la piccola folla arretrò, Harry riuscì a guardarsi intorno. Non riconobbe la stanza. Era enorme e assomigliava all'interno di una casa sull'albero particolarmente lussuosa o forse a una gigantesca cabina di nave. Amache e multicolori erano appese al soffitto e a una balconata che correva tutto intorno alle pareti, rivestite di legno scuro e senza finestre, adorne di vivaci arazzi. Harry vide il leone d'oro di Grifondoro in campo scarlatto, il tasso nero di tasso frasso su fondo giallo e l'aquila di bronzo di corvo nero sul blu. Mancavano solo il verde e l'argento di serpe verde. C'erano librerie traboccanti, alcune scope appoggiate alle pareti e nell'angolo una grossa radio nel suo mobiletto di legno. Dove siamo? Nella stanza delle necessità, ovvio, rispose Neville. Ha superato se stessa, vero? I Carrow mi davano la caccia e io sapevo di avere solo un nascondiglio possibile. Sono riuscito a passare dalla porta e ho trovato questo. Beh, non era proprio così quando sono arrivato. Era molto più piccola. C'erano solo una maca e l'arazzo di Grifondoro. Ma si è allargata via via che sono arrivati altri dell'ess. E i Carrow non possono entrare? Chiese Harry, cercando la porta con lo sguardo. No, intervenne Simus Finnegan, che Harry riconobbe soltanto adesso dalla voce. Aveva il viso ammaccato e gonfio. È un vero nascondiglio. Finché uno di noi resta dentro, non possono prenderci. La porta non si apre. Ha fatto tutto Neville. Lui la capisce sul serio, questa stanza. Devi chiedere di preciso quello che ti serve. Tipo, non voglio che nessun sostenitore dei Carrow riesca a entrare. E lo fa. Devi stare attento a pensarle tutte. Neville è un grande... È abbastanza semplice, veramente, si schermì Neville. Ero qui dentro da un giorno e mezzo. Avevo una fame tremenda e ho espresso il desiderio di mangiare qualcosa. È stato allora che si è aperto il tunnel per la testa di porco. L'ho percorso e ho incontrato Aberforth. Ci procura sempre lui il cibo. Non so perché, ma è l'unica cosa che la stanza non fa. Beh, certo, il cibo è una delle cinque principali eccezioni alla legge di Gump sulla trasfigurazione degli elementi, spiegò Ron tra lo stupore generale. E così siamo nascosti qui da quasi due settimane, continuò Simus. La stanza aggiunge una maca tutte le volte che ci serve. Ed è spuntato anche un bel bagno quando hanno cominciato ad arrivare le ragazze. E hanno pensato che avrebbero gradito lavarsi, sì, aggiunse Lavanda Brown, che Ernie non aveva ancora notato. Guardandosi intorno riconobbe molti visi conosciuti. C'erano tutte e due le gemelle Patil, Terry Booth, Ernie McMillan, Anthony Goldstein e Michael Corner. «Raccontaci cosa stai combinando, dai!» lo esortò Ernie. «Circolano tante voci. Noi cerchiamo di sapere qualcosa ascoltando Radio Potter», indicò la radio. «Siete entrati alla Gringot?» «Sicuro!» confermò Neville. «Ed è vera anche la storia del drago». Ci fu un accenno di applauso e qualche strillo. Ron fece un inchino. «Che cosa cercavate?» chiese Simus curioso. Prima che uno dei tre potesse eludere la domanda facendone un'altra, Ernie provò un terribile, cocente dolore alla cicatrice. Voltò le spalle alle loro facce curiose e ammirate. La stanza delle necessità sparì e lui si ritrovò in una catapecchia di pietra in rovina. Ai suoi piedi le tavole marce dell'impiantito erano state strappate via. Una scatola d'oro di sotterrata era aperta e vuota accanto al buco e l'urlo di rabbia di Voldemort vibrava nella sua testa. Con uno sforzo enorme si sottrasse alla mente di Voldemort e tornò nella stanza delle necessità. Barcollava, il sudore gli colava sul viso e Ron lo sorreggeva. «Stai bene, Ernie?» chiese Neville. «Vuoi sederti? Sarai stanco, vero?» «No», rispose Ernie. Guardò Ron e Ermione, cercando di comunicare con gli occhi che Voldemort aveva appena scoperto di aver perduto un altro Horcrux. Il tempo stringeva. Se Voldemort avesse deciso di venire a Hogwarts come prossima mossa avrebbero perso l'occasione. «Dobbiamo muoverci», disse e dalla loro espressione seppe che avevano capito. «Cosa facciamo adesso, Ernie?» chiese Simus. «Qual è il piano?» «Piano?» ripetè Ernie. Stava mettendocela tutta per non cedere un'altra volta alla rabbia di Voldemort. La cicatrice bruciava ancora. «Beh, io...» «Ermione e Ron dobbiamo fare una cosa e poi ce ne andremo.» Nessuno rideva o urlava più. Neville era confuso. «Come sarebbe? Ce ne andremo!» «Non siamo venuti per restare», spiegò Ernie massaggiandosi la cicatrice nel tentativo di placare il dolore. «C'è una cosa importante che dobbiamo fare.» «Cosè?» «Io... io non lo posso dire.» Un mormorio seguì queste parole. Le sopracciglia di Neville si aggrottarono. «Perché non puoi dircelo? Riguarda la lotta contro tu sei chi, no?» «Beh, sì... allora ti aiuteremo.» Gli altri membri dell'esercito di Silente annuirono. Alcuni entusiasti, altri solenni. Un paio si alzarono per dimostrare di essere pronti all'azione. «Non capite...» Ernie l'aveva detto un sacco di volte negli ultimi tempi. «Non... non possiamo dirvelo. Dobbiamo farlo... da soli.» «Perché?» chiese Neville. «Perché...» Nel disperato desiderio di cominciare subito la ricerca dell'Orcrux mancante o almeno di discutere in privato con Ron e Ermione da dove iniziare, Ernie trovava difficile radunare i pensieri. La cicatrice bruciava ancora. «Silente ha lasciato un compito a noi tre.» Provò con cautela. «E non dobbiamo dirlo. Insomma, lui voleva che lo facessimo noi. Solo noi tre.» «Noi siamo il suo esercito!» obiettò Neville. «L'esercito di Silente. Eravamo tutti coinvolti. L'abbiamo tenuto vivo mentre voi tre eravate via per i fatti vostri.» «Non è stato proprio un picnic, Neville!» osservò Ron. «Non ho detto questo, ma non vedo perché non potete fidarvi di noi. Tutti i presenti hanno lottato e sono stati costretti a rifugiarsi qui perché i Carrow li cercavano. Tutti hanno dimostrato la loro fedeltà a Silente. E a voi!» «Ascolta!» cominciò Ernie senza sapere che cosa avrebbe detto. Ma la porta del tunnel si aprì alle sue spalle. «Abbiamo ricevuto il tuo messaggio, Neville. Ciao voi tre. Lo sapevo che vi avrei trovati qui.» Erano Luna e Dean. Simus ruggì di gioia e corse ad abbracciare il suo migliore amico. «Ciao a tutti!» salutò allegramente Luna. «Oh, è bello essere qui di nuovo!» «Luna!» balbettò Ernie. «Cosa ci fate qui? Come l'ho mandata a chiamare io?» rispose Neville, mostrando il galeone falso. «Avevo promesso a lei e a Ginny che se foste arrivati gliel'avrei fatto sapere. Pensavamo che il tuo ritorno avrebbe significato la rivoluzione, che avremmo rovisciato Piton e i Carrow.» «Certo che lo significa!» ribatté Luna vivacemente. «Non è così, Ernie. Li cacceremo da Hogwarts, vero?» «Ascoltate!» riprese Ernie con un crescente senso di panico. «Mi dispiace, ma non è per questo che siamo tornati. C'è una cosa che dobbiamo fare. E poi ci lascerete in questo casino!» chiese Michael Corner. «No!» esclamò Ron. «Quello che faremo sarà utile a tutti. È per liberarsi di voi sapete chi!» «Allora lasciate che vi aiutiamo!» gridò Neville con rabbia. «Vogliamo partecipare!» Un altro rumore alle loro spalle e Ernie si voltò. Ebbe un tuffo al cuore. Ginny stava avarcando il buco nella parete, seguita da Fred, George e Lee Jordan. Gli rivolse un sorriso radioso. Ernie aveva dimenticato, o forse non se n'era mai reso conto veramente, quanto fosse bella, ma non era mai stato meno contento di vederla. «Aberfort è un filino seccato!» annunciò Fred, alzando la mano in risposta a diverse grida di saluto. «Vorrebbe andare a dormire e il suo pub è diventato una stazione ferroviaria!» Ernie rimase a bocca aperta. Dietro Lee Jordan sbucò la sua ex ragazza, Cho Chang, che gli sorrise. «Ho ricevuto il messaggio!» gli disse mostrando il suo galeone falso e andò a sedersi vicino a Michael Corner. «Allora qual è il piano, Ernie?» domandò George. «Non c'è un piano?» rispose Ernie, ancora disorientato dall'improvvisa comparsa di tutte quelle persone, incapace di assimilare la situazione finché la cicatrice gli bruciava in quel modo. «Improvvisiamo allora? È il mio piano preferito!» dichiarò Fred. «Devi smetterla!» urlò Ernie a Neville. «Perché li hai tasca il suo galeone falso?» «Il messaggio diceva che Ernie era tornato e che avremmo combattuto! Dovrò procurarmi una bacchetta, però!» «Non hai la bacchetta?» si stupì Simus. Ron si voltò di scatto verso Ernie. «Perché non possono aiutarci?» «Cosa? Ci possono aiutare?» abbassò la voce, in modo che potesse sentirlo solo Ermione, in piedi tra loro due. «Non sappiamo dov'è! Dobbiamo trovarlo in fretta! Basta non dire che è un Horcrux!» Harry fece scivolare lo sguardo da Ron a Ermione, che mormorò. «Sono d'accordo con Ron! Non sappiamo nemmeno cosa stiamo cercando! Abbiamo bisogno di loro!» E davanti all'espressione poco convinta di Harry, aggiunse. «Non devi fare tutto da solo, Harry!» Harry riflettè in fretta, mentre ancora la cicatrice bruciava e la sua testa minacciava di aprirsi di nuovo. Silente l'aveva avvertito di non parlare degli Horcrux con nessuno, tranne Ron e Ermione. «Segreti e bugie! Ecco come siamo cresciuti! E Albus aveva un talento naturale! Si stava trasformando in Silente, si teneva i segreti stretti al petto, aveva paura di fidarsi degli altri, ma Silente si era fidato di Piton e a cosa aveva portato? A un assassinio sulla torre più alta! «Va bene!» sussurrò ai due amici. «D'accordo!» gridò, rivolto a tutta la stanza, e il rumore cessò. Fred e George, che stavano sparando una sfilza di battute per la gioia dei loro vicini, tacquero. Erano tutti allerta, emozionati. «Dobbiamo trovare una cosa!» proseguì Harry. «Una cosa che ci aiuterà a sconfiggere voi sapete chi! È a Hogwarts, ma non sappiamo dove! Forse apparteneva a Corvo Nero! Qualcuno ha sentito parlare di un oggetto del genere! Qualcuno ha mai visto qualcosa con l'aquila incisa sopra, per esempio?» guardò speranzoso il gruppetto di Corvo Nero, Padma, Michael, Terry e Cho, ma fu l'una a rispondere, appollaiata sul bracciolo della poltrona di Ginny. «Beh, c'è il suo diadema perduto! Te ne ho parlato, ricordi, Harry, il diadema perduto di Corvo Nero! Papà sta cercando di riprodurlo!» «Sì, ma il diadema perduto!» obiettò Michael Corner, sgranando gli occhi. «È perduto, l'una! È questo il punto!» «Quando è stato perduto?» chiese Harry. «Secoli fa, pare!» rispose Cho e il cuore di Harry sprofondò. «Il professor Flitwick dice che il diadema sparì con Corinna Corvo Nero. L'hanno cercato!» e continuò rivolta ai compagni Corvo Nero. «Ma nessuno ne ha mai saputo più nulla, vero?» scossero tutti il capo. «Scusate, ma cos'è di preciso un diadema?» domandò Ron. «È una specie di corona», rispose Terry Boot. «Si dice che quello di Corvo Nero avesse proprietà magiche, accresceva la sapienza di chi lo indossava. Sì, i sifoni di gorgo sprizzo di papà!» Harry interruppe l'una. «E nessuno di voi ha mai visto qualcosa che gli assomigli!» scossero tutti il capo un'altra volta. Harry guardò Ron e Hermione e la loro delusione gli rimbalzò addosso. Un oggetto che era stato smarrito da così tanto tempo e, a quanto pareva senza lasciare traccia, non era un buon candidato per l'Orcrux nascosto nel castello, ma prima che potesse fare un'altra domanda parlò di nuovo ciò. «Se vuoi sapere che aspetto si pensa che avesse il diadema, posso portarti su nella nostra sala comune e mostrartelo, Harry. La statua di Corinna Corvo Nero lo indossa». La cicatrice di Harry bruciò di nuovo. Per un attimo la stanza delle necessità danzò davanti a lui e Harry vide la scura terra scorrere sotto di sé e sentì l'enorme serpente attorno alle spalle. Voldemort era di nuovo in volo, ma se fosse diretto al lago sotterraneo o al castello di Hogwarts, Harry non lo sapeva. In ogni caso non c'era più tempo da perdere. «È in viaggio!» sussurrò a Ron e Hermione. Guardò ciò e poi di nuovo gli amici. «Sentite! So che non è un granché, ma vado a vedere questa statua. Almeno scoprirò come è fatto il diadema. Voi aspettatemi qui e proteggetevi, sì, insomma, a vicenda». Ciò si alzò, ma Ginny intervenne con una certa energia. «No, sarà Luna ad accompagnare Harry. Ti va, Luna?» «Oh, sì, volentieri», rispose Luna allegra e ciò tornò a sedersi, delusa. «Come facciamo a uscire?» chiese Harry a Neville. «Di qua». Guidò Harry e Luna verso un angolo, dove un armadietto si apriva su una ripida rampa di scale. Sbuca ogni giorno in un posto diverso, quindi non sono mai riusciti a trovarla. L'unico problema è che non sappiamo mai dove saremo di preciso quando usciamo. Fai attenzione, Harry! Pattugliano sempre i corridoi di notte. Non preoccuparti, ci vediamo fra un po'. Lui e Luna salirono in fretta alla rampa, che era lunga, illuminata da torce e piena di curve improvvise. Infine raggiunsero quella che sembrava una parete. «Qui sotto!» disse Harry a Luna. Sfilò il mantello dell'invisibilità e coprì entrambi. Poi diede una spinta alla parete, che al suo tocco sparì. Scivolarono fuori e Harry vide che il muro si era richiuso all'istante. Si trovavano in un corridoio buio. Harry trascinò Luna nell'ombra, cercò nella saccoccia che portava al collo e ne estrasse la mappa del malandrino. La tenne vicina al naso, la studiò e finalmente individuò il proprio puntino e quello di Luna. «Siamo al quinto piano!» sussurrò, tenendo d'occhio Filch, che si allontanava da loro un corridoio più in là. «Andiamo, da questa parte!» Si avviarono furtivi. Harry aveva vagato molte volte per il castello di notte, ma mai con il cuore che gli martellava così forte, né mai era stato così importante non farsi intercettare. Oltrepassarono quadrati di luce lunare sul pavimento, armature i cui elmi cigolarono al rumore dei loro passi felpati, angoli dietro i quali si nascondeva chissà che cosa. Controllavano la mappa del malandrino non appena la luce lo consentiva e si fermarono due volte per lasciar passare un fantasma senza attirare la sua attenzione. Harry si aspettava di incontrare un ostacolo da un momento all'altro, temeva soprattutto Peeves e tendeva l'orecchio a ogni passo per sentire in anticipo i segnali della sua presenza. «Da questa parte, Harry!» gli sbigliò Luna, trascinandolo per la manica verso una scala a chiocciola. Salirono in stretti cerchi che davano alla testa. Harry non era mai stato lassù. Finalmente giunsero davanti a una porta. Non c'era maniglia né serratura, solo una liscia superficie di legno antico e un battente di bronzo a forma di aquila. Luna tese la mano pallida, quasi uno spettro danzante a mezz'aria, separato dal braccio e dal corpo. Bussò una sola volta e nel silenzio a Harry parve un colpo di cannone. Subito il becco dell'aquila si spalancò, ma invece del verso di un uccello una dolce voce musicale domandò. «Chi viene prima, la Fenice o la Fiamma?» «Tu cosa dici, Harry?» chiese Luna pensierosa. «Cosa? Non c'è una parola d'ordine e basta!» «Oh no, bisogna rispondere a una domanda!» spiegò Luna. «E se sbagli?» «Beh, bisogna aspettare che qualcuno risponda giusto. Così si impara, no?» «Sì, il problema è che non possiamo permetterci di aspettare qualcun altro, Luna!» «No, capisco!» replicò Luna seria. «Beh, penso che la risposta sia che un cerchio non ha inizio!» «Ottimo ragionamento!» dichiarò la voce e la porta si aprì. La sala comune di Corvo Nero, deserta, era ampia, circolare e più ariosa delle altre che Harry aveva visto. Armoniose finestre ad arco si aprivano sulle pareti, a cui erano appesi drappi di seta blu e bronzo. Di giorno i Corvo Nero godevano di una vista spettacolare sulle montagne circostanti. Il soffitto era una cupola trapunta di stelle dipinte, ripetute nella moquette blu notte. C'erano tavoli, sedie e librerie, e una nicchia di fronte alla porta ospitava un'alta statua di marmo bianco. Harry riconobbe Corinna Corvo Nero dal busto che aveva visto a casa di Luna. La statua era accanto a una porta che, immaginò, conduceva ai dormitori di sopra. Si avvicinò alla donna di marmo, che sembrava restituirgli lo sguardo con un mezzo sorriso canzonatorio sul volto, bello ma lievemente minaccioso. In testa le era stato scolpito un cerchietto delicato. Era simile alla tiara che Fleur aveva indossato per le proprie nozze. Incise tutto intorno, c'erano parole minuscole. Harry uscì da sotto il mantello e salì sul piedistallo per leggerle. Un ingegno smisurato per il mago è dono grato. «E tu, razza di stolto, ne sei proprio privo!» disse una voce sghignazzante. Harry si voltò di scatto e scivolò giù dal piedistallo sul pavimento. La figura ingobbita di Alekto Carrow era in piedi davanti a lui, e nel momento in cui Harry alzava la bacchetta, la strega premette il tozzo indice sul teschio col serpente, marchiato sul suo avambraccio. Il congedo di Severus Piton Non appena il dito della strega toccò il marchio, la cicatrice di Harry arse selvaggiamente. La stanza stellata svanì, e lui si ritrovò su una roccia ai piedi di una scogliera lambita dal mare, e il suo cuore traboccava di trionfo. «Hanno preso il ragazzo!» Una forte esplosione lo riportò dove era. Disorientato alzò la bacchetta, ma la strega stava già cadendo in avanti. Colpì il suolo così pesantemente che le vetrate delle librerie tintinnarono. «Non avevo mai schiantato nessuno, tranne alle lezioni dell'Es», osservò Luna con vago interesse. «È più rumoroso di quanto pensassi!» E infatti il soffitto cominciò a tremare. Passi affrettati rimbombavano sempre più forti dietro la porta che conduceva ai dormitori. L'incantesimo di Luna aveva svegliato il corvo nero di sopra. «Luna, dove sei? Devo nascondermi sotto il mantello!» I piedi di Luna apparvero dal nulla. Harry corse al suo fianco e lei fece ricadere il mantello su di loro. La porta si aprì e una fiumana di corvo nero, tutti in pigiamo o in camicia da notte, si riversò nella sala comune. Ci furono strilli di sorpresa quando videro Alecto a terra, priva di sensi. Lentamente si avvicinarono alla strega, come fosse una bestia feroce che avrebbe potuto svegliarsi da un momento all'altro e aggredirli. Poi un coraggioso bambino del primo anno le si avvicinò di corsa e le premette l'alluce sulla schiena. «Forse è morta!» gridò raggiante. «Oh, guarda!» sussurrò Luna lieta, vedendo il corvo nero stringersi attorno ad Alecto. «Sono contenti!» «Sì, splendido!» Harry chiuse gli occhi, la cicatrice pulsava e lui decise di immergersi di nuovo nella mente di Voldemort. Era nella galleria che portava alla prima caverna. Voleva controllare che il medaglione fosse al suo posto prima di andarsene, ma non gli ci sarebbe voluto molto. Qualcuno bussò alla porta della sala comune e tutti i corvo nero si immobilizzarono. Dall'altra parte, Harry udì la dolce voce musicale, levarsi dal battente a forma di aquila. «Dove vanno a finire gli oggetti che evanescono?» «Non lo so! Zitta!» ringhiò una voce rozza che Harry riconobbe come quella dell'altro Carrow, Amicus. «Alecto! Alecto! Sei lì? L'hai preso? Apri!» I corvo nero bisvigliavano tra loro, terrorizzati. Poi all'improvviso si scatenò una serie di esplosioni, come se qualcuno stesse scaricando una pistola sulla porta. «Alecto! Se arriva e non abbiamo Potter, vuoi fare la fine dei malfoi! Rispondimi!» urlò Amicus, scuotendo la porta più forte che poteva, ma quella non si aprì. I corvo nero indietreggiarono e i più spaventati si arrampicarono di nuovo su per la scala dei dormitori. Poi, proprio quando Harry si stava chiedendo se non fosse il caso di far saltare la porta e schiantare Amicus, una seconda voce, più familiare, risuonò dall'altra parte. «Posso chiederle che cosa sta facendo, professor Carrow!» «Sto cercando di aprire questa maledetta porta!» gridò Amicus. «Vada a chiamare Flitwick! Gli dica di aprirla subito!» «Ma non c'è sua sorella là dentro?» chiese la professoressa McGonagall. «Il professor Flitwick non l'ha fatta entrare su sua insistente richiesta poco tempo fa? Forse può aprirle lei, così non avrà bisogno di svegliare mezzo castello!» «Non risponde, vecchia carampana! La apra lei! Andiamo, adesso!» «Certo, se è questo che desidera!» replicò la professoressa McGonagall con spaventoso distacco. Un garbato tonfo del battente e la voce musicale chiese di nuovo. «Dove vanno a finire gli oggetti che evanescono?» «Nel non essere, ovvero nel tutto!» rispose la McGonagall. «Bendetto!» commentò l'aquila di bronzo e la porta si aprì. I pochi corvo nero rimasti si precipitarono su per le scale quando Amicus irruppe, brandendo la bacchetta. Gobbo, come la sorella, aveva un viso flaccido e pallido e occhietti piccoli che si abbassarono subito sualecto, distesa a terra, immobile, a braccia e gambe larghe. Cacciò un urlo di rabbia e terrore. «Che hanno combinato quei mocciosi?» gridò. «Li torturerò finché non mi dicono chi è stato! E cosa dirai, signore oscuro?» strillò in piedi accanto alla sorella, picchiandosi la fronte col pugno. «Non l'abbiamo preso! E lei c'è rimasta secca!» «È solo schiantata!» osservò la professoressa McGonagall spazientita, china sua lecto per esaminarla. «Si rimetterà perfettamente!» «Col cavolo!» mughiò Amicus. «Non dopo che la piglia il signore oscuro l'ha chiamato! Ho sentito il marchio che bruciava! Lui pensa che abbiamo Potter!» «Abbiamo Potter?» ripeté la professoressa McGonagall in tono aspro. «Come sarebbe? Abbiamo Potter!» «Ha detto che forse Potter cercava di entrare nella torre di Corvo Nero e di chiamarlo se lo prendevamo!» «Perché Harry Potter dovrebbe entrare nella torre di Corvo Nero! Potter appartiene alla mia casa!» Sotto l'incredulità e la rabbia Harry udì una piccola nota d'orgoglio nella voce della professoressa e l'affetto per Minerva McGonagall zampillò dentro di lui. «Ci hanno detto che forse veniva qui!» insiste Carrow. «Che ne so io perché!» La professoressa McGonagall si rialzò e i suoi occhi lucenti perlustrarono la stanza. Due volte passarono proprio dove erano Harry e Luna. «Ai ragazzi ci diamo la colpa!» riprese Amicus, la faccia porcina improvvisamente scaltra. «Sì, facciamo così! Ci diciamo che a letto l'hanno assalita quelli là!» e guardò il soffitto stellato verso i dormitori. «Poi ci diciamo che gli hanno fatto schiacciare il marchio e il falso allarme è partito! Così se la prende con loro! Un paio di ragazzi in più o in meno! Qual è la differenza?» «La differenza tra la verità e la menzogna, tra il coraggio e la vigliaccheria!» replicò la professoressa McGonagall impallidita. «Una differenza, in breve, che lei e sua sorella sembrate incapaci di comprendere! Ma mi lasci mettere in chiaro una cosa! Lei non scaricherà le molte inettitudini sugli studenti di Hogwarts! Non glielo permetterò!» «Come, come?» Amicus avanzò fino a trovarsi oltraggiosamente vicino alla professoressa McGonagall, il volto a pochi centimetri dal suo. Lei non indietreggiò e lo guardò dall'alto, come se fosse qualcosa di disgustoso, appiccicato sul sedile di un water. «A me non me ne frega niente di cosa dice lei, Minerva McGonagall! I suoi tempi sono finiti! I capi adesso siamo noi! E o fa quello che diciamo, o la pagherà cara?» e le sputò in faccia. Harry uscì da sotto il mantello, alzò la bacchetta e disse «Questo non dovevi farlo!» Mentre Amicus si voltava, Harry gridò «Crucio!» Il Mangiamorte fu sollevato da terra, si contorse in aria come un uomo che annega, ululando per il dolore, e poi, in un frastuono di vetri rotti, crollò sulle ante di una libreria e si afflosciò a terra, privo di sensi. «Adesso ho capito cosa voleva dire Bellatrix», commentò Harry col sangue che gli pulsava nelle tempie. «Bisogna proprio volerlo!» «Potter!» sussurrò la professoressa McGonagall, premendosi una mano sul cuore. «Potter, tu qui! Cosa? Come?» cercò di ricomporsi. «Potter, questa è una follia!» Le ha sputato addosso. «Potter, io, beh, è molto, molto cavalleresco da parte tua, ma non ti rendi conto?» «Sì, mi rendo conto», la rassicurò Harry. In qualche modo il panico di lei lo rendeva più sicuro. «Professoressa McGonagall, Voldemort sta arrivando!» «Oh, adesso possiamo pronunciare il suo nome?» chiese Luna con interesse, togliendosi il mantello dell'invisibilità. La comparsa di una seconda fuorilegge fu troppo per la professoressa McGonagall, che barcollò all'indietro e cadde su una sedia, stringendosi al collo la vecchia vestaglia scozzese. «Non credo che faccia differenza come lo chiamiamo», rispose Harry. «Sa già dove sono!» In una parte remota della mente, quella connessa con la cicatrice ardente, vide Voldemort attraversare rapido il lago scuro sulla spettrale barca verde. Era quasi sull'isola del bacile di pietra. «Devi fuggire!» mormorò la professoressa McGonagall. «Adesso, Potter, più in fretta che puoi!» «Non posso! Devo fare una cosa!» «Professoressa, lei sa dove si trova il diadema di Corvo Nero?» «Il diadema di Corvo Nero? Certo che no! Non è perduto da secoli!» si mise a sedere un po' più dritta. «Potter, è stata follia, pura follia, entrare in questo castello!» «Dovevo!» «Professoressa, qui dentro è nascosta una cosa che devo trovare, e potrebbe essere il diadema, se solo potessi parlare col professor Flitwick!» «Un fruscio, un tintinnio di vetri!» Amicus si stava riprendendo. Prima che Harry o Luna potessero intervenire, la professoressa McGonagall si alzò, puntò la bacchetta contro il mangiamorte stordito e disse «Imperio!» Amicus si mise in piedi, si avvicinò alla sorella, prese la sua bacchetta, si diresse obbediente verso la professoressa McGonagall e gliela consegnò assieme alla propria. Poi si distese a terra accanto ad Alecto. La professoressa agitò ancora la bacchetta e una splendente corda d'argento comparve dal nulla e si avvolse attorno ai Carrow, legandoli stretti l'uno all'altra. «Potter!» riprese la McGonagall, voltandosi di nuovo a guardarlo con superba indifferenza alla condizione dei Carrow. «Se colui che non deve essere nominato sa davvero che sei qui!» A queste parole un'ira simile a dolore fisico attraversò Harry da parte a parte, incendiando la cicatrice, e per un attimo lui guardò dentro un bacile colmo di una pozione che era diventata trasparente e vide che sotto la superficie non c'era alcun medaglione d'oro. «Potter, stai bene?» chiese una voce. Harry tornò in sé e si aggrappò alla spalla di Luna per reggersi in piedi. «C'è pochissimo tempo. Voldemort si avvicina. Professoressa, agisco per ordine di silente. Devo trovare quello che mi ha chiesto di trovare, ma dobbiamo far uscire gli studenti mentre io perquisisco il castello. È me che Voldemort vuole, ma non gli importerà di uccidere altre persone adesso!» «Adesso che sa che sto cercando gli Horcrux», concluse tra sé e sé. «Agisci per ordine di silente», ripetè lei con improvvisa meraviglia. Poi si erse in tutta la sua statura. «Proteggeremo la scuola da colui che non deve essere nominato mentre tu cerchi questo... questo oggetto». «È possibile?» «Credo di sì», rispose la professoressa McGonagall asciutta. «Noi insegnanti siamo piuttosto versati nelle arti magiche, sai. Sono certa che riusciremo a tenerlo a bada per un po' se ci impegniamo tutti. Naturalmente bisognerà pensare al professor Piton. Mi lasci! Se Hogwarts sta per essere presa l'assedio con il Signore Oscuro ai cancelli, sarebbe opportuno allontanare più innocenti possibile. Con la metropolvere sotto sorveglianza e il divieto di materializzarsi entro i confini...» «Un modo c'è», ribatté Harry e le spiegò del passaggio che portava alla testa di porco. «Potter, stiamo parlando di centinaia di studenti!» «Lo so, professoressa, ma se Voldemort e i Mangiamorte si concentreranno sui confini della scuola, non si occuperanno di chi si smaterializza dalla testa di porco». «Non hai torto», convenne lei. Puntò la bacchetta contro i carrow e una rete d'argento cadde sui loro corpi legati. Li avvolse e li sollevò per aria, dove rimasero penzoloni sotto il soffitto azzurro e oro, come due grosse, brutte creature marine. «Vieni, dobbiamo avvertire gli altri direttori delle case. È meglio se ti rimetti quel mantello!» Marciò verso la porta, alzando la bacchetta. Dalla punta sbucarono tre gatti d'argento con i segni degli occhiali attorno agli occhi. I patroni si lanciarono agili in avanti, illuminando d'argento la scala a chiocciola, mentre la professoressa McGonagall, Harry e Luna scendevano di corsa. Sfrecciarono lungo i corridoi e uno dopo l'altro i patroni si allontanarono. La vestaglia scozzese della professoressa McGonagall frusciava sul pavimento e Harry e Luna trottavano dietro di lei sotto il mantello. Erano scesi di ancora due piani, quando altri passi felpati si unirono ai loro. Harry, che sentiva ancora la cicatrice pizzicare, fu il primo a udirli. Cercò la mappa del malandrino nella saccoccia attorno al collo, ma prima che riuscisse a sfilarla, anche la McGonagall si accorse che avevano compagnia. Si bloccò, la bacchetta in pugno, pronta al duello, e intimò. Chi è là? Sono io, rispose una voce bassa. Da dietro un'armatura, spuntò Severus Piton. A quella vista, Harry si sentì ribollire d'odio. Di fronte all'enormità dei suoi crimini, aveva dimenticato i particolari dell'aspetto di Piton, quegli unti capelli neri che pendevano come due tende ai lati del volto, e l'espressione morta, gelida, dei suoi occhi. Non era in pigiama, ma indossava il solito mantello nero, e aveva anche lui la bacchetta sfoderata, pronto a combattere. Dove sono i Carrow? domandò piano. Dove hai ordinato loro di andare, immagino, Severus? rispose la professoressa McGonagall. Piton si avvicinò, e il suo sguardo dardeggiò dalla McGonagall all'aria attorno a lei, come se percepisse la presenza di Harry, che a sua volta alzò la bacchetta, pronto ad attaccare. Mi era sembrato che Alekto avesse catturato un intruso. Sul serio? chiese la professoressa McGonagall. E che cosa te l'ha fatto pensare? Piton flette appena il braccio sinistro, dove il marchio nero era impresso nella pelle. Oh, certo, commentò la professoressa McGonagall. Dimenticavo che voi, Mangiamorte, avete i vostri mezzi di comunicazione privati. Piton finse di non aver sentito. Sondava ancora con lo sguardo l'aria attorno a lei, e si avvicinava sempre più, poco alla volta, facendo finta di nulla. Non sapevo che fosse la tua notte di pattuglia nei corridoi, Minerva. Hai qualcosa in contrario? Mi chiedo solo che cosa ti ha tirato fuori dal letto a questa tarda ora. Mi pareva di aver sentito un rumore, rispose la professoressa McGonagall. Davvero? Ma è tutto tranquillo. Piton la guardò negli occhi. Hai visto Harry Potter, Minerva? Perché se l'hai visto, devo insistere. La professoressa McGonagall si mosse con una rapidità incredibile. La sua bacchetta sferzò l'aria e per un attimo Harry pensò di vedere Piton afflosciarsi, privo di sensi. Ma la velocità del suo incantesimo scudo fu tale da far perdere l'equilibrio alla McGonagall. Lei puntò la bacchetta verso una torcia sulla parete, che volò fuori dal sostegno. Harry, pronto a scagliare una maledizione contro Piton, fu costretto a spostare l'una dalla pioggia di fiamme, che divenne un cerchio di fuoco, riempì il corridoio e volò come un lazzo verso Piton. Poi, al posto del fuoco, comparve un enorme serpente nero che la McGonagall ridusse in fumo, che si riformò e si solidificò nel giro di pochi istanti per diventare uno sciame di pugnali volanti. Piton riuscì a evitarli, solo spingendo davanti a sé l'armatura, e i pugnali affondarono uno dopo l'altro nel petto di metallo, in un frastuono echeggiante. «Minerva!» urlò una voce stridula. Harry, che ancora riparava l'una dagli incantesimi volanti, si voltò e vide i professori Flitwick e Sprout correre verso di loro, vestiti da notte, lungo il corridoio, e dietro, ansimante, l'enorme professor Lumacorno. «No!» squitti Flitwick alzando la bacchetta. «Non commetterai altri omicidi a Hogwarts!» Il suo incantesimo colpì l'armatura, dietro la quale Piton si era rifugiato, che prese vita con un gran baccano. Piton si liberò dalle braccia che lo stringevano e la spedì in volo contro i suoi avversari. Harry e Luna dovettero tuffarsi di lato per evitarla, e quella si fracassò contro il muro. Quando Harry alzò di nuovo lo sguardo, vide Piton in fuga. Con la McGonagall, Flitwick e la Sprout alle calcagna. Lo rincorsero oltre la porta di un'aula, e qualche attimo dopo Harry udì la McGonagall gridare «Vigliacco! Vigliacco!» «Cos'è successo? Cos'è successo?» chiese Luna. Harry la aiutò a rialzarsi e corsero lungo il corridoio, trascinandosi dietro il mantello dell'invisibilità per entrare nell'aula deserta. La McGonagall, Flitwick e la Sprout stavano davanti a una finestra in frantumi. «È saltato!» disse la professoressa McGonagall al loro ingresso. «Vuol dire che è morto!» Harry sfreciò alla finestra, ignorando le urla di stupore di Flitwick e della Sprout alla sua improvvisa apparizione. «No, non è morto!» rispose la McGonagall amareggiata. A differenza di Silente, aveva ancora la bacchetta, e a quanto pare ha imparato qualche trucchetto dal suo signore. Con un fremito di orrore, Harry vide in lontananza un enorme sagoma simile a un pipistrello che volava nel buio verso il muro di Cinta. Sentirono un rumore di passi pesanti dietro di loro e un respiro affannoso. L'umacorno li aveva raggiunti. «Harry!» esclamò ansimante, massaggiandosi il petto immenso sotto il pigiama di seta verde e smeraldo. «Mio caro ragazzo, che sorpresa! Minerva, ti prego, spiegami! Severus, cosa ha?» «Il nostro preside si è preso una breve vacanza», rispose la professoressa McGonagall indicando il buco a forma di piton nel vetro della finestra. «Professoressa!» gridò Harry, le mani alla fronte. Vide il lago pullulante di inferi scivolare sotto di sé e sentì la barca verde urtare contro la riva sotterranea. Voldemort balzò fuori, affamato di morte. «Professoressa, dobbiamo barricarci nella scuola! Sta arrivando!» «Molto bene! Colui che non deve essere nominato sta arrivando!» annunciò la McGonagall agli altri insegnanti. La Sprout e Flitwick trattennero il fiato. L'umacorno emise un gemito profondo. «Potter ha da fare nel castello per ordine di silente. Dobbiamo imporre tutte le protezioni di cui siamo capaci, mentre Potter fa quello che deve!» «Naturalmente sai che niente di ciò che faremo riuscirà a fermare e tu sai chi, vero?» squittì Flitwick. «Ma possiamo rallentarlo!» intervenne la professoressa Sprout. «Grazie, Pomona!» rispose la professoressa McGonagall e tra le due streghe passò uno sguardo risoluto di intesa. «Suggerisco di distribuire le protezioni di base dappertutto, poi di radunare i nostri studenti e incontrarci in sala grande. La scuola deve essere evacuata, ma se alcuni dei maggiorenni desiderano restare a combattere, credo che dobbiamo dar loro questa possibilità». «Intesi!» La professoressa Sprout stava già correndo verso la porta. «Ci vediamo in sala grande tra venti minuti con la mia casa!» E mentre se ne andava la sentirono borbottare. «Tentacula! Tranello del diavolo! E baccelli di pugnaccio! Sì, voglio proprio vederli, mangiamorte contro quelli!» «Io posso agire da qui!» propose Flitwick e, anche se quasi non arrivava al davanzale, puntò la bacchetta oltre la finestra rotta e cominciò a mormorare incantesimi enormemente complicati. Harry udì uno strano fruscio, come se Flitwick avesse scatenato il potere del vento sui terreni attorno. «Professore!» cominciò Harry avvicinandosi al minuscolo maestro di incantesimi. «Professore, mi spiace interromperla! Ma è importante! Hai idea di dove si trovi il diadema di Corvo Nero?» «Protego orribilis! Il diadema di Corvo Nero?» ripete Flitwick. «Un po' di saggezza in più non fa mai male, Potter, ma non credo che sarebbe di grande utilità in questa situazione. Volevo dire soltanto, lei sa dov'è? L'ha mai visto?» «Visto? Nessuno l'ha mai visto a memoria d'uomo! È perduto da molto tempo, ragazzo!» Harry provò un misto di disperata delusione e panico. «Allora, qual era l'Orcrux?» «Ci vediamo con i tuoi Corvo Nero in sala grande, Filius!» esclamò la professoressa McGonagall e fece cenno a Harry e Luna di seguirla. Erano appena alla porta, quando l'umacorno cominciò a mugugnare. «Parola mia!» ansimò pallido e sudato, i baffi da tricheco vibranti. «Che confusione! Non sono affatto sicuro che sia saggio, Minerva! Troverà un modo per entrare, lo sai, e chiunque abbia cercato di ostacolarlo sarà in gravissimo pericolo!» «Aspetto anche te e i serpeverde in sala grande tra venti minuti!» lo interruppe la professoressa McGonagall. «Se desideri andartene con i tuoi studenti, non ti fermeremo, ma se qualcuno di voi tenta di sabotare la nostra resistenza o prende le armi contro di noi dentro le mura di questo castello, allora, Horace, combatteremo per uccidere!» «Minerva!» esclamò lui atterrito. «È venuto il momento che la casa di serpeverde decida da che parte stare!» tagliò corto la professoressa McGonagall. «Vai a svegliare i tuoi studenti, Horace!» Harry non rimase a guardare l'umacorno che boccheggiava. Lui e Luna rincorsero la McGonagall, che si piantò in mezzo al corridoio e alzò la bacchetta. «Pier totum! Oh, per l'amor del cielo, Filch, non ora!» L'anziano custode era appena spuntato davanti a loro. Gridava «Studenti fuori dal letto! Studenti in corridoio!» «È lì che devono essere, pezzo di deficiente!» urlò la McGonagall. «Adesso vada a fare qualcosa di costruttivo! Trovi Peeves!» «Peeves?» balbettò Filch, come se non avesse mai sentito prima quel nome. «Sì, Peeves, idiota! Peeves! È un quarto di secolo che si lagna di lui! Vada a prenderlo subito!» Filch evidentemente era convinto che la professoressa McGonagall fosse uscita di senno, ma si allontanò soppicando, gobbo, borbottando a mezza voce. «E adesso Pier totum locomotor!» gridò la McGonagall. Lungo tutto il corridoio, statue e armature balsarono giù dai piedistalli e dai tonfi che icheggiavano dai piani di sopra e di sotto, Harry capì che le altre in tutto il castello avevano fatto lo stesso. «Togwarts è in pericolo!» urlò la professoressa McGonagall. «Presidiate i confini! Proteggeteci! Fate il vostro dovere per la nostra scuola!» Tra urla e clangori, l'orda di statue superò Harry, alcune più piccole, altre gigantesche. C'erano anche degli animali e le fragorose armature brandivano spade e mazzafrusti. «Ora, Potter!» riprese la McGonagall. «È meglio che tu e la signorina Lovegood torniate dai vostri amici e li portiate in sala grande! Io sveglierò gli altri grifondoro!» Si separarono sul pianerottolo successivo. Harry e Luna tornarono di corsa all'ingresso nascosto della stanza delle necessità. Incrociarono gruppi di studenti, molti avvolti in mantelli da viaggio sopra il pigiama. Insegnanti e prefetti li guidavano verso la sala grande. «Quello è Potter! Harry Potter! È lui, giuro, l'ho visto!» Ma Harry non si voltò e finalmente raggiunsero l'ingresso della stanza delle necessità. Harry si appoggiò alla parete incantata che si aprì per lasciarli entrare e lui e Luna si precipitarono giù per la stretta rampa di scale. Harry mancò alcuni scalini per la sorpresa. La stanza era stipata, molto più affollata di poco prima. Kingsley e Lupin lo guardavano dal basso, insieme a Oliver Wood, Katie Bell, Angelina Johnson e Alicia Spinnett, Bill e Fleur e i signori Weasley. «Harry, cosa succede?» chiese Lupin andandogli incontro ai piedi delle scale. «Voldemort sta arrivando. Stanno barricando la scuola. Piton è fuggito. Cosa ci fate qui? Come avete fatto a saperlo?» «Abbiamo mandato dei messaggi al resto dell'esercito di Silente», spiegò Fred. «Non potevano perdersi il divertimento. Harry e Les l'ha fatto sapere all'Ordine della Fenice e c'è stato un po' di effetto valanga.» «Che si fa, Harry?» gridò George. «Cosa succede?» «Stanno facendo evacuare i ragazzi più piccoli. L'appuntamento è in sala grande per organizzarsi», rispose Harry. «Si combatte!» Con un boato, un'ondata di persone si lanciò ai piedi delle scale. Harry si ritrovò schiacciato contro la parete, mentre i membri dell'Ordine della Fenice, dell'esercito di Silente e della sua vecchia squadra di Quidditch lo oltrepassavano di corsa, tutti con le bacchette sfoderate, pronti a riversarsi nel castello. «Andiamo, Luna!» Dean, passando, le tese la mano. Lei la prese e lo seguì. La folla si assottigliò. Solo un piccolo gruppo di persone rimase nella stanza delle necessità e Harry andò da loro. La signora Weasley stava litigando con Ginny. Attorno a loro c'erano Lupin, Fred, George, Bill e Fleur. «Sei minarenne!» stava urlando la signora Weasley quando Harry si avvicinò. «Non lo permetterò! I ragazzi sì, ma tu, tu devi tornare a casa! No!» Ginny liberò il braccio dalla stretta della madre, con uno strattone che le sventagliò i capelli. «Sono nell'esercito di Silente! Una banda di ragazzini! Una banda di ragazzini che sta per sfidarlo, cosa che nessun altro ha osato fare!» intervenne Fred. «Ha sedici anni!» urlò la signora Weasley. «Non è abbastanza grande! Cosa aveva saltato in mente a voi due di portarvela dietro!» Fred e George parvero vergognarsi un po'. «La mamma ha ragione, Ginny!» osservò Bill con dolcezza. «Non puoi! Tutti i minorenni devono andarsene! È giusto così!» «Non posso tornare a casa!» Gli occhi le scintillavano di lacrime e di rabbia. «Tutta la mia famiglia è qui! Non posso star là da sola, ad aspettare, senza sapere e...» Per la prima volta il suo sguardo incontrò quello di Harry. Lo guardò supplichevole, ma lui scosse il capo e lei si voltò amareggiata. «Bene!» si arrese, fissando l'ingresso del passaggio che tornava alla testa di Porco. «Allora vi saluto e...» Uno scalpiccio e un gran tonfo. Qualcuno uscì dal tunnel, perse l'equilibrio e cadde. Si rimise in piedi aggrappandosi alla sedia più vicina. Si guardò intorno attraverso gli occhiali storti, cerchiati di corno, e disse «Sono in ritardo? È già cominciato? L'ho saputo solo ora e...» Persi tacque. Era chiaro che non si aspettava di imbattersi in quasi tutta la sua famiglia. Seguì un lungo silenzio meravigliato, rotto da Fleur, che si rivolse a Lupin e chiese, in un vistoso tentativo di allentare la tensione, «Allora, come va il piccolo Teddy?» Lupin batte le palpebre e sterrefatto. Il silenzio tra i Weasley parve solidificarsi come ghiaccio. «Io... sì, sta bene!» rispose Lupin a voce alta. «Sì, Tonks è con lui, a casa di sua madre!» Persi e gli altri Weasley continuavano a studiarsi, immobili. «Ecco, ho una foto!» gridò Lupin. La tirò fuori dalla giacca e la mostrò a Fleur e a Harry. Un neonato minuscolo con un ciuffo di capelli turchesi agitava i pugnetti paffuti davanti all'obiettivo. «Sono stato uno scemo!» ruggì Persi, così forte che per poco la foto non cadde di mano a Lupin. «Un idiota! Un imbecille tronfio! Sono stato un... un...» «Un deficiente schiavo del ministero, rinnegato e avido di potere!» concluse Fred. Persi deglutì. «Sì, beh, non potevi dirlo meglio di così!» dichiarò Fred e gli tese la mano. La signora Weasley scoppiò in lacrime. Corse avanti, spinse via Fred e strinse Persi in un abbraccio soffocante, mentre lui le dava pacche sulle spalle, lo sguardo puntato sul padre. «Mi spiace, papà!» mormorò. Il signor Weasley batte le palpebre in fretta. Poi anche lui corse ad abbracciare il figlio. «Che cos'è che ti ha fatto tornare in te, Pers?» chiese George. «Era un po' che ci pensavo», rispose Persi, asciugandosi gli occhi sotto le lenti con un angolo del mantello da viaggio. «Ma dovevo trovare un modo di venir via, e non è facile al ministero. Sbattono in prigione traditori uno dopo l'altro. Sono riuscito a mettermi in contatto con Aberforth e dieci minuti fa mi ha fatto sapere che Hogwarts stava per dare battaglia, e così sono tornato.» «Beh, ci aspettiamo che i nostri prefetti prendano il comando in simili circostanze», declamò George, in una buona imitazione dei modi più pomposi di Persi. «Adesso andiamo di sopra a combattere, o ci perderemo tutti i mangiamorte migliori.» «Quindi adesso sei mia cognata?» chiese Persi, stringendo la mano a Fleur, mentre correvano verso la scala con Bill, Fred e George. «Ginny!» abbaiò la signora Weasley. Ginny stava tentando di sgattaiolare di sopra, approfittando della riconciliazione. «Molly, facciamo così», propose Lupin. «Perché Ginny non resta qui? Almeno sarà presente e saprà cosa succede, ma non starà nel mezzo della battaglia.» «Io...» «È una buona idea», decise il signor Weasley. «Ginny, tu non ti muovi da questa stanza? Mi hai sentito?» Ginny non parve apprezzare molto l'idea, ma allo sguardo insolitamente fermo del padre, annui. I signori Weasley e Lupin si avviarono a loro volta verso le scale. «Dov'è Ron?» chiese Harry. «Dov'è Ermione?» «Devono essere già in sala grande!» gli gridò il signor Weasley, voltandosi. «Non le ho visti passare! Parlavano di un bagno!» si inserì Ginny. «Poco dopo che te ne eri andato! Un bagno!» Harry si diresse a grandi passi fino a una porta aperta che conduceva fuori dalla stanza delle necessità e controllò il bagno. Non c'era nessuno. «Sei sicura che abbiano detto ba...» Ma in quel momento la cicatrice esplose e la stanza delle necessità sparì. Stava guardando attraverso l'alto cancello di ferro con i cinghiali alati sui pilastri, oltre la distesa buia di prati e boschi, verso il castello illuminato. Nagini era avvolta intorno alle sue spalle. Era posseduto dal gelido, feroce senso di determinazione che precede un assassinio. La battaglia di Hogwarts Sotto il soffitto incantato della sala grande, buio e disseminato di stelle, gli studenti scarmigliati, alcuni in mantello da viaggio, altri in vestaglia, erano allineati lungo i quattro tavoli delle case. Qua e là riducevano le figure perlace e dei fantasmi della scuola. Gli occhi di tutti, vivi e morti, erano fissi sulla professoressa McGonagall, che parlava dalla pedana in fondo alla sala. Dietro di lei erano schierati gli insegnanti rimasti, tra cui Firenze, il centauro Palomino e i membri dell'Ordine della Fenice, che erano arrivati per combattere. «L'evacuazione verrà coordinata dal signor Filch e da madame Pomfrey. Prefetti, al mio segnale, condurrete i ragazzi della vostra casa, in ordine, verso il punto di evacuazione». Molti studenti sembravano pietrificati, ma mentre Henry costeggiava le pareti cercando Ron e Ermione al tavolo di Grifondoro, Ernie McMillen si alzò da quello di Tassofrasso e urlò. «E se vogliamo restare a combattere?» fu salutato da alcuni applausi sparsi. «Se siete maggiorenni potete restare», rispose la professoressa McGonagall. «E le nostre cose!» gridò una ragazza di Corvo Nero. «I bauli! I gufi! Non c'è tempo per raccogliere gli effetti personali!» ribatté la professoressa McGonagall. «L'importante è farvi uscire di qui sani e salvi!» «Dov'è il professor Piton?» urlò una serpe verde. «Per ricorrere a un comune modo di dire se l'è data a gambe», replicò la professoressa McGonagall e un boato di gioia si levò dai Grifondoro, dai Tassofrasso e dai Corvo Nero. Harry risalì la sala lungo il tavolo di Grifondoro, sempre in cerca di Ron e Hermione. Al suo passaggio molti si voltarono a guardarlo, tra un fitto mormorio. «Abbiamo già imposto protezioni attorno al castello», continuò la professoressa McGonagall. «Ma è improbabile che reggano a lungo, se non le rafforziamo. Devo dunque chiedervi di muovervi in fretta e con ordine, e di fare quello che i prefetti...» Ma la conclusione fu coperta da un'altra voce che rimbombò nella sala. Era acuta, fredda e chiara. Impossibile capire da dove venisse. Sembrava uscire dalle mura stesse, come se, alla pari del mostro che un tempo aveva controllato, vi fosse rimasta assopita per secoli. «So che vi state preparando a combattere!» Ci furono urla tra gli studenti. Alcuni si aggrapparono ai compagni, guardandosi intorno terrorizzati in cerca della fonte del suono. «I vostri sforzi sono futili. Non potete fermarmi! Io non voglio uccidervi. Nutro un enorme rispetto per gli insegnanti di Hogwarts. Non voglio versare sangue di mago!» Nella sala calò il silenzio, il genere di silenzio che preme contro i timpani, che sembra troppo grande per essere contenuto dai muri. «Consegnatemi Harry Potter!» proseguì la voce di Voldemort, e a nessuno verrà fatto del male. «Consegnatemi Harry Potter e lascerò la scuola intatta! Consegnatemi Harry Potter e verrete ricompensati!» «Avete tempo fino a mezzanotte!» Il silenzio l'inghiottì di nuovo. Le teste si voltarono. Ogni occhio nella sala sembrava aver trovato Harry e tenerlo immobilizzato nel riverbero di migliaia di raggi invisibili. Poi una figura si alzò dal tavolo di serpeverde. Harry riconobbe Penzi Parkinson, che levò un braccio tremante e urlò «Ma è laggiù! Potter è laggiù! Qualcuno lo prenda!» Prima che Harry potesse parlare, ci fu un movimento collettivo. I grifondoro si alzarono a fronteggiare non lui, ma i serpeverde. Poi anche i tassofrasso si alzarono e quasi nello stesso istante i corvo nero. Davano tutti le spalle a Harry e guardavano Penzi. Harry, sgomento e commosso, vide bacchette sbucare dappertutto, sfilate da sotto i mantelli e dalle maniche. «Grazie, signorina Parkinson!» disse la professoressa McGonagall con voce gelida. «Uscirai per prima dalla sala con il signor Filch. Il resto della tua casa è pregato di seguirti!» Harry udì lo stridio delle panche spostate e il rumore dei serpeverde che uscivano tutti insieme dall'altro lato della sala. «Corvo nero, è il vostro turno!» gridò la professoressa McGonagall. Lentamente i quattro tavoli si svuotarono. Quello di serpeverde rimase deserto, ma alcuni dei corvo nero più anziani restarono seduti mentre i loro compagni uscivano in fila. Ancora di più ne rimasero tra i tassofrasso e metà dei grifondoro, costringendo la professoressa McGonagall a scendere dalla pedana degli insegnanti per costringere i minorenni ad andarsene. «Assolutamente no, Crivei! Vai! Anche tu, Pix!» Harry raggiunse di corsa i Weasley, tutti insieme al tavolo di grifondoro. «Dove sono Ron e Hermione?» «Non li hai!» cominciò il signor Weasley preoccupato, ma si interruppe quando Kingsley salì sulla pedana per rivolgersi a coloro che erano rimasti. «Manca solo mezz'ora a mezzanotte! Dobbiamo agire in fretta! Gli insegnanti di Hogwarts e l'Ordine della Fenice hanno concordato un piano. I professori Flitwick, Sprout e McGonagall condurranno gruppi di combattenti in cima alle torri più alte, quella di Corvo Nero, di Astronomia e di Grifondoro, dove avranno una buona visuale e posizioni ottime per scagliare incantesimi. Nel frattempo Remus, e indicò Lupin, Arthur, e fece un cenno al signor Weasley, e io guideremo altri gruppi all'esterno. Ci vorrà qualcuno che organizzi la difesa dei passaggi che conducono nella scuola.» «È il lavoro ideale per noi!» gridò Fred, indicando se stesso e George, e Kingsley assentì. «D'accordo! I capi tutti qui, per la divisione delle truppe!» «Potter!» chiamò la professoressa McGonagall correndo da lui, mentre gli studenti invadevano la piattaforma, sgomitando, per ricevere istruzioni. «Non dovresti cercare qualcosa?» «Come? Oh!» fece Henry. «Oh, certo!» Si era quasi dimenticato dell'Orcrux, aveva quasi scordato che la battaglia serviva a dargli modo di cercarlo. L'inesplicabile assenza di Ronne e Hermione aveva momentaneamente svuotato la sua mente da qualunque altro pensiero. «Allora vai, Potter! Vai!» «Sì, certo!» Si sentì addosso molti sguardi, mentre correva dalla sala grande e nell'ingresso, ancora affollato di studenti che si stavano allontanando. Si lasciò trascinare con loro su per la scalinata di marmo, ma quando fu in cima svoltò in un corridoio deserto. Il panico gli offuscava il cervello. Cercò di calmarsi, di concentrarsi sull'Orcrux, ma i suoi pensieri ronzavano frenetici e inutili, come vespe imprigionate sotto un bicchiere. Senza Ronne e Hermione ad aiutarlo non riusciva a riordinare le idee. Rallentò e si fermò a metà di un passaggio vuoto. Sedette sul piedistallo di una statua andata via ed estrasse la mappa del malandrino dalla saccoccia che portava al collo. Non vide i nomi di Ronne e Hermione da nessuna parte, anche se, pensò, potevano essere nascosti tra la folla di puntini diretti alla stanza delle necessità. Ripose la mappa, si premette le mani sul volto e chiuse gli occhi, cercando di concentrarsi. Voldemort pensava che sarei andato alla torre di Corvo Nero. Ecco, un fatto concreto, il punto di partenza. Voldemort aveva messo di guardia l'Ecto Carrow alla sala comune di Corvo Nero e poteva esserci una sola spiegazione. Temeva che Henry già sapesse che il suo Orcrux era legato a quella casa. Ma l'unico oggetto che tutti associavano a Corvo Nero era il diadema perduto. Possibile che l'Orcrux fosse il diadema? Possibile che Voldemort, il serpe verde, avesse trovato il diadema che aveva eluso generazioni intere di Corvo Nero? Chi poteva avergli detto dove guardare, se nessuno a memoria d'uomo l'aveva visto? A memoria d'uomo! Sotto le dita, gli occhi di Henry si riaprirono. Balzò su dal piedistallo e percorse il cammino arritroso, inseguendo la sua ultima speranza. Il rumore di centinaia di persone in marcia verso la stanza delle necessità aumentava man mano che si avvicinava alla scalinata di marmo. I prefetti urlavano ordini, cercando di tenere il conto degli studenti delle loro case. Era tutto uno spintonare e sgomitare. Henry vide Zacharias Smith mandare a gamballari alcuni studenti del primo anno per essere il primo della fila. Qua e là alcuni dei più piccoli piangevano, mentre gli anziani chiamavano disperati gli amici o i fratelli. Henry intravide una sagoma perlacea, fluttuare di sotto nella sala d'ingresso, e urlò più forte che poteva sopra il clamore. «Nick! Nick! Ho bisogno di parlarle!» Si fece strada a forza controcorrente alla marea di studenti e infine arrivò ai piedi della scalinata, dove Nick, quasi senza testa, il fantasma di Grifondoro, lo aspettava. «Harry! Mio caro ragazzo!» Nick gli afferrò le mani e a Harry sembrò di averle immerse nell'acqua ghiacciata. «Nick, deve aiutarmi! Chi è il fantasma di Corvo Nero!» Nick, quasi senza testa, parve stupito e anche un po' offeso. «La dama grigia, naturalmente! Ma se hai bisogno di servigi spettrali, deve essere lei! Sa dov'è? Vediamo!» La testa di Nick dondolò sulla gorgera, voltandosi di qua e di là, per scrutare al di sopra della fiumana di studenti. «È quella laggiù, Harry! La giovane donna con i capelli lunghi!» Harry guardò nella direzione indicata dal dito trasparente di Nick e vide un fantasma alto che si accorse del suo sguardo. Inarcò le sopracciglia e fluttuò via attraverso una parete. Harry la inseguì, varcata la porta del corridoio nel quale era sparita, la vide allontanarsi con grazia in fondo al passaggio. «Ehi! Aspetti! Torni indietro!» Leia consentì a fermarsi, a qualche centimetro da terra. Era bella, con i capelli lunghi fino alla vita e il mantello che sfiorava il suolo, ma sembrava anche altezzosa e fiera. Quando le fu vicino, si ricordò di averla incrociata diverse volte nei corridoi, ma non le aveva mai rivolto la parola. «Lei è la dama grigia!» La donna annui in silenzio. «Il fantasma della torre di Corvo Nero!» «Esatto!» Il suo tono non era incoraggiante. «La prego, ho bisogno di aiuto! Ho bisogno di sapere tutto quello che può dirmi sul diadema perduto!» Un freddo sorriso incurvò le labbra del fantasma. «Temo», rispose girandosi per andarsene, «di non poterti aiutare!» «Aspetti!» Non voleva gridare, ma rabbia e panico minacciavano di avere la meglio. Guardò l'orologio. Mancava un quarto d'ora a mezzanotte. «È urgente!» Insiste deciso. «Se quel diadema si trova a Hogwarts, devo trovarlo! È in fretta!» «Non sei il primo studente che vorrebbe mettere le mani su quel diadema!» Ribatte lei sprezzante. «Generazioni di ragazzi mi hanno tormentato!» «Ma non è per avere voti più alti!» gridò Harry. «È per Voldemort! Per sconfiggere Voldemort! O non le interessa!» Lei non poteva arrossire, ma le sue guance trasparenti si fecero più opache e la sua voce più accalorata quando rispose «Ma certo che mi... come osi insinuare!» «Beh, allora mi aiuti!» Il contegno della dama grigia si stava inclinando. «Non... non è questione di...» balbettò. «Il diadema di mia madre!» «Sua madre?» Sembrava arrabbiata con se stessa. «Da viva!» rispose sussiegosa. «Ero Elena Corvo Nero. È sua figlia. Ma allora deve sapere che fine ha fatto!» «Quel diadema conferiva saggezza!» riprese cercando di ricomporsi. «Ma dubito che accrescerebbe le tue possibilità di sconfiggere il mago che si fa chiamare Lord!» «Le ho già detto che non voglio indossarlo!» ribatté Harry con veemenza. «Non c'è tempo per spiegarle, ma se ci tiene a Hogwarts, se vuole vedere Voldemort sconfitto, deve dirmi tutto quello che sa su quel diadema!» Lei rimase immobile, sospesa a mezz'aria, fissandolo dall'alto in basso. Harry fu preso dalla disperazione. Era ovvio, se avesse saputo qualcosa l'avrebbe detto a Flitwick o a Silente, che di certo le avevano rivolto la stessa domanda. Scosse il capo e fece per voltarsi quando lei mormorò. «Io ho rubato il diadema a mia madre!» «Cosa? Cosa ha fatto?» «Ho rubato il diadema!» ripeté Elena Corvonero in un sussurro. «Volevo diventare più intelligente, più importante di mia madre. L'ho preso e sono fuggita!» Harry non sapeva come aveva fatto a ottenere la sua fiducia e non lo chiese. Si limitò ad ascoltarla con tutta la sua attenzione. «Mia madre, dicono, non ha mai ammesso che il diadema era sparito. Ha finto di averlo ancora. Ha nascosto il furto, il mio terribile tradimento, anche agli altri fondatori di Hogwarts. Poi si è ammalata, mortalmente. Nonostante la mia perfidia, voleva vedermi per l'ultima volta. Mandò a cercarmi un uomo che mi aveva molto amato, anche se io avevo disdegnato le sue profferte. Sapeva che non avrebbe smesso di cercarmi finché non mi avesse trovato. Harry attese. Lei fece un profondo respiro e gettò indietro la testa. Lui mi trovò nella foresta dove mi nascondevo. Quando mi rifiutai di tornare qui con lui, divenne violento. Era sempre stato un uomo collerico, il barone. Furioso per il mio rifiuto, geloso della mia libertà, mi pugnalò. «Il barone! Sarebbe...» «Il barone sanguinario, sì», rispose la dama grigia e scostò il mantello per rivelare una sola scura ferita nel petto bianco. «Quando capì quello che aveva fatto, fu preso dal rimorso. Usò l'arma che mi aveva rubato la vita per uccidersi. Dopo tutti questi secoli porta ancora le catene come atto di contrizione e ne abbendonde», aggiunse amareggiata. «E... e il diadema? È rimasto dove l'avevo nascosto quando ho sentito arrivare il barone. Nel cavo di un albero!» «Nel cavo di un albero!» ripetè Harry. «Quale albero? Dove?» «In una foresta in Albania, un luogo solitario che ritenevo sufficientemente lontano da mia madre. In Albania!» ripetè Harry. Dalla confusione affiorava miracolosamente un senso e adesso capiva perché gli stesse dicendo ciò che aveva tacciuto a Silente e a Flitwick. «Ha già raccontato questa storia a qualcuno, vero? A un altro studente!» Lei chiuse gli occhi e annui. «Io non avevo idea. Mi lusingava. Sembrava che capisse, che comprendesse.» «Sì», pensò Harry. «Tom Riddle aveva certamente capito il desiderio di Elena Corvo Nero di possedere oggetti favolosi sui quali non poteva vantare diritti. Beh, lei non è la prima a cui Riddle ha carpito informazioni, borbottò Harry. Sapeva essere affascinante quando voleva. E così Voldemort era riuscito a farsi dire dalla dama grigia con Moine e lusinghe in nascondiglio del diadema perduto. Aveva viaggiato fino a quella remota foresta e recuperato il gioiello, forse subito dopo aver lasciato Hogwarts, prima ancora di cominciare a lavorare da Borgin & Burke. E quei solitari boschi albanesi non erano forse stati il rifugio ideale molto tempo dopo, quando Voldemort aveva avuto bisogno di nascondersi per dieci lunghi anni. Ma il diadema, una volta divenuto il suo prezioso Horcrux, non era rimasto in quell'umile albero. No, il diadema era stato riportato in segreto nella sua vera dimora, e Voldemort doveva avercelo messo. «La notte che venne per cercare lavoro!» esclamò Harry, concludendo il pensiero ad alta voce. «Prego!» ha nascosto il diadema nel castello, la notte che chiese a Silente un posto di insegnante. Dirlo ad alta voce gli diede modo di rimettere ogni cosa al suo posto. «Deve averlo nascosto quando è salito nello studio di Silente, o quando è sceso, ma valeva comunque la pena di cercare di ottenere quel posto, così avrebbe potuto rubare anche la spada di Grifondoro. Grazie, grazie mille!» Harry la lasciò lì a fluttuare e sterrefatta. Voltò l'angolo per tornare nella sala d'ingresso e guardò l'orologio. Mancavano cinque minuti a mezzanotte, e anche se adesso sapeva che cos'era l'ultimo Horcrux, non era più vicino a scoprire dove fosse. Generazioni di studenti non erano riuscite a trovare il diadema, il che faceva pensare che non fosse nella torre di Corvo Nero. Ma se non era lì, allora dove? Quale nascondiglio aveva scoperto Tom Riddle nel castello di Hogwarts, convinto che sarebbe rimasto segreto per sempre? Perso nelle sue disperate elucubrazioni, Harry imboccò un nuovo corridoio, ma aveva mosso solo pochi passi quando la finestra alla sua sinistra si spalancò con un frastuono assordante di vetri rotti. Balzò di lato per evitare un corpo gigantesco che volò dentro e andò a finire contro la parete opposta. Qualcosa di grosso e peloso si separò uggiolando dal nuovo arrivato e si gettò su Harry. «Agrid!» urlò Harry cercando di togliersi di dosso Zanna il danese, mentre l'enorme figura barbuta si rimetteva in piedi. «Ma cosa? Harry! Sei qui! Sei qui!» Hagrid si chinò, strizzò Harry in un rapido abbraccio spacca costole, poi corse di nuovo alla finestra fracassata. «Bel colpo, Gropi!» gridò guardando giù. «Ci vediamo fra un attimo! Fai il bravo!» Oltre la finestra, nel buio della notte, Harry vide scoppi di luce in lontananza e udì uno strano urlo lamentoso. Guardò l'orologio. Era mezzanotte. La battaglia era cominciata. «Cavoli, Harry!» ansimò Hagrid. «Allora ci siamo, eh! È ora di combattere!» «Hagrid, da dove arrivi?» «Ho sentito tu sai chi dalla nostra caverna lassù!» rispose Hagrid cupo. «Si sentiva bene, eh? Ci avete tempo fino a mezzanotte per darmi Potter!» «Ho capito che eri qui! Ho capito cosa stava succedendo!» «Accucia Zanna!» «Così siamo venuti giù, io e Gropi e Zanna, per dare una mano!» «Abbiamo spaccato il muro vicino alla foresta!» «Gropi ci portava, a me e a Zanna!» «Gli ho detto di mettermi giù al castello e lui mi ha lanciato dentro la finestra!» «Benedetto ragazzo!» «Non volevo dire proprio quello, ma insomma...» «Dove sono Ron e Ermione?» «Questa, rispose Harry, è proprio una bella domanda!» «Andiamo!» Corsero insieme lungo il corridoio, con Zanna che li seguiva a balzi. Harry sentiva movimenti ovunque, passi di corsa, urla. Dalla finestra si vedevano altri lampi di luce nel parco buio. «Dov'è che andiamo?» chiese Hagrid con voce rotta, correndo pesantemente alle calcagna di Harry e facendo tremare il pavimento. «Non so di preciso!» rispose Harry imboccando un altro passaggio a caso. «Ma Ron e Ermione devono essere qui da qualche parte!» Le prime vittime della battaglia giacevano sul pavimento. I due gargoyle di pietra che di solito sorvegliavano l'ingresso della sala professori erano stati fracassati da una fattura entrata da un'altra finestra rotta. I loro resti si agitavano debolmente a terra e quando Harry scavalcò con un salto una delle teste spiccate dal corpo, quella gemette. «Oh, non preoccuparti per me! Resterò qui a sgletolarmi!» Il brutto muso di pietra gli ricordò all'improvviso il busto di marmo di Corinna Corvo Nero a casa di Xenofilius, con quell'assurdo copricapo in testa e poi la statua nella torre di Corvo Nero con il diadema di pietra sopra i ricci bianchi. E quando raggiunse la fine del corridoio affiorò in lui il ricordo di un terzo ritratto di pietra, quello di un vecchio brutto stregone a cui lui stesso aveva ficcato in testa una parrucca e una vecchia tiara ammaccata. La sorpresa lo attraversò come una vampata di whisky incendiario e per poco non inciampò. Sapeva dove avrebbe trovato l'Orcrux. Tom Riddle, che non si fidava di nessuno e agiva da solo, forse era stato tanto arrogante la pensare di essere l'unico ad aver penetrato i misteri più profondi del castello di Hogwarts. Naturalmente Silente e Flitwick, studenti modello, non ci avevano mai messo piede, ma lui, Harry, nel corso della sua carriera scolastica, aveva deviato dal sentiero tracciato. Ecco infine un segreto che lui e Voldemort condividevano e Silente non aveva mai scoperto. Fu riscosso dalla professoressa Sprout, che passò di gran corsa seguita da Neville e da cinque o sei altri ragazzi, tutti con le cuffie sulle orecchie e una grossa pianta in vaso tra le braccia. «Mandragole!» urlò Neville a Harry, voltandosi senza fermarsi. «Le buttiamo giù dalle mura! Non gli piaceranno!» Harry ormai sapeva dove andare. Partì di corsa, con agride zanna che gli galoppavano dietro. Passarono davanti a una serie di ritratti e le figure dipinte corsero con loro. Maghi e streghe con gorgere e calze brache, armature e mantelli, si stipavano nelle tele altrui, urlando notizie raccolte in altre parti del castello. Quando arrivarono alla fine di quel corridoio, l'intero edificio tremò e Harry capì, vedendo esplodere un vaso gigantesco sul suo piedistallo, che era preda di incantesimi più sinistri di quelli degli insegnanti e dell'ordine. «Va tutto bene, zanna! Tutto bene!» urlò Hagrid, ma l'enorme danese fuggì tra frammenti di porcellana che volavano come le schegge di una granata, e Hagrid inseguì il cagnone terrorizzato, lasciando Harry solo. Lui continuò ad avanzare lungo le pareti vibranti, con la bacchetta pronta, e per un intero corridoio Sir Cadogan, il piccolo cavaliere dipinto, corse da un quadro all'altro insieme a lui, facendo sferragliare l'armatura, urlando incoraggiamenti con il suo piccolo grasso pony che gli trotterellava dietro. «Millantatori e canaglie, marrani e felloni, cacciali via! Harry Potter, respingili!» Harry si precipitò dietro un angolo e trovò Fred e altri studenti, tra cui Lee Jordan e Anna Abbott, accanto a un altro piedistallo vuoto. La sua statua nascondeva un passaggio segreto. Avevano le bacchette sfoderate e tendevano l'orecchio. «Bella serata!» urlò Fred. Il castello tremò di nuovo, e Harry corse via, euforico e terrorizzato in pari misura. Sfrecciò lungo un altro corridoio, pieno di gufi svolazzanti, inseguiti da Mrs. Norris, che soffiava e cercava di prenderli con le zampe, probabilmente per farli tornare al loro posto. «Potter!» Aberforth silente bloccava il passaggio, la bacchetta tesa. «Ci sono centinaia di ragazzi nel mio pub, Potter. Lo so, stiamo evacuando la scuola. Voldemort sta attaccando perché non ti hanno consegnato. Già», continuò Aberforth. «Non sono sordo, l'ha sentito tutta Hogsmeade, e non è venuto in mente a nessuno di tenere qualche serpe verde in ostaggio? Avete messo al sicuro i figli dei Mangiamorte? Non sarebbe stato più furbo tenerli qui?» «Non fermerebbe Voldemort», ribatté Harry, «e suo fratello non l'avrebbe mai fatto». Aberforth grugnì e filò via nella direzione opposta. «Suo fratello non l'avrebbe mai fatto». «Beh, era la verità», pensò Harry riprendendo la corsa. Silente, che aveva sempre difeso Piton, non avrebbe mai tenuto in ostaggio degli studenti. E poi si catapultò oltre un ultimo angolo e lanciò un urlo di sollievo misto a rabbia. Aveva visto Ron e Ermione, le braccia piene di grossi oggetti gialli, sporchi e ricurvi. Ron aveva una scopa sotto braccio. «Dove diavolo eravate?» urlò Harry. «Nella camera dei segreti», rispose Ron. «Nella camera cosa?» fece Harry, fermandosi incerto davanti a loro. «È stato Ron! È stata una sua idea!» Ermione era senza fiato. «Non è geniale! Dopo che sei andato via, io ho detto a Ron, se anche troviamo l'altro, come facciamo a distruggerlo? Non abbiamo ancora distrutto la coppa!» E allora gli è venuto in mente il basilisco! «Ma che? Per far fuori gli Horcrux!» spiegò semplicemente Ron. Lo sguardo di Harry si spostò sugli oggetti che gli amici stringevano fra le braccia. Enormi zanne di curve strappate, adesso l'aveva capito, dal cranio di un basilisco morto. «Ma come avete fatto a entrare?» chiese fissando prima le zanne e poi Ron. «Bisogna parlare serpentese!» «L'ha fatto!» sussurrò Ermione. «Fagli vedere, Ron!» Ron emise un tremendo sibilo sordo. «È quello che hai fatto tu per aprire il medaglione!» si giustificò con Harry. «Mi c'è voluto qualche tentativo, ma alla fine siamo passati, concluse, con una modesta scrollata di spalle. È stato straordinario!» esclamò Ermione. «Straordinario!» «E allora...» Harry si stava sforzando di seguirli. «Allora...» «Allora abbiamo un Horcrux in meno!» disse Ron e da sotto la giacca prese i resti contorti della coppa di tassofrasso. «La trafitta Ermione! Ho pensato che doveva farlo lei! Non aveva ancora avuto il piacere!» «Sei un genio!» urlò Harry. «Una cosa da niente!» si Termin Ron, ma era molto compiaciuto. «E tu? Hai novità?» Un'esplosione rimbombò sulle loro teste. Guardarono tutti e tre il soffitto, da cui pioveva calce, e udirono un urlo lontano. «So com'è fatto il diadema e so dov'è!» rispose Harry velocemente. «L'ha nascosto esattamente dove io avevo nascosto il mio vecchio libro di pozioni, dove tutti nascondono le cose da secoli. Credeva di essere l'unico ad averlo scoperto. Andiamo!» Le pareti vibrarono di nuovo e Harry guidò i due amici attraverso l'ingresso nascosto e giù per le scale nella stanza delle necessità. Non c'era nessuno, a parte tre donne, Ginny, Tonks e un'anziana strega con un cappello mangiucchiato dalle tarme, che Harry riconobbe all'istante come la nonna di Neville. «Ah, Potter!» lo accolse lei con vivacità, come se lo stesse aspettando. «Tu saprai dirci cosa sta succedendo! Stanno tutti bene?» chiesero Ginny e Tonks insieme. «Per quello che ne sappiamo!» rispose Harry. «C'è ancora gente nel passaggio per la testa di porco?» Sapeva che la stanza non sarebbe stata in grado di trasformarsi se c'era ancora dentro qualcuno. «Io sono stata l'ultima a passare!» assicurò la signora Longbottom. «L'ho chiuso! Credo che non sia prudente lasciarlo aperto ora che Aberforth ha lasciato il pub. Hai visto mio nipote?» «Sta combattendo!» replicò Harry. «Naturalmente!» commentò la vecchia signora con fierezza. «Con permesso! Devo andare ad aiutarlo!» e corse verso la scala di pietra con una rapidità sorprendente. Harry guardò Tonks. «Credevo che fossi la tua madre con Teddy!» «Non potevo sopportare di non sapere!» Tonks sembrava in preda all'ansia. «Gli baterà lei! Hai visto Remus?» Doveva guidare un gruppo di combattenti nel parco. Senza un'altra parola anche Tonks corse di sopra. «Ginny!» riprese Harry. «Mi dispiace, ma devi andartene anche tu. Solo per un po'. Dopo potrai tornare!» Ginny fu solo felice di lasciare il suo rifugio. «Dopo potrai tornare!» le urlò dietro Harry mentre lei saliva di corsa alle scale dietro Tonks. «Dovrai tornare!» «Un momento!» fece Ron brusco. «Abbiamo dimenticato qualcuno!» «Chi?» chiese Hermione. «Gli elfi domestici saranno tutti giù in cucina, no? Vuoi dire che dobbiamo farli combattere?» domandò Harry. «No!» rispose Ron serio. «Dobbiamo farli andar via! Non vogliamo altri dobbi, no? Non possiamo chiedergli di morire per noi!» Le zanne di Basilisco caddero con un gran fragore dalle braccia di Hermione. Corse da Ron, lo abbracciò e lo baciò sulla bocca. Ron gettò via le zanne e la scopa e rispose con tanto entusiasmo che sollevò Hermione da terra. «Vi pare il momento?» gemette Harry debolmente. Ma quando non successe nulla, anzi Ron e Hermione si strinsero più forte e cominciarono a dondolare sul posto, alzò la voce. «Ehi! C'è una guerra là fuori!» Ron e Hermione si separarono, ma rimasero abbracciati. «Lo so, Harry!» ribatté Ron con l'aria di chi è appena stato colpito in testa da un bolide. «Quindi ora o mai più, no?» «Sì, va bene! Ma l'Orcrux?» gridò Harry. «Pensate di potervi trattenere finché non troviamo il diadema?» «Sì, certo, scusa!» rispose Ron e si mise con Hermione a raccogliere le zanne, tutte e due rossi in volto. Quando tornarono nel corridoio fu evidente che nei pochi minuti che avevano trascorso nella stanza delle necessità la situazione nel castello era decisamente peggiorata. Pareti e soffitto erano sempre più squassati dalle vibrazioni. La polvere riempiva l'aria e dalla finestra più vicina Harry vide lampi di luce verde e rossa ai piedi del castello, il che voleva dire che i Mangiamorte erano prossimi a entrare. Guardando in giù vide Groppi il gigante che brandiva un gargoil di pietra strappato dal tetto e ruggiva il suo disappunto. «Speriamo che ne calpesti un po!» esclamò Ron, mentre altre urla e cheggiavano più vicine. «Basta che non siano dei nostri!» intervenne una voce. Harry si voltò e vide Ginny e Tonks, le bacchette tese, alla finestra accanto, a cui mancavano diverse lastre di vetro. Proprio in quel momento Ginny scagliò con precisione una fattura su una folla di combattenti di sotto. «Brava!» ruggì qualcuno correndo verso di loro nella polvere e Harry vide di nuovo Aberforth, i capelli grigi svolazzanti, alla guida di un manipolo di studenti. «Pare che stiano per entrare dai bastioni a nord! Si sono portati dietro dei giganti! Hai visto Remus?» gli gridò Tonks. «Stava combattendo contro Dolohov!» urlò in risposta Aberforth. «Poi non l'ho più visto!» «Tonks!» mormorò Ginny. «Tonks, sono sicura che sta bene!» Ma Tonks schizzò dietro Aberforth. Ginny si voltò impotente verso Harry, Ron e Hermione. «Se la caveranno!» le disse Harry, pur sapendo che erano parole vuote. «Ginny, noi torniamo subito! Tu stanne fuori! Resta al sicuro! Andiamo!» e corse con Ron e Hermione di nuovo verso il tratto di parete oltre il quale la stanza delle necessità stava aspettando di esaudire la richiesta successiva. «Ho bisogno del luogo dove si nasconde tutto!» pensò Harry e al loro terzo passaggio la porta si materializzò. Il furore della battaglia svanì non appena varcarono la soglia e si chiusero dentro. Il silenzio era totale. Erano in un luogo ampio come una cattedrale e simile a una città. Le alte pareti erano pile di oggetti nascosti nei secoli da migliaia di studenti. «E non ha mai capito che ci poteva entrare chiunque!» chiese Ron e la sua voce echeggiò nel silenzio. «Credeva di essere l'unico!» rispose Harry. «Purtroppo per lui anch'io ho avuto della roba da nasconderci. Da questa parte!» aggiunse. «Mi pare che sia quaggiù!» Passò davanti al troll impagliato e all'armadio svanitore che Draco Malfoy aveva riparato l'anno prima con tragiche conseguenze. Poi esitò, guardando su e giù lungo corsie di ciarpame. Non ricordava più la strada. «Accio diadema!» gridò Ermione disperata, ma non arrivò nulla in volo. Come la camera blindata alla Gringot, la stanza non sembrava voler cedere tanto facilmente gli oggetti che nascondeva. «Dividiamoci!» suggerì Harry. «Cercate il busto di pietra di un vecchio con una parrucca e una tiara. È sopra una credenza, da queste parti!» Corsero lungo i corridoi adiacenti. Harry sentiva i passi degli amici risuonare attraverso cataste pericolanti di cianfrusaglie, bottiglie, cappelli, casse, sedie, libri, armi, scope, mazze. «Da qualche parte qui vicino!» borbottò tra sé Harry. «Qui vicino! Qui vicino!» Si addentrò nel labirinto, cercando di riconoscere qualche oggetto dalla sua unica precedente visita. Il respiro gli rimbombava nelle orecchie e poi la sua anima stessa rabbrividì. «Eccola laggiù!» la vecchia credenza piena di bolle in cui aveva nascosto il libro di pozioni e in cima lo stregone di pietra sbeccata con la parrucca polverosa e quella che sembrava un'antica tiara scolorita. Aveva già la mano tesa, anche se era a tre metri di distanza, quando una voce dietro di lui gli intimò. «Fermo, Potter!» si bloccò e si voltò. Crabbe e Goyle erano dietro di lui, spalla a spalla, le bacchette puntate, nel minuscolo spazio tra i loro volti beffardi, scorse, Draco Malfoy. «E' la mia bacchetta che hai in mano, Potter!» osservò Malfoy, puntando la propria nella fessura tra Crabbe e Goyle. «Non più!» ansimò Harry, stringendo la presa sulla bacchetta di Biancospino. «Chi vince chi è ne, Malfoy! Chi te l'ha prestata?» «Mia madre!» rispose Draco. Harry rise, anche se non c'era nulla di divertente nella situazione. Non sentiva più Ron né Ermione. Dovevano essersi allontanati per cercare il diadema. «Allora, come mai voi tre non siete con Voldemort?» chiese. «Verremo ricompensati!» ribatté Crabbe. Aveva una voce sorprendentemente dolce per un essere così enorme, Harry non l'aveva quasi mai sentito parlare prima. Crabbe sorrideva come un bambino a cui è stato promesso un sacchetto di caramelle. «Siamo rimasti indietro, Potter. Abbiamo deciso di non andare. Abbiamo deciso di consegnarti a lui.» «Bel piano!» commentò Harry con finta ammirazione. Non poteva credere di esserci arrivato così vicino e di fallire per colpa di Malfoy, Crabbe e Goyle. Indietreggiò lentamente verso il busto sul quale era posato storto l'Orcrux, se solo fosse riuscito a metterci le mani prima che si scatenasse la lotta. «Come avete fatto a entrare?» chiese sperando di distrarli. «Ho praticamente vissuto tutto l'anno scorso nella stanza delle cose nascoste», rispose Malfoy nervoso. «So come si entra.» «Eravamo nascosti fuori in corridoio», grugnì Goyle. «Siamo muso gli si allargò un ghigno stupido. Sei arrivato te, proprio lì davanti a noi, e hai detto che cercavi un diademo. Cos'è un diademo?» «Harry!» La voce di Ron risonò all'improvviso oltre la parete alla destra di Harry. «Stai parlando con qualcuno?» Con un movimento rapido come una frustata, Crabbe puntò la bacchetta contro la montagna alta 15 metri, una catasta di vecchi mobili, bauli rotti, libri usati, vestiti e altri oggetti non identificabili, e urlò «Descendo!» La parete dondolò, poi cominciò a franare nel corridoio accanto, dove era Ron. «Ron!» urlò Harry, e anche Ermione, nascosta chissà dove, lanciò un grido. Harry udì una lunga serie di oggetti cadere a terra dall'altra parte del muro in bilico. Puntò la bacchetta gridando «Finitus!» e quello si stabilizzò. «No!» esclamò Malfoy, bloccando il braccio di Crabbe, che stava per ripetere l'incantesimo. «Se distruggi la stanza, rischi di seppellire anche quel diadema!» «E allora?» ribatté Crabbe liberandosi. «Il Signore Oscuro vuole Potter! Chi se ne frega di un diademo!» «Potter è entrato qui per quello!» spiegò Malfoy, trattenendo a stento l'impazienza davanti alla stupidità dei compagni. «Quindi deve voler dire?» «Deve voler dire?» Crabbe si rivoltò contro Malfoy con aperta ferocia. «Me ne sbatto di quello che pensi tu! Non prendo più ordini da te, Draco! Tu e il tuo papino siete finiti!» «Harry!» gridò di nuovo Ron dall'altro lato. «Che succede?» «Harry!» gli fece il verso Crabbe. «Che succede?» «No! Potter! Crucio!» Harry si era lanciato verso la tiara. La maledizione di Crabbe lo mancò, ma colpì il busto di pietra che volò in aria. Il diadema schizzò verso l'alto e poi cadde, scomparendo nella catasta di oggetti sulla quale fino a un attimo prima era posato il busto. «Basta!» urlò Malfoy a Crabbe e la sua voce rimbombò nella stanza enorme. «Il Signore Oscuro lo vuole vivo!» «E allora non l'ho mica ammazzato!» rispose Crabbe, liberandosi dalla presa di Malfoy. «Però se ci riesco lo faccio! Il Signore Oscuro vuole che muoia, no? Che di...» Un fiotto di luce scarlatta sfiorò Harry. Hermione era sbucata alle sue spalle e aveva scagliato uno schiantesimo alla testa di Crabbe. Lo mancò solo perché Malfoy lo strattonò via. «E quella sangue marcio! Avada che davrà!» Hermione si tuffò da un lato. Crabbe aveva tentato di ucciderla. La rabbia si impadronì di Harry, cancellandogli tutto il resto dalla mente. Lanciò uno schiantesimo contro Crabbe che lo evitò con un balzo, facendo cadere la bacchetta di mano a Malfoy. La vide rotolare lontano, sotto un cumulo di mobili rotti e scatole. «Non uccidetelo! Non uccidetelo!» gridò Malfoy a Crabbe e Goyle, che puntavano tutti e due contro Harry. Quell'istante di esitazione bastò. «Expelliarmus!» La bacchetta volò via di mano a Goyle e sparì nel torrione di oggetti accanto a lui. Goyle si mise a saltare stupidamente sul posto, cercando di recuperarla. Malfoy schivò il secondo schiantesimo di Ermione e Ron, apparso all'improvviso in fondo al passaggio, scagliò una maledizione petrificus contro Crabbe, ma lo mancò di un soffio. Crabbe si voltò di scatto e urlò di nuovo «Avada che d'avra!» Ron balzò via per evitare il getto di luce verde. Malfoy, disarmato, si riparò dietro un armadio con tre gambe, mentre Ermione si lanciava verso di loro, colpendo Goyle con uno schiantesimo. «E' qui, da qualche parte!» le urlò Harry, indicando la pila di cianfrusaglie nella quale era caduta la vecchia tiara. «Cercala! Io vado ad aiutare! Harry!» gridò lei. Un boato alle sue spalle lo fece voltare. Vide Ron e Crabbe correre a tutta velocità su per il corridoio verso di lui. «Ti piace caldo, feccia?» ruggì Crabbe correndo, ma evidentemente non era in grado di controllare ciò che aveva fatto. Fiamme di altezza anomala li inseguivano, lambendo le mura di cianfrusaglie che a loro tocco si incenerivano. «Aguamenti!» gridò Harry, ma il getto d'acqua che uscì dalla punta della sua bacchetta evaporò all'istante. «Corri!» Malfoy afferrò Goyle schiantato e lo trascinò con sé. Crabbe li sorpassò tutti, terrorizzato. Harry, Ron e Ermione schizzarono dietro di lui e il fuoco dietro di loro. Non era un fuoco normale. Crabbe aveva usato una maledizione ignota a Harry. Quando voltavano un angolo, le fiamme li inseguivano come se fossero vive, coscienti, decise a ucciderli. Poi il fuoco si trasformò, formando un branco gigantesco di bestie feroci. Serpenti fiammeggianti, chimere e draghi sorsero e ricaddero e risorsero, e i detriti secolari, dei quali si stavano cibando, venivano scagliati nelle loro fauci, lanciati in alto dai loro stessi artigli prima di essere consumati dall'inferno. Malfoy, Crabbe e Goyle erano spariti. Harry, Ron e Ermione si bloccarono. I mostri feroci li circondavano, sempre più vicini, con artiglie, corna e code guizzanti, e il calore era solido come un muro. «Cosa possiamo fare?» urlò Ermione sopra il ruggito assordante del fuoco. «Cosa possiamo fare? Qui!» Harry prese dal mucchio di ciarpame più vicino due scope che gli sembravano sufficientemente solide e ne gettò una a che trascinò Ermione in sella dietro di lui. Harry cavalcò la seconda scopa e, scalciando forte a terra, si levarono in volo, evitando il becco cornuto di un rapace infuocato che schioccò le mandibole a pochi centimetri da loro. Il fumo e il calore erano opprimenti. Sotto, le fiamme maledette consumavano i traffici illeciti di generazioni di studenti, i colpevoli frutti di mille esperimenti vietati, i segreti di innumerevoli anime che avevano cercato rifugio in quella stanza. Harry non vide traccia di Malfoy, Crabbe o Goyle. Volò più basso che poté sui mostri di fiamma, ma non c'era altro che fuoco. Che morte terribile! Non aveva mai voluto questo! «Harry, usciamo! Usciamo!» gridò Ron, ma era impossibile vedere la porta in quel fumo nero. E poi Harry udì un flebile, patetico urlo umano nel tuono tremendo delle fiamme fameliche. «E' troppo pericoloso!» urlò Ron, ma Harry si girò a mezz'aria. Approfittando della minima protezione dal fumo che gli offrivano gli occhiali, setacciò con lo sguardo la tempesta di fuoco in cerca di un segno di vita, di un arto o di un volto non ancora incenerito. E li scorse. Malfoy, con le braccia attorno a Goyle svenuto, tutti e due appollaiati su una fragile torre di sedie carbonizzate, si abbassò. Malfoy lo vide arrivare e alzò un braccio, ma appena lo afferrò, Harry capì che era inutile. Goyle era troppo pesante e la mano di Malfoy, madida di sudore, gli scivolò subito dalla presa. «Se moriamo per loro ti uccido, Harry!» ruggì la voce di Ron e proprio quando un enorme chimera ardente stava per calare su di loro, lui e Ermione tirarono Goyle sulla loro scopa e si alzarono di nuovo beccheggiando, mentre Malfoy si arrampicava dietro Harry. «La porta! Vai alla porta! La porta!» urlò Malfoy nell'orecchio di Harry, che accelerò, seguendo Ron, Ermione e Goyle nella marea di fumo nero, senza quasi riuscire a respirare. Attorno a loro, gli ultimi oggetti non ancora divorati dalle fiamme venivano scagliati in aria dai mostri del fuoco maledetto, come in una specie di celebrazione. Coppe e scudi, una collana sfavillante e una vecchia tiara scolorita. «Cosa fai? Cosa fai? La porta è di là!» urlò Malfoy, ma Harry fece dietro fronte e scese in picchiata. Il diadema sembrava cadere al rallentatore, girando e scintillando, nelle fauci spalancate di un serpente, e poi Harry lo prese, l'aveva infilato al polso. Harry si girò di nuovo, evitando il serpente che si slanciava su di lui, e si alzò verso il punto in cui sperava che fosse la porta. Ron, Ermione e Goyle non c'erano più, Malfoy strillava e si teneva così stretto da fargli male. Poi, tra il fumo, vide una macchia rettangolare nel muro e sterzò. Un attimo dopo i suoi polmoni si riempirono di aria pulita e i due urtarono contro la parete opposta del corridoio. Malfoy cadde dalla scopa e rimase disteso a faccia in giù, rantolava e tossiva, scosso dai conati. Harry si rigirò e si mise a sedere. La porta della stanza delle necessità era sparita, e Ron e Ermione erano seduti a terra, ansimanti, accanto a Goyle, ancora privo di sensi. «C-Crab!» tossicchiò Malfoy non appena riuscì a parlare. «C-Crab!» «È morto!» rispose Ron Rauco. Calò il silenzio, rotto solo dai respiri affannosi e dai colpi di tosse. Poi il castello fu scosso da una serie di boati, e una grande cavalcata di figure trasparenti passò al galoppo, portandosi sotto braccio le teste che urlavano, la loro sete di sangue. Quando la caccia dei senza testa fu passata, Harry si tirò in piedi barcollando e si guardò intorno. La battaglia infuriava ancora. Udì altre grida, oltre a quelle dei fantasmi che si allontanavano. Il panico lo invase. «Dov'è Ginny?» chiese. «Era qui! Doveva tornare nella stanza delle necessità!» «Cavolo! Ma secondo te funziona ancora dopo quell'incendio?» chiese Ron. Anche lui si alzò, si stropicciò il petto e guardò a destra e sinistra. «Dobbiamo dividerci e cercare e...» «No!» lo interruppe Hermione, anche lei in piedi. Malfoy e Goyle rimasero accasciati sul pavimento del corridoio. Erano senza bacchetta. Restiamo uniti. Io dico di andare. Harry, cosa hai appeso al braccio? «Cosa? Ah, già!» Si sfilò il diadema dal polso e lo sollevò in alto. Era ancora caldo, annerito dalla fuliggine, ma guardandolo bene vide le minuscole parole incise tutto intorno. «Un ingegno smisurato per il mago è dono grato!» Una sostanza simile a sangue, scura e densa, colava dal diadema. All'improvviso Harry lo sentì vibrare violentemente, poi si spezzò nelle sue mani e in quel momento gli parve di udire un debolissimo, lontano urlo di dolore, che non veniva dai terreni attorno al castello, ma dalla cosa che si era appena infranta tra le sue dita. «Doveva essere Ardemonio!» pigolò Hermione, lo sguardo fisso sui pezzi del diadema. «Prego!» «Ardemonio! Il fuoco maledetto! È una delle sostanze che distruggono gli Horcrux! Ma io non avrei mai, mai osato usarlo! È pericolosissimo! Come faceva Creb a sapere?» «L'avrà imparato dai Carrow!» commentò Harry cupo. «Peccato che quando hanno spiegato come fermarlo era distratto!» borbottò Ron, che come Hermione aveva i capelli bruciacchiati e il volto nero di fuliggine. «Se non avesse cercato di ammazzarci tutti, quasi quasi mi spiacerebbe per lui!» «Ma non capisci!» sussurrò Hermione. «Vuol dire che se riusciamo a prendere il serpente...» Ma si interruppe, perché urla e grida e l'inconfondibile fragore di un duello riempirono il corridoio. Harry si guardò intorno e si sentì mancare. I mangiamorte erano entrati a Hogwarts. Fred e Percy stavano duellando contro due uomini mascherati e incappucciati. Harry, Ron e Hermione corsero avanti per aiutarli. Getti di luce volarono in tutte le direzioni e l'uomo che lottava contro Percy indietreggiò in fretta. Il cappuccio gli cadde dalla testa, scoprendo una fronte alta e capelli striati. «Ah, ministro!» urlò Percy e scagliò una fattura contro Tickness, che lasciò cadere la bacchetta e portò le mani al petto, in evidente difficoltà. «Le ho detto che do le dimissioni? Hai fatto una battuta, Pers!» gridò Fred quando il mangiamorte con cui stava combattendo crollò colpito da tre diversi schiantesimi. Tickness era caduto a terra e minuscole spine gli spuntavano dappertutto. Sembrava che si stesse trasformando in una specie di riccio di mare. Fred guardò il fratello con allegria. «Hai davvero fatto una battuta, Pers? L'ultima che ti avevo sentito fare era...» L'aria esplose. Erano tutti vicini, Harry, Ron, Ermione, Fred e Percy, i due mangiamorte ai loro piedi, uno schiantato, l'altro trasfigurato, e in quella frazione di secondo, quando il pericolo pareva temporaneamente lontano, il mondo andò in pezzi. Harry si sentì volare e non poté far altro che tenersi stretto con tutte le forze a quel sottile bastoncino di legno, che era la sua sola e unica arma e ripararsi la testa con le braccia. Udì le urla dei suoi compagni senza sapere che cosa stava succedendo. Poi il mondo divenne dolore e penombra. Harry era semisepolto nel crollo di un corridoio colpito da un tremendo attacco. Capì dal vento freddo che il fianco del castello era esploso e un calore appiccicoso sulla guancia gli disse che stava sanguinando copiosamente. Poi sentì un grido lancinante che gli strappò le viscere, l'espressione di un dolore che né le fiamme né le maledizioni potevano provocare, e si alzò incerto, più spaventato di quanto non fosse ancora stato quel giorno, più spaventato forse che in tutta la sua vita. Hermione cercava di rimettersi in piedi in mezzo a quella devastazione e tre uomini con i capelli rossi erano a terra, vicini, nel punto in cui la parete era esplosa. Harry afferrò la mano di Hermione e avanzarono barcollando sopra cumuli di legno e pietra. «No! No! No!» urlò qualcuno. «No, Fred! No!» Percy scuoteva il fratello. Ron era inginocchiato accanto a loro e gli occhi di Fred li fissavano senza vederli, lo spettro dell'ultima risata ancora impresso sul volto. La bacchetta di Sambuco Il mondo era finito, e allora perché la battaglia non era cessata? Il castello non era mutolito per l'orrore e tutti i combattenti non avevano deposto le armi. La mente di Harry era incaduta libera, incontrollabile, incapace di cogliere l'impossibile, perché Fred Weasley non poteva essere morto, l'evidenza di tutti i suoi sensi doveva essere falsa, e poi un corpo cadde attraverso lo squarcio nel fianco della scuola, accompagnato da maledizioni scagliate dal buio che finirono contro la parete dietro le loro teste. «Giù!» urlò Harry mentre altre fatture schizzavano nella notte. Lui e Ron afferrarono Hermione e la gettarono a terra, ma Percy era disteso sul corpo di Fred a proteggerlo, e quando Harry chiamò «Persi, su, dobbiamo muoverci!» scosse il capo. «Persi!» Harry vide le lacrime solcare lo strato di fuligine sul viso di Ron, che afferrò il fratello più grande per le spalle, e lo strattonò, ma Percy non si mosse. «Persi, non puoi fare nulla per lui! Dobbiamo!» Hermione urlò, e Harry voltandosi non dovette chiedere perché. Un ragno mostruoso, grande come un'utilitaria, cercava di arrampicarsi attraverso il grosso foro nella parete. Uno dei discendenti di Aragog era sceso in campo. Ron e Harry gridarono all'unisono, i loro incantesimi colpirono insieme, e il mostro fu scaraventato all'indietro, sparendo nella notte con le zampe che si contorcevano orrendamente. «Ha portato degli amici!» gridò Harry, guardando dallo squarcio nella parete. Altri ragni giganti si arrampicavano, liberati dalla foresta proibita nella quale erano evidentemente penetrati i mangiamorte. Harry scagliò schiantesimi contro di loro e abbatté il primo della fila, che cadde sui suoi compagni, trascinandoseli dietro. Altre maledizioni volarono sopra la testa di Harry, così vicine che ne sentì la forza a spostargli i capelli. «Andiamo, ora!» Harry spinse Hermione davanti a sé con Ron, poi si chinò e prese il corpo di Fred sotto le ascelle. Percy capì le sue intenzioni, si alzò dal cadavere del fratello e lo aiutò. Insieme, curvi per evitare le maledizioni che arrivavano dal parco, trascinarono Fred fuori dalla linea del fuoco. «Qui!» disse Harry e lo deposero in una nicchia lasciata vuota da un'armatura. Non sopportava di guardare Fred un attimo più del necessario. Dopo essersi assicurato che il corpo fosse ben nascosto, si lanciò dietro a Ron e Hermione. Malfoy e Goyle erano spariti, ma in fondo al corridoio, ricoperto di polvere e di pietre, con i vetri delle finestre polverizzati, vide molte figure correre avanti e indietro. Difficile dire se fossero amici o nemici. Voltato l'angolo, Percy lanciò un urlo belluino. «Rookwood!» e si gettò dietro a un uomo alto che inseguiva due studenti. «Harry! Di qui!» urlò Hermione. Aveva spinto Ron dietro un arazzo. Sembrava che lottassero e per un folle istante Harry pensò che si stessero baciando di nuovo. Poi vide che Hermione stava trattenendo Ron per impedirgli di seguire Percy. «Ascoltami! Ascolta, Ron! Voglio aiutarlo! Voglio uccidere i mangiamorte!» Era stravolto, sporco di polvere e fumo e tremava di rabbia e dolore. «Ron! Solo noi possiamo far finire tutto questo! Ti prego, Ron! Ci serve il serpente! Dobbiamo uccidere il serpente!» Lo implorava Hermione. Ma Harry lo capiva. Cercare un altro Horcrux non poteva dare la soddisfazione della vendetta. Anche lui voleva lottare, punire chi aveva ucciso Fred. Voleva trovare gli altri Weasley e soprattutto assicurarsi, essere del tutto sicuro che Ginny non fosse... non poteva nemmeno permettere che l'idea prendesse forma. «Combatteremo!» continuò Hermione. «Dovremo combattere per arrivare al serpente! Ma non perdiamo di vista il nostro scopo! Siamo gli unici che possono porre fine a tutto!» Anche lei piangeva, asciugandosi le lacrime sulla manica lacera e bruciata, ma respirò profondamente per calmarsi e, senza lasciare la presa su Ron, si rivolse a Harry. «Devi scoprire dov'è Voldemort! Perché il serpente sarà con lui, no? Fallo, Harry! Guardagli dentro!» Perché era così facile? Perché la cicatrice bruciava da ore, non aspettando altro che dimostrargli i pensieri di Voldemort? All'ordine di Hermione chiuse gli occhi e subito le urla e i colpi e tutti i suoni dissonanti della battaglia si fecero soffocati e distanti, come se lui fosse lontano, molto lontano da loro. Era in piedi, al centro di una stanza desolata ma stranamente familiare, con la tappezzeria scollata e tutte le finestre sbarrate tranne una. Il fragore dell'assalto arrivava attutito. L'unica finestra aperta mostrava lontani scoppi di luce dove sorgeva il castello, ma dentro era buio, a parte una solitaria lampada a olio. Faceva rotolare la bacchetta tra le dita, guardandola, il pensiero fisso alla stanza nel castello, la stanza segreta che lui solo aveva trovato, la stanza che, come la camera, bisognava essere abili, astuti e molto curiosi per scoprire. Il ragazzo non avrebbe trovato il diadema, anche se il burattino di Silente era andato molto più in là di quanto lui si fosse mai aspettato, troppo in là. «Mio signore!» gemette una voce rotta e disperata. Si voltò. Lucius Malfoy era seduto nell'angolo più buio, era lacero e portava ancora i segni della punizione ricevuta per l'ultima fuga del ragazzo. Aveva un occhio chiuso e gonfio. «Mio signore! Vi prego! Mio figlio!» «Se tuo figlio è morto, Lucius, non è colpa mia. Non è venuto da me come gli altri serpeverde. Forse ha deciso di diventare amico di Harry Potter?» «No, mai!» sussurrò Malfoy. «Devi solo sperarlo!» «Non temete, mio signore, che Potter possa morire per mano di altri?» chiese Malfoy con voce tremante. «Non sarebbe, perdonatemi, più prudente per voi sospendere la battaglia, entrare nel castello e cercarlo per... personalmente?» «Non fingere, Lucius. Tu desideri che la battaglia abbia fine, solo per poter scoprire che cos'è successo a tuo figlio. Non ho bisogno di andare a cercare Potter. Prima che la notte sia finita, Potter verrà da me.» Voldemort abbassò di nuovo lo sguardo sulla bacchetta. Lo turbava e le cose che turbavano Lord Voldemort andavano sistemate. «Vammi a prendere Piton.» «Piton? Mio signore?» «Piton! Ora! Ho bisogno di lui. Devo chiedergli un servizio. Vai!» Spaventato, inciampando nella penombra, Lucius uscì dalla stanza. Voldemort rimase a rigirarsi la bacchetta tra le dita, osservandola. «Non c'è altro modo, Nagini!» mormorò e alzò lo sguardo. L'enorme serpente era sospeso in aria e si muoveva sinuoso dentro lo spazio incantato e protetto creato da Voldemort, una sfera luminosa, trasparente, a metà tra una gabbia scintillante e un terrario. Con un sussulto Harry uscì dalla visione e aprì gli occhi. Immediatamente le sue orecchie furono aggredite dalle urla e dagli strilli, dai colpi e dalle esplosioni della battaglia. «È nella Stamberga strillante! Il serpente è con lui! È avvolto da una specie di protezione magica! Ha appena mandato Lucius Malfoy a prendere Piton!» «Voldemort è nella Stamberga strillante!» chiese Ermione sdegnata. «Non sta neanche combattendo!» «Non pensa di dover combattere!» spiegò Harry. «Crede che sarò io ad andare da lui!» «Ma perché? Sa che cerco gli Horcrux e Annagini accanto a sé. È chiaro che devo andare da lui se voglio avvicinarmi a quella bestia!» «Bene!» fece Ron raddrizzando le spalle. «Quindi non puoi andare, perché è quello che vuole, quello che si aspetta. Tu resti qui a proteggere Ermione e io vado a uccidere...» Harry lo interruppe. «Voi due state qui! Vado io col mantello e torno appena...» «No!» intervenne Ermione. «È molto più sensato se prendo io il mantello e...» «Non pensarci neanche!» sibilò Ron. «Ron, sono in grado quanto te!» Ma Ermione non concluse la frase, perché l'arazzo in cima alla scala fu lacerato. «Patter!» comparvelo due mangiamorte mascherati, ma ancora prima che alzassero le bacchette, Ermione gridò «Grisseo!» I gradini sotto i loro piedi si appiattirono a formare uno scivolo e lei, Ron e Harry volarono giù, senza poter controllare la velocità, ma così rapidi che gli schiantesimi dei mangiamorte passarono al di sopra delle loro teste. Attraversarono l'arazzo in fondo e rotolarono a terra, andando a urtare la parete opposta. «Duro!» gridò Ermione puntando la bacchetta contro l'arazzo, che si trasformò in pietra. Con due sonori spaventosi tonfi, i mangiamorte si accasciarono dall'altra parte. «Indietro!» urlò Ron e lui, Harry e Ermione si schiacciarono contro una porta al passaggio di una mandria di banchi di scuola al galoppo, guidata dalla professoressa McGonagall. Non li vide nemmeno, aveva i capelli sciolti e un taglio alla guancia. Voltò all'angolo gridando «Carica!» «Harry, mettiti il mantello!» disse Ermione. «Non pensare a noi!» Ma lui lo gettò addosso a tutti e tre, per quanto grandi fossero. Dubitava che qualcuno avrebbe notato i loro piedi tra la polvere che appesantiva l'aria, le pietre che cadevano, il bagliore degli incantesimi. Scesero di corsa un'altra scala e finirono in un corridoio affollato di duellanti. I ritratti ai due lati erano stipati di figure che urlavano consigli e incoraggiamenti, mentre i mangiamorte, mascherati e no, lottavano contro studenti e insegnanti. Dean si era procurato una bacchetta, perché era alle prese con Dolohov, mentre Parvati fronteggiava Traverse. Harry, Ron e Ermione alzarono subito le bacchette, pronti ad aiutarli, ma i duelli erano così rapidi che rischiavano di colpire un amico. Rimasero allerta, aspettando l'occasione per intervenire, quando sentirono un altissimo «Wiii!» Harry alzò lo sguardo e vide Peeves sfrecciare in alto, scagliando baccelli di pugnaccio. I mangiamorte si ritrovarono con la testa in un groviglio di tuberi verdi che si contorcevano come grassi vermi. «Aaah!» Una manciata di tuberi atterrò sul mantello sopra la testa di Ron. Le visci dei radici rimasero assurdamente sospese a mezz'aria, mentre Ron cercava di scrollarsele di dosso. «Là c'è qualcuno di invisibile!» urlò un mangiamorte mascherato. Dean approfittò di quell'attimo di distrazione per schiantarlo. Dolohov cercò di reagire e Parvati lo bloccò con una maledizione petrificus. «Via!» urlò Harry. Si strinsero il mantello addosso e sfrecciarono a testa bassa nella mischia, scivolando nelle pozze di succo di pugnaccio, diretti al ballatoio della scalinata di marmo che scendeva nella sala d'ingresso. «Sono Draco Malfoy! Draco! Sono uno dei vostri!» Draco era sul pianerottolo e stava supplicando un altro mangiamorte mascherato. Passando, Harry schiantò il mangiamorte. Malfoy si voltò con un sorriso verso il suo salvatore e Ron gli sferrò un pugno da sotto il mantello. Malfoy cadde all'indietro sopra il mangiamorte, la bocca sanguinante, stupefatto. «È la seconda volta che ti salviamo la vita stanotte, bastardo doppio giochista!» urlò Ron. C'erano altri duelli lungo le scale e nell'ingresso, e mangiamorte ovunque. Gli Huxley vicino al portone contro Flitwick e lì accanto uno mascherato contro Kingsley. Gli studenti correvano ovunque, alcuni sorreggevano o trascinavano gli amici feriti. Harry scagliò uno schiantesimo contro il mangiamorte mascherato, lo mancò e rischiò di colpire Neville, emerso dal nulla, con una bracciata di tentacula velenosa, che si abbarbicò allegramente al mangiamorte più vicino e cominciò ad avvilupparlo. Harry, Ron e Hermione si lanciarono giù per la scalinata di marmo, udirono un rumore di vetro rotto alla loro sinistra e la clessidra di serpeverde, che registrava i punti della casa, riversò ovunque i suoi smeraldi, facendo scivolare chi ricorreva sopra. Due corpi caddero dalla balconata e una macchia grigia che Harry prese per un animale attraversò l'ingresso a quattro zampe per affondare i denti in uno dei caduti. «No!» strillò Hermione e con un fragoroso colpo di bacchetta spedì Fenrir Greybeck lontano dal corpo di Lavanda Brown, che si muoveva appena. Lui urtò contro la balaustra di marmo e cercò di rimettersi in piedi. Poi, con un abbacinante lampo bianco e uno schianto, una sfera di cristallo gli cadde sulla testa, abbattendolo al suolo, immobile. «Ne ho ancora!» urlò la professoressa Trelonei da sopra la balaustra. «Chi ne vuole? Ecco!» Con un movimento simile a un servizio di tennis prese un'altra enorme sfera di cristallo dalla borsa e, agitando la bacchetta, la spedì dall'altra parte dell'ingresso a infrangere una finestra. In quell'istante il pesante portone di legno si spalancò ed entrarono altri ragni giganti. Urla di orrore lacerarono l'aria. I duellanti si dispersero, i mangiamorte come gli ogoltiani, e schizzi di luce rossa e verde volarono in mezzo ai mostri, che tremarono e si impennarono, più terrificanti che mai. «Come facciamo a uscire?» urlò Ron sopra le grida, ma prima che Harry o Hermione potessero rispondere, furono scaraventati di lato. Hagrid stava scendendo le scale a passi pesanti, brandendo il suo ombrello rosa a fiori. «Non fateci del male! Non fateci del male, poverini!» tuonava. «Hagrid, no!» Harry dimenticò ogni cosa, scattò fuori dal mantello e corse piegato in due per evitare le maledizioni che illuminavano l'intera sala. «Hagrid, torna indietro!» Non era neanche a metà strada quando vide Hagrid sparire tra i ragni, che in un fragoroso zampettio e un disgustoso brulichio si ritirarono sotto l'assalto degli incantesimi. Hagrid era sepolto tra loro. «Hagrid!» Harry udì qualcuno gridare il suo nome, che fosse amico o nemico non gli interessava. Sfrecciò giù per i gradini nel parco buio, dove i ragni sciamavano via con la loro preda. Di Hagrid non si vedeva più traccia. «Hagrid!» gli parve di distinguere un enorme braccio agitarsi nel groviglio di ragni, ma quando stava per lanciarsi all'inseguimento fu ostacolato da un piede monumentale che gli calò davanti dal buio, facendo tremare il suolo. Guardò in su. Un gigante torreggiava su di lui, alto sette metri, la testa nascosta nelle tenebre. La luce che veniva dal portone del castello riusciva a illuminare solo gli stinchi pelosi, grossi come alberi. Con un solo brutale, fluido movimento, infilò un enorme pugno in una finestra dei piani alti, e il vetro piove su Harry, costringendolo a cercare riparo dentro la soglia. «Oh no!» strillò Hermione raggiungendo Harry con Ron e guardando il gigante, che cercava di abbrancare la gente attraverso la finestra. «No!» fece Ron, afferrando la mano di Hermione che stava alzando la bacchetta. «Se lo schianti farà crollare mezzo castello!» «Hugger!» dall'angolo del castello spuntò Gropp. Harry si rese conto solo adesso che in effetti era un gigante di taglia ridotta. Il mostro, gargantuesco, che cercava di schiacciare la gente ai piani di sopra, voltò la testa e ruggì. Avanzò a passi pesanti verso il suo simile più piccolo, facendo vibrare i gradini di pietra. Gropp spalancò la bocca storta, mettendo in mostra denti gialli e grandi come mezzi mattoni. Poi si scagliarono l'uno contro l'altro, con la ferocia di due leoni. «Via!» urlò Harry. La notte si riempì delle urla tremende e dei colpi dei giganti che combattevano. Harry afferrò la mano di Hermione e si precipitò giù per gli scalini, con Ron alle calcagna. Non aveva perso la speranza di trovare Agride e salvarlo. Corsero così veloci che erano già a metà strada verso la foresta, quando si bloccarono di nuovo. L'aria attorno a loro era immobile. Il respiro di Harry si fermò, come solidificato nel petto. Nell'ombra si muovevano forme, figure mulinanti di un nero fittissimo, che avanzavano come una vasta ondata verso il castello, i volti incappucciati, il respiro ansimante. Ron e Hermione si strinsero contro Harry, mentre il fragore della battaglia alle loro spalle si attutiva all'improvviso. Si spegneva, perché un silenzio che solo i dissennatori potevano portare cadeva denso nella notte. «Dai, Harry!» mormorò la voce di Hermione, molto lontana. «I patroni! Harry!» alzò la bacchetta, ma una sorda disperazione si era impadronita di lui. Fred non c'era più. Agride stava morendo, o forse era già morto. Chissà quanti altri erano caduti, che ancora lui non sapeva. Era come se l'anima avesse già abbandonato il suo corpo. «Harry, muoviti!» urlò Hermione. Un centinaio di dissennatori planavano verso di loro, attirati dalla disperazione di Harry, che era come la promessa di un banchetto. Vide il terriere argente Odiron comparire nell'aria, baluginare e spegnersi. Poi la lontra di Hermione contorcersi e svanire. La bacchetta gli tremava in mano e accolse quasi con gioia l'oblio imminente, la promessa del nulla, dell'assenza di sensazioni. Una lepre d'argento, un cinghiale e una volpe passarono a mezz'aria e li superarono. Davanti alle tre creature i dissennatori indietreggiarono. Tre persone sbucarono dall'oscurità, con le bacchette tese, tenendo saldi i propri patroni, Luna, Erni e Simus. «Forza!» lo incoraggiò Luna, come se fosse ancora nella stanza delle necessità e quello fosse solo un allenamento dell'esercito di Silente. «Forza, Erni! Pensa a qualcosa di allegro!» «Qualcosa di allegro!» ripetè lui la voce spezzata. «Siamo ancora qui!» sussurrò lei. «Stiamo ancora combattendo! Su, dai!» Una scintilla d'argento, una luce guizzante e poi, con lo sforzo più grande che gli fosse mai costato, il cervo sbucò dalla punta della sua bacchetta, trottò in avanti. I dissennatori si dispersero rapidi e subito la notte tornò. mite, ma il frastuono della battaglia riprese a echeggiare nelle sue orecchie. «Grazie! Grazie infinite!» balbettò Ron con voce malferma. «Ci avete salvato?» Con un rugito e un tremito da terremoto, un altro gigante arrivò balcollando dalla foresta. Brandiva una mazza più alta di chiunque di loro. «Attenti!» urrò Erni, ma non ce n'era bisogno. Corsero tutti via, e appena in tempo, perché l'enorme piede della creatura si abbatte esattamente nel punto in cui si trovavano un attimo prima. Erni si guardò intorno. Ron e Ermione erano ancora con lui, ma gli altri tre erano spariti di nuovo nella battaglia. «Scappiamo!» gridò Ron. Il gigante roteava la mazza e i suoi muggiti echeggiavano per tutto il parco, dove lampi di luce rossa e verde continuavano a squarciare l'oscurità. «Alzali, c'è schiaffeggiante!» disse Harry. «Andiamo!» In qualche modo chiuse tutto quanto nella mente. Lo stipò in un piccolo spazio dentro il quale, al momento, non poteva guardare. Il pensiero di Fred e Hagrid, il suo terrore per le persone che amava, dentro e fuori il castello, avrebbero aspettato, perché loro adesso dovevano correre, dovevano raggiungere il serpente e Voldemort. Come aveva detto Ermione, era l'unica maniera per farla finita. Scattò, pensando quasi che così sarebbe riuscito a distanziare la morte stessa, ignorando i fiotti di luce che volavano nel buio, il rumore del lago che rugiva come il mare e il fruscio della foresta proibita, anche se la notte era senza vento. Attraverso una terra che sembrava anch'essa ribellarsi, corse più veloce di quanto avesse mai fatto in vita sua, e fu lui ad avvistare per primo l'enorme albero, il salice che proteggeva il segreto sotto le proprie radici, con i rami pronti a schioccare come fruste. Ansimante, Harry rallentò, tenendosi a distanza dai rami violenti del salice, scrutando nel buio il suo grosso tronco, cercando di individuare l'unico nodo nella corteccia che avrebbe immobilizzato il vecchio albero. Ron e Ermione lo raggiunsero. Lei era così sfinita che non riusciva a parlare. «Come, come facciamo a entrare?» chiese Ron con il respiro affannoso. «Vedo il punto, se solo avessimo grattastinchi, grattastinchi!» sibilò Ermione, piegata in due con le mani al petto. «Sei un mago o cosa?» «Ah, già, è vero!» Ron si guardò in giro, poi puntò la bacchetta verso un bastoncino per terra e disse «Vingardium Leviosa!» Il rametto volò in alto, roteò nell'aria come se fosse stato colpito da una raffica di vento, poi schizzò contro il tronco attraverso i minacciosi rami rotanti del salice. Colpì un punto vicino alle radici e subito l'albero cessò di contorcersi. «Perfetto!» ansimò Ermione. «Aspettate!» Per un attimo, nel rumore sordo della battaglia, Harry esitò. Voldemort voleva questo, voleva che lui andasse. Stava portando Ron e Ermione in una trappola, ma poi la realtà gli piombò addosso, crudele e banale. L'unica soluzione era uccidere il serpente. Il serpente era con Voldemort e Voldemort era alla fine di quel tunnel. «Harry, ti seguiamo! Dai, entra!» lo esortò Ron spingendolo avanti. Harry si infilò nel cunicolo di terra nascosto tra le radici dell'albero. Dovette schiacciarsi molto più dell'ultima volta. Il passaggio aveva il soffitto basso. Quattro anni prima l'avevano percorso piegati in due, adesso potevano solo strisciare. Harry avanzò per primo, con la bacchetta illuminata. Si aspettava di trovare ostacoli da un momento all'altro, e invece niente. Procedettero in silenzio. Lo sguardo di Harry era fisso sul raggio oscillante della bacchetta, che teneva in pugno. Infine il cunicolo cominciò a salire, e Harry vide una lama di luce. Ermione gli strattonò una caviglia. «Il mantello!» sussurrò. Lui tastò alle proprie spalle, e lei gli infilò nella mano libera il fagotto di tessuto scivoloso. Vi si avvolse con difficoltà, mormorò «Nox!» per spegnere la bacchetta, e avanzò carponi, più piano che poteva. Tutti i sensi allerta, temendo a ogni secondo che passava di essere scoperto, di sentire una fredda voce chiara, di vedere un lampo di luce verde. Poi udì delle voci dalla stanza che era proprio davanti a loro, appena soffocate, perché lo sbocco del tunnel era stato bloccato da quella che sembrava una vecchia cassa. Trattenendo il respiro, Harry si avvicinò all'apertura e spiò dal piccolo spazio rimasto tra la cassa e la parete. La stanza era poco illuminata, ma vide Nagini muoversi come una biscia sott'acqua, al sicuro nella sua luminosa bolla incantata, sospesa a mezz'aria. Vide il bordo di un tavolo e una mano bianca dalle lunghe dita, che giocherellava con una bacchetta. Poi Piton parlò, e il cuore di Harry mancò un colpo. Era a pochi centimetri da lui. «Mio signore, la resistenza sta crollando, e il tuo aiuto non serve!» ribatte Voldemort con la sua voce nitida e acuta. «Per quanto tu sia un abile mago, Piton, non credo che tu possa fare molta differenza ormai. Ci siamo quasi, quasi...» «Lasciatemi cercare il ragazzo! Consentitemi di portarvi Potter! So che posso trovarlo, mio signore, vi prego!» Piton passò davanti alla fessura, Harry si ritrasse, lo sguardo fisso su Nagini, chiedendosi se esisteva un incantesimo in grado di penetrare la protezione che la circondava, ma non gli venne in mente nulla. Bastava fallire una volta e l'avrebbero scoperto. Voldemort si alzò, Harry lo vide bene, gli occhi rossi, il volto piatto da serpente, il pallore che riluceva appena nella semi-oscurità. «Ho un problema, Severus!» mormorò Voldemort. «Mio signore!» Voldemort alzò la bacchetta di Sambuco, reggendola con delicatezza e precisione, come la bacchetta di un direttore d'orchestra. «Perché con me non funziona, Severus!» Nel silenzio, Harry parve di sentire il serpente sibilare, o era il sospiro di Voldemort che indugiava nell'aria. «Mio, mio signore!» rispose Piton senza espressione. «Non capisco! Voi... voi avete compiuto magie straordinarie con quella bacchetta!» «No!» obiettò Voldemort. «Ho compiuto le mie magie consuete! Io sono straordinario! Ma questa bacchetta? No! Non ha mostrato le meraviglia che prometteva! Non avverto alcuna differenza tra questa bacchetta e quella che mi procurai da Ollivander tanti anni fa!» Il tono di Voldemort era meditabondo, tranquillo, ma la cicatrice di Harry cominciò a pulsare. Il dolore le attraversò la fronte e sentì quel senso controllato di furia crescere dentro Voldemort. «Nessuna differenza!» ribadì Voldemort. Piton non parlò. Harry non lo vedeva in volto. Si chiese se percepisse il pericolo, se stesse cercando le parole giuste per rassicurare il suo padrone. Voldemort cominciò a muoversi per la stanza. Harry lo perse di vista per qualche secondo, mentre passeggiava avanti e indietro, parlando con la stessa voce misurata, e il dolore e la rabbia crescevano in lui. «Ho riflettuto a lungo e a fondo, Severus. Sai perché ti ho richiamato dalla battaglia?» Per un attimo Harry vide il profilo di Piton. I suoi occhi erano fissi sul serpente acciambellato nella gabbia incantata. «No, mio signore, ma vi supplico di lasciarmi tornare raggiù. Permettetemi di trovare Potter. Parli come Lucius. Nessuno di voi capisce Potter quanto me. Non serve cercarlo. Potter verrà da me. Conosco la sua debolezza, vedi il suo grande difetto. Non sopporterà di vedere gli altri cadere attorno a lui. Sapendo di esserne la causa, vorrà porvi fine a ogni costo. Verrà. Ma, mio signore, potrebbe venire ucciso per errore da qualcun altro. Ho dato istruzioni molto precise ai miei mangiamorte. Catturare Potter, uccidere i suoi amici. Più ne abbattono, meglio è. Ma non lui. Ma è di te che desideravo parlare, Severus, non di Harry Potter. Mi sei stato molto prezioso. Molto prezioso. Il mio signore sa che io desidero solo servirlo. Ma lasciatemi andare a cercare il ragazzo. Lasciate che ve lo porti. So che posso. Ho detto di no! esclamò Voldemort voltandosi di nuovo. Harry scorse il lucichio rosso nei suoi occhi e il fruscio del suo mantello fu come quello di un serpente. Avvertì l'impazienza del signore oscuro nella cicatrice ardente. La mia preoccupazione al momento, Severus, è che cosa accadrà quando finalmente incontrerò il ragazzo. Mio signore, non ci può essere questione. Ma una questione c'è, Severus. C'è. Voldemort si arrestò e Harry lo vide con chiarezza. Faceva scivolare tra le dita la bacchetta di Sambuco e scrutava Piton. Perché entrambe le bacchette che ho usato hanno fallito quando le ho puntate contro Harry Potter. Io? Io non sono in grado di rispondere, mio signore. Non sei in grado? La fitta di rabbia fu come un chiodo piantato nella testa di Harry. Si infilò il pugno in bocca per non urrare dal dolore. Chiuse gli occhi e di colpo fu Voldemort, che fissava il volto pallido di Piton. La mia bacchetta di tasso ha sempre fatto tutto quello che le ho chiesto, Severus, tranne uccidere Harry Potter. Due volte ha fallito. Sotto tortura, Ollivander mi ha parlato dei nuclei gemelli. Mi ha detto di cercarne un'altra. L'ho fatto, ma quando la bacchetta di Lucius ha incrociato quella di Potter, si è spezzata. Io non so spiegarlo, mio signore. Piton non guardava Voldemort. I suoi occhi scuri erano ancora fissi sul serpente avvolto nella sua bolla protettiva. Ho cercato una terza bacchetta, Severus. La bacchetta di Sambuco. La bacchetta del destino. La stecca della morte. L'ho presa al suo precedente proprietario. L'ho presa dalla tomba di Silente. Questa volta Piton guardò Voldemort, e il suo viso era come una maschera mortuaria. Era bianco come il marmo, e così immobile che quando parlò fu una sorpresa a scoprire che c'era qualcuno di vivo dietro quegli occhi vuoti. Mio signore, lasciatemi andare dal ragazzo. Per tutta questa lunga notte, vicino ormai alla vittoria, sono rimasto qui, proseguì Voldemort, la voce poco più di un sussurro, a riflettere, a chiedermi perché la bacchetta di Sambuco si rifiuta di essere ciò che dovrebbe, di comportarsi come la leggenda dice che deve fare nelle mani del suo legittimo proprietario, e credo di avere la risposta. Piton non parlò. Forse la conosci già? Sei un uomo intelligente, dopo tutto, Severus. Sei stato un servitore bravo e fedele, e mi dolgo di ciò che deve accadere. Mio signore, la bacchetta di Sambuco non può servirmi in modo adeguato, Severus, perché non sono io il suo vero padrone. La bacchetta di Sambuco appartiene al mago che ha ucciso il suo ultimo proprietario. Tu hai ucciso Albus Silente. Finché tu vivi, Severus, la bacchetta di Sambuco non può essere davvero mia. Mio signore, protestò Piton alzando la bacchetta. Non può essere altrimenti, concluse Voldemort. Devo dominare la bacchetta, Severus. Se domino la bacchetta, finalmente dominerò Potter. Sferzò l'aria con la bacchetta di Sambuco. Non accadde nulla a Piton, che per un attimo parve pensare di essere stato risparmiato, ma poi le intenzioni di Voldemort divennero chiare. La sfera del serpente rotolò nell'aria, e prima che Piton potesse far altro che urlare, gli aveva racchiuso testa e spalle, e Voldemort parlò in serpentese. «Uccidi!» Si levò un grido terribile. Harry vide il volto di Piton perdere quel poco colore che aveva e gli occhi neri dilatarsi. Le zanne del serpente gli perforavano il collo, e lui non riusciva a liberarsi dalla gabbia incantata. Le ginocchia gli cedettero e cadde a terra. «Mi spiace», commentò Voldemort, gelido. Si voltò. Non c'era tristezza in lui, nessun rimorso. Era tempo di lasciare quella stamberga e prendere in mano la situazione, con una bacchetta che ora avrebbe eseguito ogni suo ordine. La puntò verso la gabbia luminosa che teneva il serpente, facendola fluttuare in alto, via da Piton, che cadde disteso su un fianco, con il sangue che gli sgorgava dal collo. Voldemort uscì dalla stanza senza guardarsi indietro, e l'enorme serpente lo seguì galleggiando nella sua sfera protettiva. Nel tunnel, tornato in sé, Harry aprì gli occhi. Si era morso a sangue le nocche per non urlare. Guardò dalla fessura tra la cassa e la parete, e vide un piede avvolto in uno stivale nero, tremare sul pavimento. «Harry!» bisbigliò Hermione, ma lui aveva già puntato la bacchetta contro la cassa che gli bloccava la vista. La cassa si sollevò di un centimetro e si spostò silenziosamente di lato. Più piano che poté, Harry entrò nella stanza. Non sapeva perché lo faceva, perché si stava avvicinando a Piton morente. Non sapeva che cosa provava quando guardò il suo volto bianco e le dita che cercavano di tamponare la ferita insanguinata nel collo. Harry si tolse il mantello dell'invisibilità e guardò l'uomo che odiava. Gli occhi neri dilatati si posarono su di lui, e Piton cercò di parlare. Harry si chinò. Piton lo afferrò per il bavero e lo tirò a sé. Un terribile gorgoglio, un rantolo, uscì dalla sua gola. «Prendi! Prendi!» Qualcosa di diverso dal sangue colava da Piton? Era azzurro argento, né liquido né gassoso, e usciva dalla bocca, dalle orecchie, dagli occhi. Harry capì che cos'era, ma non sapeva che fare. Hermione gli ficcò tra le mani una fiala, apparsa dal nulla. Con la bacchetta, Harry vi spinse dentro la sostanza argentea. Quando la fiala fu piena fino all'orlo e in Piton sembrava che non ci fosse più sangue, la sua presa sui vestiti di Harry si allentò. «Guardami!» sussurrò. Gli occhi verdi incontrarono i neri, ma dopo un attimo qualcosa nel profondo di questi ultimi svanì, lasciandoli fissi e vuoti. La mano che stringeva Harry crollò a terra, e Piton non si mosse più. La storia del principe Harry rimase inginocchiato accanto a Piton, a guardarlo, quando all'improvviso una voce fredda e acuta parlò così vicino da farlo balzare in piedi, la fiala stretta in mano, convinto che Voldemort fosse tornato nella stanza. La sua voce riverberava dalle pareti e dal pavimento, e Harry capì che stava parlando a tutta Hogwarts e dintorni, che gli abitanti di Hogsmeade e coloro che ancora combattevano dentro il castello l'avrebbero sentita chiaramente, come se fosse stato accanto a loro, il suo respiro sul collo, mortalmente vicino. «Avete combattuto valorosamente», diceva la voce acuta e fredda. «Lord Voldemort sa apprezzare il coraggio, ma avete subito pesanti perdite. Se continuerete a resistermi, morirete tutti, uno per uno. Io non desidero che ciò accada. Ogni goccia di sangue magico versata è una perdita e uno spreco. Lord Voldemort è misericordioso. Ordino alle mie forze di ritirarsi immediatamente. Avete un'ora. Disponete dei vostri morti con dignità. Curate i vostri feriti. Ora, Harry Potter, mi rivolgo direttamente a te. Tu hai consentito che i tuoi amici morissero per te piuttosto che affrontarmi di persona. Io ti aspetterò nella foresta proibita. Se entro un'ora non ti sarai consegnato a me, la battaglia riprenderà e questa volta vi prenderò parte io stesso, Harry Potter, e ti troverò e punirò fino all'ultimo uomo, donna o bambino, che abbia cercato di nasconderti a me. Un'ora». Ron e Hermione scossero il capo freneticamente guardando Harry. «Non ascoltarlo», disse Ron. «Andrà tutto bene», soggiunse Hermione agitata. «Adesso, adesso torniamo al castello. Se è andato nella foresta, dovremo pensare a un altro piano». Rivolse uno sguardo al corpo di Piton, poi corse verso l'entrata del cunicolo. Ron la seguì. Harry raccolse il mantello dell'invisibilità, poi guardò Piton. Non sapeva che cosa provare, se non orrore, per il modo in cui era stato ucciso e per il motivo. Tornarono indietro strisciando lungo il tunnel, senza parlare. Chissà se Ron e Hermione sentivano ancora Voldemort risuonare nella testa come lo sentiva lui. «Tu hai consentito che i tuoi amici morissero per te piuttosto che affrontarmi di persona. Io ti aspetterò nella foresta proibita. Un'ora». Piccoli fagotti erano sparsi sul prato davanti al castello. Doveva mancare poco più di un'ora all'alba, ma era ancora buio pesto. I tre amici corsero verso i gradini di pietra. Uno zoccolo solitario, grande come una barca a remi, giaceva abbandonato davanti a loro. Non c'erano altre tracce di gropp o del suo aggressore. Il castello era immerso in un silenzio innaturale. Niente lampi, esplosioni, urla o strilli. Le lastre di pietra della sala d'ingresso erano macchiate di sangue. Gli smeraldi erano ancora sparpagliati ovunque, insieme a pezzi di marmo e schegge di legno. Parte della balconata era stata spazzata via. «Dove sono tutti?» sussurrò Ermione. Ron fece strada verso la sala grande. Harry si fermò sulla soglia. I tavoli delle case erano spariti e la sala era affollata. I sopravvissuti erano a gruppetti e si abbracciavano. Madame Pomfrey e un gruppo di volontari curavano i feriti sulla pedana in fondo. Tra questi c'era Firenze. Perdeva sangue dal fianco e tremava, disteso a terra, incapace di alzarsi. I morti erano disposti in fila al centro della sala. Harry non vedeva il corpo di Fred perché era circondato dalla sua famiglia. George era inginocchiato vicino alla testa. La signora Weasley era accasciata sul petto del figlio, scossa dai singhiozzi. Il signor Weasley le accarezzava i capelli e aveva le guance inondate di lacrime. Senza dire una parola, Ermione andò da Ginny, che aveva il volto gonfio e arrossato, per abbracciarla. Ron raggiunse Bill, Fleur e Percy, che gli gettò un braccio attorno alle spalle. Ginny e Ermione si avvicinarono al resto della famiglia. Harry vide i corpi distesi accanto a quello di Fred. Remus e Tonks, pallidi e immobili, sembravano tranquilli, addormentati sotto il buio soffitto incantato. La sala grande parve volar via, rimpicciolire, restringersi. Harry indietroggiò oltre la soglia. Non riusciva a respirare, non ce la faceva guardare gli altri cadaveri, a scoprire chi altri era morto per lui. Non riusciva a unirsi ai Weasley, a guardarli negli occhi. Se si fosse consegnato subito, Fred forse non sarebbe morto. Si voltò e corse su per la scalinata di marmo. Lupin, Tonks, avrebbe preferito non provare nulla, potersi strappar via il cuore, le viscere, tutto ciò che urlava dentro di lui. Il castello era vuoto. Anche i fantasmi si erano mescolati alla folla in lutto nella sala grande. Harry corse senza fermarsi, stringendo la fiala di cristallo che conteneva gli ultimi pensieri di Piton, e non rallentò finché non fu davanti al gargoyle di pietra, a guardia dello studio del preside. «Parola d'ordine!» «Silente», rispose senza riflettere, perché era lui che voleva vedere, e con sua sorpresa il gargoyle scivolò di lato, rivelando la scala a chiocciola. Ma quando Harry ruppe nella stanza circolare, vide che qualcosa era cambiato. I ritratti appesi alle pareti erano vuoti. Non un solo preside era rimasto. Evidentemente erano corsi tutti via, attraverso i quadri che tappezzavano il castello, per assistere da vicino agli eventi. Harry guardò disperato la cornice vuota del ritratto di Silente, appesa dietro la sedia del preside. Poi le voltò le spalle. Il pensatoio di pietra era al suo posto nell'armadio. Harry lo trasportò sulla scrivania e versò i ricordi di nel grande bacile con le rune incise attorno al bordo. Fuggire nella testa di qualcun altro sarebbe stato un sollievo. Nemmeno i pensieri di Piton potevano essere peggio dei suoi. I ricordi vorticarono, bianchi, argentei, strani, e senza esitare, con un sentimento di disperato abbandono, come se così potesse placare il dolore che lo torturava, Harry vi si immerse. Cadde lungo disteso nella luce del sole, su un suolo tiepido. Quando si mise in piedi scoprì che si trovava in un parco giochi quasi deserto. Un'enorme ciminiera dominava l'orizzonte. Due bambine si dondolavano sulle altaliene e un ragazzino magro le osservava da dietro un gruppo di cespugli. Aveva i capelli neri troppo lunghi e abiti così male assortiti che sembrava fatto di proposito. Jeans troppo corti, un cappotto logoro e troppo grande che avrebbe potuto appartenere a un adulto, una strana camicia simile a un grembiule. Harry si avvicinò al ragazzo. Piton non doveva avere più di nove o dieci anni, giallastro, piccolo, nervoso. Sul suo volto magro si leggeva chiaramente il desiderio con cui guardava la più piccola delle due bambine dondolare sempre più in alto, molto di più della sorella. «Lili, non farlo!» strillò la maggiore. Ma la bambina, arrivata nel punto più alto dell'arco, si lanciò a volo, quasi letteralmente a volo. Si gettò verso il cielo con uno scoppio di risate e invece di precipitare sull'asfalto del parco giochi, si librò nell'aria come una trapezista e vi indugiò troppo a lungo e atterrò con troppa leggerezza. «La mamma ti ha detto di non farlo!» Petunia fermò l'altalena piantando i talloni dei sandali a terra con uno scricchiolio, poi balzò in piedi, le mani sui fianchi. «La mamma ha detto che non puoi! Lili! Ma non mi sono fatta niente!» ribatté Lili che ancora rideva. «Tunia, guarda! Guarda cosa so fare!» Petunia si guardò intorno. Il parco giochi era deserto, a parte loro e, anche se le bambine non lo sapevano, Piton. Lili raccolse un fiore caduto dal cespuglio dietro il quale era nascosto Piton. Petunia si avvicinò, dibattuta tra la curiosità e la disapprovazione. Lili aspettò che la sorella guardasse bene, poi tese la mano aperta. Il fiore apriva e chiudeva i petali come una bizzarra ostrica con molte valve. «Smettila!» strillò Petunia. «Mica ti fa del male!» obiettò Lili, ma poi chiuse la mano sul bocciolo e lo gettò di nuovo a terra. «Non è giusto!» protestò Petunia, ma il suo sguardo aveva seguito la caduta del fiore a terra e vi indugiava. «Come fai?» domandò con un chiaro tono di desiderio. «E' ovvio, no?» Piton non riuscì più a trattenersi e balzò fuori dai cespugli. Petunia strillò e tornò di corsa alle altalene, ma Lili, per quanto allarmata, rimase dov'era. Piton parve pentirsi di essere uscito allo scoperto. Un cupo rossore invase le sue guance giallognole. «Che cosa è ovvio?» chiese Lili. Piton era agitato. Scoccò un'occhiata a Petunia, che gironzolava vicino alle altalene, poi abbassò la voce e disse «Io so cosa sei!» «Cioè? Tu sei... sei una strega!» sussurrò Piton. Lei parve offesa. «Non è una cosa carina da dire!» Si voltò, il naso per aria, e si allontanò a grandi passi verso la sorella. «No!» esclamò Piton. Ormai era paonazzo, e Henry si chiese come mai non si toglieva quel cappotto, sproporzionato e ridicolo, a meno che non fosse per nascondere la camiciola di sotto. Saltellò dietro le bambine, come la caricatura di un pipistrello o di se stesso da adulto. Le sorelle lo osservarono, unite nel disprezzo, tutte e due aggrappate a uno dei pali dell'altalena, come se fosse la tana in una partita di chiapparello. «Lo sei!» insiste Piton. «Sei una strega! È un po' che ti tengo ad occhio! Ma non c'è niente di male. Anche mia mamma è una strega, e io sono un mago!» La risata di Petunia fu come una doccia fredda. «Un mago!» strillò rinfrancata dopo lo spavento per l'improvvisa apparizione. «Io so benissimo chi sei! Sei il figlio dei Piton!» «Abitano giù a Spinner Sand, vicino al fiume!» spiegò a Lily, e dal suo tono si capiva che trovava l'indirizzo, poco raccomandabile. «Perché ci stai spiando?» «Non vi spio!» rispose Piton in pieno sole, accaldato, a disagio, con i capelli sporchi. «Non te, comunque!» aggiunse sprezzante. «Tu sei una babbana!» Anche se Petunia non capiva la parola, non poteva fraintendere il tono. «Lily, su, andiamo via!» esclamò. Lily obbedì immediatamente alla sorella e si allontanò, scrutando torva Piton. Lui le guardò attraversare il parco giochi, e Harry, il solo rimasto a osservarlo, ne riconobbe l'amara delusione. Capì che era da molto che aspettava quel momento e che era andato tutto storto. La scena si dissolse e in un attimo si riformò. Adesso si trovava in un boschetto, vide un fiume scintillare al sole che filtrava fra i tronchi. Gli alberi proiettavano sull'erba una pozza di fresca ombra verde. Due bambini erano seduti per terra a gambe incrociate, una di fronte all'altro. Piton si era tolto il cappotto. La sua strana camicia sembrava meno assurda in quella penombra. «E il ministero può punirti se fai magie fuori dalla scuola. Ti mandano delle lettere. Ma io le ho fatte. Noi siamo a posto. Non abbiamo ancora la bacchetta. Ti lasciano stare quando sei un bambino e non puoi farci niente. Ma a undici anni, e annui con aria di importanza, cominciano a istruirti e allora devi stare attento». Calò un breve silenzio. Lily raccolse un bastoncino e lo agitò. Harry capì che immaginava di vederne uscire una pioggia di scintille. Poi lo lasciò cadere, si sporse verso Piton e chiese. «È vero, no? Non è uno scherzo. Petunia dice che mi racconti delle bugie. Dice che Hogwarts non esiste. È proprio vero?» «È vero per noi», rispose Piton. «Non per lei. Ma noi riceveremo la lettera. Io e te. Sul serio?» mormorò Lily. «Certo», confermò Piton. E persino con i capelli tagliati male e i vestiti balordi, era stranamente solenne, seduto davanti a lei, fiducioso nel proprio destino. «E arriverà davvero con un gufo?» mormorò Lily. «Di solito», rispose Piton. «Ma tu sei figlia di Babbani, quindi dovrà venire qualcuno della scuola a spiegarlo ai tuoi genitori. È diverso se sei figli di Babbani?» Piton esitò. I suoi occhi neri, colmi di entusiasmo nella penombra verdastra, si spostarono sul volto pallido, sui capelli rosso scuro di lei. «No», dichiarò infine, «non è diverso». «Meno male», sospirò Lily tranquillizzata. Era chiaro che prima era un po' preoccupata. «Tu hai un sacco di magia», continuò Piton. «L'ho visto. Ti guardavo sempre». La sua voce si affievolì. Lily non stava ascoltando, ma si era distesa sul terreno coperto di foglie e osservava la volta di rami sopra di loro. Lui la studiava con lo stesso desiderio di quando la spiava nel parco giochi. «Come vanno le cose a casa tua?» gli chiese lei. Una piccola piega apparve fra gli occhi di Piton. «Bene», rispose. «Non litigano più?» «Oh sì, litigano», ribatté Piton, raccolse un pugno di foglie e cominciò a strapparle sopra pensiero. Ma fra poco me ne andrò. «A tuo papà non piace la magia?» «Non gli piace praticamente niente», rispose Piton. «Severus», un piccolo sorriso incurvò le labbra di Piton quando lei disse il suo nome. «Sì?» «Parlami ancora dei dissenatori». «Perché?» «Se uso la magia fuori dalla scuola. Non ti danno ai dissenatori per questo. I dissenatori sono per chi fa cose veramente brutte. Sono le guardie della prigione magica. Azkaban! Tu non puoi finire ad Azkaban. Sei troppo...» Arrossì di nuovo e strappò altre foglie. Poi un fruscio alle spalle di Harry lo costrinse a voltarsi. Petunia, nascosta dietro un albero, aveva perso l'equilibrio. «Tunia!» esclamò Lily, sorpresa e lieta insieme, ma Piton balzò in piedi. «Chi è adesso che spia?» gridò. «Cosa vuoi?» Petunia era senza fiato, spaventata per essere stata scoperta. Harry vide che cercava qualcosa di perfido da dire. «Che cos'è che hai addosso?» chiese infine, indicando il petto di Piton. «La camicetta di tua mamma?» Si udì un crack. Un ramo sopra la testa di Petunia cadde. Lily urrò. Il ramo colpì sulla spalla Petunia, che barcollò all'indietro e scoppiò in lacrime. «Tunia!» Ma la sorella stava scappando. Lily si voltò verso Piton. «Sei stato tu?» «No!» era insolente e spaventato insieme. «Sì, invece!» Lei indietreggiò. «Sei stato tu! Le hai fatto male!» «No! No! Non sono stato io!» Ma la bugia non convince Lily. Con un ultimo sguardo di fuoco corse via dietro la sorella e Piton rimase lì, desolato e confuso. E la scena si riformò. Harry si guardò intorno. Piton era davanti a lui, sul binario nove e tre quarti, un po' curvo, vicino a una donna magra, dal viso giallastro e acido, che gli assomigliava moltissimo. Piton fissava una famiglia di quattro persone poco lontano. Le due ragazze si erano lievemente allontanate dai genitori. Lily stava supplicando la sorella. Harry si avvicinò per ascoltare. «Mi dispiace, Tunia! Mi dispiace! Ascolta!» Le prese la mano e la strinse forte, anche se Pitonia cercava di sottrarla. «Forse quando sarò là... No, ascolta, Tunia! Forse quando sarò là riuscirò a convincere il professor Silente a cambiare idea!» «Io non voglio venirci!» esclamò Pitonia, tirando la mano. «Tu credi che io voglio andare in uno stupido castello per imparare a essere una... una...» I suoi occhi sbiaditi vagarono sul marciapiede, sui gatti che miagolavano tra le braccia dei proprietari, sui gufi che sbattevano le ali e gridavano l'uno all'altro dalle gabbie, sugli studenti, alcuni già nelle lunghe divise nere che caricavano i bauri sul treno a vapore rosso o si salutavano con grida di gioia dopo un'estate di separazione. «Credi che io voglia essere uno... uno scherzo della natura?» Gli occhi di Lili si riempirono di lacrime e Petunia riuscì a liberare la mano. «Io non sono uno scherzo della natura!» pianse. «È una cosa orribile da dire!» «È là che stai andando!» ribatté Petunia compiaciuta, in una scuola speciale per scherzi della natura. «Tu e quel Piton, due balordi, ecco cosa siete! È giusto separarvi dalla gente normale, per la nostra sicurezza!» Lili guardò i genitori, che contemplavano con sincero piacere tutto quello che succedeva attorno al binario. Poi si rivolse alla sorella e parlò con voce bassa e rabbiosa. «Non pensavi che fosse una scuola per balordi quando hai scritto al preside per supplicarlo di ammetterti!» Petunia diventò paunazza. «Supplicare? Io non l'ho supplicato!» Ho letto la sua risposta, era molto gentile. «Non dovevi!» sussurrò Petunia. «Era una cosa personale! Come hai potuto?» Lili si tradì rivolgendo un mezzo sguardo a Piton. Petunia boccheggiò. «L'ha trovata quel ragazzo! Siete entrati di nascosto in camera mia!» «No, non di nascosto!» Adesso Lili era sulla difensiva. Severus ha visto la busta e non poteva credere che una babbana avesse preso contatti con Hogwarts. «Tutto qui! Dice che alle poste! Devono esserci dei maghi che lavorano in incognito per... a quanto pare i maghi ficcano il naso dappertutto!» esclamò Petunia, pallida quanto era stata rossa poco prima. «Balorda!» e si precipitò dai genitori. La scena sfumò di nuovo. Piton correva lungo il corridoio dell'Hogwarts Express, che sferragliava attraverso la campagna. Si era già cambiato e indossava la divisa, la prima occasione per liberarsi di quegli orrendi abiti babbani. Finalmente si fermò, fuori da uno scompartimento in cui alcuni ragazzi chiassosi stavano chiacchierando. Rannicchiata nell'angolo vicino alla finestra c'era Lili, il volto premuto contro il vetro. Petun aprì la porta dello scompartimento e si sedette di fronte a lei. Lili gli gettò un'occhiata e poi tornò a guardare fuori. aveva pianto. «Non voglio parlare con te», mormorò con voce soffocata. «Perché?» «Tunia mi odia, perché abbiamo letto la lettera di Silente». «E allora?» lo guardò con profonda avversione. «Allora è mia sorella! È solo una...» Riuscì a trattenersi. Lili, troppo impegnata ad asciugarsi gli occhi senza farsi notare, non lo sentì. «Ma ci stiamo andando!» esclamò lui, incapace di trattenere la gioia. «Ci siamo! Stiamo andando a Hogwarts!» Lei annuì, stropicciandosi gli occhi, e quasi suo malgrado, sorrise. «Speriamo che tu sia una serpe verde!» continuò Petun, rinfrancato. «Serpe verde!» Uno dei ragazzi nello scompartimento, che fino a quel momento non aveva mostrato alcun interesse per Lili o Petun, a quella parola si voltò e Harry, che si era concentrato sui due accanto al finestrino, riconobbe suo padre, smilzo, con i capelli neri come Petun, ma con quell'aria indefinibile di chi è stato molto curato, perfino adorato, di cui Petun era così vistosamente privo. «Chi vuole diventare un serpe verde? Io credo che lascerei la scuola, e tu?» chiese James al ragazzo mollemente abbandonato sul sedile di fronte al suo, e con un sussulto, Harry si rese conto che era Sirius, che non sorrise. «Tutta la mia famiglia è stata in serpe verde!» rispose. «Oh cavolo!» commentò James. «E dire che mi sembravi a posto!» Sirius ghignò. «Forse io andrò contro la tradizione. Dove vorresti finire, se potessi scegliere?» James alzò una spada invisibile. «Grifondoro! Culla dei coraggiosi di cuore, come mio padre!» Petun fece un verso sprezzante. James si girò verso di lui. «Qualcosa che non va?» «No!» rispose Petun, ma il suo lieve ghigno diceva il contrario. «Se preferisci i muscoli al cervello!» «E tu dove speri di finire, visto che non hai nessuno dei due?» intervenne Sirius. James scoppiò in una risata fragorosa. Lily si raddrizzò nel sedile, nervosa, e guardò prima James, poi Sirius, disgustata. «Andiamo, Severus! Cerchiamo un altro scompartimento!» «Oh!» James e Sirius imitarono la sua voce altezzosa. James cercò di fare lo sgambetto a Petun. «Ci si vede, Pivellus!» gridò qualcuno quando la porta dello scompartimento si chiuse, e la scena ancora una volta svanì. Harry era alle spalle di Petun, davanti ai tavoli delle case, illuminati dalle candele, attorniati da volti rapiti. Poi la professoressa McGonagall chiamò «Evans Lily!» guardò sua madre camminare con le gambe incerte e sedersi sullo sgabello traballante. La professoressa McGonagall le mise in testa il cappello parlante, e un secondo dopo essersi posato sulla chioma rosso scuro, il cappello gridò «Grifondoro!». Harry sentì Petun emettere un flebile gemito. Lily si tolse il cappello, lo diede alla professoressa McGonagall, poi corse verso i grifondoro esultanti, ma a metà strada si girò e rivolse a Petun un rapido sguardo e un sorrisino triste. Harry vide Sirius farle posto sulla panca. Lei lo guardò, lo riconobbe, incrociò le braccia e gli voltò le spalle con decisione. L'appello riprese. Harry guardò suo padre, Lupin e Pettigrew unirsi a Lily e Sirius al tavolo di grifondoro. Infine, quando restava solo una dozzina di studenti da smistare, la professoressa McGonagall chiamò Petun. Harry lo seguì allo sgabello e lo guardò mettersi in testa il cappello. «Serpe verde!» gridò il cappello parlante, e Severus Petun andò dall'altro lato della sala, lontano da Lily, dove i serpe verde lo accolsero con grida di tripudio, dove Lucius Malfoy, con una spilla da prefetto che brillava sulla veste, gli diede una pacca sulla schiena e lo fece sedere accanto a sé. E la scena mutò. Lily e Petun passeggiavano nel cortile del castello, litigando. Harry accelerò il passo per riuscire ad ascoltare. Quando li raggiunse, si rese conto che erano molto più alti. Erano passati alcuni anni dallo smistamento. «Credevo che fossimo amici!» si stava lamentando Petun. «Credevo di essere il tuo migliore amico!» «Lo siamo, Sev, ma non mi piace la gente con cui va in giro. Scusa, ma detesto Avery e Malsiber. Malsiber! Che cosa ci trovi in lui, Sev? Fa venire i brividi. Lo sai cosa ha cercato di fare a Mary MacDonald l'altro giorno?» Lily raggiunse una colonna e vi si appoggiò, fissando il volto affilato e giallastro dell'amico. «Non era niente», disse Petun. «Era solo uno scherzo. Era magia oscura. E se pensi che sia uno scherzo, è quello che fanno Potter e i suoi amichetti?» ribatté Petun. Arrossì, incapace di nascondere il risentimento. «Cosa c'entra Potter?» chiese Lily. «Escono di nascosto di notte. Ha qualcosa di strano quel Lupin. Dov'è che va sempre?» «È malato», spiegò Lily. «Dicono che è malato. Tutti i mesi con la luna piena?» domandò Petun. «Conosco la tua teoria», replicò Lily gelida. «Ma perché sei così fissato con loro? Che ti importa dove vanno di notte? Sto solo cercando di farti capire che non sono meravigliosi come tutti pensano». L'intensità del suo sguardo la fece avvampare. «Ma non usano magia oscura!» Lini abbassò la voce. «E tu sei un ingrato! Ho sentito cos'è successo l'altra notte. Ti sei infilato in quel tunnel vicino al salice schiaffeggiante e James Potter ti ha salvato da quello che c'è là sotto, qualunque cosa sia». Il volto di Petun si contorse in una smorfia. Farfugliò. «Salvato! Salvato! Credi che abbia fatto l'eroe!» Stava salvando se stesso e anche ai suoi amici. «Tu non... io non ti permetterò! Permettere a me?» Gli occhi verde chiaro di Lily erano ridotti a due fessure. Petun fece subito marcia indietro. «Non volevo dire... è solo che non voglio che ti prendano in giro. Gli piaci. Tu piaci a James Potter!» Sembrava che le parole gli venissero strappate contro la sua volontà. «E non è, tutti pensano, il grande campione di Quidditch!» L'amarezza e il disgusto lo rendevano incoerente e le sopracciglia di Lily erano sempre più inarcate. «So benissimo che James Potter è un arrogante!» lo interruppe. «Non ho bisogno che me lo dica tu, ma il modo di divertirsi di Malsiber e Avery è malvagio! Malvagio, Sev! Non capisco come fai a essere loro amico!» Harry non pensava che Petun avesse nemmeno sentito le sue critiche su Avery e Malsiber. Appena Lily aveva parlato male di James Potter si era rilassato e nel suo passo c'era una nuova baldanza. La scena svanì. Petun usciva dalla sala grande dopo aver sostenuto l'esame di GUFO in difesa contro le arti oscure. Si allontanava dal castello e andava, sopra pensiero, verso la betulla sotto la quale erano seduti James, Sirius, Lupin e Pettigrew. Ma Harry questa volta si tenne a distanza perché sapeva che cosa era successo dopo che James aveva sollevato Severus a mezz'aria e lo aveva insultato. Sapeva che cosa era successo e che cosa era stato detto e non aveva voglia di risentirlo. Vide Lily raggiungere il gruppo e difendere Petun. Da lontano udì Petun urlarle contro, umiliato e furente, le parole imperdonabili. «Sangue marcia!» La scena cambiò. «Mi dispiace! Non mi interessa! Mi dispiace! Risparmi al fiato!» Era notte. Lily in vestaglia era davanti al ritratto della signora grassa, a braccia incrociate, all'ingresso della torre di Grifondoro. «Sono uscita solo perché Mary mi ha detto che minacciavi di dormire qui. L'avrei fatto. Non volevo chiamarti Sangue Marcio. Mi è... scappato?» Non c'era pietà nel tono di Lily. «Troppo tardi! Ti ho giustificato per anni. Nessuno dei miei amici riesce a capire come mai ti rivolgo la parola. Tu e i tuoi cari mangiamorte! Vedi, non lo neghi nemmeno! Non neghi nemmeno quello che volete diventare! Non vedi l'ora di unirti a tu sai chi, vero?» Lui aprì la bocca, ma la richiuse senza aver parlato. «Non posso più fingere! Tu hai scelto la tua strada, io la mia!» «No, senti, io non volevo! Chiamarmi Sangue Marcio! Ma chiami così tutti quelli come me, Severus! Perché io dovrei essere diversa?» Piton stava per ribattere, ma con uno sguardo sprezzante lei si voltò e varcò il buco del ritratto. Il corridoio sparì e la scena impiegò un po' più di tempo per ridefinirsi. Harry volò tra forme e colori mutevoli finché i dintorni si solidificarono di nuovo e si ritrovò su una collina desolata, fredda e buia, col vento che si bilava tra i rami dei pochi alberi spogli. Piton adulto ansimava, voltandosi, la bacchetta stretta in mano, in attesa di qualcosa o qualcuno. La sua paura contagiò Harry. Pur sapendo di non correre alcun rischio, si guardò indietro, chiedendosi che cosa stesse aspettando Piton. Poi, nell'aria, balenò una luce bianca, accecante e frastagliata. Harry pensò a un fulmine, ma Piton cadde in ginocchio e la bacchetta gli scivolò di mano. «Non mi uccida!» Non era mia intenzione. Il rumore della materializzazione di Silente era stato coperto dall'ululato del vento tra i rami. Stava davanti a Piton, la veste svolazzante e il viso illuminato dal basso, dalla luce della bacchetta. «Allora, Severus, che messaggio ha, Lord Voldemort, per me?» «Nessun, nessun messaggio. Sono qui per conto mio». Piton si tormentava le mani. Sembrava un folle, con i capelli neri che gli sventolavano in faccia. «Io, io vengo con un avvertimento. No, una richiesta. La prego». Silente agitò la bacchetta. Foglie e rami continuarono ad agitarsi nella notte attorno a loro, ma dove loro due si fronteggiavano, calò il silenzio. «Quale richiesta potrebbe farmi un mangiamorte?» «La... la profezia, la predizione, la trelonei». «Ah, sì», fece Silente. «Quanto hai riferito a Lord Voldemort?» «Tutto, tutto quello che ho sentito», rispose Piton. «È per questo, è per questo motivo, lui pensa, che sia Lily Evans. La profezia non parla di una donna», obiettò Silente, «ma di un bambino maschio nato alla fine di luglio». «Sa cosa voglio dire. Lui pensa che si tratti di suo figlio. Le darà la caccia. Li ucciderà tutti». «Se lei è così importante per te», ribatté Silente, «Lord Voldemort la risparmierà, no? Non puoi chiedere pietà per la madre in cambio del figlio? Io ho... io gliel'ho chiesto». «Tu mi disgusti», commentò Silente. Harry non aveva mai sentito tanto disprezzo nella sua voce. Piton parve rimpicciolire. «Quindi non ti importa se suo marito e suo figlio muoiono? possono morire, purché tu ottenga ciò che desideri». Piton tacque, continuando a guardare Silente. «Allora li nasconda tutti», gracchiò infine. «La metta... li metta al sicuro, la prego». «E tu che cosa mi darai in cambio, Severus?» «In... in cambio?» Piton guardò Silente a bocca aperta. Harry si aspettava che protestasse, ma dopo un lungo istante rispose «qualunque cosa». La cima della collina svanì. Harry si ritrovò nello studio di Silente e qualcosa o qualcuno esalava un lamento terribile da animale ferito. Piton era chino in avanti su una sedia e Silente, in piedi accanto a lui, lo guardava cupo. Dopo qualche istante, Piton alzò il viso. Rispetto all'uomo sulla collina spazzata dal vento, sembrava aver vissuto cento anni di dolore. «Credevo che lei... l'avrebbe... protetta». «Lei e James hanno riposto la loro fiducia nella persona sbagliata», osservò Silente. «Più o meno come te, Severus. Non speravi che Lord Voldemort la risparmiasse?» Piton respirava appena. «Suo figlio è sopravvissuto», aggiunse Silente. con uno scatto della testa, Piton parve scacciar via una mosca molesta. «Suo figlio è vivo. Ha i suoi occhi. Esattamente i suoi occhi. Ricordi la forma e il colore degli occhi di Lily Evans, non è vero?» «No!» urlò Piton. «Perduta! Morta!» «È rimorso, Severus?» «Vorrei... vorrei essere morto io! E a che cosa sarebbe servito? E a chi?» ribatté Silente gelido. «Se amavi Lily Evans, se davvero l'amavi, allora la tua strada è tracciata». Piton sembrava guardarlo da dietro un velo di dolore e le parole di Silente impiegarono molto tempo a raggiungerlo. «Cosa... cosa vuole dire?» «Sai come e perché è morta. Fa che non sia stato in vano. Aiutami a proteggere il figlio di Lily. Non ha bisogno di protezione. Il Signore Oscuro se n'è andato. Il Signore Oscuro tornerà e Harry Potter sarà in enorme pericolo». Dopo una lunga pausa, lentamente Piton riprese il controllo di sé e del proprio respiro. Alla fine parlò. «Molto bene, molto bene. Ma non lo dica. Non lo dica mai a nessuno, Silente. Deve restare fra noi. Non posso sopportare. Soprattutto il figlio di Potter. Voglio la sua parola. Vuoi la mia parola, Severus, che non rivelerò mai la parte migliore di te?» Silente sospirò, guardando il volto feroce e addolorato di Piton. «Se proprio insisti». Lo studio si dissolse, ma si riformò all'istante. Piton lo misurava a grandi passi davanti a Silente. «Mediocre, arrogante come suo padre, ribelle a ogni regola, compiaciuto di scoprirsi famoso, avido di attenzione e impertinente. Tu vedi quello che vuoi vedere, Severus», replicò Silente, senza alzare lo sguardo da trasfigurazione oggi. «Altri insegnanti mi dicono che è modesto, piacevole e dotato di un certo talento. Personalmente lo trovo un ottimo ragazzo». Silente girò una pagina e aggiunse, sempre senza guardarlo. «Tieni d'occhio Quirrell, d'accordo?» Un vortice di colore, poi tutto si fece buio. Piton e Silente erano nella sala d'ingresso, un po' appartati, e gli ultimi tiratardi del ballo del ceppo sfilavano davanti a loro, diretti ai dormitori. «Allora», mormorò Silente, «anche il marchio di Carcaroff sta diventando scuro. È terrorizzato, teme una vendetta. Sai quanto ha collaborato col ministero dopo la caduta del Signore Oscuro». Piton guardò di sghembo il profilo irregolare di Silente. «Carcaroff vuole fuggire se il marchio si accende». «Davvero?» sussurrò Silente, mentre Fleur de la Cour e Roger Davis rientravano dal parco ridacchiando. «E tu sei tentato di fare lo stesso?» «No», rispose Piton, gli occhi neri puntati su Fleur e Roger, che si allontanavano. «Non sono così vigliacco». «No», convenne Silente, «sei un uomo molto più coraggioso di Igor Carcaroff. Sai, a volte credo che lo smistamento avvenga troppo presto». Si allontanò, lasciando Piton basito, e Harry si ritrovò di nuovo nello studio del preside. Era notte, e Silente era afflosciato su un bracciolo della poltrona, simile a un trono dietro la scrivania, semi svenuto. La mano destra gli pensolava lungo il fianco, nera e bruciata. Piton borbottava incantesimi, puntando la bacchetta verso il polso ferito, mentre con la sinistra versava in gola a Silente un calice colmo di una densa pozione dorata. Dopo qualche istante le palpebre di Silente tremarono e si aprirono. «Perché?» chiese Piton senza preamboli. «Perché ti sei messo quell'anello? Contiene una maledizione, sono sicuro che lo sapevi. Perché ti sei azzardato anche solo a toccarlo?» Sulla scrivania davanti a Silente c'era l'anello di Marvolo Gant. Era spezzato, accanto, la spada di Grifondoro. Silente fece una smorfia. «Io sono stato uno sciocco, terribilmente tentato. Tentato da cosa?» Silente non rispose. «È un miracolo che tu sia riuscito a tornare qui!» Piton era furibondo. «Quell'anello conteneva una maledizione di straordinaria potenza e possiamo solo sperare di limitarne il danno. L'ho circoscritta a una sola mano per il momento». Silente alzò la mano nera e inutile e la osservò come fosse un'interessante rarità. «Ottimo lavoro, Severus. Quanto tempo credi che mi resti?» Il tono di Silente era tranquillissimo. Sembrava che si informasse sulle previsioni meteo. Piton esitò, poi rispose. «Non lo so. Forse un anno. Non c'è modo di bloccare per sempre un incantesimo del genere. Si diffonderà alla fine. È il tipo di maledizione che si rafforza col tempo». Silente sorrise. La notizia che aveva meno di un anno di vita sembrava una faccenda di scarsissimo o nessun interesse. «Sono fortunato, molto fortunato, ad avere te, Severus. Se solo mi avessi mandato a chiamare prima, forse avrei potuto fare di più, guadagnare più tempo!» esclamò Piton furioso. Guardò l'anello spezzato e la spada. «Credevi che spezzando l'anello avresti infranto la maledizione?» «Qualcosa del genere». «Deliravo, non c'è dubbio», rispose Silente. Con uno sforzo si raddrizzò nella poltrona. «Beh, insomma, questo rende le cose molto più semplici». Piton parve decisamente perplesso. Silente sorrise. «Mi riferisco ai progetti di Lord Voldemort su di me, il suo piano di farmi uccidere da quel povero giovane Malfoy». Piton si sedette sulla sedia che Harry aveva occupato tanto spesso, al di là della scrivania di fronte a Silente. Harry capì che voleva parlare ancora della mano maledetta del preside, ma quest'ultimo l'alzò in un garbato di fiuto, di discuterne oltre. Accigliato, Piton osservò. «Il signore oscuro non si aspetta che Draco ci riesca. È solo una punizione per i recenti insuccessi di Lucius. Una lenta tortura per i genitori di Draco, che lo guarderanno fallire e pagare per questo». «In breve il ragazzo ha sul capo una sentenza di morte sicura quanto la mia», commentò Silente. «Ora suppongo che il naturale erede del compito, quando Draco avrà fallito, debba essere tu». Una breve pausa. «Credo che questo sia il piano del signore oscuro. Lord Voldemort prevede un momento nel prossimo futuro in cui non avrà bisogno di una spia a Hogwarts? Lui è convinto che presto la scuola sarà nelle sue mani, sì». «E se effettivamente vi cade», proseguì Silente, quasi come se fosse un dettaglio di scarsa rilevanza, «ho la tua parola, che farai tutto ciò che è in tuo potere per proteggere gli studenti di Hogwarts?» Piton rispose con un rigido cenno di assenso. «Bene, allora, la tua priorità è scoprire cosa sta facendo Draco. Un ragazzino spaventato è un pericolo per sé e per gli altri. Offrigli il tuo aiuto e la tua guida. Dovrebbe accettare. Tu gli piaci». «Molto meno da quando suo padre non è più nelle grazie del signore oscuro. Draco attribuisce la colpa a me. Crede che io abbia usurpato la posizione di Lucius. Comunque devi tentare. Sono meno preoccupato per me stesso che per le vittime accidentali dei piani che potrebbe architettare il ragazzo. In definitiva c'è una sola cosa da fare, se vogliamo salvarlo dall'ira di Lord Voldemort». Piton inarcò le sopracciglia e chiese in tono sardonico «Vuoi lasciare che ti uccida?» «Certo che no. Devi uccidermi tu». Calò un lungo silenzio, interrotto solo da uno strano ticchettio. Fox la Fenice stava becchettando un osso di seppia. «Vuoi che lo faccia subito?» chiese Piton ironico, o hai bisogno di qualche istante per comporre il tuo epitaffio. «Oh, non ancora!» sorrise silente. «Oserei dire che il momento giusto si rivelerà a tempo debito. Considerando quanto è successo stanotte, e indicò la propria mano raggrinzita, possiamo essere certi che accadrà entro un anno». «Se non ti importa di morire», insiste Piton con durezza, «perché non lasci che sia draco a ucciderti». «L'anima di quel ragazzo non è ancora così guastata», spiegò silente. «Non voglio che si spezzi per colpa mia». «E la mia anima, silente? La mia?» «Tu solo sai se evitare a un vecchio sofferenza e umiliazione sarà un danno per la tua anima», replicò silente. «Ti chiedo questo grandissimo favore, Severus, perché la mia morte si avvicina. Quanto è certo che i cannoni di Chadley quest'anno finiranno ultimi in classifica. Ti dirò che preferisco una di partita rapida e indolore all'operazione lunga e cruenta che risulterebbe se, per esempio, se ne occupasse Fenrir Greybeck. Ho sentito che Voldemort l'ha reclutato. O la cara bella Trix, a cui piace giocare col cibo prima di mangiarlo». Il suo tono era leggero, ma i suoi occhi azzurri trafiggevano Piton come spesso avevano fatto con Harry, come se vedessero l'anima di cui stavano discutendo. Infine Piton annuì di nuovo. Silente parve soddisfatto. «Grazie, Severus». L'ufficio scomparve. Piton e Silente passeggiavano insieme nel parco deserto del castello, al crepuscolo. «Che cosa fate, tu e Potter, tutte quelle sere che ve rinchiudete insieme?» chiese all'improvviso Piton. Silente sembrava stanco. «Perché? Non vorrai infliggergli altre punizioni, Piton. Tra poco quel ragazzo passerà più tempo in castigo che fuori. È tutto suo padre. Nell'aspetto, forse, ma la sua natura profonda è più simile a quella di sua madre. Trascorro del tempo con Harry perché ho faccende di cui devo parlare con lui. Informazioni che gli devo passare prima che sia troppo tardi». «Informazioni», ripetè Piton, «ti fidi di lui e non di me. Non è questione di fiducia. Come entrambi sappiamo, ho pochissimo tempo. È fondamentale che trasmetta al ragazzo abbastanza indicazioni perché possa fare quello che deve. E perché io non posso avere le stesse indicazioni? Preferisco non affidare tutti i miei segreti a una sola persona, soprattutto non a una che trascorre tanto tempo accanto al Lord Voldemort. Lo faccio su tuo ordine e lo fai molto bene. Non credere che sottovaluti il pericolo costante a cui ti esponi, Severus. Passare a Voldemort quelle che sembrano informazioni preziose, nascondendo l'essenziale, è un compito che non affiderei a nessun altro che a te. Eppure confidi molto di più a un ragazzo incapace in occlumanzia, la cui magia è mediocre e che ha un legame diretto con la mente del Signore Oscuro». «Voldemort teme quel legame», ribatté Silente. «Non molto tempo fa ha avuto un piccolo assaggio di cosa significa per lui condividere la mente di Harry. Un dolore che non aveva mai provato. Non cercherà ancora di possedere Harry, ne sono certo, non in quel modo. Non capisco. L'anima di Lord Voldemort mutilata con me non sopporta un contatto stretto con un'anima come quella di Harry. Come una lingua sull'acciaio ghiacciato, come la carne nel fuoco. Anime! Stavamo parlando di menti! Nel caso di Harry e Lord Voldemort parlare di una è parlare dell'altra». Silente si guardò intorno per controllare che fossero soli. Erano ormai vicini alla foresta proibita, ma non c'era nessuno. «Dopo che mi avrai ucciso, Severus, tu rifiuti di dirmi tutto, ma ti aspetti da me quel favore da nulla», si bilò Piton e il volto scarno si accese di una rabbia palpabile. «Dai molto per scontato, Silente. Forse ho cambiato idea». «Mi hai dato la tua parola, Severus, e già che stiamo parlando dei favori che mi devi, mi pareva che tu avessi promesso di tenere d'occhio il tuo giovane amico serpeverde». Piton era furente, astioso. Silente sospirò. «Vieni nel mio studio stanotte, Severus, alle undici, e non ti lamenterai più che non ho fiducia in te». Erano di nuovo nello studio di Silente, le finestre buie, Fox silenzioso, e Piton sedeva immobile mentre Silente parlava camminando attorno a lui. «Harry non deve sapere fino all'ultimo, finché non sarà necessario, altrimenti come potrebbe avere la forza di fare ciò che deve essere fatto? Ma cosa deve fare? Questo resta fra me e lui. Adesso ascoltami bene, Severus. Verrà il momento, dopo la mia morte, non discutere, non interrompermi. Verrà il momento in cui Lord Voldemort temerà per la vita del suo serpente». «Nagini?» Piton era esterrefatto. «Precisamente. Se Lord Voldemort cesserà di mandare Nagini a eseguire i suoi ordini, ma la terrà al sicuro accanto a sé, sotto protezione magica, allora credo che sarà bene dirlo a Harry». «Dirgli cosa?» Silente trasse un profondo respiro e chiuse gli occhi. «Dirgli che la notte che Lord Voldemort cercò di ucciderlo e Lily interpose la propria vita tra di loro come uno scudo, la maledizione mortale gli rimbalzò addosso. Un frammento dell'anima di Voldemort fu violentemente separato e si agganciò alla sola anima vivente rimasta nella casa che crollava. Parte di Lord Voldemort vive dentro Harry ed è questa che gli dà potere di parlare con i serpenti e un legame con la mente di Voldemort che non ha mai compreso. E finché quel frammento di anima di cui Voldemort non sente la mancanza resta aggrappato a Harry e da lui protetto, Lord Voldemort non può morire». A Harry parve di osservare i due uomini dall'estremità di un lungo tunnel. Erano lontanissimi e le loro voci echeggiavano in modo bizzarro nelle sue orecchie. «Quindi il ragazzo... il ragazzo deve morire», chiese Piton tranquillo. «E deve ucciderlo Voldemort in persona, Severus. Questo è fondamentale». Un altro lungo silenzio. Poi Piton riprese. «Credevo, in tutti questi anni, che lo proteggessimo per lei, per Lily. L'abbiamo protetto perché era essenziale dargli un'istruzione, crescerlo, fargli mettere alla prova le proprie forze», spiegò Silente sempre a occhi chiusi. «Nel frattempo il legame tra i due diventa sempre più forte, una crescita parassitica. A volte ho pensato che lui stesso lo sospetti. Se lo conosco, avrà fatto di tutto perché, quando deciderà di andare incontro alla morte, questa sia davvero la fine di Voldemort». Silente aprì gli occhi. Piton era sconvolto. «L'hai tenuto in vita perché possa morire al momento giusto?» «Non esserne stupito, Severus. Quanti uomini e donne hai visto morire?» «Di recente, solo quelli che non sono riuscito a salvare», rispose Piton. «Si alzò. Tu mi hai usato?» «Sarebbe a dire? Ho fatto la spia per te. Ho mentito per te. Ho corso rischi mortali per te. Credevo che servisse a proteggere il figlio di Lily Potter. Adesso mi dici che l'hai allevato come una bestia da macello». «Ma è commovente, Severus», osservò Silente, serio. «Ti sei affezionato al ragazzo dopo tutto?» «A lui!» urlò Piton. «Expecto patronum!» Dalla punta della sua bacchetta affiorò la cerva d'argento, atterrò sul pavimento dell'ufficio, fece un balzo e si tuffò fuori dalla finestra. Silente la guardò voler via e, quando il suo bagliore argente osvanì, si rivolse a Piton con gli occhi pieni di lacrime. «Dopo tutto questo tempo?» «Sempre», rispose Piton. E la scena cambiò. Piton parlava col ritratto di Silente appeso dietro la sua scrivania. «Devi riferire a Voldemort la data esatta della partenza di Harry da casa degli zii», disse Silente. «Non farlo susciterebbe dei sospetti, visto che Voldemort ti crede così bene informato. Tuttavia, devi dare a qualcuno l'idea dei sosia. Ritengo che possa garantire a Harry l'incolumità. Prova a confondere Mandangus Fletcher. E, Severus, se sarai costretto a prendere parte all'inseguimento, vedi di recitare la tua parte in modo convincente. «Ho bisogno che tu resti nelle grazie di Lord Voldemort il più a lungo possibile, o Hogwarts sarà alla mercè dei Carrow». Ed ecco Piton in una taverna sconosciuta a confabulare con Mandangus, il cui volto era curiosamente privo di espressione, mentre quello di Piton era accigliato e concentrato. «Devi suggerire all'ordine della Fenice», mormorava, «di usare dei sosia, pozione polisucco, dei potter identici. È l'unica soluzione. Dimenticherai che te l'ho suggerito io. La proporrai come idea tua. Chiaro? Chiaro», ripetè Mandangus, lo sguardo smarrito. E poi Harry volava accanto a Piton su una scopa in una notte limpida. Era accompagnato da altri Mangiamorte incappucciati e davanti a loro c'erano Lupin e un Harry che in verità era George. Un Mangiamorte alzò la bacchetta e la puntò sulla schiena di Lupin. «Sectum sempre!» urlò Piton, ma l'incantesimo diretto alla mano del Mangiamorte la mancò e colpì George. Un attimo dopo Piton era in ginocchio nella vecchia camera di Sirius. Stava leggendo la lettera di Lily e dalla punta del naso adunco gli colavano lacrime. La seconda pagina recava solo poche parole. «Possa mai essere stato amico di Gellert Grindelwald? Personalmente sono convinta che stia perdendo il senno, con tantissimo affetto. Lily». Piton prese la pagina con la firma di Lily e il suo affetto e la infilò sotto la veste. Poi strappò in due la foto che aveva in mano e tenne per sé la metà in cui Lily rideva, gettando quella con James Harry sul pavimento sotto il cassettone. E Piton era di nuovo nello studio del preside quando Phineas Nigellus entrò di corsa nel suo ritratto. «Preside, sono nella foresta di Dean, la sangue marcio!» «Non usare quella parola!» «La Granger, allora, ha nominato il posto quando ha aperto la borsetta e io l'ho sentita!» «Bene, molto bene!» gridò il ritratto di Silente dietro la poltrona di Piton. «Ora, Severus, la spada! Non dimenticare che deve essere presa in condizioni di necessità e valore e non deve sapere che sei tu a targliela. Se Voldemort dovesse leggere la mente di Harry e scoprire che lo aiuti...» «Lo so!» rispose Piton asciutto. Si avvicinò al ritratto di Silente e tirò da un lato della cornice. Si aprì, rivelando una cavità nascosta dalla quale prese la spada di Grifondoro. «E ancora non mi vuoi dire perché è così importante dare la spada a Potter?» chiese Piton, gettandosi addosso un mantello da viaggio. «No, non credo!» replicò il ritratto di Silente. «Lui saprà cosa farne. Severus, fai molta attenzione. Potrebbero non apprezzare la tua comparsa dopo l'incidente a George Weasley.» Piton si voltò sulla soglia. «Non preoccuparti, Silente!» ribatté imperturbabile. «Ho un piano!» e chiusa la porta. Harry uscì dal pensatoio e qualche istante dopo era disteso sul tappeto di quella stessa stanza. Piton poteva essere appena uscito. Ancora la foresta. Finalmente la verità. Disteso con la faccia nel tappeto polveroso dello studio, dove un tempo aveva creduto di apprendere i segreti della vittoria, Harry capì infine che non doveva sopravvivere. Il suo compito era dirigersi tranquillamente nelle braccia accoglienti della morte. Sulla strada doveva distruggere gli ultimi legami di Voldemort con la vita, così che quando finalmente si fosse offerto a lui, senza nemmeno alzare la bacchetta per difendersi, l'epilogo sarebbe stato netto e ciò che sarebbe dovuto accadere a Godric Solo si sarebbe compiuto. Nessuno dei due sarebbe vissuto. Nessuno dei due poteva sopravvivere. Sentì il cuore battere forte nel petto. Strano che nel terrore della morte pompasse più forte, tenendolo energicamente in vita. Ma doveva fermarsi, e presto. I suoi battiti erano contati. Quanti ne restavano, adesso che stava per alzarsi e attraversare il castello per l'ultima volta, uscire nel parco e andare nella foresta. Il terrore gli si rovesciò addosso. Disteso a terra, sentiva dentro di sé quel tamburo di marcia funebre. Sarebbe stato doloroso. Tutte le volte che aveva creduto che stesse per succedere ed era scampato, non aveva mai pensato veramente alla cosa in sé. La volontà di vivere era sempre stata più forte della paura della morte. Ma ora non gli venne in mente di fuggire, di correre più veloce di Voldemort. Era finita, lo sapeva, e restava solo la cosa in sé. Morire. Se solo fosse successo quella notte d'estate che era uscito per l'ultima volta dal numero 4 di Privet Drive, quando invece la nobile bacchetta di piuma di Fenice l'aveva salvato, se avesse potuto morire come Edwige, così in fretta da non rendersene conto, se si fosse potuto gettare davanti a una bacchetta per salvare una persona amata, invidiava perfino la morte dei suoi genitori. Quella passeggiata a sangue freddo verso la propria fine avrebbe richiesto un altro genere di coraggio. Sentì le dita tremare e fece uno sforzo per controllarle, anche se nessuno poteva vederlo. I ritratti alle pareti erano vuoti. Lentamente, molto lentamente, si alzò a sedere e si sentì più vivo, più consapevole che mai del suo corpo vivente. Perché non si era mai reso conto del miracolo della propria esistenza, cervello e nervi e cuore pulsante. Tutto finito, o almeno, lui, non ci sarebbe stato più. Il suo respiro divenne lento e profondo, aveva la bocca e la gola completamente asciutte, ma anche gli occhi. Il tradimento di Silente non era quasi nulla. Era ovvio che esisteva un piano più grande. Harry era stato solo troppo stupido per vederlo, ormai lo capiva. Non aveva mai messo in dubbio l'idea che Silente lo volesse vivo. Ora sapeva che la durata della sua vita era sempre stata determinata da quanto tempo sarebbe servito per eliminare tutti gli horcrux. Silente aveva passato a lui il compito di distruggerli e lui, obbediente, aveva tagliato uno dopo l'altro i legami che univano non solo Voldemort, ma se stesso, alla vita. Che finezza, che eleganza, non sprecare altre vite, ma affidare il pericoloso compito al ragazzo che era già destinato al macello, la cui morte non sarebbe stata una calamità, ma un altro colpo sferrato a Voldemort. E Silente sapeva che Harry non si sarebbe sottratto, che avrebbe continuato sino alla fine, anche se era la sua fine, perché si era preso il disturbo di imparare a conoscerlo. Silente sapeva, come Voldemort, che Harry non avrebbe permesso a nessun altro di morire per lui, una volta scoperto che era in suo potere impedirlo. Le immagini dei cadaveri di Fred, Lupin e Tonks, stesi nella sala grande, gli tornarono prepotenti davanti agli occhi e per un attimo non riuscì quasi a respirare. La morte scalpitava. Ma Silente l'aveva sopravvalutato, aveva fallito, il serpente era ancora vivo. Sarebbe rimasto un orcrux a legare Voldemort alla terra, anche dopo la morte di Harry. Certo, rendeva il compito molto più facile per qualcun altro. Chissà chi, Ron e Ermione, sapevano che cosa fare naturalmente. Ecco perché Silente aveva voluto che si confidasse con altre due persone, in modo che, se lui fosse andato incontro al proprio destino un po' troppo presto, loro potessero continuare. Come la pioggia contro una finestra fredda, questi pensieri tamburellavano sulla dura superficie dell'incontrovertibile verità. Doveva morire. Io devo morire. Doveva finire. Ron e Ermione sembravano molto lontani, in un paese dall'altra parte del mondo. Gli parve di averli lasciati da tantissimo tempo. Niente addii, niente spiegazioni, non aveva dubbi. Era un viaggio che non potevano intraprendere insieme, e i loro tentativi di fermarlo avrebbero solo sprecato tempo prezioso. Guardò l'orologio d'oro ammaccato che aveva ricevuto in dono per il suo diciassettesimo compleanno. Quasi metà dell'ora concessa da Voldemort per la sua resa era passata. Si alzò, il cuore gli sbatteva contro le costole come un uccello agitato. Forse sapeva che gli restava poco tempo. Forse era deciso a completare tutti i battiti di una vita prima della fine. Chiuse la porta dell'ufficio senza guardarsi indietro. Il castello era deserto. Si sentì come uno spettro ad attraversarlo da solo, come se fosse già morto. Le cornici dei ritratti erano ancora vuote. Ovunque aleggiava una calma inquietante, come se tutta la linfa vitale rimasta fosse concentrata nella sala grande, dove erano radunati i morti e coloro che li piangevano. Harry si avvolse nel mantello dell'invisibilità e scese un piano dopo l'altro, poi la scalinata di marmo fino alla sala d'ingresso. Forse una piccola parte di lui sperava che qualcuno avvertisse la sua presenza, che lo vedesse, che lo fermasse. Ma il mantello era come sempre impenetrabile, perfetto, e Harry raggiunse senza difficoltà il portone. Poi Neville per poco non lo urtò. Era con un altro e trasportavano un cadavere. Harry abbassò lo sguardo e avvertì un'altra fitta allo stomaco. Colin Crivey, anche se minorenne, doveva essere riuscito a sgattaiolare indietro come Malfoy, Crabbe e Goyle. Era piccolissimo da morto. «Sai cosa? Ce la faccio da solo, Neville!» disse Oliver Wood. Si gettò Colin sulla spalla e lo portò nella sala grande. Neville si appoggiò alla cornice della porta per un attimo e si asciugò la fronte col dorso della mano. Sembrava un vecchio. Poi ridiscese i gradini e avanzò nel buio per recuperare altri corpi. Harry gettò un'ultima occhiata all'ingresso della sala grande. Chi cercava di dare e ricevere conforto, chi beveva, chi si inginocchiava accanto ai morti. Non vide nessuna delle persone che amava, nessuna traccia di Ermione, Ron, Ginny o degli altri Weasley o di Luna. Sentì che avrebbe volentieri passato tutto il tempo che gli restava a guardarli un'ultima volta, ma poi avrebbe avuto la forza di distogliere lo sguardo? Meglio così. Scese i gradini e si trovò al buio. Erano quasi le quattro del mattino e l'immobilità mortale del parco dava l'impressione che tutto trattenesse il fiato, in attesa di vedere se lui sarebbe stato capace di fare quello che doveva. Harry si avvicinò a Neville, che era chino sopra un altro cadavere. «Neville! Cavolo, Harry! Mi hai fatto prendere un colpo!» Harry si era tolto il mantello. L'idea gli era venuta dal nulla, nata dal desiderio di essere assolutamente certo. «Dove stai andando da solo?» gli chiese Neville sospettoso. «Fa parte del piano!» rispose Harry. «Devo fare una cosa!» «Ascolta, Neville!» «Harry!» Neville si spaventò. «Harry, non starei pensando di consegnarti!» «No!» mentì Harry con disinvoltura. «Certo che no! È un'altra cosa! Ma devo sparire per un po'. Sai il serpente di Voldemort Neville? Ha un serpente enorme! Lo Gini!» «Ho sentito, sì! Allora...» «Bisogna ucciderlo!» Ron e Hermione lo sanno, ma nel caso che non...» L'orrore di quella ipotesi lo soffocò per un attimo, impedendogli di parlare, ma si riprese subito. Era un punto cruciale. Doveva fare come Silente, mantenere il sangue freddo, assicurarsi che ci fossero delle riserve, altri che potessero continuare. Silente era morto sapendo che altre tre persone erano a conoscenza degli Horcrux. Ora Neville avrebbe preso il posto di Harry. Sarebbero stati ancora in tre, a parte del segreto. «Nel caso che siano impegnati e tu riesca...» «Uccidere il serpente!» «Uccidere il serpente!» ripete Harry. «D'accordo, Harry. Tu stai bene, vero?» «Sto bene, grazie, Neville». Ma quando stava per andarsene, Neville lo afferrò per il polso. «Continueremo tutti a combattere, Harry. Lo sai?» «Sì, io...» Il senso di soffocamento inghiottì la fine della frase. Non riuscì a dire altro. Neville non parve trovarlo strano. Gli diede una pacca sulla spalla, lo lasciò andare e si allontanò in cerca di altri cadaveri. Harry si rimise il mantello e riprese il cammino. Qualcun altro si muoveva non lontano, chino su una figura distesa a terra. Era a pochi metri quando si eseconto che era Ginny. Si fermò di botto. Era accanto a una ragazza che chiedeva della madre. «Va tutto bene», le diceva Ginny. «È tutto a posto. Ora ti portiamo dentro». «Ma io voglio andare a casa», sussurrò la ragazza. «Non voglio più combattere». «Lo so», rispose Ginny e la sua voce si spezzò. «Andrà tutto bene». Rivoli di freddo gelarono la pelle di Harry. Voleva urlare alla notte. voleva che Ginny sapesse che era lì, che sapesse dove stava andando. Voleva essere fermato, portato indietro, a casa. Ma era a casa. Hogwarts era la prima e la migliore casa che avesse conosciuto. Lui e Voldemort e Piton, i ragazzi abbandonati, avevano tutti trovato una casa lì. Ginny adesso era in ginocchio accanto alla ragazza ferita e le teneva la mano. Con uno sforzo enorme, Harry si costrinse a proseguire. Riparve di vedere Ginny voltarsi al suo passaggio. Forse aveva avvertito la sua presenza, ma non parlò e non la guardò. La capanna di Hagrid apparve in lontananza nel buio. Niente luci, niente zanna che raspava la porta, né il suo chiassoso latrato di benvenuto. Tutte quelle visite a Hagrid, il riflesso del bollitore di rame sul fuoco, i biscotti duri come sassi e i bruchi giganti, il suo faccione barbuto, Ron che vomitava lumache, Ermione che lo aiutava a salvare Norberto. Raggiunse il limitare della foresta e si fermò. Uno sciame di dissennatori fluttuava tra gli alberi, ne avvertì il gelo e non fu certo di riuscire a oltrepassarli senza conseguenze. Non aveva più la forza per un patronus, non riusciva più a controllare il proprio tremito. Non era poi tanto facile morire. Ogni secondo che respirava, l'odore dell'erba, l'aria fresca sul viso, era tutto così prezioso. Pensare che altri avevano anni e anni, tempo da perdere, tanto tempo che non passava mai, e lui si aggrappava ogni singolo istante. Pensò che non sarebbe riuscito a continuare e nello stesso momento seppe che doveva. La lunga partita era finita. Il boccino era stato preso. Era ora di lasciare il campo. Il boccino. Con le dita intorpidite, trafficò per un momento con la saccoccia che portava al collo e lo tirò fuori. Mi apro alla chiusura. Lo fissò, col respiro affannato. Adesso che voleva che il tempo si muovesse più lentamente possibile, ecco che accelerava e l'intuizione sembrò arrivare più veloce del pensiero. Era questa la chiusura. Era questo il momento. Premette il metallo contro le labbra e sussurrò. Sto per morire. Il guscio dorato si spezzò. Lui alzò la mano tremante, levò la bacchetta di draco sotto il mantello e mormorò. Lumos! La pietra nera con la crepa al centro era posata nel boccino. La pietra della resurrezione si era inclinata lungo la linea verticale che rappresentava la bacchetta di sambuco. Il triangolo e il cerchio del mantello e della pietra erano ancora visibili. Di nuovo Henry capì senza dover pensare. Non serviva riportarli indietro perché lui stava per raggiungerli. Non era lui che andava a prendere loro. Erano loro che venivano a prendere lui. Chiuse gli occhi e girò la pietra nella mano per tre volte. Sapeva che era successo perché sentì dei movimenti lievi che suggerivano la presenza di corpi delicati sul nudo terreno coperto di rametti a limitare della foresta. Aprì gli occhi e si guardò intorno. Non erano fantasmi né persone di carne ed ossa lo vedeva. Assomigliavano più che altro al riddol uscito dal diario tanti anni prima, che era memoria quasi solidificata. Meno concreti di corpi viventi ma molto più di fantasmi venivano verso di lui e su ciascun volto danzava lo stesso sorriso affettuoso. James era alto esattamente quanto lui. Indossava gli abiti nei quali era morto e aveva i capelli arruffati e gli occhiali un po' storti come quelli del signor Weasley. Sirius era alto e bello, molto più giovane di come Henry l'aveva conosciuto in vita. Avanzava con elegante disinvoltura, le mani in tasca e un sorriso in volto. Anche Lupin era più giovane, molto meno trasandato e aveva i capelli più folti e più scuri. Sembrava felice di essere di nuovo in quel luogo familiare, teatro di tante avventure da adolescente. Il sorriso di Lily era il più largo. Avvicinandosi, spinse indietro i lunghi capelli e gli occhi verdi, così simili a quelli di Henry, frugavano avidi il suo volto, come se non potesse mai saziarsi di guardarlo. Sei stato molto coraggioso. Lui non riuscì a parlare, i suoi occhi si beavano di lei e pensò che gli sarebbe piaciuto star lì a guardarla per sempre, che gli sarebbe bastato. Ci sei quasi, disse James. Sei molto vicino. Noi siamo fieri di te. Fa male? La domanda infantile gli era affiorata alle labbra prima che potesse fermarla. Morire? Niente affatto, rispose Sirius. È più veloce e più facile che addormentarsi. E lui vorrà che sia rapido. Vuole farla finita, aggiunse Lupin. Io non volevo che moriste. Henry pronunciò questa frase senza volerlo. Nessuno di voi. Mi dispiace. Si rivolse a Lupin più che agli altri, implorante. Avevi appena avuto un figlio. Remus, mi dispiace. Dispiace anche a me. Mi dispiace perché non lo conoscerò mai. Ma lui saprà perché sono morto e spero che capirà. Stavo lottando per un mondo in cui lui possa vivere una vita più felice. Una brezza gelida che sembrava venire dal cuore della foresta sollevò i capelli dalla fronte di Henry. Sapeva che non gli avrebbero detto di andare, che doveva essere una sua decisione. Resterete con me? Fino alla fine, rispose James. Non possono vedervi? Chiese Henry. Siamo parte di te, spiegò Sirius, invisibili a chiunque altro. Henry guardò sua madre. Stammi vicino, sussurrò, e si avviò. Il gelo dei dissennatori non lo fermò. Lo attraversò insieme ai suoi compagni, che agirono per lui come patroni, e insieme passarono tra i vecchi alberi che crescevano vicini, i rami intrecciati, le radici contorte sotto i piedi. Henry si strinse forte nel mantello, addentrandosi nella foresta buia, senza avere idea di dove fosse di preciso Voldemort, ma certo di trovarlo. Accanto a lui, quasi senza rumore, camminavano James, Sirius, Lupin e Lily, e la loro presenza era il suo coraggio, la ragione per cui riusciva a mettere un piede dopo l'altro. Il suo corpo e la sua mente erano stranamente slegati, gli arti lavoravano senza ricevere istruzioni, come se lui fosse il passeggero, non il conducente, del corpo che stava per lasciare. I morti che camminavano accanto a lui nella foresta erano molto più reali per lui ora dei vivi rimasti al castello. Ron, Hermione, Ginny e tutti gli altri sembravano i fantasmi, adesso che lui inciampava e scivolava verso la fine della sua vita, verso Voldemort. Un rumore sordo e un sussurro, qualche altra creatura vivente si era mossa lì vicino. Harry si arrestò sotto il mantello e si guardò intorno, in ascolto, e anche i suoi genitori, Lupin e Sirius, si fermarono. «C'è qualcuno là!» sussurrò una voce roca, molto vicino. «Potter ha un mantello dell'invisibilità! Possibile che sia...» Due figure sbucarono da dietro un albero, le bacchette brillarono e Harry vide Yaxley e Dolohov scrutare nel buio proprio verso il punto dove si trovavano loro. Era chiaro che non vedevano nulla. «Sono sicuro di aver sentito qualcosa!» insiste Yaxley. «Un animale! Cosa dici?» «Quello scemo di Hagrid teneva un sacco di roba qui dentro!» rispose Dolohov, sbirciando alle proprie spalle. Yaxley guardò l'orologio. «Il tempo è quasi scaduto. Potter ha avuto la sua ora. Non verrà. E lui era certo che sarebbe venuto. Non sarà contento. Meglio tornare», suggerì Yaxley, «e scoprire qual è il nuovo piano». Si voltarono e si addentrarono nella foresta. Harry li seguì, sapendo che l'avrebbero condotto dove voleva. Guardò di lato. Sua madre gli sorrise e suo padre gli fece un cenno d'incoraggiamento. Camminarono ancora qualche minuto, poi Harry vide una luce e Yaxley e Dolohov entrarono in una radura. Harry riconobbe il posto dove un tempo viveva il mostruoso Aragog. I resti della sua enorme ragnatela erano ancora lì, ma l'orda di discendenti che aveva generato era stata portata via dai Mangiamorte a combattere per la loro causa. Un fuoco ardeva al centro della radura e la sua luce guizzante ricadeva su una folla di Mangiamorte vigili e silenziosi. Alcuni erano ancora incappucciati e mascherati, altri a volto scoperto. Due giganti sedevano ai margini del gruppo, gettando ombre enormi sulla scena, i volti feroci, rozamente sbozzati come nella roccia. Harry vide Fenrir, appiattato nell'ombra, che si rosichiava le unghie. Il grosso, biondo Rowl si tamponava il labbro sanguinante. Vide Lucius Malfoy, sconfitto e spaventato, e Narcisa, gli occhi infossati, colmi di ansia. Gli sguardi erano tutti puntati su Voldemort, che era in piedi, a Capochino, la bacchetta di sambuco davanti a sé, chiusa tra le sue mani bianche. Sembrava che pregasse o contasse mentalmente, e a Harry, immobile ai margini della scena, venne l'assurdo pensiero di un bambino che gioca a nascondino. Dietro a Voldemort, come una mostruosa aureola, galleggiava la luminosa gabbia incantata, dove si muoveva l'enorme serpente Nagini. Quando Dolohov e Yaxley si riunirono al cerchio, Voldemort alzò lo sguardo. «Nessuna traccia di lui, mio signore», annunciò Dolohov. L'espressione di Voldemort non cambiò. Gli occhi rossi sembravano ardere alla luce del fuoco. Lentamente prese la bacchetta di sambuco tra due dita. «Mio signore», era stata Bellatrix a parlare. Era seduta accanto a Voldemort, scarmigliata, qualche traccia di sangue sul volto, ma altrimenti illesa. Voldemort la zittì, alzando la bacchetta, e lei non disse altro, ma lo contemplò adorante. «Credevo che sarebbe venuto», disse Voldemort con la sua voce acuta e chiara, lo sguardo fisso sulle fiamme danzanti. «Mi aspettavo che venisse». Nessuno fiatò. Sembravano spaventati quanto Harry. Il suo cuore si scagliava contro le costole, come se volesse scappare dal corpo che lui stava per gettar via. Si tolse il mantello dell'invisibilità con le mani sudate e lo infilò sotto la veste insieme alla bacchetta. Non voleva essere tentato di combattere. «A Harry lo disse più forte che poté, con tutta la determinazione che riuscì a radunare. Non voleva sembrare impaurito. La pietra della resurrezione gli scivolò tra le dita insensibili e con la coda dell'occhio vide svanire i suoi genitori, Sirius e Lupin. Si fece avanti alla luce del fuoco. In quel momento sentì che nessuno era importante tranne Voldemort. C'erano solo loro due». L'illusione svanì rapida come era arrivata. I giganti rugirono, i Mangiamorte si alzarono tutti insieme e si levarono urla e esclamazioni, perfino risate. Voldemort era rimasto immobile, ma i suoi occhi rossi individuarono Harry e lo guardarono venire avanti. Tra loro c'era solo il fuoco. Poi qualcuno urlò «Harry, no!» Si voltò. Hagrid era legato a un albero, il suo corpo massiccio scosse disperatamente i rami. «No, no! Harry, cos'è che...» «Taci!» urlò Rowl e lo zittì con un colpo di bacchetta. Bellatrix, balzata in piedi, spostava lo sguardo avido da Voldemort a Harry, il petto palpitante. Le sole cose che si muovevano erano le fiamme e il serpente, che attorcigliava e distendeva le spire nella gabbia splendente dietro la testa di Voldemort. Harry sentiva la propria bacchetta contro il torace, ma non fece alcun tentativo per sfoderarla. Sapeva che il serpente era protetto troppo bene, sapeva che se anche fosse riuscito a puntarla contro Nagini, cinquanta maledizioni l'avrebbero colpito. Voldemort e Harry continuavano a guardarsi. Voldemort inclinò appena la testa da un lato, contemplando il ragazzo in piedi davanti a lui, e uno strano sorriso, senza gioia, gli increspò la bocca senza labbra. «Harry Potter», mormorò. La sua voce era così bassa che avrebbe potuto essere lo scoppiettio del fuoco. «Il ragazzo che è sopravvissuto». Nessuno dei Mangiamorte si mosse. Aspettavano. tutto aspettava. Hagrid si divincolava. Bellatrix ansimava. Harry pensò inspiegabilmente a Ginny, al suo sguardo luminoso, alle loro labbra che si toccavano. Voldemort alzò la bacchetta. Aveva ancora la testa piegata da un lato, come un bambino curioso che si chiede che cosa succederà. Harry guardò dentro quegli occhi rossi e sperò che accadesse subito, in fretta, quando ancora riusciva a stare in piedi, prima di perdere il controllo, prima di tradire la paura. Vide la bocca muoversi e un lampo di luce verde. E tutto svanì. King's Cross Era disteso a faccia in giù, ascoltando il silenzio. Era perfettamente solo. Nessuno lo guardava. Non c'era nessun altro. Non era del tutto sicuro di esserci nemmeno lui. Dopo molto tempo, o forse nessun tempo, capì che doveva esistere. Doveva essere più che pensiero disincarnato, perché era disteso, certamente disteso su una superficie. Quindi possedeva il senso del tatto e anche la cosa sulla quale giaceva esisteva. Non appena fu giunto a questa conclusione, Harry si rese conto di essere nudo. Convinto com'era della propria totale solitudine, la cosa non lo preoccupò, ma lo incuriosì. Si chiese se, così come era in grado di sentire, sarebbe riuscito a vedere. Aprendoli, scoprì di avere gli occhi. Era circondato da una nebbiolina luminosa, diversa da ogni nebbia mai vista prima. Intorno a lui non c'erano cose nascoste dal vapore. Era più come se il vapore non avesse ancora preso una forma definita. Il pavimento sul quale giaceva era bianco, né caldo né freddo, semplicemente un piatto, vuoto, qualcosa sul quale stare. Si mise a sedere, il suo corpo sembrava intatto, si toccò il viso, non aveva più gli occhiali. Poi un rumore lo raggiunse dal nulla che lo circondava. I piccoli morbidi colpi di qualcosa che sbatteva, si agitava e lottava. Era un rumore pietoso, ma anche un po' indecente. Ebbe la spiacevole sensazione di origliare qualcosa di nascosto, di vergognoso. Per la prima volta desiderò di essere vestito. Il pensiero gli si era appena formato nella mente che degli abiti apparvero poco lontano. L'indossò, erano morbidi, caldi e puliti. Era straordinario, come erano apparsi, così, nel momento in cui li aveva desiderati. Si alzò e si guardò intorno. Si trovava in un'enorme stanza delle necessità. Più guardava, più c'era da vedere. Una grande cupola di vetro scintillava alta su di lui, alla luce del sole. Forse era un palazzo. Tutto era ovattato e immobile, tranne che per quegli strani colpi, quei piagnucolili vicino, nella foschia. Harry si girò lentamente sul posto e ciò che lo circondava apparve inventarsi davanti ai suoi occhi. Un ampio spazio aperto, luminoso e pulito. Una sala molto più grande della sala grande, con quel limpido soffitto di vetro a cupola. Era vuota. C'era solo lui, a parte... Indietre Joe. Aveva individuato la cosa che faceva quei rumori. Aveva le sembianze di un bambino piccolo, nudo, rannicchiato a terra, la pelle ruvida e rossa, come scorticato, e giaceva sotto una sedia dove l'avevano abbandonato. Non voluto, nascosto, si sforzava di respirare. Gli faceva paura. Nonostante fosse piccolo e fragile e ferito, non desiderava avvicinarsi. Tuttavia si mosse lentamente verso di lui, pronto a balzare indietro all'istante. Ben presto fu abbastanza vicino da toccarlo, ma non riusciva a farlo. Si sentì un codardo. Avrebbe dovuto consolarlo, ma lo disgustava. Non puoi fare niente per lui. Si voltò di scatto. Albus silente gli veniva incontro, svelto e diritto, con una veste fluttuante blu notte. Harry! Spalancò le braccia, e le sue mani erano tutte e due intere, bianche e sane. Meraviglioso ragazzo, uomo di enorme coraggio. Camminiamo. Sbigottito, Harry lo seguì, allontanandosi dal bambino scorticato che piagnucolava, verso due sedie che prima non aveva notato, non molto distanti sotto il soffitto alto e luminoso. Silente sedette su una, e Harry si lasciò cadere sull'altra, guardando il suo vecchio preside in faccia. I lunghi capelli e la barba d'argento, gli occhi azzurri e penetranti dietro gli occhiali a mezzaluna, il naso rotto, tutto come lo ricordava. Eppure... Ma lei è morto, osservò Harry. Oh, sì, rispose Silente in tono pratico. Allora, sono morto anch'io? Ah, fece Silente con un sorriso ancora più grande. Questo è il problema, vero? Tutto sommato, caro ragazzo, credo di no. Si guardarono. Il vecchio continuava a sorridere. No? No, ripetè Silente. Ma... Harry sollevò distinto la mano alla cicatrice a forma di saetta. Non c'era. Ma avrei dovuto morire. Non mi sono difeso. Volevo che mi uccidesse. E questo deve aver fatto, credo, tutta la differenza. La felicità sprizzava da Silente come luce, come fuoco. Harry non l'aveva mai visto così profondamente, così evidentemente contento. mi spieghi, gli domandò Harry. Ma tu sai già, rispose Silente, fece girare i pollici. Ho lasciato che mi uccidesse, cominciò Harry. Giusto? Giusto, convenne Silente annuendo. Vai avanti. Quindi la parte della sua anima che era in me, Silente, annuì con ancora più entusiasmo e un gran sorriso d'incoraggiamento. È morta? Oh, sì, esclamò Silente. Sì, l'ha distrutta. La tua anima è intera. È interamente tua, Harry. Ma allora... Harry si guardò alle spalle, dove la piccola creatura rattrappita tremava sotto la sedia. Che cosa è quello, professore? Qualcosa che né tu né io possiamo aiutare? Ma se Voldemort ha usato la maledizione mortale, riprese Harry, e questa volta nessuno è morto per me, come posso essere vivo? Secondo me lo sai. Pensaci, ricorda che cosa ha fatto, nella sua ignoranza, nella sua avidità e nella sua ferocia. Harry riflettè, lasciò vagare lo sguardo. Se quello era davvero un palazzo, era strano, con brevi file di sedie e tratti di inferriate qua e là, e solo lui, Silente, e la creatura rachitica sotto la sedia, presenti. Poi la risposta gli salì alle labbra da sola. Ha preso il mio sangue. Esatto, esclamò Silente. Ha preso il tuo sangue per far rinascere il suo corpo. Il tuo sangue nelle sue vene, Harry, la protezione di Lili dentro di te e dentro di lui. Ti ha legato alla vita finché lui vive. Io vivo finché lui vive, ma io pensavo, io pensavo che fosse il contrario, pensavo che dovessimo morire tutti e due, o è la stessa cosa? Fu distratto dal piagnucolio e dai colpi della creatura tormentata alle loro spalle e tornò a guardarla. È sicuro che non possiamo fare niente? Niente. Allora mi spieghi il resto, disse Harry e Silente sorrise. Tu eri il settimo Horcrux, Harry, l'Horcrux che non ha mai avuto l'intenzione di creare. La sua anima era così instabile che si spezzò quando commise quegli atti di ineffabile malvagità. L'assassinio dei tuoi genitori, il tentato omicidio di un bambino, ma quello che fuggì da quella stanza era ancora meno di quello che credeva. Si lasciò dietro più del suo corpo. Lasciò parte di se stesso legata a te, la vittima designata, che era sopravvissuta. E la sua conoscenza è rimasta terribilmente lacunosa, Harry. Ciò che Voldemort non ritiene importante non si dà la pena di comprenderlo. Di elfi domestici e storie per bambini, di amore, fedeltà e innocenza, Voldemort non sa e non capisce niente. Niente. Che tutti hanno un potere che va oltre il suo, oltre la portata di qualunque magia, è una verità che non ha mai afferrato. Ha preso il tuo sangue, convinto che l'avrebbe rafforzato. Ha accolto nel suo corpo una minuscola parte dell'incantesimo che tua madre aveva imposto su di te quando morì per te. Il suo corpo tiene vivo il sacrificio di Lily, e finché quell'incantesimo sopravvive, sopravvivi anche tu, e sopravvive l'ultima speranza di Voldemort per se stesso. Silente sorrise a Harry, che lo fissò. E lei lo sapeva, l'ha sempre saputo. Lo supponevo, ma le mie supposizioni di solito sono buone, rispose Silente allegro, e rimasero in silenzio per quella che parve un'eternità, mentre la creatura dietro di loro continuava a gemere e a tremare. C'è dell'altro, riprese Harry, c'è dell'altro. Perché la mia bacchetta ha spezzato quella che lui aveva preso in prestito? Di questo non posso essere sicuro. Faccia una supposizione, allora, suggerì Harry, e Silente rise. Devi capire, Harry, che tu e Lord Voldemort avete viaggiato insieme in regni della magia, finora ignoti e mai sperimentati, ma credo che sia successa una cosa senza precedenti, e nessun fabbricante di bacchette avrebbe mai potuto prevederla o spiegarla a Voldemort. Senza volerlo, come ora sai, Lord Voldemort voldemort raddoppiò il legame tra voi quando tornò ad assumere sembianze umane. Una parte della sua anima era ancora legata alla tua, e pensando di rafforzarsi accolse in sé una parte del sacrificio di tua madre. Se solo fosse riuscito a comprendere il preciso, enorme potere di quel sacrificio, forse non avrebbe osato toccare il tuo sangue, ma se l'avesse compreso non sarebbe Lord Voldemort, e forse non avrebbe mai ucciso. Dopo aver assicurato questa doppia connessione, legato i vostri destini più saldamente di quanto due maghi siano mai stati uniti nella storia, Voldemort ti attaccò con una bacchetta che aveva lo stesso nucleo della tua, e qui accadde qualcosa di molto strano, come sappiamo. I nuclei reagirono in un modo che Lord Voldemort, il quale non sapeva che la tua bacchetta era gemella della sua, non si aspettava. Quella notte si spaventò più di te, Henry. Tu avevi accettato, addirittura abbracciato, la possibilità della morte, cosa che Lord Voldemort non è mai stato in grado di fare. Il tuo coraggio vinse, la tua bacchetta sconfisse la sua. E in quel momento accadde qualcosa tra quelle bacchette, qualcosa che rifletteva la relazione tra i loro padroni. Penso che la tua bacchetta abbia assorbito alcuni poteri e qualità di quella di Voldemort, come dire che conteneva un po' di Voldemort stesso. Perciò, quando lui ti stava inseguendo, la tua bacchetta riconobbe un uomo che era insieme fratello e nemico mortale, e rigurgitò parte della sua stessa magia contro di lui, una magia molto più potente di quanto la bacchetta di Lucius avesse mai compiuto. La tua bacchetta ormai conteneva il potere del tuo enorme coraggio e dell'abilità mortifera di Voldemort. Che speranze aveva quel povero bastoncino di Lucius Malfoy? Ma se la mia bacchetta era così potente, come mai Ermione è riuscita a spezzarla? Mio caro ragazzo, i suoi notevoli effetti valevano solo contro Voldemort, che aveva manipolato così sconsideratamente le più profonde leggi della magia. Solo verso di lui quella bacchetta possedeva un potere anomalo. Per il resto era come tutte le altre, anche se buona, ne sono certo, concluse Silente con cortesia. Harry rimase immerso nei suoi pensieri a lungo, o forse per pochi secondi. Era molto difficile avere certezze su cose come il tempo, lì. Mi ha ucciso con la bacchetta che era appartenuta a lei. Non ti ha ucciso con la mia bacchetta, lo corresse Silente. Credo che possiamo convenire che tu non sei morto, anche se naturalmente, aggiunse, come temendo di essere stato poco gentile. Non sottovaluto le tue sofferenze, che di sicuro sono state terribili. Adesso però mi sento benissimo. Harry osservò le proprie mani pulite e perfette. Dove siamo di preciso? Beh, stavo per chiedertelo io, replicò Silente guardandosi intorno. Secondo te dove siamo? Fino a quando Silente non lo chiese, Harry non lo sapeva. Ora, tuttavia, scoprì di avere una risposta pronta. Assomiglia alla stazione di King's Cross, solo che è molto più pulita e vuota e non mi pare di vedere treni. La stazione di King's Cross. Silente ridacchiò senza ritegno. Santo cielo, sul serio? Beh, secondo lei dove siamo? chiese Harry un po' sulla difensiva. Mio caro ragazzo, non ne ho idea. Questa, come si suol dire, è la tua festa. Harry non capiva cosa volesse dire. Silente era esasperante. Lo scrutò torvo, poi ricordò una questione molto più rugente della loro attuale posizione. I doni della morte, disse, e fu contento di vedere che quelle parole avevano cancellato il sorriso dal volto di Silente. Ah, sì, mormorò. Era perfino un po' preoccupato. Allora? Per la prima volta da quando Harry lo conosceva, Silente sembrava meno che vecchio, molto meno. Parve per un istante un bambino piccolo sorpreso con le mani nella marmellata. «Potrai perdonarmi?» domandò. «Potrai perdonarmi per non essermi fidato di te, per non avertelo detto. Harry, temevo che avresti fallito come me, temevo che avresti commesso i miei stessi errori. Ti chiedo perdono con tutto il cuore, Harry. Adesso ho capito, da qualche tempo, che tu sei migliore di me. Cosa sta dicendo?» chiese Harry, stupito dal tono di Silente, dalle lacrime improvvise nei suoi occhi. «I doni, i doni!» mormorò Silente. «Il sogno di un uomo disperato. Ma sono veri, veri e pericolosi. È un'esca per gli stolti. E io sono stato stolto. Ma tu lo sai, vero? Non ho più segreti per te. Tu lo sai. Cos'è che so?» Silente si voltò con tutto il corpo verso Harry, e le lacrime brillarono ancora nei luminosi occhi azzurri. «Padrone della morte, Harry! Padrone della morte! Sono stato migliore di Voldemort dopo tutto?» «Ma certo!» rispose Harry. «Ma certo!» «Come può fare una domanda del genere? Lei non ha mai ucciso se poteva evitarlo. Vero, vero!» convenne Silente, come un bambino bisognoso di rassicurazioni. «Ma anch'io ho cercato un modo per vincere la morte, Harry! Non come lui! Dopo tutta la rabbia che aveva provato a causa di Silente, gli pareva strano essere lì, sotto l'alto soffitto avvolta, a difenderlo da se stesso. «Doni! Non Horcrux!» «Doni!» ripetè Silente. «Non Horcrux! È vero!» Una pausa. La creatura dietro di loro piagnucolò, ma Harry non si voltò più. «Anche Grindelwald li cercava?» chiese. Silente chiuse gli occhi per un attimo e annui. «Fu la cosa che ci unì!» sussurrò. «Due ragazzi intelligenti e arroganti, con un'ossessione in comune. Lui voleva venire a Godric's Hollow, l'avrai capito, per la tomba di Ignatus Peverell. Voleva esplorare il luogo in cui era morto il terzo fratello. Quindi è vero!» chiese Harry. «Tutto! I fratelli Peverell! Erano i tre fratelli della storia!» confermò Silente annuendo. «Oh sì! Credo di sì! Che poi abbiano incontrato la morte lungo una strada solitaria. Mi sembra più probabile che i fratelli Peverell fossero semplicemente maghi dotati e pericolosi, che crearono quei potenti oggetti. La storia che fossero i doni della morte stessa, mi pare il genere di leggenda che può sorgere attorno a simili invenzioni. Il mantello, come ora sai, ha viaggiato nel tempo, di padre in figlio, di madre in figlia, fino all'ultimo discendente di ignotus che, come ignotus, è nato nel villaggio di Godric Hollow». Silente sorrise a Harry. «Io? Tu? Hai capito, immagino, perché avevo il mantello la notte che i tuoi genitori sono morti. James me l'aveva mostrato solo qualche giorno prima. Spiegava molte delle sue malefatte mai scoperte a scuola. Quasi non ci credevo. Di chiese di prestarmelo. Avevo ormai rinunciato da tempo al sogno di riunire i doni, ma non resistetti. Non potei fare a meno di esaminarlo. Era un mantello del quale non ho mai visto l'uguale. Antichissimo, perfetto in ogni senso. Poi tuo padre morì, e finalmente io avevo due doni, tutti per me. Il suo tono era di un'amarezza insopportabile. «Il mantello non li avrebbe comunque salvati», osservò immediatamente Harry. Voldemort sapeva dove erano. Il mantello non li avrebbe protetti dalle maledizioni. «Vero?» sospirò Silente. «Vero». Harry attese, ma Silente non parlò. Allora lo incoraggiò. Quindi, quando vide il mantello, aveva già rinunciato a cercare i doni. «Oh, sì», rispose Silente con voce flebile. Si costrinse a sostenere lo sguardo di Harry. «Sai che cosa accadde?» «Lo sai. Non puoi disprezzarmi più di quanto io disprezzi me stesso. Ma io non la disprezzo, e invece dovresti». Silente trasse un profondo respiro. «Conosci il segreto di mia sorella? Che cosa le fecero quei babbani? Che cosa diventò? Sai che il mio povero padre cercò vendetta e ne pagò il prezzo, morendo ad Azkaban. Sai come mia madre rinunciò alla propria vita per prendersi cura di Ariana. Mi seccava Harry». Lo disse apertamente, con freddezza. Ora guardava sopra la testa di Harry, in lontananza. «Ero dotato. Ero intelligente. Volevo fuggire. Volevo risplendere. Volevo la gloria». «Non fraintendermi», aggiunse, e il dolore gli attraversò il viso, rendendolo di nuovo vecchio. «Li amavo. Amavo i miei genitori. Amavo mio fratello e mia sorella, ma ero egoista. Harry, più egoista di quanto tu, che sei una persona tanto disinteressata, possa mai immaginare. Così, quando mia madre morì e rimase a me la responsabilità di una sorella menomata e di un fratello ribelle, tornai al mio paese carico di rabbia e di amarezza. Intrappola e sprecato, pensai. E poi arrivò lui. Silente tornò a guardare Harry dritto negli occhi. «Grindelwald. Non puoi immaginare come le sue idee mi convinsero, Harry. Quanto mi infiammarono. Babbani costretti all'obbedienza. Noi maghi trionfatori. Io e Grindelwald, i gloriosi, giovani capi della rivoluzione. Ah, avevo qualche scrupolo. Misi a tacere la coscienza con parole vuote. Era tutto per il bene superiore. E qualunque danno sarebbe stato ripagato cento volte in vantaggi per i maghi. Sapevo nel profondo del cuore chi era Gellert Grindelwald? Credo di sì. Ma chiusi gli occhi. Se i nostri piani fossero andati in porto, tutti i miei sogni sarebbero diventati realtà. E al centro dei nostri progetti c'erano i doni della morte. Quanto lo affascinavano. Quanto ci affascinavano. La bacchetta invincibile. L'arma che ci avrebbe condotti al potere. La pietra della resurrezione. Per lui, anche se fingevo di non saperlo, voleva dire un esercito di inferi. Per me, lo confesso, significava il ritorno dei miei genitori. La fine di ogni responsabilità. E il mantello. Non parlamo mai molto del mantello. Entrambi sapevamo nasconderci benissimo anche senza il mantello. La vera magia del quale, ovviamente, è che può essere usato per proteggere e riparare altri, oltre che il proprietario. Pensavo che se l'avessimo trovato sarebbe stato utile per nascondere Arianna. Ma il mantello ci interessava soprattutto perché completava la triade. Perché la leggenda dice che l'uomo che unisce i tre oggetti sarà il vero padrone della morte, che per noi era sinonimo di invincibile. Grindelwald e Silente, invincibili padroni della morte. Due mesi di follia, di sogni crudeli, trascurando i soli due membri della famiglia che mi erano rimasti. E poi, sai com'è andata. La realtà tornò nella forma del mio rude, ignorante e infinitamente più ammirevole fratello. Io non voglio ascoltare le verità che mi urlava, non vogli sentirmi dire che non potevo andare alla ricerca dei doni con una sorella fragile e instabile di cui occuparmi. Il litigio divenne una lotta. Grindelwald perse il controllo. La sua vera natura, che avevo sempre intuito, anche se avevo fatto finta di no, si rivelò all'improvviso terribile. E Arianna, dopo tutte le cure e le attenzioni di mia madre, era a terra. Morta. Silente trattenne il respiro e scoppiò in lacrime. Harry si protese verso di lui e fu felice di scoprire che poteva toccarlo. Gli strinse forte il braccio e Silente, piano piano, riprese il controllo. Beh, Grindelwald fuggì, come chiunque tranne me avrebbe potuto prevedere. Sparì, con i suoi piani per impadronirsi del potere, i suoi progetti di torture sui babbani, i suoi sogni dei doni della morte, sogni che avevo incoraggiato e sostenuto. Fuggì e io rimasi a seppellire mia sorella e a imparare a convivere con la mia colpa e il mio terribile dolore, il prezzo del mio errore. Passarono gli anni. Corsero voci su di lui. Dissero che si era procurato una bacchetta di immensa forza. A me nel frattempo fu offerto il posto di ministro della magia e non una sola volta. Naturalmente rifiutai. Avevo imparato che non ero adatto al potere. Ma lei sarebbe stato molto, molto meglio di Fudge o Scrimgeor, sbottò Harry. Pensi? chiese Silente in tono grave. Non ne sono così sicuro. Da giovane avevo dimostrato che il potere era la mia debolezza e la mia tentazione. È curioso, Harry, ma forse i governanti migliori sono quelli che non l'hanno mai desiderato, quelli che, come te, si vedono affidare la guida e raccolgono lo scettro perché devono e scoprono con loro sorpresa di impugnarlo bene. Io stavo meglio a Hogwarts. Credo di essere stato un buon insegnante. Il migliore. Sei molto gentile, Harry. Ma mentre io mi occupavo di istruire giovani maghi, Grindelwald radunava un esercito. Dicono che mi temesse, e forse è così, ma meno, credo, di quanto io temevo lui. Oh, non la morte, aggiunse in risposta allo sguardo interrogativo di Harry, non quello che poteva farmi con la magia. Sapevo che eravamo pari. Forse io ero persino un po' più abile. Era la verità che temevo. Capisci? Non avevo mai saputo chi di noi, in quell'ultimo tremendo duello, avesse scagliato la maledizione che uccise mia sorella. Potresti chiamarmi Codardo. Avresti ragione. Harry, io temevo più di ogni altra cosa, la consapevolezza di essere stato io a provocare la sua morte, non solo con la mia arroganza e stupidità, ma di aver fisicamente sferrato il colpo che spense la sua vita. Credo che lui lo sapesse, credo che lui sapesse che cosa mi spaventava. Rimandai l'incontro fino al momento in cui sarebbe stato troppo disonorevole resistere ancora. La gente moriva e lui sembrava inarrestabile e io dovetti fare quello che potevo. Beh, sai che cosa accadde? Io vinsi il duello. Io conquistai la bacchetta. Un'altra pausa. Harry non gli chiese se avesse mai scoperto chi aveva ucciso Ariana. Non voleva saperlo e ancora meno voleva costringere Silente a dirglielo. Finalmente capì che cosa vedeva Silente quando guardava nello specchio delle Emarb e perché aveva mostrato tanta comprensione per il fascino che esercitava su di lui. Rimasero a lungo in silenzio. I gemiti della creatura alle loro spalle erano quasi impercettibili. Alla fine Harry riprese. Grindelwald ha cercato di impedire che Voldemort trovasse la bacchetta. Ha mentito, lo sa. Ha fatto finta di non averla mai posseduta. Silente annuì guardandosi in grembo. Nuove lacrime luccicavano lungo il naso rotto. Dicono che nei suoi ultimi anni sia stato preso dal rimorso nella sua cella a Nurmengard. Spero che sia vero. Mi piacerebbe pensare che abbia compreso l'orrore e l'indegnità di ciò che ha fatto. Forse quella bugia detta a Voldemort è stata il suo tentativo di fare ammenda. Di evitare che Voldemort si impossessasse del dono. O forse che violasse la sua tomba? Suggerì Harry e Silente si asciugò gli occhi. Dopo un'altra breve pausa, Harry continuò. Lei ha provato a usare la pietra della risurrezione. Silente annuì. Quando la trovai, dopo tutti quegli anni, sepolta nella dimora abbandonata dei Gantt, il dono che più avevo bramato, anche se in gioventù l'avevo desiderato per tutt'altre ragioni, persi la testa, Harry. Quasi dimenticai che era diventata un Horcrux, che l'anello certamente conteneva una maledizione. Lo presi e me lo infilai, e per un attimo immaginai che avrei visto Ariana, mia madre, mio padre, e che avrei detto loro quanto mi dispiaceva. Fui uno sciocco, Harry. Dopo tutti quegli anni non avevo imparato nulla. Ero indegno di riunire i doni della morte. L'avevo dimostrato più e più volte, e questa era la conferma. Perché? chiese Harry. Era naturale. Voleva rivederli. Che cosa c'è di sbagliato? Forse un uomo su un milione potrebbe riunire i doni, Harry. Io sono stato capace solo di possedere il più crudele, il meno straordinario. Sono stato in grado di possedere la bacchetta e di non vantarmene e non usarla per uccidere. Mi è stato concesso di dominarla e usarla, perché l'avevo presa non per mio tornaconto, ma per salvare altri da lei. Ma il mantello l'ho preso solo per futile curiosità, e quindi non avrebbe mai potuto funzionare per me come per te, che ne sei il legittimo proprietario. Avrei usato la pietra per richiamare indietro coloro che sono in pace, invece che per consentire il sacrificio di me stesso, come hai fatto tu. Tu sei il degno possessore dei doni. Silente batte sulla mano di Harry, che alzò lo sguardo sul vecchio e sorrise. Non riuscì a trattenersi, come faceva a essere ancora arrabbiato con lui. Perché ha dovuto rendere tutto così complicato? Il sorriso di Silente era incerto. Temo di aver sperato che la signorina Granger ti frenasse. Harry, avevo paura che la tua testa calda potesse avere la meglio sul tuo buon cuore, che se tu avessi saputo tutto fin da subito su quegli oggetti tentatori, avresti potuto gettarti sui doni, come feci io, al momento sbagliato, per le ragioni sbagliate. Se dovevi metterci le mani sopra, volevo che li possedessi senza rischi. Tu sei il vero padrone della morte, perché il vero padrone non cerca di sfuggirle. Accetta di dover morire e comprende che vi sono cose assai peggiori nel mondo dei vivi che morire. E Voldemort non ha mai saputo dei doni. Non credo, perché non riconobbe la pietra della risurrezione che trasformò in un horcrux. Ma anche se ne fosse stato a conoscenza, Harry, credo che gli sarebbe interessato solo il primo. Non avrebbe pensato di avere bisogno del mantello e quanto alla pietra chi poteva desiderare di richiamare dai morti. Lui ha paura dei morti. Lui non ama. Ma lei si aspettava che cercasse la bacchetta? Ero sicuro che ci avrebbe provato da quando la tua bacchetta sconfisse la sua nel cimitero di Little Angleton. All'inizio temeva che l'avessi battuto per la tua abilità superiore. Dopo aver rapito Olivander, tuttavia, scoprì l'esistenza dei nuclei gemelli. Pensò che questo spiegasse tutto. Ma la bacchetta presa in prestito non si comportò meglio. E Voldemort, invece di chiedersi quale tua caratteristica avesse reso la tua bacchetta così forte, quale dono tu possedessi che a lui mancava, si mise a cercare l'unica bacchetta che, secondo la leggenda, avrebbe sconfitto tutte le altre. L'ossessione per la bacchetta di Sambuco era diventata feroce quasi quanto quella per te. È convinto che la bacchetta di Sambuco elimini il suo ultimo punto debole e lo renda veramente invincibile. Povero Piton. Quando ha chiesto a Piton di ucciderla, voleva che la bacchetta di Sambuco diventasse sua, vero? Ammetto che quella era la mia intenzione, rispose Silente, ma non è andata come speravo, vero? No, convenne Harry, quella parte non ha funzionato. La creatura dietro di loro si agitava e gemeva. Harry e Silente rimasero zitti ancora più a lungo. La comprensione di quanto doveva succedere scese a poco a poco su Harry, in quei lunghi minuti, come neve che cade lenta e leggera. Devo tornare indietro, vero? Dipende da te. Posso scegliere? Ah, certo. Silente gli sorrise. Sei a King's Cross, no? Credo che se decidessi di non tornare potresti, diciamo, prendere un treno. E dove mi porterebbe? Avanti. Di nuovo silenzio. Voldemort ha la bacchetta di Sambuco. Sì, Voldemort ha la bacchetta di Sambuco. Ma lei vuole che io torni indietro? Ritengo, rispose Silente, che se tu scegliessi di tornare ci sarebbe la possibilità che lui venga battuto per sempre. Non posso garantirlo, ma so questo, Harry, che se dovessi tornare qui avresti meno da temere di lui. Harry guardò di nuovo la cosa scorticata che tremava e tossiva sotto la sedia lontana. Non provare pietà per i morti, Harry. Prova pietà per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza amore. Tornando, potresti fare in modo che meno anime vengano mutilate, meno famiglie distrutte. Se questo ti sembra uno scopo degno, allora per il momento diciamoci addio. Harry annui e sospirò. Lasciare quel luogo non era neanche lontanamente difficile quanto era stato entrare nella foresta, ma lì c'era caldo, luce e pace, e sapeva di dover tornare al dolore e alla paura di altre perdite. Si alzò e Silente fece lo stesso, e per un lungo istante si guardarono. «Mi dica un'ultima cosa», chiese Harry, «è vero o sta succedendo dentro la mia testa?». Silente gli sorrise e la sua voce risuonò alta e forte nelle orecchie di Harry, anche se la nebbiolina luminosa stava calando di nuovo e nascondeva la sua sagoma. «Certo che sta succedendo dentro la tua testa, Harry, ma per che diavolo dovrebbe voler dire che non è vero?» La falla nel piano Era di nuovo per terra a faccia in giù. L'odore della foresta gli riempiva le narici. Sentiva il suolo freddo e duro sotto la guancia e la cerniera degli occhiali, spostati di lato dalla caduta, che gli penetrava nella tempia. Gli faceva male ogni centimetro del corpo e il punto in cui la maledizione mortale l'aveva colpito era come il livido lasciato da un pugno di ferro. Non si mosse, ma rimase dov'era, con il braccio sinistro piegato a una strana angolatura e la bocca aperta. Si era aspettato di sentire urla di trionfo e giubilo per la sua morte, invece passi frettolosi, sussurri e mormorii preoccupati riempivano l'aria. «Mio signore, mio signore!» era la voce di Bellatrix e parlava come chi si rivolge a un amante. Harry non osò aprire gli occhi, ma lasciò che gli altri sensi esplorassero la situazione. Sapeva che la sua bacchetta era ancora riposta sotto gli abiti, perché la sentiva tra il petto e il suolo. Una lieve imbottitura dalle parti dello stomaco gli disse che anche il mantello dell'invisibilità era lì. «Mio signore, basta!» replicò la voce di Voldemort. Altri passi. Varie persone indietreggiavano dallo stesso punto. Consumato dalla voglia di vedere che cosa stava succedendo e perché, Harry aprì gli occhi di un millimetro. Voldemort si stava alzando. Molti mangiamorte si allontanavano da lui, tornando tra la folla che circondava la radura. Solo Bellatrix era rimasta inginocchiata accanto a lui. Harry chiuse di nuovo gli occhi e considerò ciò che aveva visto. I mangiamorte si erano affollati attorno a Voldemort, che doveva essere caduto a terra. Era successo qualcosa quando aveva colpito Harry con la maledizione mortale. Anche lui era crollato? Evidentemente sì. Ed entrambi erano rimasti privi di sensi per un po' ed entrambi adesso erano tornati in sé. «Mio signore, permettetemi...» «Non ho bisogno di aiuto!» rispose Voldemort gelido e pur non potendo vedere la scena, Harry immaginò Bellatrix che ritraeva la mano tesa per aiutarlo. «Il ragazzo è morto?» Nella radura il silenzio era totale. Nessuno si avvicinò a Harry, ma lui avvertì i loro sguardi concentrati, che parevano schiacciarlo ancor più forte a terra, e temette che il movimento di un dito o di una palpebra potesse tradirlo. «Tu!» fece Voldemort, e si udirono un'esplosione e un piccolo strillo di dolore. «Controlla! Dimmi se è morto!» Harry non sapeva chi si era rivolto, non poteva far altro che restare lì disteso, col cuore che martellava, traditore, e aspettare di essere esaminato, ma nello stesso tempo capiva, per quanto gli fosse di magra consolazione, che Voldemort non si azzardava ad avvicinarsi, sospettando che non tutto fosse andato secondo i piani. Mani più delicate di quanto si aspettasse gli toccarono la faccia, gli aprirono una palpebra, si insinuarono sotto la camicia fino al petto a sentirgli il cuore. Udì il respiro affannoso della donna, i suoi lunghi capelli gli solleticarono il viso, sapeva che aveva sentito il battito regolare della vita contro le sue costore. «Traco è vivo! È nel castello!» Il sussurro era appena percettibile, le labbra di lei erano a un centimetro dal suo orecchio, il capo abbassato così che i lunghi capelli nascondevano il volto di Harry ai presenti. «Sì!» bisbigliò lui in risposta. Sentì la mano di lei contrarsi sul suo petto e le unghie conficcarsi nella pelle. Poi la mano fu ritratta. Narcisa Malfoy si rimise a sedere. «È morto!» annunciò. E adesso urlarono trionfanti e pestarono i piedi e attraverso le palpebre Harry vide volare schizzi di luce rossa e d'argento per celebrare l'evento. Continuò a fingersi morto e capì. Narcisa sapeva che il solo modo per entrare a Hogwarts e trovare suo figlio era insieme all'esercito vittorioso. Non le importava più che Voldemort trionfasse. «Visto!» strillò Voldemort sopra il tumulto. «Harry Potter è morto! Per mano mia! E ora nessun uomo vivente può minacciarmi! Guardate! Crucio!» Harry se l'era aspettato. Sapeva che il suo corpo non sarebbe stato lasciato in pace sul terreno della foresta, che doveva essere umiliato per dimostrare la vittoria di Voldemort. Fu sollevato da terra e gli ci volle tutta la sua forza di volontà per restare inerte, ma il dolore che si aspettava non venne. Fu scagliato una, due, tre volte in aria. I suoi occhiali volarono via e sentì la bacchetta scivolare un po' sotto gli abiti, ma restò molle inanimato, e quando cadde giù per l'ultima volta per la radura risuonarono risate di scherno. «Ora!» proclamò Voldemort. «Andremo al castello e mostreremo a tutti che fine ha fatto il loro eroe! Chi di voi trascina il corpo? No! Un momento!» Una nuova esplosione di risate e dopo qualche istante Harry sentì il suolo vibrare accanto a sé. «Lo porterai tu!» disse Voldemort. «Lo si vedrà bene tra le tue braccia, no? Raccogli il tuo piccolo amico, Hagrid, e gli occhiali. Mettetegli gli occhiali! Devono riconoscerlo!» Qualcuno gli sbatté con deliberata malagrazia gli occhiali in faccia, ma le mani enormi che lo sollevarono erano estremamente delicate. Harry sentì le braccia di Hagrid tremare, scosse dai singhiozzi. Grandi lacrime lo bagnarono mentre Hagrid lo cullava, ma lui non osava far capire all'amico, con un movimento o con le parole, che non tutto era perduto. «Muoviti!» ordinò Voldemort e Hagrid barcollò in avanti, aprendosi la strada fra gli alberi fitti, riattraversando la foresta. I rami si impigliavano i capelli agli abiti di Harry, che però rimase immobile, la bocca spalancata, gli occhi chiusi e al buio, tra i mangiamorte accalcati attorno a loro e Hagrid, che si inghiozzava disperato. Nessuno guardò se una vena pulsava nel collo scoperto di Harry Potter. I due giganti seguivano i mangiamorte. Harry sentì gli alberi scricchiolare e cadere al loro passaggio. Facevano tanto rumore che gli uccelli si alzarono in strillando e perfino le risate dei mangiamorte furono coperte. Il corteo vittorioso continuò a marciare verso il terreno aperto e dopo un po' Harry capì dalla penombra, percepibile anche attraverso le palpebre chiuse, che gli alberi cominciavano a diradarsi. «Bain!» Il rugito inaspettato di Hagrid per poco non gli fece aprire gli occhi. «Sei contento, eh? Che non avete combattuto! Branco di lonzini codardi che non siete altro! Siete contenti che Harry Potter è morto!» Hagrid non riuscì a continuare, ma scoppiò di nuovo in lacrime. Harry si chiese quanti centauri assistessero al loro corteo, non osò aprire gli occhi per vedere. Alcuni mangiamorte li insultarono. Poco dopo, Harry capì dall'aria più fresca che avevano raggiunto il limitare della foresta. «Fermi!» Hagrid doveva essere stato costretto a obbedire all'ordine di Voldemort perché barcollò. Il gelo calò su di loro. Harry udì il respiro rauco dei dissenatori che pattugliavano la cerchia esterna degli alberi. Ormai non potevano disturbarlo. Il fatto stesso di essere sopravvissuto ardeva in lui come un talismano contro di loro, come se il cervo di suo padre fosse a guardia del suo cuore. Qualcuno gli passò accanto e seppe che era Voldemort perché un attimo dopo parlò, la voce magicamente amplificata per diffondersi in tutto il parco spaccandogli i timpani. «Harry Potter è morto! È stato ucciso! Stava fuggendo per mettersi in salvo mentre voi davate la vita per lui! Vi portiamo il suo corpo a dimostrazione che il vostro eroe è caduto! Abbiamo vinto la battaglia! Avete perso metà dei vostri combattenti! I miei mangiamorte vi superano in numero e il ragazzo che è sopravvissuto è morto! La guerra deve finire! Chiunque continui a resistere, uomo, donna o bambino, verrà ucciso insieme a tutti i membri della sua famiglia! Uscite dal castello ora, inginocchiatevi davanti a me e verrete risparmiati! I vostri genitori e i vostri figli, i vostri fratelli e sorelle vivranno e saranno perdonati e vi unirete a me nel nuovo mondo che costruiremo insieme!» Silenzio nel parco e dal castello. Voldemort era così vicino che Harry non osava aprire gli occhi. «Andiamo!» ordinò Voldemort. Harry sentì che si muoveva e Hagrid fu costretto a seguirlo. Aprì appena gli occhi e lo vide marciare davanti a loro con l'enorme serpente Nagini sulle spalle, libero dalla gabbia incantata. ma Harry non poteva estrarre la bacchetta nascosta sotto gli abiti senza farsi vedere dalla scorta di Mangiamorte nel buio che lentamente sbiadiva. «Harry!» si inghiozzava Hagrid. «Oh, Harry! Harry!» Harry richiuse gli occhi, sapeva che si stavano avvicinando al castello e tese le orecchie per captare, sopra le voci allegre dei Mangiamorte e i loro passi pesanti, segni di vita all'interno. «Fermi!» I Mangiamorte si arrestarono. Harry li udì disporsi in fila di fronte al portone aperto della scuola. Anche attraverso le palpebre chiuse riuscì a percepire la luce rossastra che gli pioveva addosso dall'ingresso. Attese da un momento all'altro le persone per le quali aveva cercato di morire l'avrebbero visto tra le braccia di Hagrid apparentemente morto. «No!» L'urlo fu ancora più terribile perché non aveva mai immaginato che la professoressa McGonagall potesse emettere un simile suono. Udì un'altra donna ridere vicino a lui e capì che Bellatrix si crogiolava nella disperazione della McGonagall. Sbirciò di nuovo per un solo istante e vide la soglia affollarsi. I sopravvissuti alla battaglia uscivano sui gradini a fronteggiare i vincitori e a vedere con i loro occhi che era vero che Harry era morto. Vide Voldemort davanti a lui accarezzare la testa di Nagini con un solo dito bianco. Richiuse gli occhi. «No! No! Harry! Harry!» Le voci di Ron, Hermione e Ginny erano peggio di quella della McGonagall. Harry non desiderava altro che gridare, rispondere, ma si costrinse a restare in silenzio e le loro urla furono come un segnale. La folla di sopravvissuti si scatenò, urlando ingiurie contro i Mangiamorte, finché... «Silenzio!» gridò Voldemort. Un colpo, un lampo di luce chiara e il silenzio calò a forza su tutti loro. «È finita! Posalo ai miei piedi, Hagrid! Dov'è giusto che stia!» Harry fu adagiato nell'erba. «Visto!» disse Voldemort. Harry lo sentì camminare avanti e indietro, davanti al punto in cui era stato deposto. «Harry Potter è morto! Lo capite adesso, illusi? Non è mai stato altro che un ragazzo che contava sul sacrificio degli altri! Ti ha sconfitto!» urlò Ron, e l'incantesimo si ruppe. I difensori di Hogwarts urlarono e urlarono di nuovo, fino a quando una seconda esplosione più potente li citì un'altra volta. «È stato ucciso mentre cercava di scappare di nascosto dal parco del castello!» proseguì Voldemort, compiacendosi della menzogna. «Ucciso mentre tentava di mettersi in salvo!» ma si interruppe. Harry udì un rumore di passi e un urlo, poi un altro colpo, un lampo di luce e un grugnito di dolore. Aprì gli occhi di una frazione infinitesima. Qualcuno si era allontanato dalla folla e si era scagliato su Voldemort. Harry vide la sagoma affrosciarsi a terra, disarmata. Voldemort gettò via la bacchetta di chi l'aveva sfidato e rise. «E chi è costui?» domandò con il suo morbido sibilo di serpente. «Chi si è offerto volontario per dimostrare che cosa accade a coloro che continuano a combattere quando la battaglia è perduta?» Bellatrix diede in una risata gioiosa. «E' Neville Longbottom, mio signore, il ragazzo che ha dato tanti grattacapi a Icaro, il figlio degli Auror, ricordate?» «Ah, sì, ricordo», mormorò Voldemort, guardando Neville che cercava di rialzarsi, disarmato e allo scoperto, nella terra di nessuno, tra i sopravvissuti e i mangiamorte. «Ma tu sei un puro sangue, vero, mio coraggioso ragazzo?» gli chiese, e Neville si alzò in piedi davanti a lui, le mani vuote chiuse a pugno. «E allora?» rispose ad alta voce. «Mostri spirito e ardimento, e discendi da una nobile stirpe. Sarai un mangiamorte molto prezioso. Abbiamo bisogno di gente come te, Neville Longbottom. Mi unirò a te quando l'inferno generà!» ribatté Neville. «Esercito di silente!» Dalla folla si levò in risposta un boato che gli incantesimi taccitanti di Voldemort non riuscirono a domare. «Molto bene!» proseguì Voldemort, e Harry avvertì più pericolo in quella voce serica che nella più potente delle maledizioni. «Se questa è la tua scelta, Longbottom, torneremo al piano originale. L'hai voluto tu!» concluse con calma. Attraverso gli occhi socchiusi, Harry vide Voldemort agitare la bacchetta. Qualche istante dopo, da una delle finestre infrante del castello, qualcosa di simile a un uccello deforme volò nella mezza luce e atterrò in mano a Voldemort. Lui scrollò l'oggetto muffito, tenendolo per la punta, e quello pensolò vuoto e lacero. Era il cappello parlante. «Non vi saranno altri smistamenti alla scuola di Hogwarts!» annunciò Voldemort. «Non vi saranno più case! Lo stemma e i colori del mio nobile antenato, Salazar Serpeverde, basteranno per tutti!» «Non è vero, Neville Longbottom?» puntò la bacchetta contro Neville, che si irrigidì. Poi gli ficcò in testa il cappello, che gli cadde sugli occhi. La folla davanti al castello fu percorsa da un fremito, e come un solo uomo, i Mangiamorte levarono le bacchette per tenere a bada i combattenti di Hogwarts. «Il nostro Neville ora dimostrerà che cosa accade a chiunque sia così sciocco da continuare a opporsi a me!» annunciò Voldemort, e con un guizzo della bacchetta incendiò il cappello parlante. L'alba fu lacerata dalle urla, e Neville prese fuoco, immobilizzato. Harry non poté sopportarlo, doveva intervenire. Poi accaddero molte cose contemporaneamente. Dai confini del parco si alzò un frastuono. Centinaia di persone varcavano le mura sciamando e correvano verso il castello, levando alte grida di guerra. Nello stesso momento Gropp arrivò a passi pesanti da dietro la scuola e chiamò «Hugger!». Al suo grido risposero i ruggiti dei giganti di Voldemort, che caricarono Gropp come elefanti, facendo tremare la terra. Poi un rumore di zoccoli, il vibrare degli archi, e una pioggia di frecce cadde sui Mangiamorte, che rupperò i ranghi, urlando sorpresi. Harry prese il mantello dell'invisibilità, se lo gettò addosso e balzò in piedi. E anche Neville si mosse, con un solo rapido fluido gesto, si liberò della maledizione Petrificus. Il cappello in fiamme gli cadde dalla testa, e lui ne estrasse qualcosa di argenteo, con l'impugnatura sfavillante di Rubini. Il sibilo della lama d'argento non si sentì sopra il rugito della folla, il rimbombo dei giganti che cozzavano, la carica dei centauri, eppure attirò a sé gli sguardi di tutti. Con un solo colpo Neville mozzò la testa dell'enorme serpente che ruoteò alta nell'aria, scintillante nella luce che veniva dalla sala d'ingresso. La bocca di Voldemort si spalancò in un urlo di rabbia che nessuno riuscì a sentire, e il corpo del serpente cadde con un tonfo ai suoi piedi. Nascosto sotto il mantello dell'invisibilità, Harry scagliò un incantesimo scudo tra Neville e Voldemort, prima che quest'ultimo potesse alzare la bacchetta. Poi, sopra le grida, i ruggiti, i colpi dei giganti, l'urlo di Hagrid risuonò più forte di tutto. «Harry! Harry! Dov'è Harry?» Regnava il caos. I centauri scatenati stavano disperdendo i mangiamorte. Tutti cercavano di scappare dai piedi dei giganti, e sempre più vicini risuonavano i rinforzi arrivati da chissà dove. Harry vide enormi creature alate planare attorno alle teste dei giganti di Voldemort. I testral e fiero becco l'ippogrifo cercavano di cavar loro gli occhi mentre Gropp li riempiva di pugni. Tanto i difensori di Hogwarts quanto i mangiamorte di Voldemort furono costretti a rientrare nel castello. Harry scagliava maledizioni contro tutti i mangiamorte che gli passavano vicino, tramortendoli senza che sapessero chi o che cosa li aveva colpiti. I loro corpi venivano calpestati dalla folla in ritirata. Sempre nascosto sotto il mantello dell'invisibilità, Harry fu costretto a entrare nella sala d'ingresso. Stava cercando Voldemort e lo vide dall'altra parte dell'atrio, che scagliava incantesime a destra e a manca, e intanto arretrava nella sala grande, senza smettere di urrare ordini ai suoi seguaci. Harry lanciò altri incantesimi scudo e salvò Simus Finnegan e Anna Abbott dalla sua furia. I due gli sfrecciarono davanti ed entrarono nella sala grande per prendere parte alla lotta che già vi divampava. E ce n'erano altri, tanti altri che si lanciavano su per i gradini del castello. Charlie Weasley superò Horace Lumacorno, ancora con il suo pigiama color smeraldo. Erano tornati alla testa di parenti e amici di tutti gli studenti di Hogwarts rimasti a combattere, insieme ai negozianti e agli abitanti di Hogsmeade. I centauri Bane, Ronan e Magorian galopparono nella sala in un rombo di zoccoli, e dietro Harry, la porta che conduceva alle cucine, venne scardinata da un'esplosione. Gli elfi domestici di Hogwarts sciamarono nella sala d'ingresso, urlando e brandendo trincianti e mannaie. Al loro comando, col medaglione di Regulus Black che gli ballonzolava sul petto, c'era Kreacher, la voce da rana chiara e sonora, anche sopra quel baccano. «Lottate! Lottate! Combattete per il mio padrone, difensore degli elfi domestici! Combattete il Signore Oscuro nel nome del pro de Regulus! Lottate!» Menavano fendenti e pugnalate alle caviglie e agli stinchi dei Mangiamorte, i faccini animosi e cattivi, e i Mangiamorte ripiegavano, schiacciati dalla pura forza dei numeri, sopraffatti dagli incantesimi, strappandosi le frecce dalla carne, colpiti alle gambe dagli elfi o semplicemente cercando di fuggire, ma inghiottiti dall'orda che avanzava. Ma non era ancora finita. Harry sfrecciò tra i duellanti, oltrepassò i prigionieri che si divincolavano ed entrò nella sala grande. Voldemort era nel cuore della battaglia e colpiva tutto ciò che gli capitava a tiro. Harry non poteva mirare con precisione e cercò di avvicinarsi, ancora invisibile, ma la sala grande era sempre più affollata, poiché chiunque fosse in grado di camminare tentava di entrare. Vide Yaxley gettato a terra da George e Lee Jordan. Vide Dolohov cadere urlando per mano di Flitwick. Vide Walden McNair scagliato attraverso la stanza da Hagrid, colpire la parete di pietra e cadere a terra svenuto. Vide Ron e Neville abbattere Fenrir Greybeck, Aberforth schiantare Rookwood, Arthur e Percy atterrare Thickness e Lucius e Narcisa Malfoy correre nella folla, senza nemmeno provare a combattere, chiamando a gran voce il figlio. Voldemort stava duellando con la McGonagall, Luma Corno e Kingsley insieme, e il suo volto era una maschera di freddo odio, mentre i tre balzavano e si abbassavano attorno a lui, senza riuscire a finirlo. Anche Bellatrix continuava a combattere, a cinquanta metri da Voldemort, e come il suo padrone, lottava contro tre avversari a un tempo. Hermione, Ginny e Luna ce la stavano mettendo tutta, ma Bellatrix le uguagliava e l'attenzione di Henry fu distratta da una maledizione mortale, scagliata così vicina a Ginny che la mancò di un soffio. Cambiò obiettivo e si avventò contro Bellatrix, invece che contro Voldemort, ma aveva fatto solo pochi passi quando fu spinto da parte. «Mia figlia no! Bastarda!» Di corsa la signora Weasley gettò via il mantello per avere libertà di movimento. Bellatrix si girò di scatto e scoppiò a ridere, alla vista della sua nuova avversaria. «Fuori dai piedi!» urlò la signora Weasley alle tre ragazze e con uno svolazzo della bacchetta cominciò a combattere. Henry rimase a guardare terrorizzato ed euforico la bacchetta di Molly Weasley, fendere l'aria e vorticare, e il sorriso di Bellatrix Lestrange tremò prima di trasformarsi in un ringhio. Schizzi di luce volarono da entrambe le bacchette. Il pavimento attorno alle due streghe era rovente e crivellato di buchi. Entrambe combattevano per uccidere. «No!» gridò la signora Weasley quando alcuni studenti accorsero in suo aiuto. «Indietro! Indietro! È mia!» Centinaia di persone adesso erano allineate lungo le pareti e assistevano alle due battaglie. Voldemort contro i suoi tre avversari, Bellatrix contro Molly. Henry, invisibile, era combattuto. Voleva attaccare ma anche proteggere e temeva di colpire gli innocenti. «Cosa sarà dei tuoi figli quando ti avrò ucciso?» la canzonava sprezzante Bellatrix, folle come il suo signore, schivando le maledizioni di Molly che le danzavano attorno. «Quando mammina sarà morta come Freddy, tu non toccherai mai più i nostri figli!» urlò la signora Weasley. Bellatrix rise, la stessa risata esaltata di suo cugino Sirius, prima di cadere oltre il velo. Harry seppe in anticipo che cosa stava per succedere. La maledizione di Molly passò sotto il braccio teso di Bellatrix e la colpì in pieno petto, al cuore. Il sorriso maligno di Bellatrix si congelò, i suoi occhi si dilatarono. Per una frazione di secondo capì che cos'era successo, poi cadde. Dalla folla si levò un boato e Voldemort urlò. A Harry sembrava di muoversi al rallentatore. Vide la McGonagall, Kingsley e Lumacorno contorcersi a mezz'aria, scagliate all'indietro, mentre la furia del Signore Oscuro, per la fine della sua ultima migliore luogotenente, esplodeva con la forza di una bomba. Voldemort alzò la bacchetta e la puntò contro Molly Weasley. «Protego!» ruggì Harry e l'incantesimo scudo si allargò al centro della sala. Voldemort si guardò intorno cercando nell'origine e finalmente Harry si tolse il mantello dell'invisibilità. L'urlo di sorpresa, le acclamazioni, le grida di «Harry è vivo!» furono subito soffocati. La folla ebbe paura e il silenzio cadde improvviso e totale quando Voldemort e Harry si guardarono e cominciarono a muoversi in cerchio, uno di fronte all'altro. «Non voglio aiuto!» disse Harry e nel silenzio assoluto la sua voce risuonò come uno squillo di tromba. «Deve andare così! Devo essere io!» Voldemort si bilò, gli occhi rossi spalancati. «Potter non voleva dire questo. Non è così che si comporta, vero? Chi userai come scudo oggi, Potter?» «Nessuno!» rispose Harry semplicemente. «Non ci sono altri Horcrux! Siamo solo tu e io! Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive e uno di noi sta per andarsene per sempre!» «Uno di noi?» lo schernì Voldemort. Ogni suo muscolo era teso e i suoi occhi rossi erano immobili, un serpente pronto a colpire. «Pensi che sarai tu, vero? Il ragazzo che è sopravvissuto per caso, solo perché si lente tirava i fili? È stato un caso quando mia madre morì per salvarmi?» chiese Harry. Continuavano a spostarsi di lato, tutti e due, disegnando un cerchio perfetto, mantenendo la stessa distanza l'uno dall'altro. Per Harry esisteva solo il volto di Voldemort. «Un caso che io abbia deciso di combattere in quel cimitero? Un caso che io non mi sia difeso questa notte, eppure sia sopravvissuto e tornato per combattere di nuovo?» «Casi!» urlò Voldemort, ma ancora non colpì e la folla era come pietrificata. Delle centinaia di persone che riempivano la sala sembrava che solo loro due respirassero. «Casi e fortuna è il fatto che ti sei rannicchiato a fregnare dietro le gonne di uomini e donne più grandi di te e hai lasciato che io li uccidessi al posto tuo!» «Non ucciderai nessun altro questa notte!» ribatté Harry. Ancora si muovevano in cerchio e si fissavano, occhi verdi dentro occhi rossi. «Non potrai uccidere nessuno di loro! Mai più! Non capisci? Ero pronto a morire per impedirti di fare del male a queste persone!» «Ma non l'hai fatto!» «Era mia intenzione, ed è questo che importa! Ho fatto quello che ha fatto mia madre! Sono protetti da te! Non hai notato che nessuno dei tuoi incantesimi funziona su di loro? Non puoi torturarli! Non puoi toccarli! Non impari dai tuoi errori, Riddle, vero?» «Tu osi?» «Sì, io oso!» continuò Harry. «Io so cose che tu non sai, Tom Riddle. Io so molte cose importanti che tu non sai. Vuoi sentirne qualcuna prima di commettere un altro grosso errore?» Voldemort non parlò, ma continuò a muoversi in cerchio e Harry seppe di averlo ipnotizzato. Per il momento pendeva dalle sue labbra, trattenuto dalla vaghissima possibilità che Harry conoscesse davvero un ultimo segreto. «È di nuovo l'amore?» ringhiò Voldemort, il volto da serpente contorto in una smorfia di scherno. «La soluzione preferita di Silente! L'amore! Che a sentir lui vince la morte! Ma l'amore non gli ha impedito di cadere dalla torre e andare in pezzi come una vecchia statuina di cera. L'amore non ha impedito a me di schiacciare quella sangue marcio di tua madre come uno scarafaggio, Potter, e pare che nessuno ti ami abbastanza da farsi avanti questa volta a prendersi la mia maledizione. Quindi che cosa ti impedirà di morire adesso quando colpirò?» «Una cosa sola!» rispose Harry e ancora si fronteggiavano, assorti l'uno nell'altro, separati soltanto dall'ultimo segreto. «Se non è l'amore che ti salverà questa volta!» insistette Voldemort. «Devi credere di avere una magia che io non ho, o un'arma più potente della mia!» «Credo entrambe le cose!» ribatte Harry e vide la sorpresa balenare sul volto di serpe e dissiparsi all'istante. Voldemort scoppiò a ridere e il suono fu più spaventoso delle sue urla, folle e privo di gioia e che giò nella sala silenziosa. «Tu credi di conoscere più magie di me?» chiese. «Di me, di Lord Voldemort, che ha compiuto magie che Silente stesso non si era nemmeno sognato!» «Oh, se l'era sognato e come!» rispose Harry, «ma lui ne sapeva più di te, abbastanza da non fare quello che hai fatto tu!» «Vuoi dire che era un debole!» urlò Voldemort. «Troppo debole per osare! Troppo debole per prendere ciò che avrebbe potuto essere suo e invece sarà mio!» «No, era più intelligente di te! Era un mago migliore, un uomo migliore!» «Io ho provocato la morte di Albus Silente!» «È quello che credi, ma ti sbagli!» Per la prima volta la folla che li attorniava si mosse e le centinaia di persone lungo le pareti respirarono come una sola. «Silente è morto!» Voldemort sputò queste parole contro Harry come se gli potessero provocare un dolore insopportabile. «Il suo corpo marcisce nella tomba di marmo vicino a questo castello! Io l'ho visto, Potter, e non tornerà!» «Certo, Silente è morto!» rispose Harry tranquillo. «Ma non l'hai fatto uccidere tu! Ha scelto lui come morire! Con mesi di anticipo! Ha programmato tutto con l'uomo che credevi fosse il tuo servo!» «Che sogno infantile è questo!» chiese Voldemort, ma ancora non colpì e i suoi occhi rossi non si staccavano da Harry. «Severus Piton non era uno dei tuoi!» spiegò Harry. «Piton stava con Silente, con Silente dal momento in cui hai cominciato a dare la caccia a mia madre! E non te ne sei mai accorto, per via della cosa che non puoi capire! Non hai mai visto Piton evocare un patronus, vero, Riddle?» Voldemort non rispose. Continuavano a girare come lupi pronti a sbranarsi. «Il patronus di Piton era una cerva!» continuò Harry. «Come quello di mia madre, perché lui l'ha amata per tutta la vita, da quando erano bambini! Avresti dovuto capirlo!» aggiunse, vedendo le narici di Voldemort vibrare. «Ti aveva chiesto di risparmiarla, no?» «La desiderava, tutto qui!» lo schernì Voldemort. «Ma quando lei morì, convenne che esistevano altre donne, di sangue più puro, più degne di lui!» «Naturale che ti abbia detto questo, ma è stato la spia di Silente dal momento in cui la minacciasti, ed allora ha lavorato contro di te! Silente stava già morendo quando Piton l'ha finito!» «Non ha importanza!» strillò Voldemort. Aveva seguito ogni parola con attenzione rapita, ma ora scoppiò in una risata stridula e folle. «Non ha importanza se Piton fosse dalla mia parte, o da quella di Silente, o quali insignificanti ostacoli abbiano cercato di mettere sul mio cammino! Io li ho schiacciati, come ho schiacciato tua madre, il presunto grande amore di Piton!» «Oh, ma tutto torna, Potter, e in modi che tu non comprendi!» Silente stava cercando di tenere lontana da me la bacchetta di Sambuco. Voleva che fosse Piton, il vero padrone della bacchetta. «Ma io sono arrivato prima di te, ragazzino! L'ho trovata prima di te! ho capito la verità prima di te! Ho ucciso Severus Piton tre ore fa, e la bacchetta di Sambuco, la stecca della morte, la bacchetta del destino, è davvero mia! L'ultimo piano di Silente è andato storto, Harry Potter!» «Sì, è vero!» concesse Harry. «Hai ragione, ma prima che tu provi a uccidermi, ti consiglio di pensare a quello che hai fatto! Pensaci, e cerca in te un po' di rimorso, Riddle!» «Che cosa?» di tutte le cose che Harry gli aveva detto, più di ogni rivelazione o insulto, niente sorprese Voldemort come questa. Harry vide le sue pupille ridursi a fessure sottili, la pelle attorno agli occhi sbiancare. «È la tua ultima possibilità!» continuò Harry. «Tutto ciò che ti resta! Ho visto quello che sarai, altrimenti! Sì un uomo! Cerca, cerca un po' di rimorso!» «Tu osi?» ripeté Voldemort. «Sì, oso!» rispose Harry. «Perché l'ultimo piano di Silente non si è ritorto contro di me! Si è ritorto contro di te, Riddle!» La mano di Voldemort tremò sulla bacchetta di Sambuco, e Harry strinse forte quella di Draco. Capì che era questione di secondi. «Quella bacchetta non funziona ancora bene perché hai assassinato la persona sbagliata! Severus Piton non è mai stato il vero padrone della bacchetta di Sambuco! Non ha mai sconfitto Silente!» «L'ha ucciso!» «Non mi ascolti? Piton non ha mai sconfitto Silente!» «Hanno deciso insieme la sua morte!» Silente voleva morire imbattuto, essere l'ultimo vero padrone della bacchetta. Se tutto fosse andato come previsto, il potere della bacchetta sarebbe morto con lui, perché non gli sarebbe mai stata vinta! «Ma allora, Potter, è come se Silente l'avesse consegnata a me!» La voce di Voldemort era intrisa di piacere malvagio. «Io ho rubato la bacchetta dalla tomba del suo ultimo padrone! Io l'ho portata via contro il desiderio del suo ultimo padrone! Il suo potere è mio!» «Ancora non capisci, Riddle! Possedere la bacchetta non basta! Tenerla, usarla, non la rende davvero tua! Non hai sentito, Ollivander? È la bacchetta che sceglie il mago! La bacchetta di Sambuco ha riconosciuto un nuovo padrone prima della morte di Silente, qualcuno che non l'ha mai nemmeno sfiorata! Il nuovo padrone ha tolto la bacchetta Silente contro la sua volontà, senza mai capire cosa aveva fatto o che la bacchetta più pericolosa del mondo gli aveva offerto la sua obbedienza!» Il petto di Voldemort si alzò e si abbassò in fretta. Harry avvertì la maledizione in arrivo, la sentì crescere dentro la bacchetta puntata contro il suo viso. «Il vero padrone della bacchetta di Sambuco! Era Draco Malfoy!» Una vacua sorpresa comparve per un attimo sul viso di Voldemort, poi sparì. «Ma che importanza ha!» mormorò il Signore Oscuro. «Anche se tu avessi ragione, Potter, non farebbe alcuna differenza per te e per me. Non hai più la bacchetta di Fenice. Il nostro sarà un duello di pura abilità, e dopo che avrò ucciso te potrò occuparmi di Draco Malfoy!» «È troppo tardi!» osservò Harry. «Hai perso l'occasione! Sono arrivato prima io! Ho battuto Draco settimane fa! Li ho portato via questa!» Harry agitò la bacchetta di Biancospino e sentì gli sguardi di tutti i presenti su di essa. «Quindi è tutto qui, capisci?» sussurrò. «La bacchetta che hai in mano sa che il suo ultimo proprietario è stato disarmato, perché se lo sa, sono io il vero padrone della bacchetta di Sambuco!» Un bagliore d'oro rosso divampò all'improvviso nel soffitto incantato sopra di loro, e uno spicchio di sole accecante apparve sul davanzale della finestra più vicina. La luce colpì i due volti nello stesso momento, e quello di Voldemort divenne una macchia infuocata. Harry udì la voce acuta a strillare, e urlò anche lui, la sua speranza estrema verso il cielo, puntando la bacchetta di Draco, «A vada che dovrà!» «Expelliarmus!» Lo scoppio fu come un colpo di cannone, e le fiamme dorate che eruppero tra loro, al centro esatto del cerchio che avevano disegnato, segnarono il punto in cui gli incantesimi si scontrarono. Harry vide il lampo verde di Voldemort urtare il proprio incantesimo, vide la bacchetta di Sambuco volare in alto, scura contro l'alba, roteare come la testa di Nagini contro il soffitto incantato, verso il padrone che non avrebbe ucciso, che finalmente ne entrava in pieno possesso. Harry, con l'infallibile abilità del cercatore, la prese al volo con la mano libera, mentre Voldemort cadeva all'indietro, le braccia spalancate, le pupille a fessura degli occhi scarlatti che si giravano verso l'alto. Tom Riddle crollò sul pavimento con banale solennità. Il corpo fiacco e rattrappito, le mani bianche vuote, il volto da serpente inespressivo e ignaro. Voldemort era morto. Ucciso dal rimbalzo della sua stessa maledizione, Harry fissava, con due bacchette in mano, il guscio vuoto del suo nemico. Un vibrante secondo di silenzio, lo stupore sospeso, poi il tumulto esplose attorno a Harry. Le urla, l'esultanza e i ruggiti dei presenti illacerarono l'aria. L'ardente sole nuovo incendiò le finestre mentre tutti avanzavano verso di lui, e i primi a raggiungerlo furono Ron e Ermione, le loro braccia ad avvolgerlo, le loro urla incomprensibili ad assordarlo, poi Ginny, Neville e Luna, e poi gli altri Weasley e Hagrid e Kingsley e la McGonagall e Flitwick e la Sprout. Harry non riusciva a capire una parola di quello che stavano urlando, né quali mani lo afferravano, lo tiravano, cercavano di abbracciarlo, erano in centinaia a premere contro di lui, tutti decisi a toccare il ragazzo che è sopravvissuto, la ragione per cui era davvero finita. Il sole sorgeva su Hogwarts e la sala grande ardeva di vita e di luce. Harry era una parte indispensabile in quelle manifestazioni di giubilo e lutto, dolore ed esultanza mescolati. Volevano che fosse lì con loro, il loro capo e simbolo, il loro salvatore e la loro guida, e che non avesse dormito, che bramasse la compagnia di pochi intimi, non passò per la mente a nessuno. Doveva parlare con i familiari delle vittime, stringere loro le mani, guardare le loro lacrime, ricevere i loro ringraziamenti, ascoltare le notizie che rimbalzavano da ogni dove col procedere del mattino. In tutto il paese, quelli che erano stati colpiti da una maledizione imperius erano tornati in sé, i Mangiamorte fuggivano o venivano catturati, gli innocenti di Azkaban liberati e Kingsley Shacklebolt era stato nominato ministro della magia ad Interim. Spostarono il corpo di Voldemort in un'aula accanto alla sala grande, lontano dai i corpi di Fred, Tonks, Lupin, Colin Crivey e degli altri cinquanta, che erano morti lottando contro di lui. La McGonagall risistemò i tavoli delle case al loro posto, ma nessuno era più seduto nell'ordine giusto. Erano tutti mescolati, insegnanti e allievi, fantasmi e genitori, centauri ed elfi domestici. Firenze era disteso in un angolo a riprendersi. Gropp guardava dentro la sala da una finestra rotta e la gente lanciava cibo nella sua grande bocca ridente. Dopo un po' Harry, sfinito, si ritrovò seduto su una panca accanto a Luna. «Se fossi in te vorrei un po' di tranquillità», commentò lei. «Mi piacerebbe», rispose lui. «Lì distrarrò io», suggerì Luna. «Tu usa il mantello». E prima che lui riuscisse a dire una parola gridò «Oh, guardate, un cannolo balbuziente!», indicando fuori dalla finestra. Tutti quelli attorno si voltarono e Harry si gettò addosso il mantello e si alzò. Finalmente poté camminare nella sala senza essere intercettato. Vide Ginny due tavoli più in là, con la testa posata sulla spalla della madre. Ci sarebbe stato tempo per parlare più tardi, ore e giorni e forse anni. Vide Neville, che mangiava con la spada di Grifondoro accanto al piatto, circondato da un manipolo di ammiratori. Passò fra i tavoli e vide i tre malfoi, stretti come se non sapessero se star lì o no, ma nessuno vi faceva caso. Ovunque guardasse scorgeva famiglie riunite. Poi finalmente vide i due che cercava. «Sono io», mormorò, accovacciandosi tra Ron e Ermione. «Venite con me». Si alzarono subito e insieme uscirono dalla sala grande. La scallinata di marmo era scheggiata, parte della balconata era spadita e salendo incontrarono detriti e macchie di sangue. Da qualche parte in lontananza sentirono Peeves che sfrecciava nei corridoi intonando un canto di vittoria di propria composizione. «Son sconfitti, sono fuffa, Harry Potter va la gloria, Volde è morto e fa la muffa, noi facciamo gran baldoria!» «Rende l'idea delle dimensioni tragiche dell'avvenimento, no?» commentò Ron e spinse una porta per lasciar passare Harry e Ermione. «La felicità sarebbe arrivata», pensò Harry, ma al momento era attutita dallo sfinimento e il dolore per la perdita di Fred, Lupin e Tonks lo trapassava a intervalli irregolari, come una ferita fisica. Provava soprattutto uno straordinario sollievo e una gran voglia di dormire, ma prima doveva spiegare a Ron e Ermione che gli erano rimasti al fianco così a lungo e meritavano la verità. Faticosamente narrò ciò che aveva visto nel pensatoio e ciò che era successo nella foresta e non avevano nemmeno cominciato a manifestare tutto il loro sconcerto quando finalmente arrivarono nel posto dove erano diretti, anche se nessuno di loro l'aveva nominato. Il gargoyle che sorvegliava l'ingresso dello studio del preside era stato abbattuto. Era lì, tutto storto, con l'aria un po' stordita. Harry si chiese se sarebbe riuscito a riconoscere la parola d'ordine. «Possiamo salire?» gli chiese. «Fate pure!» gemette la statua. Lo scavalcarono e montarono sulla scala a chiocciola di pietra che saliva lentamente come una scala mobile. In cima Harry aprì la porta. Riuscì appena a scorgere il pensatoio, ancora sulla scrivania dove l'aveva lasciato, e poi un fragore assordante lo fece gridare, pensare a maledizioni e mangiamorte di ritorno e alla rinascita di Voldemort. Ma erano applausi. Dalle pareti i presidi di Hogwarts in piedi, nei loro ritratti gli battevano le mani, agitavano i cappelli e in qualche caso le parrucche. Si sporgevano dalle cornici per felicitarsi a vicenda. Saltavano sulle poltrone. Dilys Dorwent si inghiozzava senza pudore, Dexter Fortescue sventolava il cornetto acustico, e Phineas Nigellus gridò con la sua voce acuta ed esile «Vorrei rimarcare che la casa di Serpeverde ha fatto la sua parte, che il nostro contributo non sia dimenticato!». Ma Harry aveva occhi solo per l'uomo in piedi nel ritratto più grande, proprio dietro la poltrona del preside. Le lacrime cadevano dietro gli occhiali a mezzaluna per finire nella lunga barba d'argento, e l'orgoglio e la gratitudine che emanava colmarono Harry di un balsamo simile al canto della Fenice. Infine Harry alzò le mani e i ritratti caddero in un rispettoso silenzio, sorridendo e asciugandosi gli occhi, aspettando con trepidazione che parlasse. Lui, tuttavia, si rivolse a Silente e scelse le parole con grande attenzione. Sfinito com'era, con gli occhi gonfi e arrossati, doveva fare un ultimo sforzo, chiedere un ultimo consiglio. «La cosa che era nascosta nel boccino, esordì, mi è caduta nella foresta. Non so dove di preciso, ma non ho intenzione di andare a cercarla. È d'accordo?» «Mio caro ragazzo». «Lo sono», rispose Silente, mentre gli altri ritratti mostravano confusione e curiosità. «Una saggia, coraggiosa decisione, ma è esattamente quello che mi aspettavo da te. Qualcun altro sa dov'è caduta?» «Nessuno», assicurò Harry, e Silente annui soddisfatto. «Però vorrei tenere il regalo di ignotus», proseguì Harry, e Silente sorrise. «Ma certo, Harry, è tuo per sempre, finché non lo lascerai a qualcuno». «E poi c'è questa». Harry mostrò la bacchetta di Sambuco, e Ron e Ermione la contemplarono con una venerazione che a Harry, pur confuso e sfinito, non piacque affatto. «Non la voglio», disse. «Cosa?» esclamò Ron. «Sei pazzo!» «Lo so che è potente», continuò Harry stancamente. «Ma mi trovavo meglio con la mia, quindi...» Frugò nella saccoccia che portava al collo e ne estrasse le due metà di agrifoglio ancora attaccate soltanto per un sottilissimo filo di piuma di fenice. Ermione aveva detto che non poteva essere riparata, che il danno era troppo grave. Lui sapeva solo che se non funzionava questo non avrebbe funzionato nient'altro. Posò la bacchetta spezzata sulla scrivania del preside, la toccò appena con la punta della bacchetta di Sambuco e mormorò «Reparo!». La sua bacchetta si saldò e dalla punta scaturirono scintille rosse. Harry capì che ce l'aveva fatta, prese la bacchetta di agrifoglio e di fenice e sentì un improvviso calore alle dita, come se mano e bacchetta esultassero per essersi ritrovate. «Rimetterò la bacchetta di Sambuco», annunciò a Silente che lo guardava con un enorme affetto e ammirazione. «Dov'era? Può restarci. Se morirò di morte naturale come Ignotus, il suo potere sarà infranto, vero? L'ultimo padrone non sarà mai stato sconfitto e sarà la fine della storia». Silente annui, si scambiarono un sorriso. «Ne sei sicuro?» chiese Ron. C'era una debolissima eco di desiderio nella sua voce mentre guardava la bacchetta di Sambuco. «Io sono d'accordo con Harry», sussurrò Hermione. «Quella bacchetta procura più guai di quel che vale», concluse Harry. Poi voltò le spalle ai dipinti. Pensava solo al letto a Baldacchino che lo aspettava nella torre di Grifondoro. Chissà se Cricher gli avrebbe portato un panino lassù e, sinceramente, aggiunse, «ho passato abbastanza guai per una vita intera». 19 anni dopo Quell'anno l'autunno arrivò presto. La mattina del primo settembre era croccante e dorata come una mela e, quando la famigliola attraversò la strada rumorosa verso l'enorme stazione fuligginosa, i fumi delle auto e il fiato dei pedoni scintillavano come ragnatele nell'aria fredda. Due grandi gabbie sbattevano in cima ai carrelli stracolmi spinti dai genitori. I gufi all'interno gridavano indignati e la bambina con i capelli rossi si trascinava in lacrime dietro i fratelli, aggrappandosi al braccio del padre. «Non manca molto! Fra poco ci andrai anche tu!» tentò di consolarla Harry. «Fra due anni!» protestò Lily tirando su col naso. «Io voglio andarci adesso!» I pendolari fissarono incuriositi i gufi quando la famiglia si aprì la strada verso la barriera tra i binari nove e dieci. Harry udì di nuovo la voce di Albus nel frastuono. I suoi figli avevano ripreso la discussione cominciata in macchina. «Non voglio! Non voglio essere un serpe verde!» «James, piantala!» intervenne Ginny. «Io ho detto solo che potrebbe!» ribatté James sorridendo al fratello minore. «Non c'è niente di male! Potrebbe essere un serpe!» Ma James colse lo sguardo della madre e tacque. I cinque Potter si avvicinarono alla barriera. Con un'occhiata impertinente al fratellino James prese il carrello dalla madre e cominciò a correre. Un attimo dopo era sparito. «Mi scriverete, vero?» chiese subito Albus ai genitori, approfittando della temporanea assenza del fratello. «Tutti i giorni, se vuoi!» rispose Ginny. «Non proprio tutti!» si affrettò a ribattere Albus. «James dice che gli altri ricevono lettere da casa una volta al mese. L'anno scorso gli scrivevamo tre volte la settimana», precisò Ginny. «E non devi credere a tutto quello che ti dice su Hogwarts», aggiunse Harry. «A tuo fratello piace scherzare!» Fianco a fianco spinsero il secondo carrello, prendendo velocità. Quando arrivarono alla barriera, Albus trattenne il fiato, ma non ci fu nessuno scontro. La famiglia emerse sul binario nove e tre quarti, oscurato dal denso vapore bianco che usciva dal rosso Hogwarts Express. Sagome indistinte sciamavano nella nebbiolina che aveva già inghiottito James. «Dove sono?» chiese Albus preoccupato, scrutando le forme confuse lungo il binario. «Li troveremo!» lo rassicurò Ginny. Ma il vapore era fitto ed era difficile distinguere i volti. Separate dai proprietari, le voci rimbombavano in modo innaturale. Harry riconobbe Percy, impegnato in un'animata discussione sulle norme relative alle scope, e fu lieto di avere una buona scusa per non fermarsi a salutare. «Credo che siano loro, Al!» disse Ginny a un tratto. Un gruppo di quattro persone affiorò dalla nebbia accanto all'ultima carrozza. Solo quando Harry, Ginny, Lily e Albus si furono avvicinati, riuscirono a distinguere le loro facce. «Ciao!» li salutò Albus, immensamente sollevato. Rose, che già indossava la divisa di Hogwarts nuova di zecca, gli sorrise radiosa. «Tutto bene con il parcheggio?» chiese Ron a Harry. «Io sì. Hermione non credeva che sarei riuscito a superare l'esame di guida babbano, vero? Pensava che avrei dovuto confondere l'esaminatore.» «Non è vero!» protestò Hermione. «Avevo assoluta fiducia in te.» «In realtà l'ho confuso!» sussurrò Ron a Harry, mentre caricavano insieme il baule e il gufo di Albus sul treno. «Avevo solo dimenticato di guardare nello specchietto retrovisore e diciamocelo, per quello posso sempre usare un incanto super sensor.» Sul marciapiede Lily e Ugo, il fratello minore di Rose, erano immersi in un'animata discussione sulla casa in cui sarebbero stati smistati una volta a Hogwarts. «Se non finisci in Grifondoro ti diserediamo!» intervenne Ron. «Ma non voglio metterti pressione!» «Ron!» Lily e Ugo risero, ma Albus e Rose erano serissimi. «Non dice davvero!» li rassicurarono Hermione e Ginny, ma Ron si era distratto. Intercettò lo sguardo di Harry e accennò di nascosto a un punto a una cinquantina di metri da lì. Il vapore per un attimo si diradò e tre persone si stagliarono nitide contro la nebbiolina fluttuante. «Guarda chi c'è!» Era Draco Malfoi con moglie e figlio, un cappotto scuro abbottonato fino alla gola. Stava cominciando a stempiarsi, il che enfatizzava il mento appuntito. Il ragazzino gli assomigliava quanto Albus assomigliava a Harry. Draco si accorse che Harry, Ron, Hermione e Ginny lo guardavano. Fece un brusco cenno di saluto e si voltò. «E' così quello è il piccolo Scorpius», commentò Ron sottovoce. «Cerca di batterlo in tutti gli esami, Rosie. Per fortuna hai il cervello di tua madre». «Ron, per l'amor del cielo!» ribatté Hermione, un po' seria, un po' divertita. «Non cercare di metterli contro ancora prima che la scuola sia cominciata». «Hai ragione, scusa», concesse Ron, ma non riuscì a trattenersi e aggiunse. «Non dargli troppa confidenza, Rosie. Nonno Arthur non ti perdonerebbe mai se sposassi un puro sangue». «Ehi!» James era ricomparso, si era liberato di baule, gufo e carrello e moriva dalla voglia di raccontare qualcosa. «C'è Teddy laggiù!» ansimò puntando alle sue spalle verso le nuvole di vapore. «L'ho appena visto! E indovinate cosa sta facendo! Si bacia con Victoire!» guardò verso gli adulti, chiaramente deluso dalla mancanza di reazioni. «Il nostro Teddy! Teddy Lupin! Che si bacia con la nostra Victoire! Nostra cugina! Gli ho chiesto cosa stava facendo!» «Li hai interrotti?» domandò Ginny. «Sei proprio come Ron!» E lui ha detto che era venuto a salutarla e poi mi ha detto di andar via. «Si stavano baciando!» aggiunse James, come se fosse preoccupato di non essere stato abbastanza chiaro. «Oh, sarebbe bellissimo se si sposassero!» sussurrò Lily, estatica. «Così Teddy farebbe veramente parte della famiglia!» «Viene già a cena quattro volte la settimana!» osservò Harry. «Perché non gli diciamo di venire a vivere da noi e la facciamo finita?» «Sì!» esclamò James, entusiasta. «A me non importa di dormire con Hal. Teddy può prendere la mia stanza!» «No!» rispose Harry deciso. «Tu e Hal starete in stanza assieme solo quando vorrò far demolire la casa!» guardò il vecchio orologio ammaccato che era appartenuto a Fabian Pruet. «Sono quasi le undici! È meglio se salite!» «Non dimenticare di dare un bacio a Neville!» si raccomandò Ginny a James abbracciandolo. «Mamma! Non posso dare un bacio a un professore! Ma tu sei amico di Neville!» James alzò gli occhi al cielo. «Fuori sì, ma a scuola è il professor Longbottom, no? Non posso entrare in classe di erbologia e baciarlo!» James scosse il capo per le assurdità della madre e si sfogò tirando un calcio ad Albus. «Ci vediamo dopo, Hal! Occhio ai Testral!» «Pensavo che fossero invisibili! Hai detto che erano invisibili!» Ma James rise. Si lasciò baciare da sua madre, abbracciò in fretta il padre e balzò sul treno che si andava riempiendo. Lo videro agitare il braccio in segno di saluto e correre via lungo il corridoio a cercare i suoi amici. «Non devi preoccuparti per i Testral!» spiegò Harry ad Albus. «Sono creature gentili! Non c'è niente di spaventoso in loro! E comunque non arriverai a scuola in carrozza! Ci andrai in barca!» Ginny baciò Albus. «Ci vediamo a Natale!» «Ciao, Hal!» disse Harry mentre il figlio lo abbracciava. «Non dimenticare che Hagrid ti ha invitato a prendere il tè venerdì prossimo! Non perdere tempo con Peeves! Non sfidare a duello nessuno finché non avrai imparato! E non farti prendere in giro da James! E se divento un serpeverde!» Il sussurro era destinato solo a suo padre. Harry capì che il momento della partenza aveva spinto Albus a rivelare quanto grande e sincera fosse la sua paura. Harry si accovacciò in modo che il viso di Albus fosse appena sopra il suo. Era l'unico dei suoi tre figli ad aver ereditato gli occhi di Lily. «Albus Severus!» mormorò in modo che nessuno sentisse a parte Ginny e lei, con molto tatto, finse di salutare Rose già sul treno. «Tu porti il nome di due presidi di Hogwarts. Uno di loro era un serpeverde e probabilmente l'uomo più coraggioso che io abbia mai conosciuto. Ma sì! Vorrà dire che la casa di Serpeverde avrà guadagnato un ottimo studente, no? A noi non importa, Al, ma se per te è importante potrai scegliere Grifondoro invece di Serpeverde. Il cappello parlante tiene conto della tua scelta». «Davvero? Con me l'ha fatto!» confermò Harry. Non l'aveva mai detto a nessuno dei suoi figli e vide la meraviglia sul volto di Albus, ma ormai gli sportelli sbattevano lungo il treno rosso e le figure sfocate dei genitori si avvicinavano alle carrozze per i baci d'addio e le ultime raccomandazioni. Albus balzò a bordo e Ginny chiuse lo sportello alle sue spalle. Dai finestrini più vicini si sporgevano studenti. Un gran numero di facce, sia sul treno sia sul binario, erano rivolte verso Harry. «Cos'hanno tutti da guardare?» chiese Albus, mentre lui e Rose allungavano il collo per osservare gli altri studenti. «Non farci caso!» rispose Ron. «È per me! Sono estremamente famoso!» Albus, Rose, Ugo e Lily risero. Il treno cominciò a muoversi. Harry lo seguì camminando, guardando il viso magro del figlio, già infiammato per l'emozione. Continuò a sorridere e a salutare, anche se era come un piccolo lutto vedere suo figlio allontanarsi. L'ultima traccia di vapore svanì nell'aria autunnale. Il treno svoltò. La mano di Harry era ancora alzata in segno di saluto. «Non avrà problemi!» mormorò Ginny. Harry la guardò e distrattamente abbassò la mano a sfiorare la cicatrice a forma di saetta sulla fronte. «Lo so!» la cicatrice non gli faceva male da 19 anni. Andava tutto bene. Harry Potter e i doni della morte di J.K. Rowling è stato narrato da Francesco Pannofino. La traduzione del libro è a cura di Beatrice Masini. Copyright testo J.K. Rowling 2007. Copyright edizione italiana. Adriano Salani, editore S.P.A. 2008. Copyright registrazione audio. Pottermore 2017. Edizione italiana a cura di Stefano Bartezaghi. Edizione audiolibro digitale registrata in Italia da Audible e pubblicata da Pottermore from J.K. Rowling. Pottermore è un sito di intrattenimento digitale dei news ed e-commerce creato da J.K. Rowling. È ispirato ai suoi libri di Harry Potter e più in generale al mondo della magia. Pottermore è il luogo di intrattenimento perfetto per i fan di Harry Potter. Qui potrai scoprire di più sul tanto amato mondo della magia attraverso prodotti quali e-book, audiolibri digitali e molto altro. Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks and copyrights of Warner Brothers Entertainment.